Benvenuti sul canale, da un po' che non inserivamo testi su questo canale, questa è una vostra richiesta, abbiamo provato una traduzione automatica e lettura automatica, spero che vi piaccia, buon ascolto e grazie come al solito per il supporto. Un ritorno all'amore. Riflessioni sui principi di un corso in miracoli. Marianne Williamson. Non aver paura, ma lascia che il tuo mondo sia illuminato da miracoli. Un corso in miracoli. Ringraziamenti Questa nuova edizione di A Return to Love è possibile grazie alla popolarità del libro dal 1992. Per questo, i miei più sentiti ringraziamenti a Oprah Winfrey. Il suo entusiasmo e la sua generosità hanno dato al libro, e a me, un pubblico che altrimenti non avremmo mai avuto. Molte grazie anche al mio agente letterario, a Loveman. Grazie a lui ho iniziato il libro e grazie a lui l'ho finito. Anche Andrea Cagan ha fatto molto per portare a compimento questo libro. Il suo contributo è stato enorme. Grazie a Carol Cohen, Adrian Zaccheim, Mick Kellivers e tutti gli altri di HarperCollins che hanno contribuito a produrre questa nuova edizione. Per i miei amici Rick Cooper, Norma Ferrarra, David Kessler e Victoria Pearman, la mia gratitudine è profonda e duratura. Grazie a tutte le persone che hanno frequentato le mie lezioni da quando ho iniziato a darle. Grazie ai miei genitori per tutto quello che mi hanno dato e a mia figlia per aver portato nella mia vita una dolcezza che va ben oltre le parole. E soprattutto, grazie a tutte le tante persone che hanno letto A Return to Love da quando è stato pubblicato per la prima volta e hanno condiviso con me una così potente testimonianza del suo valore nelle loro vite. Il loro sostegno ai miei sforzi significa per me più di quanto possa esprimere in questa pagina. Introduzione alla nuova edizione Un ritorno d'amore ha avuto una vita propria, come ogni libro. Un autore come una madre che mette al mondo un bambino e poi lo guarda vivere la propria storia di vita. Questo libro in particolare ha avuto una vita meravigliosa finora e ho avuto il privilegio di ricevere innumerevoli testimonianze sui suoi effetti positivi sui lettori. Poiché non sono l'autore di un corso in miracoli, ma semplicemente un interprete dei suoi principi, non posso prendermi il merito delle cose migliori di ritorno all'amore. Le idee del corso hanno avuto, e continuano ad avere, un effetto miracoloso sulla mia vita, e quindi comprendo l'eccitazione che provano gli altri quando si imbattono per la prima volta in miracoli. Sono più vecchio di quando ho scritto questo libro, e per certi versi sono meno innocente. Ho assaporato di più le opposizioni dell'amore. Eppure, avendo visto quanto ho visto ora della resistenza del mondo alle vie dell'amore, mi rendo conto più profondamente che mai della responsabilità che ciascuno di noi ha di abbracciarlo più pienamente ed esprimerlo efficacemente. L'odio è la malignità spirituale della nostra specie e, come ogni altra forma di cancro, fa il suo lavoro più terribile non esteriormente ma dentro di noi. La paura che c'è dietro ci mangia letteralmente vivi, distruggendo menti, corpi, culture, nazioni. I rimedi esterni possono gestirne gli effetti, ma solo l'amore ha il potere di annullarli. Annullarlo dobbiamo. Dalle guerre straniere alle catastrofi interne, il nostro lavoro è il lavoro di scacciare la paura dal mondo. Lo facciamo non solo per servire noi stessi ma, cosa più importante, per servire i nostri figli. Essi erediteranno ciò che noi lasciamo loro in eredità, e non c'è dono più grande per le generazioni future di quello che facciamo. L'opera che Dio ci ha chiesto di fare, amarci gli uni gli altri, affinché il mondo possa essere aggiustato. La paura incontrollata cresce esponenzialmente. L'amore riversato ha il potere di rimuoverlo. Così è la potenza di Dio nelle nostre vite. Se a return to love ha un briciolo di differenza nella capacità di qualcuno di sperimentare quel potere, allora sono estremamente felice di averlo scritto. Ti auguro miracoli. Ti auguro amore. Marianne Williams, gennaio 1996, prefazione Sono cresciuto in una famiglia ebrea della classe media, intrisa delle sfumature magiche di un padre eccentrico. Quando avevo 13 anni, nel 1965, mi portò a Saigon per mostrarmi cosa fosse la guerra. La guerra del Vietnam stava cominciando ad aumentare e lui voleva che vedessi i fori dei proiettili in prima persona. Non voleva che il complesso militare industriale mi mangiasse il cervello e mi convincesse che la guerra andava bene. Mio nonno era molto religioso e qualche volta andavo in sinagoga con lui il sabato mattina. Quando l'arca veniva aperta durante il servizio, si inchinava e cominciava a piangere. Piangerei anch'io, ma non so se stavo piangendo per un fervore religioso in erba, o semplicemente perché lo era. Quando sono andato al liceo, ho frequentato la mia prima lezione di filosofia e ho deciso che Dio era una stampella di cui non avevo bisogno. Che tipo di Dio permetterebbe ai bambini di morire di fame, sostenevo, o che le persone si ammalassero di cancro, o che l'olocausto accadesse. La fede innocente di un bambino si scontrò con lo pseudo-intellettualismo di un secondo anno delle superiori. Ho scritto una lettera del caro Giovanni a Dio. Ero depresso mentre lo scrivevo, ma era qualcosa che sentivo di dover fare perché ora ero troppo colto per credere in Dio. Durante il college, molto di ciò che ho imparato dai professori era decisamente extracurriculare. Ho lasciato la scuola per coltivare ortaggi, ma non ricordo di averne mai coltivato. Ci sono molte cose di quegli anni che non riesco a ricordare. Come molte persone a quel tempo, fine anni Sessanta, primi anni Settanta, ero piuttosto selvaggio. Ogni porta contrassegnata no dagli standard convenzionali sembrava contenere la chiave di un qualche piacere lascivo che dovevo provare. Qualunque cosa suonasse oltraggiosa, volevo farlo. E di solito lo facevo. Non sapevo cosa fare della mia vita, anche se ricordo che i miei genitori continuavano a implorarmi di fare qualcosa. Sono passato da una relazione all'altra, da un lavoro all'altro, da una città all'altra, cercando un senso di identità o scopo, una sensazione che la mia vita fosse finalmente entrata in vigore. Sapevo di avere talento, ma non sapevo cosa. Sapevo di avere intelligenza, ma ero troppo frenetica per applicarla alle mie circostanze. Sono andato in terapia diverse volte, ma raramente ha avuto un impatto. Sono sprofondato sempre più nei miei schemi nevrotici, cercando sollievo nel cibo, nelle droghe, nelle persone o in qualsiasi altra cosa che potessi trovare per distrarmi da me stesso. Ho sempre cercato di far succedere qualcosa nella mia vita, ma non è successo nulla a parte tutto il dramma che ho creato attorno alle cose che non accadono. In quegli anni c'era un'enorme roccia di disprezzo per me stessa seduta nel mezzo del mio stomaco, ed è peggiorata con ogni fase che ho attraversato. Man mano che il mio dolore aumentava, aumentava anche il mio interesse per la filosofia, orientale, occidentale, accademica, esoterica. Kierkegaard, Lee King, l'esistenzialismo, la teologia cristiana radicale della morte di Dio, il buddismo e altro ancora. Ho sempre sentito che c'era un misterioso ordine cosmico nelle cose, ma non sono mai riuscito a capire come si applicasse alla mia vita. Un giorno ero seduto a fumare marijuana con mio fratello, e lui mi ha detto che tutti pensavano che fossi strano. È come se avessi una specie di virus, ha detto. Ricordo di aver pensato che in quel momento sarei uscito dal mio corpo. Mi sono sentito un alieno. Mi ero spesso sentito come se la vita fosse un club privato e tutti avessero ricevuto la password tranne me. Ora era una di quelle volte. Sentivo che altre persone conoscevano un segreto che io non conoscevo, ma non volevo chiederglielo perché non volevo che sapessero che non sapevo. A metà dei miei vent'anni, ero un disastro totale. Credevo che anche altre persone stessero morendo dentro, proprio come me, ma non potevano o non volevano parlarne. Continuavo a pensare che ci fosse qualcosa di molto importante di cui nessuno stava discutendo. Non avevo le parole io stesso, ma ero sicuro che qualcosa fosse fondamentalmente fuori posto nel mondo. Come potevano tutti pensare che questo stupido gioco di farcela nel mondo, che in realtà ero imbarazzato di non sapere come giocare, potesse essere tutto ciò che c'è da fare per essere qui. Un giorno, nel 1977, vidi una serie di libri blu con scritte dorate sul tavolino di qualcuno a New York City. Ho aperto all'introduzione. Legge, questo è un corso in miracoli. È un corso obbligatorio solo il tempo che dedichi è volontario. Il libero arbitrio non significa che tu possa stabilire il curriculum. Significa solo che puoi scegliere ciò che vuoi prendere in un dato momento. Il corso non ha lo scopo di insegnare il significato dell'amore, perché questo è al di là di ciò che può essere insegnato. Mira, tuttavia, a rimuovere i blocchi alla consapevolezza della presenza dell'amore, che è la tua eredità naturale. Ricordo di aver pensato che suonasse piuttosto intrigante, se non arrogante. Continuando a leggere, tuttavia, ho notato la terminologia cristiana in tutti i libri. Questo mi ha reso nervoso. Sebbene avessi studiato teologia cristiana a scuola, l'avevo tenuto a distanza intellettuale. Ora sentivo la minaccia di un significato più personale. Rimetto i libri sul tavolo. Ci volle un altro anno prima che li riprendessi, un altro anno e un altro anno di miseria. Allora ero pronto. Questa volta ero così depresso che non ho nemmeno notato la lingua. Questa volta ho capito subito che il corso aveva qualcosa di molto importante da insegnarmi. Usava termini cristiani tradizionali, ma in modi decisamente non tradizionali e non religiosi. Sono stato colpito, come la maggior parte delle persone, dalla profonda autorità della sua voce. Ha risposto a domande che avevo iniziato a pensare fossero senza risposta. Parlava di Dio in termini psicologici brillanti, sfidando la mia intelligenza e non insultandola mai. È un po' un clic che dirlo, ma mi sentivo come se fossi tornato a casa. Il corso sembrava avere un messaggio di base, rilassarsi. Ero confuso nel sentirlo perché avevo sempre associato il relax con la rassegnazione. Stavo aspettando che qualcuno mi spiegasse come combattere la battaglia, o come combattere la battaglia per me, e ora questo libro mi ha suggerito di arrendermi completamente alla battaglia. Ero sorpreso ma così sollevato. Sospettavo da tempo di non essere fatto per il combattimento mondano. Per me, questo non era solo un altro libro. Questo è stato il mio insegnante personale, il mio percorso fuori dall'inferno. Quando ho iniziato a leggere il corso e a seguire gli esercizi del workbook, ho sentito quasi subito che i cambiamenti che ha prodotto dentro di me erano positivi. Ero felice. Mi sentivo come se stessi iniziando a calmarmi. Ho iniziato a capire me stesso, a capire perché le mie relazioni erano state così dolorose, perché non potevo mai stare con niente, perché odiavo il mio corpo. Soprattutto, ho iniziato ad avere la sensazione di poter cambiare. Lo studio del corso ha liberato dentro di me enormi quantità di energia di speranza, energia che ogni giorno diventava più oscura e autodistruttiva. Il corso, un programma di autoapprendimento di psicoterapia spirituale contenuto in tre libri, non rivendica alcun monopolio su Dio. È una dichiarazione di temi spirituali universali. C'è solo una verità, detta in modi diversi, e il corso è solo un percorso tra i tanti. Se è la tua strada, però, lo sai. Per me, il corso è stata un'esperienza rivoluzionaria intellettualmente, emotivamente e psicologicamente. Mi ha liberato da un terribile dolore emotivo. Volevo quella consapevolezza della presenza dell'amore di cui avevo letto, e nei successivi cinque anni ho studiato il corso con passione. Come diceva mia madre all'epoca, lo leggo come un menu. Nel 1983 ho iniziato a condividere la mia comprensione del corso con un piccolo gruppo di persone a Los Angeles. Il gruppo iniziò a crescere. Da allora, il mio pubblico di conferenze è cresciuto in modo significativo qui e all'estero. Ho avuto l'opportunità di vedere quanto questo materiale sia rilevante per le persone in tutto il mondo. Un ritorno all'amore si basa su ciò che ho imparato da un corso in miracoli. Riguarda alcuni dei principi di base del corso così come li comprendo e li collego a vari problemi che influenzano la nostra vita quotidiana. Un ritorno all'amore parla della pratica dell'amore, come forza e non come debolezza, come risposta quotidiana ai problemi che dobbiamo affrontare. In che modo l'amore è una soluzione pratica? Questo libro è scritto come guida all'applicazione miracolosa dell'amore come balsamo su ogni ferita. Sia che il nostro dolore psichico risieda nell'area delle relazioni, della salute, della carriera o altrove, l'amore è una forza potente, la cura, la risposta. Gli americani non sono così grandi in filosofia. Siamo molto in azione, tuttavia, una volta che ne capiamo il motivo. Quando iniziamo a capire più profondamente perché l'amore è un elemento così necessario nella guarigione del mondo, si verificherà un cambiamento nel modo in cui viviamo le nostre vite dentro e fuori. La mia preghiera è che questo libro possa aiutare qualcuno. L'ho scritto a cuore aperto. Spero che lo leggerai con una mente aperta. Marianne Williamson Los Angeles, K Introduzione Quando siamo nati, eravamo programmati perfettamente. Avevamo una tendenza naturale a concentrarci sull'amore. La nostra immaginazione era creativa e fiorente e sapevamo come usarla. Eravamo collegati a un mondo molto più ricco di quello a cui ci colleghiamo ora, un mondo pieno di incanto e un senso del miracoloso. Allora, cos'è successo? Perché abbiamo raggiunto una certa età, ci siamo guardati intorno e l'incantesimo è scomparso. Perché ci è stato insegnato a concentrarci altrove. Ci è stato insegnato a pensare in modo innaturale. Ci è stata insegnata una pessima filosofia, un modo di guardare al mondo che contraddice chi siamo. Ci è stato insegnato a pensare a pensieri come competizione, lotta, malattia, risorse limitate, limitazione, colpa, male, morte, scarsità e perdita. Abbiamo cominciato a pensare queste cose, e così abbiamo cominciato a conoscerle. Ci è stato insegnato che cose come i voti, essere abbastanza bravi, i soldi e fare le cose nel modo giusto sono più importanti dell'amore. Ci è stato insegnato che siamo separati dalle altre persone, che dobbiamo competere per andare avanti, che non siamo abbastanza bravi come siamo. Ci è stato insegnato a vedere il mondo nel modo in cui gli altri erano venuti a vederlo. È come se, appena arrivati qui, ci avessero dato un sonnifero. Il pensiero del mondo, che non è basato sull'amore, ha cominciato a martellare nelle nostre orecchie nel momento in cui abbiamo raggiunto la riva. L'amore è ciò con cui siamo nati. La paura è ciò che abbiamo imparato qui. Il viaggio spirituale è l'abbandono, o il disapprendimento, della paura e l'accettazione dell'amore nei nostri cuori. L'amore è il fatto esistenziale essenziale. È la nostra realtà ultima e il nostro scopo sulla Terra. Essere consapevoli di ciò, sperimentare l'amore in noi stessi e negli altri, è il senso della vita. Il significato non sta nelle cose. Il significato sta in noi. Quando diamo valore a cose che non sono amore, il denaro, l'auto, la casa, il prestigio, amiamo le cose che non possono ricambiare. Cerchiamo un significato nell'insensato. Il denaro, di per sé, non significa nulla. Le cose materiali, di per sé, non significano nulla. Non è che siano cattivi. È che non sono niente. Siamo venuti qui per co-creare con Dio estendendo l'amore. La vita trascorsa pensando a qualsiasi altro scopo è priva di significato, contraria alla nostra natura e, in definitiva, dolorosa. È come se ci fossimo persi in un universo oscuro e parallelo in cui le cose sono amate più delle persone. Sopravvalutiamo ciò che percepiamo con i nostri sensi fisici e sottovalutiamo ciò che sappiamo essere vero nei nostri cuori. L'amore non si vede con gli occhi fisici o si sente con le orecchie fisiche. I sensi fisici non possono percepirlo, è percepito attraverso un altro tipo di visione. I metafisici lo chiamano il terzo occhio, i cristiani esoterici lo chiamano la visione dello Spirito Santo e altri lo chiamano il Sé Superiore. Indipendentemente da come viene chiamato, l'amore richiede un diverso tipo di vedere rispetto a quello a cui siamo abituati, un diverso tipo di conoscenza o di pensiero. L'amore è la conoscenza intuitiva dei nostri cuori. È un mondo al di là che tutti noi segretamente desideriamo. Un antico ricordo di questo amore perseguita tutti noi tutto il tempo e ci invita a tornare. L'amore non è materiale. È energia. È la sensazione in una stanza, una situazione, una persona. I soldi non possono comprarlo. Il sesso non lo garantisce. Non ha nulla a che fare con il mondo fisico, ma può comunque essere espresso. Lo sperimentiamo come gentilezza, donazione, misericordia, compassione, pace, gioia, accettazione, non giudizio, unione e intimità. La paura è la nostra mancanza d'amore condivisa, i nostri inferni individuali e collettivi. È un mondo che sembra premere su di noi dall'interno e dall'esterno, dando costante falsa testimonianza dell'insensatezza dell'amore. Quando la paura viene espressa, la riconosciamo come rabbia, abuso, malattia, dolore, avidità, dipendenza, egoismo, ossessione, corruzione, violenza e guerra. L'amore è dentro di noi. Non può essere distrutto, ma può solo essere nascosto. Il mondo che conoscevamo da bambini è ancora sepolto nelle nostre menti. Una volta ho letto un libro delizioso intitolato Le nebbie di Avalon. Le nebbie di Avalon sono un'allusione mitica ai racconti di Re Artù. Avalon è un'isola magica che si nasconde dietro enormi nebbie impenetrabili. A meno che le nebbie non si dividano, non c'è modo di navigare verso l'isola. Ma a meno che tu non creda che l'isola sia lì, le nebbie non si separeranno. Avalon simboleggia un mondo al di là del mondo che vediamo con i nostri occhi fisici. Rappresenta un senso miracoloso delle cose, il regno incantato che conoscevamo da bambini. Il nostro sé infantile è il livello più profondo del nostro essere. È ciò che siamo veramente e ciò che è reale non va via. La verità non smette di essere la verità solo perché non la stiamo guardando. L'amore diventa semplicemente offuscato o circondato da nebbie mentali. Avalon è il mondo che conoscevamo quando eravamo ancora legati alla nostra morbidezza, alla nostra innocenza, al nostro spirito. In realtà è lo stesso mondo che vediamo ora, ma informato dall'amore, interpretato con delicatezza, con speranza e fede e un senso di meraviglia. È facilmente recuperabile, perché la percezione è una scelta. Le nebbie si dissolvono quando crediamo che dietro di loro ci sia Avalon. Ed ecco cos'è un miracolo, un abbandono delle nebbie, un cambiamento nella percezione, un ritorno all'amore. Parte I, I principi, capitolo 1, inferno Non c'è posto per l'inferno in un mondo la cui bellezza può ancora essere così intensa e così inclusiva che è solo un passo da lì al paradiso. Quei passaggi tra virgolette doppie sono citati direttamente da Aco Orse in Miracles. Quei passaggi tra virgolette singole sono interpretazioni parafrasate di quel libro. Un elenco completo delle citazioni di un corso in miracoli appare a partire da P. 301. MW, 1. L'oscurità Ma il viaggio nell'oscurità è stato lungo e crudele, e tu ci sei andato in profondità. Quello che è successo alla mia generazione è che non siamo mai cresciuti. Il problema non è che siamo persi o apatici, narcisisti o materialisti. Il problema è che siamo terrorizzati. Molti di noi sanno di avere quello che serve, l'aspetto, l'istruzione, il talento, le credenziali. Ma in certe aree siamo paralizzati. Non siamo fermati da qualcosa all'esterno, ma da qualcosa all'interno. La nostra oppressione è interna. Il governo non ci sta trattenendo, né la fame né la povertà. Non abbiamo paura di essere mandati in Siberia. Abbiamo solo paura, punto. La nostra paura è fluttuante. Abbiamo paura che questa non sia la relazione giusta o abbiamo paura che lo sia. Abbiamo paura che non gli piacciamo o abbiamo paura che lo faranno. Abbiamo paura del fallimento o abbiamo paura del successo. Abbiamo paura di morire giovani o abbiamo paura di invecchiare. Abbiamo più paura della vita che della morte. Penseresti che avremmo un po' di compassione per noi stessi, legati in catene emotive come siamo, ma non è così. Siamo solo disgustati da noi stessi, perché pensiamo che dovremmo essere migliori ormai. A volte commettiamo l'errore di pensare che le altre persone non abbiano la stessa paura che abbiamo noi, il che ci rende solo più spaventati. Forse sanno qualcosa che noi non sappiamo. Forse ci manca un cromosoma. È diventato popolare in questi giorni dare la colpa praticamente di tutto ai nostri genitori. Pensiamo che sia grazie a loro che la nostra autostima è così bassa. Se solo fossero stati diversi, saremmo pieni di amor proprio. Ma se osservi da vicino come ci trattavano i nostri genitori, qualunque abuso ci dassero spesso era lieve rispetto al modo in cui abusiamo di noi stessi oggi. È vero che tua madre potrebbe aver detto più volte, non sarai mai in grado di farlo, caro. Ma ora dice a te stesso, sei un idiota. Non lo fai mai bene. Hai fatto saltare in aria. Ti odio. Potrebbero essere stati cattivi, ma siamo cattivi. La nostra generazione è scivolata in un vortice appena mimetizzato di disprezzo di sé. E cerchiamo sempre, anche disperatamente, una via d'uscita, attraverso la crescita o la fuga. Forse questa laurea lo farà, o questo lavoro, questo seminario, questo terapeuta, questa relazione, questa dieta o questo progetto. Ma troppo spesso la medicina non ha una cura e le catene continuano a diventare sempre più spesse e strette. Le stesse sopopera si sviluppano con persone diverse in città diverse. Cominciamo a renderci conto che in qualche modo siano noi stessi il problema, ma non sappiamo cosa fare al riguardo. Non siamo abbastanza potenti per prevalere su noi stessi. Sabottiamo, abortiamo tutto, le nostre carriere, le nostre relazioni, anche i nostri figli. Beviamo. Ci droghiamo. Controlliamo. Siamo ossessionati. Siamo in attesa di codice. Mangiamo troppo. Ci nascondiamo. Attacchiamo. La forma della disfunzione è irrilevante. Ma esprimerlo lo faremo. L'energia emotiva deve andare da qualche parte e il disprezzo di sé è un'emozione potente. Rivolto verso l'interno, diventa il nostro inferno personale, dipendenza, ossessione, compulsione, depressione, relazioni violente, malattia. Proiettato all'esterno, diventa i nostri inferni collettivi, violenza, guerra, criminalità, oppressione. Ma è la stessa cosa, anche l'inferno ha molte dimore. Ricordo, anni fa, di avere un'immagine nella mia mente che mi spaventava terribilmente. Vedrei una bambina dolce e innocente con un perfetto grembiule di organza bianco, bloccata orlando con la schiena contro un muro. Una donna viziosa e isterica l'ha pugnalata ripetutamente al cuore con un coltello. Sospettavo che entrambi i personaggi fossi io, che vivessero come forze psichiche dentro la mia mente. Ogni anno che passava, diventavo sempre più spaventata da quella donna con il coltello. Era attiva nel mio sistema. Era totalmente fuori controllo e mi sentivo come se volesse uccidermi. Quando ero più disperato, cercavo molte vie d'uscita dal mio inferno personale. Ho letto libri su come le nostre menti creano la nostra esperienza, su come il cervello è come un biocomputer che produce qualunque cosa gli alimentiamo con i nostri pensieri. Pensa al successo e lo otterrai, aspettati di fallire e lo farai, leggo. Ma non importa quanto ho lavorato per cambiare i miei pensieri, ho continuato a tornare a quelli dolorosi. Si verificherebbero scoperte temporanee, lavorerei per avere un atteggiamento più positivo, rimettermi in sesto e incontrare un nuovo uomo o trovare un nuovo lavoro. Ma tornerei sempre agli schemi dell'autotradimento, alla fine mi trasformerei in una puttana con quell'uomo, o sbaglierei al lavoro. Perderei dieci chili e poi li rimetterei in cinque minuti, terrorizzata da come ci si sente ad essere belli. L'unica cosa più spaventosa del non attirare l'attenzione maschile, ne stava ricevendo un sacco. Il ritmo del sabotaggio era profondo e automatico. Certo, potrei cambiare i miei pensieri, ma non in modo permanente. E c'è solo una disperazione peggiore di Dio, l'ho fatto esplodere, ed è, Dio, l'ho fatto esplodere di nuovo. I miei pensieri dolorosi erano i miei demoni. I demoni sono insidiosi. Attraverso varie tecniche terapeutiche, sono diventato molto intelligente riguardo alle mie stesse nevrosi, ma questo non le ha necessariamente esorcizzate. La spazzatura non è andata via, è appena diventato più sofisticato. Dicevo a una persona quali erano le mie debolezze, usando un linguaggio così consapevole che avrebbe pensato, beh, ovviamente lei sa quali sono i suoi schemi, quindi non lo farà più. Ma oh sì, lo farei. Riconoscere i miei schemi era solo un modo per distogliere l'attenzione di qualcuno. Poi andavo su tutte le fure o altri comportamenti oltraggiosi così rapidamente e senza intoppi che nessuno, meno di tutti me stesso, avrebbe potuto fare qualcosa per fermarmi prima che avessi rovinato completamente una situazione. Direi le parole esatte che farebbero andar via l'uomo, o mi picchierebbero, o mi farebbero licenziare, o peggio. In quei giorni, non mi venne mai in mente di chiedere un miracolo. Tanto per cominciare, non avrei saputo cosa fosse un miracolo. Li ho messi nella categoria spazzatura pseudomistico-religiosa. Non sapevo, fino a quando non ho letto un corso in miracoli, che un miracolo è una cosa ragionevole da chiedere. Non sapevo che un miracolo è solo un cambiamento nella percezione. Una volta ho partecipato a una riunione in dodici fasi in cui le persone chiedevano a Dio di togliere loro il desiderio di bere. Non avevo mai esagerato con un particolare comportamento disfunzionale. Non era il bere o le droghe che mi stavano uccidendo, era la mia personalità in generale, quella donna esterica dentro la mia testa. La mia negatività era distruttiva per me come l'alcolò e per l'alcolista. Ero un artista nel trovare la mia giugolare. Era come se fossi dipendente dal mio stesso dolore. Posso chiedere a Dio di aiutarmi in questo? Mi è venuto in mente che, proprio come con qualsiasi altro comportamento di dipendenza, forse un potere più grande di me potrebbe cambiare le cose. Né il mio intelletto né la mia forza di volontà erano stati in grado di farlo. Capire cosa era successo quando avevo tre anni non era stato abbastanza per liberarmi. I problemi che continuavo a pensare alla fine sarebbero scomparsi, continuavano a peggiorare ogni anno. Non avevo sviluppato emotivamente come avrei dovuto, e lo sapevo. In qualche modo, da qualche parte, era come se i cavi nel profondo del mio cervello si fossero incrociati. Come molte altre persone della mia generazione e cultura, ero andato fuori strada molti anni prima e, in un certo senso, non sono mai cresciuto. Abbiamo avuto la più lunga post-adolescenza nella storia del mondo. Come le vittime di un ictus emotivo, dobbiamo fare qualche passo indietro per andare avanti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni le basi. Come le vittime di un ictus emotivo, dobbiamo fare qualche passo indietro per andare avanti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni le basi. Come le vittime di un ictus emotivo, dobbiamo fare qualche passo indietro per andare avanti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci insegni le basi. Per me, non importava in quale acqua calda fossi entrato, avevo sempre pensato che avrei potuto uscirne da solo. Ero abbastanza carino, o abbastanza intelligente, o abbastanza talentuoso, o abbastanza intelligente, e se nient'altro funzionava, potevo chiamare mio padre e chiedere soldi. Ma alla fine mi sono cacciato in così tanti guai, che ho capito di aver bisogno di più aiuto di quello che potevo raccogliere da solo. Durante le riunioni in dodici fasi, continuavo a sentire dire che un potere più grande di quello che potevo fare per me ciò che non potevo fare per me stesso. Non c'era nient'altro da fare non c'era più nessuno da chiamare. La mia paura alla fine è diventata così grande, che non ero troppo alla moda per dire Dio, per favore aiutami. 2. La luce La luce è in te. Così ho attraversato questo momento grandioso e drammatico in cui ho invitato Dio nella mia vita. All'inizio è stato terrificante, ma poi mi è venuta l'idea. Dopodiché, nulla è sembrato davvero come mi aspettavo. Pensavo che le cose sarebbero migliorate. È come se la mia vita fosse una casa, e ho pensato che Dio le avrebbe dato un meraviglioso lavoro di pittura, persiane nuove forse, un bel portico, tetto nuovo. Invece, mi è sembrato che, non appena ho dato la casa a Dio, lui l'ha colpita con una gigantesca palla da demolizione. Scusa, tesoro, sembrava dire, c'erano delle crepe nelle fondamenta, per non parlare di tutti i toppi nella camera da letto. Ho pensato che fosse meglio ricominciare tutto da capo. Avevo letto di persone che si arrendevano a Dio e poi sentivano questo profondo senso di pace scendere come un mantello sulle loro spalle. Ho avuto quella sensazione, ma solo per circa un minuto e mezzo. Dopodiché, mi sono sentito come se fossi stato beccato. Questo non mi ha allontanato tanto da Dio quanto mi ha fatto rispettare la sua intelligenza. Implicava che capisse la situazione meglio di quanto mi sarei aspettato. Se fossi stato Dio, avrei beccato anche me. Mi sentivo più grato che risentito. Avevo un disperato bisogno di aiuto. Di solito è necessaria una certa quantità di disperazione prima di essere pronti per Dio. Quando si trattava di resa spirituale, non diventavo seria, non proprio, finché non ero completamente in ginocchio. Il pasticcio è diventato così fitto che tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re non potevano far funzionare di nuovo Marianne. La donna esterica dentro di me era in preda a una rabbia maniacale e il bambino innocente era inchiodato al muro. Sono caduto a pezzi. Ho attraversato il confine tra il dolore ma ancora incapace di funzionare normalmente e il regno del caso del basket totale. Ho avuto quello che comunemente viene chiamato esaurimento nervoso. I crolli nervosi possono essere metodi altamente sottovalutati di trasformazione spirituale. Sicuramente attirano la tua attenzione. Ho visto persone avere piccoli mini guasti anno dopo anno, ogni volta fermandosi appena prima di arrivare al punto. Penso di essere stato fortunato a farla finita con il mio in un colpo solo. Le cose che ho imparato qui, non le dimenticherò. Per quanto dolorosa sia stata questa esperienza, ora la vedo come un passo importante, forse necessario, nella mia svolta verso una vita più felice. Per prima cosa, ero profondamente umiliato. Ho visto molto chiaramente che, di me stesso, non sono niente. Fino a quando ciò non accade, continui a provare tutti i tuoi vecchi trucchi, quelli che non hanno mai funzionato ma che continui a pensare potrebbero funzionare questa volta. Una volta che ne hai avuto abbastanza e non ce la fai più, consideri la possibilità che ci possa essere un modo migliore. È allora che la tua testa si spalanca e Dio entra. In quegli anni mi sentivo come se il mio cranio fosse esploso. Sembrava che migliaia di piccoli frammenti fossero stati lanciati nello spazio. Molto lentamente, hanno cominciato a riunirsi di nuovo. Ma mentre il mio cervello emotivo era così esposto, sembrava essere ricablato, come se avessi subito una specie di chirurgia psichica. Mi sentivo come se fossi diventata una persona diversa. Più persone hanno sentito la testa spaccarsi in qualche modo, di quante lo abbiano ammesso con i loro amici. In questi giorni non è un fenomeno raro. Oggi le persone si schiantano contro i muri, socialmente, biologicamente, psicologicamente ed emotivamente. Ma questa non è una cattiva notizia. In un certo senso, è buono. Fino a quando le tue ginocchia non toccano finalmente il pavimento, stai solo giocando alla vita, e a un certo livello sei spaventato perché sai che stai solo giocando. Il momento della resa non è quando la vita è finita. È quando inizia. Non che quel momento di eureka, quel richiamo a Dio, sia, e da quel momento in poi è tutto il paradiso. Hai semplicemente iniziato la scalata. Ma sai che non stai più correndo in tondo in fondo alla montagna, senza mai arrivare davvero da nessuna parte, sognando la cima e non avendo idea di come arrivarci. Per molte persone, le cose devono andare molto male prima che ci sia un cambiamento. Quando tocchi davvero il fondo, arriva un rilascio esaltante. Riconosci che c'è un potere nell'universo più grande di te, che può fare per te ciò che tu non puoi fare per te stesso. All'improvviso, la tua ultima risorsa sembra un'ottima idea. Che ironia! Passi tutta la vita a resistere all'idea che ci sia qualcuno là fuori più intelligente di te, e poi all'improvviso sei così sollevato di sapere che è vero. All'improvviso, non sei troppo orgoglioso di chiedere aiuto. Ecco cosa significa arrendersi a Dio. Capitolo 2 Dio sei in Dio. 1. Dio è la roccia Non c'è tempo, né luogo, né stato in cui Dio sia assente. Ci sono stati momenti nella mia vita, e accadono ancora oggi, anche se ora sono più l'eccezione che la regola, in cui mi sono sentito come se la tristezza mi avrebbe sopraffatto. Qualcosa non è andato come volevo, o ero in conflitto con qualcuno, o avevo paura di ciò che sarebbe potuto o non sarebbe potuto accadere in futuro. La vita in quei momenti può essere difficili da sopportare e la mente inizia una ricerca senza fine per sfuggire al dolore. Quello che ho imparato da un corso in miracoli è che il cambiamento che stiamo davvero cercando è dentro le nostre teste. Gli eventi sono sempre in movimento. Un giorno le persone ti amano, il giorno dopo sei il loro obiettivo. Un giorno la situazione procede senza intoppi, il giorno dopo regna il caos. Un giorno ti senti come se fossi una persona a posto, il giorno dopo ti senti come se fossi un totale fallimento. Questi cambiamenti nella vita accadranno sempre, fanno parte dell'esperienza umana. Ciò che possiamo cambiare, tuttavia, è come li percepiamo. E quel cambiamento nella nostra percezione è un miracolo. C'è una storia biblica in cui Gesù dice che possiamo costruire la nostra casa sulla sabbia o possiamo costruirla sulla roccia. La nostra casa è la nostra stabilità emotiva. Quando è costruito sulla sabbia, i venti e la pioggia possono abbatterlo. Una telefonata deludente e ci sbriciolamo, una tempesta e la casa cade. Quando la nostra casa è costruita sulla roccia, allora è robusta e forte e le tempeste non possono distruggerla. Non siamo così vulnerabili ai drammi passeggeri della vita. La nostra stabilità si basa su qualcosa di più duraturo del tempo attuale, qualcosa di permanente e forte. Dipendiamo da Dio. Non mi ero mai reso conto che dipendere da Dio significava dipendere dall'amore. Avevo sentito dire che Dio era amore, ma non avevo mai capito esattamente cosa significasse. Quando ho iniziato a studiare un corso in miracoli, ho scoperto le seguenti cose, Dio è l'amore dentro di noi. Se lo seguiamo o pensiamo con amore, dipende interamente da noi. Quando scegliamo di amare, o di permettere alle nostre menti di essere una cosa sola con Dio, allora la vita è pacifica. Quando ci allontaniamo dall'amore, il dolore inizia. E se amiamo, o chiudiamo i nostri cuori all'amore, è una scelta mentale che facciamo, ogni momento di ogni giorno. 2. L'amore è Dio L'amore non vince tutte le cose, ma mette tutte le cose a posto. L'amore preso sul serio è una visione radicale, un importante allontanamento dall'orientamento psicologico che governa il mondo. È minaccioso non perché sia una piccola idea, ma perché è così grande. Per molte persone, Dio è un concetto spaventoso. Chiedere aiuto a Dio non sembra molto confortante se pensiamo a Lui come a qualcosa al di fuori di noi stessi, o capriccioso o giudicante. Ma Dio è amore. Siamo stati creati a sua immagine, o mente, il che significa che siamo estensioni del suo amore. Per questo siamo chiamati figli di Dio. Pensiamo di essere stati l'autore di Dio, invece di renderci conto che è stato Lui a creare noi. Il corso dice che abbiamo un problema di autorità. Invece di accettare che siamo gli esseri amorevoli che Egli ha creato, abbiamo pensato con arroganza di poter creare noi stessi e quindi creare Dio. Poiché siamo arrabbiati e giudicanti, abbiamo proiettato quelle caratteristiche su di Lui. Abbiamo creato un Dio a nostra immagine. Ma Dio resta quello che è ed è sempre stato, l'energia, il pensiero dell'amore incondizionato. Non può pensare con rabbia o giudizio, Egli è misericordia, compassione e totale accettazione. Il problema è che abbiamo dimenticato questo, e quindi abbiamo dimenticato chi siamo noi stessi. Ho cominciato a rendermi conto che prendere sul serio l'amore sarebbe stata una completa trasformazione del mio modo di pensare. Un corso in miracoli si definisce un allenamento mentale nell'abbandono di un sistema di pensiero basato sulla paura e l'accettazione invece di un sistema di pensiero basato sull'amore. Ora, a più di un decennio dall'inizio dello studio di un corso in miracoli, la mia mente non è certo la pietra di paragone della sacra percezione. Certamente non pretendo di ottenere costantemente una prospettiva amorevole di ogni situazione della mia vita. Una cosa su cui sono molto chiaro, tuttavia, è che quando lo faccio, la vita funziona magnificamente. E quando non lo faccio, le cose rimangono bloccate. Per amare in modo puro, dobbiamo abbandonare i nostri vecchi modi di pensare. Per la maggior parte di noi, a rendersi a qualsiasi cosa è difficile. Pensiamo ancora alla resa come al fallimento, come a qualcosa che fai quando hai perso la guerra. Ma la resa spirituale, sebbene passiva, non è debole. In realtà, è forte. È un equilibrio per la nostra aggressività. Sebbene l'aggressività non sia un male, è al centro della creatività, ha bisogno di essere temperata dall'amore per essere un agente di armonia piuttosto che di violenza. La mente che è separata da Dio ha dimenticato come controllarsi con amore prima di vagare nel mondo. Senza amore, le nostre azioni sono isteriche. Senza amore non abbiamo saggezza. A rendersi a Dio significa lasciarsi andare e semplicemente amare. Affermando che l'amore è la nostra priorità in una situazione, realizziamo la potenza di Dio. Questa non è una metafora, è un fatto. Usiamo letteralmente la nostra mente per co-creare con Lui. Attraverso una decisione mentale, un riconoscimento consapevole dell'importanza dell'amore di della nostra disponibilità a sperimentarlo, invochiamo un potere superiore. Mettiamo da parte le nostre normali abitudini mentali e lasciamo che siano soppiantate da una modalità di percezione diversa e più delicata. La domanda non è più cos'è Dio? La domanda che ci poniamo ora è, cos'è l'amore? L'amore è energia. Non è qualcosa che possiamo percepire con i nostri sensi fisici, ma le persone di solito possono dirti quando lo sentono e quando no. Pochissime persone sentono abbastanza amore nelle loro vite perché il mondo è diventato un posto piuttosto senza amore. Non riusciamo nemmeno a immaginare un mondo in cui tutti noi fossimo innamorati, tutto il tempo, di tutti. Non ci sarebbero guerre perché non combatteremmo. Non ci sarebbe fame perché ci saremmo nutriti a vicenda. Non ci sarebbe alcun crollo ambientale perché amiamo troppo noi stessi, i nostri figli e il nostro pianeta per distruggerlo. Non ci sarebbero pregiudizi, oppressioni o violenze di alcun tipo. Non ci sarebbe dolore. Ci sarebbe solo pace. Anche se potremmo non rendercene conto, la maggior parte di noi sono persone violente, non necessariamente fisicamente, ma emotivamente. Siamo cresciuti in un mondo che non mette l'amore al primo posto, e dove l'amore è assente, si instaura la paura. La paura sta all'amore come l'oscurità sta alla luce. È una terribile assenza di ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere. È un posto dove andiamo dove si scatena l'inferno. Quando i bambini non vengono trattenuti, possono ammalarsi e persino morire. È universalmente accettato che i bambini abbiano bisogno di amore, ma a che tale persone dovrebbero smettere di averne bisogno? Non lo facciamo mai. Abbiamo bisogno di amore per vivere felici, tanto quanto abbiamo bisogno di ossigeno per vivere. 3. Solo l'amore reale Dio non è l'autore della paura. 6. Quindi il problema con il mondo è che ci siamo allontanati da Dio, o che ci siamo allontanati dall'amore. Secondo Accourse in Miracles, questa separazione da Dio è avvenuta per la prima volta milioni di anni fa. Ma la rivelazione importante, il punto cruciale del corso, è che in realtà non è mai successo. L'introduzione a un corso in miracoli afferma, il corso si può riassumere molto semplicemente, niente di reale può essere minacciato. Non esiste nulla di irreale. Qui sta la pace di Dio. Ciò che significa è questo, l'amore è reale. È una creazione eterna e niente può distruggerla. Tutto ciò che non è amore è un'illusione. Ricorda questo e sarà in pace. Un corso in miracoli dice che solo l'amore è reale, l'opposto dell'amore è la paura, ma ciò che è onnicomprensivo non può avere opposto. Quando pensiamo con amore, stiamo letteralmente co-creando con Dio. E quando non pensiamo con amore, poiché solo l'amore è reale, allora in realtà non stiamo affatto pensando. Abbiamo le allucinazioni. Ed ecco cos'è questo mondo, un'allucinazione di massa, dove la paura sembra più reale dell'amore. La paura è un'illusione. La nostra follia, paranoia, ansia e trauma sono letteralmente tutti immaginati. Questo non vuol dire che non esistano per noi come esseri umani. Loro fanno. Ma la nostra paura non è la nostra realtà ultima e non sostituisce la verità su chi siamo veramente. Il nostro amore, che è il nostro vero sé, non muore, ma va semplicemente sottoterra. Il corso insegna che la paura è letteralmente un brutto sogno. È come se la mente fosse stata divisa in due, una parte rimane in contatto con l'amore e l'altra parte vira nella paura. La paura crea una sorta di universo parallelo in cui l'irreale sembra reale e il reale sembra irreale. L'amore scaccia il peccato o la paura come la luce scaccia le tenebre. Il passaggio dalla paura all'amore è un miracolo. Non risolve le cose sul piano terrestre, affronta la vera fonte dei nostri problemi, che è sempre al livello di coscienza. L'unico vero problema è la mancanza di amore. Affrontare i problemi del mondo a qualsiasi altro livello è un palliativo temporaneo, una soluzione ma non una guarigione, un trattamento del sintomo ma non una cura. I pensieri sono come dati programmati in un computer, registrati sullo schermo della tua vita. Se non ti piace quello che vedi sullo schermo, non ha senso andare sullo schermo e provare a cancellarlo. Il pensiero è causa, l'esperienza è effetto. Se non ti piacciono gli effetti nella tua vita, devi cambiare la natura del tuo modo di pensare. L'amore nella tua mente produce amore nella tua vita. Questo è il significato del paradiso. La paura nella tua mente produce paura nella tua vita. Questo è il significato dell'inferno. Un cambiamento nel modo in cui pensiamo alla vita produce un cambiamento nel modo in cui la sperimentiamo. Dire, Dio, liberami dall'inferno, significa Dio, liberami dal mio pensiero spaventoso. L'altare di Dio è la mente umana. Profanare l'altare è riempirlo di pensieri non amorevoli. Adamo ed Eva furono felici finché non mangiò della conoscenza del bene e del male. Ciò significa che tutto è stato perfetto finché non hanno imparato a chiudere i loro cuori, a dire, ti amo se fai questo, ma non se fai quello, oppure, accetto questa parte di te, ma non quella parte. Chiudere i nostri cuori distrugge la nostra pace perché è estranea alla nostra natura. Ci deforma e ci trasforma in persone che non siamo destinati ad essere. Freud definì la nevrosi come la separazione dal sé, e così è. Il nostro vero sé è l'amore dentro di noi. È il figlio di Dio. L'io pauroso è un impostore. Il ritorno all'amore è il grande dramma cosmico, il viaggio personale dalla finzione al sé, dal dolore alla pace interiore. Allora potrebbe andare così, o almeno è andata così per me. Mi mettevo in un terribile pasticcio e mi ricordavo che tutto ciò di cui avevo bisogno era un miracolo, un cambiamento nella percezione. Pregherei, Dio, ti prego, aiutami. Guarisci la mia mente. Ovunque i miei pensieri si siano allontanati dall'amore, se sono stato controllante, manipolatore, avido, ambizioso per me stesso, qualunque cosa sia, sono disposto a vederlo in modo diverso. Amen. Quindi, l'universo lo sentirebbe ed ing. Otterrei il mio miracolo. Relazione trasformata, situazione guarita. Ma poi tornavo allo stesso tipo di pensiero pauroso che mi aveva messo in ginocchio all'inizio, e ripetevo lo schema. Mi finivo in un incidente d'auto emotivo, ancora una volta finivo in ginocchio, ancora una volta chiedevo a Dio di aiutarmi e ancora una volta sarei tornato alla sanità mentale e alla pace. Alla fine, dopo tante ripetizioni di quegli scenari conflittuali, mi sono detto, Marianne. La prossima volta che sei in ginocchio, perché non rimani lì? Perché non rimaniamo nel regno della risposta, piuttosto che tornare sempre nel regno del problema? Perché non cercare un livello di consapevolezza in cui non creiamo questi problemi per noi stessi tutto il tempo? Non chiediamo solo un nuovo lavoro, una nuova relazione o un nuovo corpo. Chiediamo un mondo nuovo. Chiediamo una nuova vita. Quando ero completamente in ginocchio e sapevo cosa significasse sentirsi sinceramente umiliato, quasi mi aspettavo di provare la rabbia o il disprezzo di Dio. Invece, è stato come se avessi sentito una voce gentile dire, possiamo iniziare ora? Fino a quel momento, mi stavo nascondendo dal mio amore, resistendo così alla mia stessa vita. Il ritorno all'amore non è la fine dell'avventura della vita, ma l'inizio. È il ritorno a chi sei veramente. Capitolo 3 Voi il pensiero che Dio ha di te è come una stella, immutabile in un cielo eterno. 1. Il perfetto te ancora una volta, nulla di ciò che fai o pensi o desideri o fai è necessario per stabilire il tuo valore. Sei un figlio di Dio. Sei stato creato in un lampo accecante di creatività, un pensiero primordiale quando Dio si è esteso nell'amore. Tutto ciò che hai aggiunto da allora è inutile. Quando fu chiesto a Michelangelo come creasse una scultura, rispose che la statua esisteva già all'interno del marmo. Dio stesso aveva creato la pietà, David, Mosè. Il compito di Michelangelo, secondo lui, era quello di sbarazzarsi del marmo in eccesso che circondava la creazione di Dio. Così è con te. Il te perfetto non è qualcosa che devi creare, perché Dio l'ha già creato. Il te perfetto è l'amore dentro di te. Il tuo compito è permettere allo Spirito Santo di rimuovere il pensiero pauroso che circonda il tuo io perfetto, proprio come l'eccesso di marmo circondava la statua perfetta di Michelangelo. Ricordare che sei parte di Dio, che sei amato e amabile, non è arrogante. È umile. Pensare di essere qualcos'altro è arrogante, perché implica che sei qualcosa di diverso da una creazione di Dio. L'amore è immutabile e quindi lo sei anche tu. Niente di ciò che hai mai fatto o che farai mai può rovinare la tua perfezione agli occhi di Dio. Ti meriti ai Suoi occhi per quello che sei, non per quello che fai. Ciò che fai o non fai non è ciò che determina il tuo valore essenziale, la tua crescita forse, ma non il tuo valore. Ecco perché Dio ti sta approvando e accettando totalmente, esattamente come sei. Cosa non va? Non sei stato creato nel peccato, sei stato creato nell'amore. 2. La mente divina Dio ha illuminato la tua mente stesso, e mantiene la tua mente illuminata dalla sua luce perché la sua luce è ciò che è la tua mente. Lo psicologo Carl Jung ha postulato la nozione di inconscio collettivo, una struttura mentale innata che comprende le forme pensiero universali di tutta l'umanità. La sua idea era che se sei andato abbastanza in profondità nella tua mente, e abbastanza profondamente nella mia, c'è un livello che condividiamo tutti. Il corso fa un passo avanti, se vai abbastanza profondamente nella tua mente, e abbastanza profondamente nella mia, abbiamo la stessa mente. Il concetto di una mente divina, o Cristo, è l'idea che, nel nostro nucleo, non siamo solo identici, ma in realtà lo stesso essere. C'è un solo figlio generato non significa che sia stato qualcun altro, e noi non lo siamo. Significa che siamo tutto. C'è solo uno di noi qui. Siamo come i raggi di una ruota, tutti irradiati dallo stesso centro. Se ci definisci in base alla nostra posizione sul bordo, sembriamo separati e distinti l'uno dall'altro. Ma se ci definisci in base al nostro punto di partenza, alla nostra fonte, il centro della ruota, siamo un'identità condivisa. Se scavi abbastanza in profondità nella tua mente, e abbastanza in profondità nella mia, il quadro è lo stesso, alla base di tutto, ciò che siamo è l'amore. La parola Cristo è un termine psicologico. Nessuna religione ha il monopolio della verità. Cristo si riferisce al filo come un e dell'amore divino che è il nucleo e l'essenza di ogni mente umana. L'amore in uno di noi è l'amore in tutti noi. In realtà non c'è nessun posto in cui Dio si fermi e tu inizi, e nessun posto in cui tu ti fermi e io comincio. L'amore è energia, un continuum infinito. La tua mente si estende nella mia e in quella di tutti gli altri. Non rimane racchiuso nel tuo corpo. Un corso in miracole ci paragona ai raggi di sole che pensano di essere separati dal sole, o alle onde che pensano che siamo separati dall'oceano. Proprio come un raggio di sole non può separarsi dal sole e un'onda non può separarsi dall'oceano, non possiamo separarci gli uni dagli altri. Facciamo tutti parte di un vasto mare d'amore, un'unica mente divina indivisibili. Questa verità di chi siamo veramente non cambia, semplicemente lo dimentichiamo. Ci identifichiamo con la nozione di un piccolo sei separato, invece dell'idea di una realtà che condividiamo con tutti. Non sei chi pensi di essere. Non sei contento. Non sei i tuoi voti, o le tue credenziali, o il tuo curriculum, o la tua casa. Non siamo affatto quelle cose. Siamo esseri santi, singole cellule nel corpo di Cristo. A course in miraclese ci ricorda che il sole continua a splendere e l'oceano continua a gonfiarsi, ignari del fatto che una frazione della loro identità ha dimenticato di cosa si tratta. Siamo ciò che Dio ci ha creati per essere. Siamo tutti uno, siamo l'amore stesso. Accettare il Cristo è semplicemente un cambiamento nella percezione di sé. Ci svegliamo dal sogno di essere creature limitate e isolate e riconosciamo di essere spiriti gloriosi e infinitamente creativi. Ci svegliamo dal sogno di essere deboli e accettiamo che il potere dell'universo è dentro di noi. Ho capito, molti anni fa, che dovevo essere molto potente se potevo rovinare tutto ciò che toccavo, ovunque andassi, con una coerenza così sorprendente. Ho pensato che doveva esserci un modo per applicare lo stesso potere mentale, poi incorporato nella nevrosi, in un modo più positivo. Gran parte dell'orientamento psicologico più comune di oggi consiste nell'analizzare l'oscurità per raggiungere la luce, pensando che se ci concentriamo sulle nostre nevrosi, le loro origini e dinamiche, allora andremo oltre. Le religioni orientali ci dicono che se andiamo per Dio, tutto ciò che non siamo autenticamente noi stessi cadrà. Cerca la luce e l'oscurità scomparirà. Concentrarsi su Cristo significa concentrarsi sulla bontà e sul potere che giacciono latenti dentro di noi, per invocarli nella realizzazione e nell'espressione. Otteniamo nella vita ciò su cui ci concentriamo. La continua attenzione all'oscurità ci guida, come individui e come società, più nell'oscurità. Concentrarsi sulla luce ci porta nella luce. Accetto il Cristo dentro di me significa, accetto la bellezza dentro di me come chi sono veramente. Non sono la mia debolezza. Non sono la mia rabbia. Non sono la mia meschinità. Io sono molto, molto di più. E sono disposto a ricordarmi chi sono veramente. 3. L'io l'ego è letteralmente un pensiero spaventoso. Da bambini, ci è stato insegnato a essere ragazzi e ragazze bravi, il che ovviamente implica che non lo eravamo già. Ci hanno insegnato che siamo bravi se puliamo la nostra stanza, o siamo bravi se prendiamo buoni voti. A pochissimi di noi è stato insegnato che siamo essenzialmente bravi. Pochissimi di noi hanno avuto un senso di approvazione incondizionata, la sensazione di essere preziosi per quello che siamo, non per quello che facciamo. E non è perché siamo stati allevati da mostri. Siamo stati cresciuti da persone che sono state allevate come noi. A volte, infatti, erano le persone che ci amavano di più a sentire che era loro responsabilità addestrarci a lottare. Come mai? Perché il mondo così com'è, è duro e volevano che facessimo del bene. Dovevamo diventare pazzi come lo è il mondo, o non saremmo mai entrati qui. Dovevamo raggiungere, fare il voto, entrare ad Harvard. La cosa strana è che non abbiamo imparato la disciplina da quella prospettiva, tanto quanto uno strano spostamento del nostro senso di potere lontano da noi stessi e verso fonti esterne. Ciò che abbiamo perso è stato il senso del nostro potere. E quello che abbiamo imparato è stata la paura, la paura di non essere abbastanza bravi, proprio come siamo. La paura non promuove l'apprendimento. Ci deforma. Ci stordisce. Ci rende neurotici. E quando eravamo adolescenti, la maggior parte di noi era gravemente screpolata. Il nostro amore, i nostri cuori, il nostro vero io sono stati costantemente invalidati da persone che non ci amavano e da persone che ci amavano. In assenza di amore, abbiamo cominciato lentamente ma inesorabilmente a crollare. Anni fa, mi sono detto di non preoccuparmi di un diavolo. Ricordo di aver pensato che non c'è nessuna forza del male in giro per il pianeta. Questo, mi dicevo, è tutto nella mia mente. Poi ho capito che non era una buona notizia. Dal momento che ogni pensiero crea esperienza, non c'è posto peggiore in cui potrebbe essere. Anche se è vero che non c'è un vero diavolo là fuori che si impossessa delle nostre anime, c'è una tendenza nelle nostre menti, che può essere sorprendentemente forte, a percepire senza amore. Essendo stato insegnato fin da bambini che siamo esseri separati e finiti, abbiamo un momento molto difficile quando si tratta di amare. L'amore sembra un vuoto che minaccia di travolgerci, e questo perché, in un certo senso, è e lo fa. Travolge il nostro piccolo sé, il nostro solitario senso di separazione. Dal momento che quel senso di separazione è ciò che pensiamo di essere, ci sentiamo come se moriremo senza di esso. Ciò che sta morendo è la mente spaventata, quindi l'amore dentro di noi può avere la possibilità di respirare. Nella terminologia del corso, la nostra intera rete di percezioni spaventose, tutte derivanti da quella prima falsa credenza della nostra separazione da Dio e l'uno dall'altro, è chiamata ego. La parola ego è usata qui in modo diverso rispetto al modo in cui è spesso usata nella psicologia moderna. Viene usato come lo usavano gli antichi greci, come la nozione di un piccolo sé separato. È una falsa credenza su noi stessi, una bugia su chi e cosa siamo veramente. Anche se quella bugia è la nostra nevrosi, e vivere quella bugia è un'ansia terribile, è incredibile quanto siamo resistenti a sanare la divisione. Il pensiero separato dall'amore è un profondo errore. È il nostro stesso potere rivolto contro noi stessi. Nel momento in cui la mente ha deviato per la prima volta dall'amore, quando il figlio di Dio ha dimenticato di ridere, è nato un intero mondo illusorio. Un corso in miracoli chiama questo momento la nostra deviazione nella paura o separazione da Dio. L'ego ha una sua pseudovita e, come tutte le forme di vita, lotta duramente per la sua sopravvivenza. Per quanto scomoda possa essere la nostra vita, per quanto dolorosa o addirittura disperata a volte, la vita che stiamo vivendo è la vita che conosciamo e ci aggrappiamo al vecchio piuttosto che provare qualcosa di nuovo. La maggior parte di noi è così stanca di noi stessi, in un modo o nell'altro. È incredibile quanto tenacemente ci aggrappiamo a ciò da cui abbiamo pregato di essere liberati. L'ego è come un virus nel computer che attacca il sistema centrale. Sembra mostrarci un oscuro universo parallelo, un regno di paura e dolore che in realtà non esiste ma sembra certamente esistere. Lucifero era l'angelo più bello del paradiso prima di cadere. L'ego è il nostro amor proprio trasformato in odio per noi stessi. L'ego è come un campo di forza gravitazionale, costruito nel corso di eoni di pensieri paurosi, che ci allontana dall'amore nei nostri cuori. L'ego è il nostro potere mentale rivolto contro noi stessi. È intelligente, come lo siamo noi, e parla dolcemente, come siamo, e manipolatore, come siamo. Ricordi tutti i discorsi su un diavolo dalla lingua d'argento? L'ego non si avvicina a noi e dice, ciao, sono il tuo disprezzo di te stesso. Non è stupido, perché non lo siamo. Piuttosto, dice cose come, ciao, sono il tuo io adulto, maturo e razionale. Ti aiuterò a cercare il numero uno. Quindi procede a consigliarci di badare a noi stessi, a spese degli altri. Ci insegna l'egoismo, l'avidità, il giudizio e la meschinità. Ma ricorda, qui c'è solo uno di noi, quello che diamo agli altri, lo diamo a noi stessi. Ciò che tratteniamo agli altri, lo tratteniamo a noi stessi. In ogni momento in cui scegliamo la paura invece dell'amore, ci neghiamo l'esperienza del paradiso. Nella misura in cui abbandoniamo l'amore, in quella misura sentiremo che ci ha abbandonato. 4. Spirito Santo Lo Spirito Santo è la chiamata a svegliarsi e ad rallegrarsi. Il potere della mente è esso stesso neutrale. È il potere che ci è stato dato gratuitamente da Dio. Abbiamo il libero arbitrio di pensare quello che vogliamo, ma nessun pensiero è neutrale. Non esiste un pensiero ozioso. Tutto il pensiero crea forma a un certo livello. Niente può privarci della nostra creatività. Siamo personalmente responsabili della direzione in cui lo applichiamo. Assumersi la responsabilità delle nostre vite, quindi, significa assumersi la responsabilità dei nostri pensieri. E pregare Dio di salvare le nostre vite, significa pregare per Lui di salvarci dai nostri pensieri negativi. Poiché esiste solo Dio, e tutto il resto è un'illusione, gli effetti della mancanza di amore si verificano solo all'interno dell'allucinazione dell'ego. La parola peccato significa percezione senza amore. È un termine di tiro con l'arco. Significa hai mancato il bersaglio. Quindi Dio non è arrabbiato con i nostri peccati perché non stanno realmente accadendo. Non vede peccati, ma solo errori di percezione. Non vuole punirci, ma guarirci. Il modo in cui ci guarisce è attraverso una forza di coscienza chiamata Spirito Santo. Il corso insegna che lo Spirito Santo è stato creato nel momento in cui è stato pensato il primo pensiero paoroso. Come amore perfetto, Dio corregge tutti gli errori nel momento in cui si verificano. Non poteva costringerci a tornare ad amare, perché l'amore non costringe. Tuttavia, crea alternative. Lo Spirito Santo è l'alternativa di Dio alla paura. Lo Spirito Santo era la risposta di Dio all'ego. Egli è l'eterno collegamento di comunicazione di Dio con i Suoi figli separati, un ponte verso pensieri gentili, il grande trasformatore della percezione. Spesso lo Spirito Santo viene chiamato il consolatore. Dio non può forzare la sua via di ritorno nel nostro pensiero, perché ciò violerebbe il nostro libero arbitrio. Ma lo Spirito Santo è una forza di coscienza dentro di noi che ci libera dall'inferno o dalla paura, ogni volta che glielo chiediamo consapevolmente, lavorando con noi a livello causale, trasformando i nostri pensieri dalla paura all'amore. Non possiamo invocarlo in vano. Essendo stato creato da Dio, è incorporato nel computer. Viene a noi in molte forme, da una conversazione con un amico a un serio cammino spirituale, da un testo in una canzone a un'eccellente terapeuta. Egli è la spinta inesorabile verso la totalità che esiste dentro, non importa quanto diventiamo disorientati o pazzi. Qualcosa dentro di noi desidera sempre tornare a casa, e lui è quel qualcosa. Lo Spirito Santo ci guida verso una diversa percezione della realtà, quella che si basa sull'amore. La sua correzione della nostra percezione è chiamata espiazione. Ci ricorda che, in ogni situazione, l'amore che hai dato è reale, e l'amore che hai ricevuto è reale. Non esiste nient'altro. Qualsiasi cosa diversa dall'amore è un'illusione. Per sfuggire all'illusione e trovare la pace interiore, ricorda che solo l'amore in una situazione è reale. Tutto il resto è un errore e non esiste. Deve essere dimenticato. Dobbiamo essere consapevolmente disposti a lasciar perdere. L'unica cosa che manca in ogni situazione è la nostra consapevolezza dell'amore. Chiedendo allo Spirito Santo di aiutarci, esprimiamo la nostra disponibilità a percepire una situazione in modo diverso. Rinunciamo alle nostre interpretazioni e opinioni e chiediamo che siano sostituiti dalle sue. Quando soffriamo, preghiamo, caro Dio, sono disposto a vedere questo in modo diverso. Consegnare una situazione a Dio significa consegnare a Lui i nostri pensieri al riguardo. Ciò che diamo a Dio, Egli ci restituisce rinnovato attraverso la visione dello Spirito Santo. Alcune persone pensano che se ci arrendiamo a Dio, stiamo rinunciando alla responsabilità personale. Ma l'opposto è vero. Ci stiamo assumendo la responsabilità ultima di una situazione essendo responsabili dei nostri pensieri al riguardo. Siamo abbastanza responsabili da sapere che, quando lasciate ai nostri dispositivi mentali, risponderemo istintivamente per paura. A volte le persone pensano che invocare Dio significhi invitare una forza nella nostra vita che renderà tutto rosio. La verità è che significa invitare nella nostra vita tutto ciò che ci costringerà a crescere, e la crescita può essere disordinata. Lo scopo della vita è crescere nella nostra perfezione. Una volta che invochiamo Dio, tutto ciò che potrebbe farci arrabbiare è in arrivo. Come mai? Perché il luogo in cui entriamo nella rabbia invece dell'amore, è il nostro muro. Qualsiasi situazione che spinge i nostri pulsanti è una situazione in cui non abbiamo ancora la capacità di essere amorevoli incondizionatamente. È compito dello Spirito Santo attirare la nostra attenzione su questo e aiutarci ad andare oltre quel punto. Le nostre zone di comfort sono le aree limitate in cui troviamo facile amare. È compito dello Spirito Santo non rispettare quelle zone di comfort, ma distruggerle. Non siamo in cima alla montagna finché una zona non è confortevole. L'amore non è amore finché non è incondizionato. Non stiamo sperimentando chi siamo veramente finché non sperimentiamo il nostro amore perfetto. Per assicurare il nostro progresso verso l'obiettivo dell'illuminazione, lo Spirito Santo ha un curriculum altamente individualizzato per tutti. Ogni incontro, ogni circostanza può essere usata da lui per i suoi scopi. Si traduce tra il nostro perfetto sé cosmico e la nostra follia mondana. Egli entra nell'illusione e ci conduce al di là di essa. Usa l'amore per creare più amore e risponde alla paura come appello all'amore. L'olocausto non era la volontà di Dio, né lo e l'AIDS. Entrambi sono prodotti della paura. Quando invitiamo lo Spirito Santo in queste situazioni, tuttavia, Egli le usa come ragioni e opportunità per farci crescere fino al livello stesso di amore profondo attraverso il quale vengono sradicati dalla terra. Ci sfidano ad amare più profondamente di quanto non abbiamo mai amato prima. Se desideriamo davvero una risposta morale all'olocausto, facciamo tutto ciò che è in nostro potere per creare un mondo in cui non possa mai più accadere. Come ogni persona pensante sa, Hitler non agì da solo. Non avrebbe mai potuto fare ciò che ha fatto senza l'aiuto di migliaia di persone che, pur non condividendo la sua visione malvagia, non avevano la fibra morale per dirle di no. Cosa vorrebbe lo Spirito Santo che facessimo adesso? Sebbene non possiamo garantire che una Hitler non rinascerà mai più, possiamo infatti creare un mondo in cui, anche se fosse apparso una Hitler, ci sarebbe così tanto amore che quasi nessuno lo ascolterebbe o cospirerebbe con lui. Il percorso spirituale, quindi, è semplicemente il viaggio del vivere la nostra vita. Ognuno è su un percorso spirituale, la maggior parte delle persone semplicemente non lo sa. Lo Spirito Santo è una forza nelle nostre menti che ci conosce nel nostro stato naturale e perfettamente amorevole, che abbiamo dimenticato, ma entra nel mondo della paura e dell'illusione con noi e usa le nostre esperienze qui per ricordarci chi siamo. Lo fa mostrandoci la possibilità di uno scopo amorevole in tutto ciò che pensiamo e facciamo. Rivoluziona il nostro senso del perché siamo sulla Terra. Ci insegna a vedere l'amore come la nostra unica funzione. Tutto ciò che facciamo nella nostra vita sarà usato, o interpretato, dall'ego o dallo Spirito Santo. L'ego us ha tutto per condurci ulteriormente nell'ansia. Lo Spirito Santo us ha tutto per guidarci nella pace interiore. 5. Essere illuminati L'illuminazione non è che un riconoscimento, non un cambiamento. Ci sono persone che hanno vissuto sulla Terra, e forse ci sono persone che vivono qui ora, le cui menti sono state completamente guarite dallo Spirito Santo. Hanno accettato l'espiazione. In tutte le religioni ci sono storie di santi o profeti che hanno operato miracoli. Questo perché, quando la mente ritorna a Dio, diventa un vaso per il suo potere. La potenza di Dio trascende le leggi di questo mondo. Santi e profeti, accettando l'espiazione, hanno realizzato il Cristo in loro. Sono stati purificati dai pensieri paurosi e nelle loro menti rimane solo l'amore. Questi esseri purificati sono chiamati gli illuminati. Luce significa comprensione. L'illuminato capisce. Le persone illuminate non hanno nulla che noi non abbiamo. Hanno un amore perfetto dentro, e anche noi. La differenza è che non hanno nient'altro. Gli esseri illuminati, Gesù e gli altri, esistono in uno stato che è solo potenziale nel resto di noi. La mente cristica è semplicemente la prospettiva dell'amore incondizionato. Tu e Dio abbiamo la mente di Cristo in noi tanto quanto Gesù. La differenza tra Lui e noi è che siamo tentati di negarlo. Lui è oltre. Ogni suo pensiero e ogni sua azione deriva dall'amore. L'amore incondizionato, o Cristo in Lui, è la verità che ci rende liberi, perché è la prospettiva che ci salva dai nostri pensieri paurosi. Gesù e altri maestri illuminati sono i nostri fratelli maggiori evolutivi. Secondo le leggi dell'evoluzione, una specie si sviluppa in una certa direzione finché quello sviluppo non è più ben adattato alla sopravvivenza. A quel punto si verifica una mutazione. Sebbene la mutazione non rappresenti la maggioranza delle specie, rappresenta la linea evolutiva più adatta alla sopravvivenza della specie. I discendenti della mutazione sono quindi quelli che sopravvivono. La nostra specie è nei guai perché combattiamo troppo. Combattiamo noi stessi, l'un l'altro, il nostro pianeta e Dio. I nostri modi pieni di paura stanno minacciando la nostra sopravvivenza. Una persona completamente amorevole è come una mutazione evolutiva, che manifesta un essere che mette l'amore al primo posto e crea così il contesto in cui avvengono i miracoli. Alla fine, questa è l'unica cosa intelligente da fare. È l'unico orientamento nella vita che sosterrà la nostra sopravvivenza. Le mutazioni, quelle illuminate, mostrano al resto di noi il nostro potenziale evolutivo. Indicano la strada. C'è una differenza tra un vaishower e una stampella. A volte le persone affermano di non aver bisogno di una stampella come Gesù. Ma non è una stampella, lui è un insegnante. Se vuoi fare lo scrittore, leggi i classici. Se vuoi fare ottima musica, ascolti musica composta da grandi musicisti che ci sono già passati. Se stai studiando per diventare pittore, è una buona idea studiare i grandi maestri. Se Picasso entrasse nella tua stanza mentre stavi imparando a disegnare e ti dicesse, «Ciao, ho un paio d'ore. Vuoi qualche consiglio? Diresti di no?» Così è con i maestri spirituali, Gesù, Buddha o qualsiasi altro essere illuminato. Erano geni nel modo in cui usavano la mente e il cuore, proprio come Beethoven era un genio con la musica, o Shakespeare un genio con le parole. Perché non imparare da loro, seguire la loro guida, studiare ciò che stavano facendo bene? Un corso in miracogliosa la terminologia cristiana tradizionale, ma la USA in modi molto non tradizionali. Parole come Cristo, Spirito Santo, Salvezza, Gesù, ecc. Sono usate per il loro significato psicologico piuttosto che religioso. Come studente e insegnante di un corso in miracoli, ho imparato molto sulla resistenza che molte persone hanno ai termini cristiani. Da ebreo, pensavo che solo altri ebrei avrebbero avuto problemi con la parola Gesù. Ma mi sbagliavo. Non sono solo gli ebrei che si innervosiscono alla menzione del suo nome. Di la parola Gesù ha un gruppo di cristiani moderati ed è probabile che ci sia tanta resistenza sull'argomento quanta ce n'è in chiunque altro. Capisco perché. Come si dice nel corso, di colui che sarebbe stato l'unico fratello del mondo sono stati fatti degli idoli amari. Sono stati usati così tanti termini cristiani per creare e perpetuare la colpa, che molte persone pensanti hanno deciso di rifiutarli del tutto. In molti casi, infatti, il problema è peggiore per i cristiani che per gli ebrei. Ai bambini ebrei di solito non viene insegnato nulla sui termini cristiani. Per molti bambini cristiani, invece, queste parole erano accusate di colpa, punizione e paura dell'inferno. Le parole sono solo parole e se ne possono sempre trovare di nuove per sostituire quelle che offendono. Nel caso di Gesù, tuttavia, il problema non è così semplice come trovare un'altra parola. Gesù è il suo nome. Non ha senso fingere che si chiami Herbert. Rifiutando automaticamente Gesù, sulla base di ciò che alcuni cristiani tradizionali hanno fatto con e in suo nome, molte persone hanno buttato via il bambino con l'acqua sporca. In relazione a un corso in miracoli e ad altre presentazioni esoteriche della filosofia cristica, hanno rifiutato il materiale in modo casuale in base al suo linguaggio. Sono caduti in una trappola mentale che in alcolisti anonimi è chiamata disprezzo prima delle indagini. Anni fa, stavo partecipando a una cena a New York City. L'argomento della conversazione a tavola era un romanzo che era stato pubblicato di recente. Qualcuno mi ha chiesto se l'avessi letto. Non l'avevo fatto, ma avevo letto la recensione del libro sul New York Times. Ho mentito e ho detto, sì. Ero così sconvolto da me stesso. Non avevo letto il libro, ma avevo abbastanza informazioni per fingere, per un modo che non momento, di averlo fatto. Ero disposto a lasciare che l'opinione di qualcun altro prendesse il posto della mia. Non molto tempo dopo, ho pensato a quell'incidente quando stavo decidendo se leggere o meno un libro, ovvero un corso in miracoli, che trattava in qualche modo di Gesù. Da bambino non avevo imparato nulla su di lui. Mi era stato semplicemente detto non lo leggiamo, caro. Ma gli ebrei sono anche noti per incoraggiare i risultati intellettuali nei loro figli. Mi era stato insegnato, anche se non l'avresti mai saputo la sera di quella festa, a leggere e a pensare da solo, e così ho fatto. Per me un corso in miracoli non spinge Gesù. Sebbene i libri provengano da lui, è molto chiaro che puoi essere uno studente avanzato del corso e non relazionarti affatto personalmente con lui. Il corso comprende le nostre resistenze ma non le soddisfa. È tempo per un'enorme rivoluzione nella nostra comprensione della filosofia cristica, e in particolare nella nostra comprensione di Gesù. La religione cristiana non ha il monopolio del Cristo, né di Gesù stesso. In ogni generazione, dobbiamo riscoprire la verità per noi stessi. Chi è Gesù? È un simbolo personale dello Spirito Santo. Essendo stato completamente guarito dallo Spirito Santo, è diventato uno con lui. Non è l'unico volto che lo Spirito Santo prende. Lui è un volto. È sicuramente un'esperienza al top della montagna, ma questo non vuol dire che sia l'unico lassù. Gesù viveva in questo mondo di paura e percepiva solo amore. Ogni azione, ogni parola, ogni pensiero è stato guidato dallo Spirito Santo invece che dall'ego. Era un essere completamente purificato. Pensare a lui è pensare, e quindi evocare, l'amore perfetto dentro di noi. Gesù raggiunse la totale realizzazione della mente di Cristo, e fu poi dato da Dio il potere di aiutare il resto di noi a raggiungere quel posto dentro di noi. Come dice nel corso, io sono responsabile del processo di espiazione. Condividendo la visione delle cose di Dio, è diventato quella visione. Vede ognuno di noi come ci vede Dio, innocenti e perfetti, amorevoli e amabili, e ci insegna a vederci in quel modo. È così che ci conduce fuori dall'inferno e in paradiso. Vedere con i suoi occhi è espiare i nostri errori di percezione. Questo è il miracolo che opera nelle nostre vite, la luce mistica che irrompe nelle nostre anime. Le nostre menti sono state create come altari al Figlio di Dio. Rappresenta il Figlio di Dio. Adorarlo è adorare il potenziale di amore perfetto che risiede in tutti noi. Le fiabe sono allusioni mistiche al potere del sé interiore, tramandato di generazione in generazione. Sono storie di trasformazione. Racconti come Biancaneve e la bella addormentata nel bosco sono metafore della relazione tra l'ego e la mente divina. La matrigna malvagia, che è l'ego, può far addormentare la bella addormentata o Cristo dentro di noi, ma non può mai distruggerlo. Ciò che è creato da Dio è indistruttibile. La cosa più distruttiva che può fare è lanciare un incantesimo su di noi, per far addormentare la bellezza. E così fa. Ma l'amore dentro di noi non muore, si addormenta solo per molto tempo. In ogni fiaba arriva il principe. Il suo bacio ci ricorda chi siamo e perché siamo venuti qui. Il principe azzurro è lo Spirito Santo, e viene, in varie forme e in vari abiti, per risvegliarci con il suo amore. Proprio quando sembra che ogni speranza sia perduta, quando sembra che il male abbia finalmente trionfato, il nostro Salvatore appare e ci prende tra le sue braccia. Ha molte facce, e una di queste è Gesù. Non è un idolo, né una stampella. È il nostro fratello maggiore. Lui è un dono. Capitolo 4 A rendersi perché nelle mani di Dio riposiamo tranquilli. 1. Fede non c'è problema in nessuna situazione che la fede non risolverà. E se credessimo veramente che esiste un Dio, un ordine benefico per le cose, una forza che tiene insieme le cose senza il nostro controllo cosciente? E se potessimo vedere, nella nostra vita quotidiana, il lavoro di quella forza? E se credessimo che ci amasse in qualche modo, si prendesse cura di noi e ci proteggesse? E se credessimo di poterci permettere di rilassarci? Il corpo fisico è a lavoro in ogni momento, una serie di meccanismi con una brillantezza di design ed efficienza che i nostri sforzi umani non hanno mai iniziato a eguagliare. I nostri cuori battono, i nostri polmoni respirano, le nostre orecchie sentono, i nostri capelli crescono. E non dobbiamo farli funzionare, lo fanno e basta. I pianeti ruotano attorno al sole, i semi diventano fiori, gli embrioni diventano bambini e senza alcun aiuto da parte nostra. Il loro movimento è costruito in un sistema naturale. Anche tu e io siamo parti integranti di quel sistema. Possiamo lasciare che le nostre vite siano guidate dalla stessa forza che fa crescere i fiori, oppure possiamo farlo noi stessi. Avere fiducia nella forza che muove l'universo è fede. La fede non è cieca, è visionaria. La fede è credere che l'universo sia dalla nostra parte e che l'universo sappia cosa sta facendo. La fede è una consapevolezza psicologica di una forza che si dispiega per il bene, costantemente all'opera in tutte le dimensioni. I nostri tentativi di dirigere questa forza interferiscono solo con essa. La nostra volontà di rilassarci ci permette di lavorare per nostro conto. Senza fede, stiamo freneticamente cercando di controllare ciò che non è nostro compito controllare e di sistemare ciò che non è il nostro potere risolvere. Ciò che stiamo cercando di controllare è molto meglio senza di noi, e ciò che stiamo cercando di riparare non può essere risolto da noi comunque. Senza fede, stiamo perdendo tempo. Ci sono leggi oggettive e distinguibili dei fenomeni fisici. Prendi la gravità, per esempio, o la legge della termodinamica. Non hai esattamente fiducia nella legge di gravità, tanto quanto sai semplicemente che lo è. Ci sono anche leggi oggettive e distinguibili dei fenomeni non fisici. Questi due insiemi di leggi, quelli che governano sia il mondo esterno che quello interno, sono paralleli. Esternamente, l'universo sostiene la nostra sopravvivenza fisica. La fotosintesi nelle piante e il plankton nell'oceano producono l'ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare. E' importante rispettare le leggi che governano l'universo fisico perché la violazione di queste leggi minaccia la nostra sopravvivenza. Quando inquiniamo gli oceani o distruggiamo la vita vegetale, stiamo distruggendo il nostro sistema di supporto e quindi stiamo distruggendo noi stessi. Internamente, l'universo supporta anche la nostra sopravvivenza, emotivamente e psicologicamente. L'equivalente interno dell'ossigeno, ciò di cui abbiamo bisogno per sopravvivere, è l'amore. Le relazioni umane esistono per produrre amore. Quando inquiniamo le nostre relazioni con pensieri non amorevoli, o le distruggiamo o le interrompiamo con atteggiamenti non amorevoli, stiamo minacciando la nostra sopravvivenza emotiva. Quindi le leggi dell'universo descrivono semplicemente come stanno le cose. Queste leggi non sono inventate, vengono scoperti. Non dipendono dalla nostra fede. La fede in loro mostra semplicemente che capiamo cosa sono. La violazione di queste leggi non denota mancanza di bontà, solo una mancanza di intelligenza. Rispettiamo le leggi della natura per sopravvivere. E qual è la più alta legge interna? Che ci amiamo. Perché se non lo facciamo, moriremo tutti. Come sicuramente la mancanza di ossigeno ci ucciderà, così farà la mancanza di amore. 2. Resistenza alla mancanza di fede non è mancanza di fede, ma fede nel nulla. Un corso in Miracoli ci dice che non esiste una persona senza fede. La fede è un aspetto della coscienza. O abbiamo fede nella paura o abbiamo fede nell'amore, fede nella potenza del mondo o fede nella potenza di Dio. Fondamentalmente ci è stato insegnato che il nostro lavoro di adulti responsabili è essere attivi, essere di natura mascolina, uscire e ottenere il lavoro, prendere il controllo delle nostre vite, prendere il toro per le corna. Ci è stato insegnato che questo è il nostro potere. Pensiamo di essere potenti grazie a ciò che abbiamo raggiunto piuttosto che per quello che siamo. Quindi siamo presi in un catch 22, ci sentiamo impotenti da raggiungere finché non l'abbiamo già fatto. Se qualcuno arriva e suggerisce di seguire il flusso, magari di alleggerire un po', ci sentiamo davvero isterici. Dopotutto, per quanto possiamo vedere, siamo dei totale Ungerachievers così com'è. L'ultima cosa che possiamo immaginare di fare è diventare più passivi di quanto non siamo già. L'energia passiva ha il suo tipo di forza. Il potere personale risulta da un equilibrio di forze maschili e femminili. L'energia passiva senza energia attiva diventa pigra, ma l'energia attiva senza energia passiva diventa tirannica. Un'overdose di energia maschile e aggressiva è maschilista, controllante, sbilanciata e innaturale. Il problema è che l'energia aggressiva è ciò che ci è stato insegnato a rispettare. Ci è stato insegnato che la vita è fatta per i quarterback, quindi esaltiamo la nostra coscienza maschile, che, quando non è temperata dal femminile, è dura. Pertanto, lo siamo anche noi, tutti noi, uomini e donne. Abbiamo creato una mentalità di lotta. Lottiamo sempre per qualcosa, per il lavoro, i soldi, la relazione, per uscire dalla relazione, per perdere peso, per diventare sobri, per farli capire, per farli restare, per farli partire, e così via. Il posto femminile e arreso in noi è passivo. Non fa niente. Il processo di spiritualizzazione, negli uomini così come nelle donne, è un processo di femminilizzazione, un acquietamento della mente. È la coltivazione del magnetismo personale. Se hai una pila di truccioli di ferro e vuoi disporli in bellissimi motivi, puoi fare una delle due cose. Puoi usare le dita e provare a disporre i minuscoli pezzi di ferro in bellissime linee sottilissime, oppure puoi acquistare un magnete. Il magnete attirerà i truccioli di ferro. Simboleggia la nostra coscienza femminile, che esercita il suo potere attraverso l'attrazione piuttosto che l'attività. Questo aspetto attraente, ricettivo e femminile della nostra coscienza è lo spazio della resa mentale. Nella filosofia taoista, Yin è il principio femminile, che rappresenta le forze della terra, mentre Yang è il principio maschile, che rappresenta lo spirito. Quando si fa riferimento a Dio come lui, allora tutta l'umanità diventa lei. Questo non è un problema uomo-donna. Il riferimento a Dio come principio maschile non pregiudica in alcun modo la convinzione femminista. Il nostro se femminile è importante quanto il nostro maschile. Il giusto rapporto tra principio maschile e femminile è quello in cui il femminile si arrende al maschile. La resa non è debolezza o perdita. È una potente non-resistenza. Attraverso l'apertura e la ricettività da parte della coscienza umana, allo spirito è permesso di infondere le nostre vite, di dare loro significato e direzione. In termini filosofici cristici, Maria simboleggia il femminile dentro di noi, che è impregnato di Dio. La femmina permette questo processo e si realizza arrendendosi ad esso. Questa non è debolezza da parte sua, è forza. Il Cristo sulla terra è padre di Dio e madre della nostra umanità. Attraverso una connessione mistica tra l'umano e il divino, diamo vita al nostro sé superiore. 3. Ritirare i risultati Fa un lavoro molto migliore di quello che avremmo potuto fare. Impariamo a confidare nel fatto che il potere che tiene insieme le galassie può gestire le circostanze delle nostre relativamente piccole vite. Risa significa, per definizione, rinunciare all'attaccamento ai risultati. Quando ci arrendiamo a Dio, lasciamo andare il nostro attaccamento a come le cose accadono all'esterno e ci preoccupiamo maggiormente di ciò che accade all'interno. L'esperienza dell'amore è una scelta che facciamo, una decisione mentale di vedere l'amore come l'unico vero scopo e valore in ogni situazione. Fino a quando non facciamo quella scelta, continuiamo a lottare per risultati che pensiamo ci renderebbero felici. Ma abbiamo tutti ottenuto cose che pensavamo ci avrebbero reso felici, solo per scoprire che non è così. Questa ricerca esterna, guardare a qualcosa di diverso dall'amore per completarci e per essere la fonte della nostra felicità, è il significato dell'idolatria. Il denaro, il sesso, il potere o qualsiasi altra soddisfazione mondana offre solo un sollievo temporaneo per un piccolo dolore esistenziale. Dio significa amore e volontà significa pensiero. La volontà di Dio, quindi, è pensiero amorevole. Se Dio è la fonte di ogni bene, allora l'amore dentro di noi è la fonte di ogni bene. Quando amiamo, ci collochiamo automaticamente in un contesto attitudinale e comportamentale che porta a uno svolgersi di eventi al massimo livello di bene per tutti i soggetti coinvolti. Non sempre sappiamo come sarebbe quello sviluppo, ma non ne abbiamo bisogno. Dio farà la sua parte se noi facciamo la nostra. Il nostro unico compito in ogni situazione è semplicemente lasciar andare la nostra resistenza all'amore. Quello che succede allora dipende da Lui. Abbiamo ceduto il controllo. Lo lasciamo guidare. Abbiamo fede che Lui sa come. C'è un mito secondo cui alcune persone sono più fedeli di altre. Un'affermazione più vera è che in alcune aree, alcuni di noi sono più arresi di altri. Ci arrendiamo prima a Dio, ovviamente, le cose di cui non ci importa molto comunque. Ad alcuni di noi non dispiace rinunciare al nostro attaccamento agli obiettivi di carriera, ma non c'è modo di rinunciare alle nostre relazioni sentimentali, o viceversa. Tutto ciò di cui non ci importa molto, bene, Dio può averlo. Ma se è davvero, davvero importante, pensiamo di gestirlo meglio da soli. La verità è, ovviamente, che più è importante per noi, più è importante arrendersi. Quello che si arrende è curato al meglio. Mettere qualcosa nelle mani di Dio è affidarlo, mentalmente, alla protezione e alla cura della beneficenza dell'universo. Mantenerlo noi stessi significa afferrare, afferrare e manipolare costantemente. Continuiamo ad aprire il forno per vedere se il pane sta cuocendo, il che assicura solo che non ne abbia mai la possibilità. Laddove abbiamo un attaccamento ai risultati, tendiamo ad avere difficoltà a rinunciare al controllo. Ma come possiamo sapere quale risultato cercare di ottenere in una situazione in cui non sappiamo cosa accadrà domani? Cosa chiediamo? Invece di caro Dio, per favore, lasciaci innamorare, o per favore dammi questo lavoro, diciamo, caro Dio, il mio desiderio, la mia priorità è la pace interiore. Voglio l'esperienza dell'amore. Non so cosa me lo porterebbe. Lascio i risultati di questa situazione nelle vostre mani. Mi fido della Tua volontà. Possa la Tua volontà essere fatta. Amen. Mi sentivo che non potevo permettermi di rilassarmi perché Dio aveva cose più importanti a cui pensare della mia vita. Alla fine ho capito che Dio non è capriccioso, ma è piuttosto un amore impersonale. per tutta la vita. La mia vita non è più o meno preziosa per Lui di quella di chiunque altro. Arrendersi a Dio è accettare il fatto che Egli ci ama e provvede a noi, perché ama e provvede a tutta la vita. La resa non ostacola il nostro potere, lo valorizza. Dio è semplicemente l'amore dentro di noi, quindi tornare a Lui è un ritorno a noi stessi. 4. La vita abbandonata santo figlio di Dio, quando imparerai che solo la santità può accontentarti e darti pace? Rilassarsi, sentire l'amore nel tuo cuore e mantenerlo come punto focale in ogni situazione, questo è il significato dell'abbandono spirituale. Ci cambia. Diventiamo persone più profonde e attrenti. Nel buddismo zen esiste un concetto chiamato mente zen o mente del principiante. Dicono che la mente dovrebbe essere come una ciotola di riso vuota. Se è già pieno, l'universo non può riempirlo. Se è vuoto, ha spazio per ricevere. Ciò significa che quando pensiamo di aver già capito le cose, non siamo insegnabili. L'intuizione genuina non può sorgere in una mente che non è aperta a riceverla. La resa è un processo di svuotamento della mente. Nella tradizione cristica, questo è il significato di diventare come un bambino. I bambini piccoli non pensano di sapere cosa significano le cose. In realtà, sanno di non sapere. Chiedono a qualcuno più anziano e più saggio di spiegare loro le cose. Siamo come bambini che non sanno, ma pensano di saperlo. La persona saggia non pretende di sapere ciò che è impossibile sapere. Non lo so può essere una dichiarazione di potere. Quando entriamo in una situazione senza sapere, c'è qualcosa dentro di noi che lo fa. Con la nostra mente cosciente, facciamo un passo indietro affinché un potere superiore dentro di noi possa fare un passo avanti e aprire la strada. Abbiamo bisogno di meno atteggiamenti e più genuino carisma. Carisma era originariamente un termine religioso, che significa dello spirito o ispirato. Si tratta di lasciare che la luce di Dio risplenda attraverso di noi. Si tratta di una scintilla nelle persone che i soldi non possono comprare. È un'energia invisibile con effetti visibili. Lasciarsi andare, semplicemente amare, non è svanire sullo sfondo. Al contrario, è quando diventiamo veramente brillanti. Stiamo facendo risplendere la nostra stessa luce. Siamo fatti per essere così. Siamo fatti per brillare. Guarda i bambini piccoli. Sono tutti così unici prima di iniziare a provare ad esserlo, perché dimostrano il potere della genuina umiltà. Questa è anche la spiegazione della fortuna del principiante. Quando entriamo in una situazione senza conoscere le regole, non pretendiamo di sapere come capire nulla, e non sappiamo ancora di cosa avere paura. Questo libera la mente per creare dal proprio potere superiore. Le situazioni cambiano marcia e le luci si accendono semplicemente perché le nostre menti si sono aperte per ricevere amore. Ci siamo tolti di mezzo. L'amore è una modalità vincente, una vibrazione di successo e attraente. Pensiamo che il successo sia difficile, e così, per noi, lo è. Il successo nella vita non deve implicare una tensione negativa. Non dobbiamo lottare tutto il tempo. Se ci pensi, prendere il toro per le cuorna sarebbe una cosa molto pericolosa da fare. In effetti, la tensione ambiziosa limita effettivamente la nostra capacità di avere successo perché ci mantiene in uno stato di contrazione, emotivamente e fisicamente. Sembra darci energia ma in realtà non lo fa, come lo zucchero bianco della salute mentale. C'è un breve massimo, seguito da un cras. La coltivazione del riposo mentale, o resa, è come mangiare cibo sano. Non ci dà una scarica immediata, ma nel tempo fornisce molta più energia. Ciò non richiede di stare seduto nella posizione del loto tutto il giorno. Ci eccitamo ancora, ma più dolcemente. Molte persone associano una vita spirituale a un film di livello B, ma Dio non si sbarazza di tutto il dramma nelle nostre vite. Si sbarazza solo del dramma da quattro soldi. Non c'è dramma più alto della vera crescita personale. Niente potrebbe essere più genuinamente drammatico di ragazzi che diventano veri uomini e ragazze che diventano vere donne. Qualcosa di straordinario accade quando ci arrendiamo e semplicemente amiamo. Ci fondiamo in un altro mondo, un regno di potere già dentro di noi. Il mondo cambia quando cambiamo noi. Il mondo si ammorbidisce quando noi ammorbidiamo. Il mondo ci ama quando scegliamo di amare il mondo. La resa significa la decisione di smettere di combattere il mondo e di iniziare invece ad amarlo. È una dolce liberazione dal dolore. Ma la liberazione non è uscire da qualcosa, è un dolce scioglimento in chi siamo veramente. Abbandoniamo la nostra armatura e scopriamo la forza del nostro sé cristico. Un corso in miracoli ci dice che sebbene pensiamo che senza l'ego tutto sarebbe caos, è vero il contrario. Senza l'ego, tutto sarebbe amore. Ci viene semplicemente chiesto di spostare l'attenzione e di assumere una percezione più gentile. Questo è tutto ciò di cui Dio ha bisogno. Solo un momento di sincera resa, in cui l'amore conta più di ogni altra cosa, e sappiamo che nient'altro conta davvero. Ciò che ci dà in cambio della nostra apertura a Lui, è un'effusione della sua potenza dal profondo di noi. Ci è dato il suo potere di condividere con il mondo, di sanare tutte le ferite, di risvegliare tutti i cuori. Capitolo 5 Miracoli La vostra santità ribalta tutte le leggi del mondo. È al di là di ogni restrizione di tempo, spazio, distanza e limiti di qualsiasi tipo. 1. Per dono davanti al glorioso splendore del regno, la colpa svanisce e trasformata in gentilezza non sarà più quella che era. I miracoli si verificano naturalmente come espressioni d'amore. Riflettono un cambiamento nel modo in cui pensiamo, rilasciando il potere della mente ai processi di guarigione e correzione. Questa guarigione assume molte forme. A volte un miracolo è un cambiamento nelle condizioni materiali, come la guarigione fisica. Altre volte, è un cambiamento psicologico o emotivo. È un cambiamento non tanto in una situazione oggettiva, anche se spesso accade, quanto nel modo in cui percepiamo una situazione. Ciò che cambia, principalmente, è il modo in cui teniamo un'esperienza della nostra mente, il modo in cui sperimentiamo l'esperienza. Il mondo della trama umana, di tutta la nostra concentrazione sul comportamento e su tutte le cose che accadono fuori di noi, è un mondo di illusione. È un velo davanti a un mondo più reale, un sogno collettivo. Un miracolo non è un riordinamento delle figure nel nostro sogno. Un miracolo è il nostro risveglio da esso. Nel chiedere miracoli, cerchiamo una meta pratica, un ritorno alla pace interiore. Non chiediamo che qualcosa fuori di noi cambi, ma che qualcosa dentro di noi cambi. Cerchiamo un orientamento più morbido alla vita. La fisica nevtoniana antica affermava che le cose hanno una realtà oggettiva separata dalla nostra percezione di esse. La fisica quantistica, e in particolare il principio di indeterminazione di Heisenberg, rivelano che, quando la nostra percezione di un oggetto cambia, l'oggetto stesso cambia letteralmente. La scienza della religione è in realtà la scienza della coscienza, perché in definitiva tutta la creazione si esprima attraverso la mente. Quindi, come dice a course in Miracles, il nostro più grande strumento per cambiare il mondo è la nostra capacità di cambiare idea sul mondo. Cambiamento personale. Sebbene sia una decisione umana quella di scegliere l'amore al posto della paura, il cambiamento radicale che questo produce in ogni dimensione della nostra vita è un dono di Dio. I miracoli sono una intercessione a favore della nostra santità, da un sistema di pensiero al di là del nostro. In presenza dell'amore si trascendono le leggi che governano il normale stato di cose. Il pensiero che non è più limitato, porta un'esperienza che non è più limitata. Siamo eredi delle leggi che governano il mondo in cui crediamo. Se pensiamo a noi stessi come esseri di questo mondo, allora le leggi della scarsità e della morte, che governano questo mondo, ci governeranno. Se pensiamo a noi stessi come figli di Dio, la cui vera casa si trova in un regno di consapevolezza al di là di questo mondo, allora scopriremo di non essere sotto leggi se non quelle di Dio. La nostra autopercezione determina il nostro comportamento. Se pensiamo di essere creature piccole, limitate e inadeguate, tendiamo a comportarci in quel modo e l'energia che irradiamo riflette quei pensieri, qualunque cosa facciamo. Se pensiamo di essere creature magnifiche con un'infinita abbondanza di amore e potere da dare, allora tendiamo a comportarci in quel modo. Ancora una volta, l'energia che ci circonda riflette il nostro stato di consapevolezza. I miracoli stessi non devono essere diretti consapevolmente. Si verificano come effetti involontari di una personalità amorevole, una forza invisibile che emana da qualcuno la cui intenzione cosciente è quella di dare e ricevere amore. Quando abbandoniamo le paure che bloccano l'amore dentro di noi, diventiamo gli strumenti di Dio. Diventiamo Suoi operatori di miracoli. Dio, come amore, si espande, fiorisce e crea costantemente nuovi modelli per l'espressione e il raggiungimento della gioia. Quando le nostre menti, concentrandosi sull'amore, possono essere vasi aperti attraverso i quali Dio esprime, le nostre vite diventano le tele per l'espressione di quella gioia. Questo è il senso delle nostre vite. Siamo qui come rappresentazioni fisiche di un principio divino. Dire che siamo sulla terra per servire Dio, significa che siamo sulla terra per amare. Non siamo stati gettati casualmente su un mare di rocce. Abbiamo una missione, salvare il mondo attraverso il potere dell'amore. Il mondo ha un disperato bisogno di guarigione, come un uccello con un'ala spezzata. La gente lo sa e i milioni di persone hanno pregato. Dio ci ha ascoltato. Ha mandato aiuto. Ti ha mandato. Diventare un operatore di miracoli significa prendere parte a un sotterraneo spirituale che sta rivitalizzando il mondo, partecipando a una rivoluzione dei valori del mondo al livello più profondo possibile. Questo non significa che lo annunci a nessuno. Un membro della metropolitana francese non si è avvicinato a un ufficiale tedesco che occupava Parigi e ha detto, Ciao, sono Jacques. Resistenza francese. Allo stesso modo, non dici alle persone che non avrebbero idea di cosa stai parlando, sono cambiato. Sto lavorando per di ora. Mi ha mandato a curare le cose. Il mondo sta per cambiare alla grande. Gli operatori miracolosi imparano a mantenere i propri consigli. Qualcosa che è importante sapere sulla saggezza spirituale è che, se parlata nel momento sbagliato, nel posto sbagliato o alla persona sbagliata, colui che parla suona più come uno sciocco che come un saggio. Il corso ci parla del piano di Dio per la salvezza del mondo, chiamato il piano dei maestri di Dio. Il piano richiede che gli insegnanti di Dio guariscano il mondo attraverso il potere dell'amore. Questo insegnamento ha ben poco a che fare con la comunicazione verbale e tutto ha a che fare con una qualità dell'energia umana. Insegnare e dimostrare. Un maestro di Dio è chiunque scelga di esserlo. Provengono da tutto il mondo. Provengono da tutte le religioni e da nessuna religione. Sono loro che hanno risposto. L'adagio che molti sono chiamati ma pochi sono eletti significa che tutti sono chiamati, ma pochi si preoccupano di ascoltare. La chiamata di Dio è universale, raggiunge ogni mente in ogni momento. Non tutti, però, scelgono di ascoltare il richiamo del proprio cuore. Come tutti noi siamo fin troppo consapevoli, il nostro compito di insegnante di Dio, se dovessimo scegliere di accettarlo, è cercare costantemente in noi stessi una maggiore capacità di amore e di di perdono. Lo facciamo attraverso un ricordo selettivo, una decisione consapevole di ricordare solo pensieri amorevoli e lasciar andare quelli paurosi. Questo è il significato del perdono. Il perdono è una pietra angolare importante della filosofia a course in Miracles. Come molti dei termini tradizionali usati nel corso, è usato in un modo molto non tradizionale. Tradizionalmente, pensiamo al perdono come a qualcosa che dobbiamo fare quando vediamo la colpa in qualcuno. Nel corso, invece, ci viene insegnato che è nostra funzione ricordare che non c'è colpa in nessuno, perché solo l'amore è reale. È nostra funzione vedere attraverso l'illusione della colpa, l'innocenza che sta al di là. Perdonare è semplicemente ricordare solo i pensieri amorevoli che hai dato in passato e quelli che ti sono stati dati. Tutto il resto va dimenticato. Ci viene chiesto di estendere la nostra percezione al di là degli errori che le nostre percezioni fisiche ci rivelano, ciò che qualcuno ha fatto, ciò che qualcuno ha detto, alla santità che c'è in loro che solo il nostro cuore rivela. In realtà, quindi, non c'è niente da perdonare. La nozione tradizionale di perdono, ciò che il cantico della preghiera chiama perdono per distruggere, è quindi un atto di giudizio. Dal momento che tutte le menti sono connesse, allora la correzione della percezione di qualcuno è a un certo livello una guarigione dell'intera mente razziale. La pratica del perdono è il nostro contributo più importante alla guarigione del mondo. Le persone arrabbiate non possono creare un pianeta pacifico. Mi diverte pensare a quanto mi arrabbiassi quando le persone non firmavano le mie petizioni di pace. Il perdono è un lavoro a tempo pieno, è a volte molto difficile. Pochi di noi ci riescono sempre, ma fare lo sforzo è la nostra vocazione più nobile. È l'unica vera possibilità al mondo di ricominciare. Un perdono radicale è un completo lasciar andare il passato, in ogni relazione personale, così come in ogni dramma collettivo. 2. Vivere nel presente tutto il tuo passato, tranne la sua bellezza, è svanito, e nient'altro è rimasto che una benedizione. Dio esiste nell'eternità. L'unico punto in cui l'eternità incontra il tempo è nel presente. Il presente è l'unico tempo che c'è. Un miracolo è un cambiamento nel modo di pensare da ciò che avremmo potuto fare in passato o che dovremmo fare in futuro, a ciò che ci sentiamo liberi di fare proprio qui, in questo momento. Un miracolo è una liberazione dalla schiavitù interna. La nostra capacità di genialità è uguale alla nostra capacità di dimenticare il passato e dimenticare il futuro. Ecco perché i bambini piccoli sono brillanti. Non ricordano il passato e non si relazionano con il futuro. Siate noi bambini piccoli, affinché il mondo possa finalmente crescere. Uno degli esercizi nel quaderno del corso dice, il passato è finito. Non può toccarmi. Perdonare il passato è un passo importante per permetterci l'esperienza dei miracoli. L'unico significato di qualcosa nel nostro passato è che ci ha portato qui e come tale dovrebbe essere onorato. Tutto ciò che è reale nel nostro passato è l'amore che abbiamo dato e l'amore che abbiamo ricevuto. Tutto il resto è un'illusione. Il passato è solo un pensiero che abbiamo. È letteralmente tutto nelle nostre menti. Il corso insegna, dà il passato a colui che può farti cambiare idea al riguardo. Consegnare il passato allo Spirito Santo significa chiedere che solo pensieri amorevoli e utili su di esso rimangano nella nostra mente, e tutto il resto sia lasciato andare. Ciò che ci resta allora è il presente, l'unico tempo in cui accadono miracoli. Consegniamo anche il passato e il futuro nelle mani di Dio. L'affermazione biblica che il tempo non ci sarà più significa che un giorno vivremo pienamente nel presente, senza ossessionare il passato o il futuro. L'universo ci fornisce una tabula rasa in ogni momento, la creazione di Dio non ha nulla contro di noi. Il nostro problema è che non ci crediamo. Chiediamo perdono, non a Dio che non ci ha mai condannato, ma a noi stessi, per tutto quello che pensiamo di aver fatto e di non aver fatto. Diamoci il permesso di ricominciare. Tutti incontriamo situazioni nella nostra vita in cui vorremmo non aver fatto qualcosa che abbiamo fatto, o vorremmo aver fatto qualcosa che non abbiamo fatto. Sono quei momenti della nostra vita, siano essi ieri o diversi anni fa, che ci fanno rabbrividire a pensarci. Una delle tecniche più liberatorie forniteci in un corso in miracoli è una preghiera sul testo, in cui insegniamo all'universo di annullare i nostri errori, punto 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 il primo passo nella rovina è riconoscere che hai attivamente deciso in modo sbagliato, ma puoi decidere attivamente e diversamente. Sii molto fermo con te stesso in questo, e tieniti pienamente consapevole che il processo di disfacimento, che non viene da te, è comunque dentro di te perché Dio lo ha posto lì. La tua parte è semplicemente riportare il tuo pensiero al punto in cui è stato commesso l'errore e consegnarlo in pace all'espiazione. Dillo a te stesso nel modo più sincero possibile, ricordando che lo Spirito Santo risponderà pienamente al tuo minimo invito, devo aver deciso male, perché non sono in pace. Ho deciso io stesso, ma posso anche decidere diversamente. Voglio decidere diversamente, perché voglio essere in pace. Non mi sento in colpa, perché lo Spirito Santo annullerà tutte le conseguenze della mia decisione sbagliata se glielo permetterò. Scelgo di lasciarlo, permettendogli di decidere per Dio o per me. E questo è tutto. È un corso di miracoli, non un corso per spostare i mobili. I miracoli invertono le leggi fisiche. Il tempo e lo spazio sono sotto il suo comando. Per quanto riguarda il futuro, il corso sottolinea che non c'è modo per noi di sapere cosa accadrà domani, o il giorno dopo, o tra cinque anni. Solo l'ego specula sul domani. In Paradiso, mettiamo il nostro futuro nelle mani di Dio. Lo Spirito Santo riporta le nostre menti alla totale fede e fiducia, perché se oggi viviamo con il cuore completamente aperto, domani si prenderà cura di sé. Come disse Gesù nel discorso della montagna, non siate ansiosi per il domani, perché il domani sarà in ansia per sé stesso. L'ego basa la sua percezione della realtà su ciò che è accaduto in passato, porta quelle percezioni nel presente e quindi crea un futuro come il passato. Se sentivamo di essere carenti nel nostro passato, i nostri pensieri sul futuro si basano su quelle percezioni. Entriamo quindi nel presente nel tentativo di compensare il passato. Poiché quella percezione è la nostra convinzione fondamentale, ricreiamo le sue condizioni in futuro. Passato, presente e futuro non sono continui, a meno che tu non imponga loro la continuità. Nel presente, abbiamo l'opportunità di spezzare la continuità del passato e del futuro che credendo l'intervento dello Spirito Santo. Questo è il miracolo. Vogliamo una nuova vita, un nuovo inizio. Desideriamo una vita non contaminata da alcuna oscurità del passato, ed essendo diritto ai miracoli, abbiamo diritto a quella piena liberazione. Questo è ciò che significa dire che Gesù ci lava dai nostri peccati. Rimuove completamente tutti i pensieri senza amore. Abbandoniamo ogni pensiero di giudizio, di chiunque o qualcosa, che ci tiene al passato. Abbandoniamo tutti i pensieri di attaccamento che ci tengono ad aggrapparci al futuro. Il mondo dell'ego è un mondo di continui cambiamenti, alti e bassi, oscurità e luce. Il paradiso è un regno di pace costante perché è la consapevolezza di una realtà che sta al di là del cambiamento. E il cielo non cambierà, perché la nascita nel Santo presente è salvezza dal cambiamento. Il mondo che lo Spirito Santo ci rivela è un mondo che sta al di là di questo mondo, un mondo rivelato a noi attraverso una diversa percezione. Moriamo a un mondo per nascere in un altro. Nascere di nuovo è lasciare andare il passato e guardare senza condanne il presente. Il mondo del tempo non è il mondo reale, il mondo dell'eternità è la nostra vera casa. Stiamo arrivando. Siamo gravidi di possibilità. 3. Risurrezione La tua risurrezione è il tuo risveglio. Lo scopo della nostra vita è dare vita al meglio che è dentro di noi. Il Cristo viene come un bambino perché il simbolo del neonato è il simbolo di qualcuno la cui innocenza non è guastata dalla storia passata o dalla colpa. Il Cristo bambino dentro di noi non ha storia. È il simbolo di una persona a cui viene data la possibilità di ricominciare. L'unico modo per sanare le ferite del passato, in definitiva, è perdonarle e lasciarle andare. L'operatore di miracoli vede che il suo scopo nella vita è quello di essere utilizzato al servizio del perdono dell'umanità, per risvegliarci dal nostro sonno collettivo. Il Corso ci dice, la Bibbia dice che un sonno profondo cadde su Adamo, e da nessuna parte si fa riferimento al suo risveglio. Finora, non c'è stato alcun risveglio o rinascita globale. Tutti possiamo contribuire a una rinascita globale nella misura in cui permettiamo a noi stessi di essere risvegliati dal nostro sogno personale di separazione e colpa, di liberare il nostro passato e accettare una nuova vita nel presente. È solo attraverso il nostro risveglio personale che il mondo può essere risvegliato. Non possiamo dare ciò che non abbiamo. A tutti noi viene assegnato un pezzo di giardino, un angolo di universo che dobbiamo trasformare. Il nostro angolo dell'universo è la nostra stessa vita, le nostre relazioni, le nostre case, il nostro lavoro, le nostre circostanze attuali, esattamente come sono. Ogni situazione in cui ci troviamo è un'opportunità, perfettamente pianificata dallo Spirito Santo, per insegnare l'amore invece della paura. Qualunque sia il sistema energetico di cui ci troviamo a far parte, è nostro compito guarirlo, purificare le forme pensiero purificando il nostro. Non è mai davvero una circostanza che deve cambiare, siano noi che dobbiamo cambiare. La preghiera non è che Dio cambi le nostre vite, ma piuttosto che Lui ci cambi. Questo è il miracolo più grande, e in definitiva l'unico, che ti svegli dal sogno della separazione e diventi un tipo diverso di persona. Le persone si preoccupano costantemente di quello che fanno, ottenuto abbastanza, scritto la migliore sceneggiatura, formato la compagnia più potente. Ma il mondo non sarà salvato da un altro grande romanzo, grande film o grande impresa commerciale. Sarà salvato solo dall'apparizione di grandi persone. Un vaso di vetro è pensato per contenere l'acqua. Se nel vaso viene versata più acqua di quanta ne può contenere il volume, il vaso si romperà. Così è con le nostre personalità. Il potere di Dio, particolarmente in questo momento, si sta riversando in noi a ritmo rapido e ad alta velocità. Se la nostra nave, il nostro veicolo, il nostro canale umano, non è preparato adeguatamente attraverso la devozione e il profondo rispetto per la vita, allora il potere stesso che dovrebbe salvarci inizia a distruggerci. La nostra creatività, piuttosto che renderci personalmente potenti, ci rende isterici. Ecco perché la potenza creatrice, Dio dentro di noi, è vissuta come un'arma a doppio taglio, se ricevuta con grazia, ci benedice, se ricevuto senza grazia, ci fa impazzire. Questo è uno dei motivi per cui così tante persone creative si sono rivolte a un uso distruttivo delle droghe, per intorpidire effettivamente l'esperienza della ricezione della potenza di Dio piuttosto che accrescerla. Il potere di Dio che entrava in noi, in una cultura che non aveva nome per quel potere o riconoscimento di un'autentica esperienza spirituale, ci spaventò così tanto che corremmo a drogarci o alcol per evitare di sentire ciò che stava realmente accadendo. È stato solo quando siamo stati lapidati che abbiamo avuto il coraggio di rivendicare la nostra esperienza. I miracoli hanno ragione di tutti, dice un corso in miracoli, ma prima è necessaria la purificazione. Le impurità, mentali o chimiche, inquinano il sistema e profanano l'altare all'interno. Il nostro veicolo quindi non può sopportare l'esperienza di Dio. Le acque dello spirito si precipitano dentro di noi, ma il vaso comincia a incrinarsi. Non è il flusso di potere su cui dobbiamo lavorare, l'amore di Dio sta già affluendo quanto più velocemente possiamo gestirlo, ma la preparazione con cui lo riceviamo. Un corso in miracoli ci paragona a persone in una stanza molto luminosa che hanno le dita davanti agli occhi, lamentandosi che qui è buio. La luce è arrivata ma noi non la vediamo. Non ci rendiamo conto che il presente è sempre un'occasione per ricominciare, un momento pieno di luce. Rispondiamo alla luce come se fosse oscurità, e così la luce si trasforma in oscurità. A volte è solo in retrospettiva che possiamo vedere che ci è stata data un'altra possibilità nella vita, una nuova relazione o altro, ma poiché eravamo troppo occupati a reagire al passato, abbiamo perso l'opportunità di qualcosa di radicalmente nuovo. Quando siamo veramente onesti con noi stessi, il nostro problema non è che le opportunità di successo non siano apparse. Dio espande sempre le nostre possibilità. Ci vengono date molte opportunità, ma tendiamo a minarle. Le nostre energie conflittuali sabotano tutto. Chiedere un'altra relazione, o un altro lavoro, non è particolarmente utile se ci presentiamo nella nuova situazione esattamente come ci siamo presentati nell'ultima. Finché non saremo guariti dai nostri demoni interiori, dalle nostre paurose abitudini mentali, trasformeremo ogni situazione nello stesso doloroso dramma di quella precedente. Tutto ciò che facciamo è infuso con l'energia con cui lo facciamo. Se siamo frenetici, la vita sarà frenetica. Se siamo sereni, la vita sarà serena. E così il nostro obiettivo in ogni situazione diventa la pace interiore. Il nostro stato interiore determina la nostra esperienza delle nostre vite, il termine crocifissione indica il modello energetico della paura. Rappresenta il pensiero limitato e negativo dell'ego e come cerca sempre di limitare, contraddire o invalidare l'amore. Il termine resurrezione indica il modello energetico dell'amore, che trascende la paura sostituendola. La funzione di un taumaturgo è il perdono. Nello svolgere la nostra funzione, diventiamo canali di resurrezione. Dio e l'uomo sono la squadra creativa definitiva. Dio è come l'elettricità. Una casa può essere cablata per questo, ma se non ci sono lampade, a cosa serve? Se Dio è visto come elettricità, allora noi siamo le sue lampade. Non importa la dimensione della lampada, la sua forma o il design. Tutto ciò che conta è che venga collegato. Non importa chi siamo o quali siano i nostri doni. Tutto ciò che conta è che siamo disposti a essere usati al suo servizio. La nostra volontà, la nostra convinzione, ci danno un potere miracoloso. I servi di Dio portano l'impronta del loro Signore. Le lampade senza elettricità non proiettano luce, e nemmeno l'elettricità senza lampade non proietta luce. Insieme, tuttavia, scacciano tutta l'oscurità. 4. Adulto cosmico figlio di Dio, sei stato creato per creare il buono, il bello e il santo. Quando diventiamo canali più puri per la luce di Dio, sviluppiamo un appetito per la dolcezza che è possibile in questo mondo. Un operatore di miracoli non è orientato a combattere il mondo che è, ma a creare il mondo che potrebbe essere. Il solo trattamento del sintomo di un problema non è davvero trattarlo. Prendi le bombe nucleari, per esempio. Se tutti lavoriamo sodo, firmiamo un numero sufficiente di petizioni ed eleggiamo nuovi funzionari, allora possiamo vietare la bomba. Ma se non ci liberiamo dell'odio nei nostri cuori, a che cosa servirà questo, in definitiva? I nostri figli o i figli dei nostri figli produrranno una forza distruttiva più potente della bomba, se portano ancora dentro di sé abbastanza paura e conflitto. Tutto nell'universo fisico diventa parte del viaggio nella paura, o del viaggio di ritorno all'amore, a seconda di come viene utilizzato dalla mente. Ciò che dedichiamo all'amore, viene utilizzato per gli scopi dell'amore. Quindi lavoriamo all'interno dell'illusione mondana, politicamente, socialmente, ambientalmente, eccetera, ma riconosciamo che la vera trasformazione del mondo non deriva da ciò che stiamo facendo, ma dalla coscienza con cui lo stiamo facendo. In realtà stiamo solo guadagnando tempo mentre la vera trasformazione delle energie globali ha la possibilità di dare il via. Lo scopo del taumaturgo è spiritualmente grandioso, non personalmente grandioso. L'alto dramma cosmico non è la tua carriera, i tuoi soldi o nessuna delle tue esperienze mondane. La tua carriera è sicuramente importante, così come i tuoi soldi, il tuo talento, la tua energia e le tue relazioni personali. Ma sono importanti solo nella misura in cui sono devoti a Dio per usarli per i suoi scopi. Quando superiamo la nostra preoccupazione immatura per il piccolo sé, trascendiamo il nostro egoismo e diventiamo cosmicamente maturi. Finché non troviamo quella maturità cosmica, siamo infantili. Ci preoccupiamo dei pagamenti della nostra auto, dei nostri avanzamenti di carriera, della nostra chirurgia plastica, delle nostre piccole ferite, mentre le situazioni politiche sbandano verso il disastro e il buco nello zono sembra peggiorare ogni giorno. L'infanzia è quando siamo così preoccupati per le cose che alla fine non contano, che perdiamo la nostra connessione essenziale con le cose che fanno. C'è una differenza tra infantile e infantile. L'infanzia implica spiritualità, come nella tenerezza, e un profondo non sapere che ci apre a nuove impressioni. Come bambini è quando ci vediamo come bambini nelle braccia di Dio. Impariamo a fare un passo indietro e lasciamo che sia Lui a guidare la strada. Dio non è separato da noi, perché è l'amore dentro la nostra mente. Ogni problema, dentro e fuori, è dovuto alla separazione dall'amore da parte di qualcuno. 35.000 persone al giorno muoiono di fame sulla terra e il cibo non manca. La domanda non è, che tipo di Dio permetterebbe ai bambini di morire di fame? Ma piuttosto, che tipo di persone lasciano morire di fame i bambini? Un taumaturgo restituisce il mondo a Dio apportando un cambiamento consapevole a uno stile di vita più amorevole. Aspettare con cinica rassegnazione il crollo del mondo ci rende partecipi del problema, non della risposta. Dobbiamo riconoscere consapevolmente che, per Dio, non c'è ordine di difficoltà nei miracoli. L'amore guarisce tutte le ferite. Nessun problema è troppo piccolo per l'attenzione di Dio, o troppo grande per essere gestito da Lui. Ogni sistema nel mondo, socialmente, politicamente, economicamente, biologicamente, sta cominciando a sgretolarsi sotto il peso della nostra stessa crudeltà. Senza miracoli, si potrebbe sostenere che il concerto è finito, che è già troppo tardi per salvare il mondo. Molte persone sono convinte che il mondo sia diretto verso un inevitabile grande collasso. Qualsiasi persona pensante sa che il mondo si sta muovendo in molti modi in una spirale discendente e un oggetto continua a muoversi nella direzione in cui è attualmente diretto. Solo l'applicazione di una forza contraria più forte può cambiarne la direzione. I miracoli sono quella controforza. Quando l'amore raggiunge una massa critica, quando un numero sufficiente di persone diventa mirato, il mondo sperimenterà un cambiamento radicale. Questa è l'undicesima ora. Il corso ci dice che non dipende da noi cosa impariamo, ma solo se impariamo attraverso la gioia o attraverso il dolore. Impareremo ad amarci l'un l'altro, ma se lo impariamo dolorosamente o pacificamente dipende interamente da noi. Se continuiamo nei nostri modi oscuri e manifestiamo una guerra nucleare, anche se ci sono solo cinque persone rimaste sul pianeta alla fine della conflagrazione, quelle cinque persone avranno raggiunto il punto. Sicuramente si guarderebbero l'un l'altro e direbbero, cerchiamo di andare d'accordo. Ma possiamo aggirare lo scenario di un armageddon nucleare, se lo desideriamo. La maggior parte di noi ha già subito i propri armageddon personali. Non c'è bisogno di ripetere l'intera faccenda collettivamente. Possiamo ottenere il punto più tardi, oppure possiamo ottenere il punto ora. Sapere che abbiamo una scelta è una comprensione genuinamente adulta del mondo. Dopo che Doroti ebbe attraversato il suo intero viaggio drammatico a Oz, la strega buona le disse che tutto ciò che aveva dovuto fare era battere i tacchi tre volte e dire, «Voglio andare a casa, voglio andare a casa. Voglio andare a casa. Non c'era stato bisogno del lungo tratto in discesa lungo la strada di mattoni gialli». Doroti, che sono sicuro fessi indignata, disse, «Perché non me l'hai detto?». La strega rispose, «Non mi avresti creduto». Nelle antiche tragedie greche, esiste un dispositivo comune chiamato Deus ex machina. La trama si sviluppa fino a un climax disastroso, e proprio quando sembra che ogni speranza sia persa, appare un Dio e salva la giornata. Questa è un'importante informazione archetipica. All'ultimo momento, quando le cose sembrano peggiori, Dio tende ad apparire. Non perché abbia un sadico senso dell'umorismo, aspettando che siamo completamente disperati prima di mostrarci i suoi muscoli. Ci mette così tanto perché solo allora ci prendiamo la briga di pensare a Lui. Per tutto questo tempo, abbiamo pensato di aspettarlo. Non sapevamo, Egli ci stava aspettando. 5. Rinascita Questo è ciò che si intende con i mansueti erediteranno la Terra, se ne impadroniranno letteralmente a motivo della loro forza. È tempo di realizzare il nostro scopo, di vivere sulla Terra e pensare solo ai pensieri del Cielo. Così il Cielo e la Terra diventeranno una cosa sola. Non esisteranno più come due stati separati. Ci sono momenti in cui il pensiero miracoloso non è facile, perché i nostri schemi mentali sono permeati di paura. Quando è così, quando la nostra rabbia, gelosia o dolore sembrano attaccati ai nostri cuori e non possiamo lasciarli andare, come facciamo allora i miracoli? Chiedendo allo Spirito Santo di aiutarci. Il Corso ci dice che possiamo fare molte cose, ma una cosa che non possiamo mai fare è invocare in vano lo Spirito Santo. Ci viene detto che non chiediamo troppo a Dio, anzi, chiediamo troppo poco. Ogni volta che ci sentiamo persi, pazzi o spaventati, tutto ciò che dobbiamo fare è chiedere il suo aiuto. L'aiuto potrebbe non arrivare nella forma che ci aspettavamo, o addirittura pensavamo di desiderare, ma arriverà e lo riconosceremo da come ci sentiamo. Nonostante tutto, ci sentiremo in pace. Pensiamo che ci siano diverse categorie di vita, come denaro, salute, relazioni e poi, per alcuni di noi, un'altra categoria chiamata vita spirituale. Ma solo l'ego classifica. C'è davvero un solo dramma in corso nella vita, il nostro allontanarci da Dio e il nostro tornare indietro. Semplicemente rievochiamo l'unico dramma in modi diversi. Il Corso dice pensiamo di avere molti problemi diversi, ma ne abbiamo solo uno. Negare l'amore è l'unico problema e abbracciarlo è l'unica risposta. L'amore guarisce tutte le nostre relazioni, con il denaro, il corpo, il lavoro, il sesso, la morte, noi stessi e l'altro. Attraverso il potere miracoloso del puro amore, lasciamo andare la nostra storia passata in qualsiasi area e ricominciamo. Se trattiamo principi miracolosi come giocattoli, saranno come giocattoli nella nostra vita. Ma se li trattiamo come il potere dell'universo, allora lo saranno per noi. Il passato è finito. Non importa chi siamo, da dove veniamo, cosa ha detto la mamma, cosa ha fatto papà, quali errori abbiamo commesso, quali malattie abbiamo o quanto ci sentiamo depressi. Il futuro può essere riprogrammato in questo momento. Non abbiamo bisogno di un altro seminario, di un'altra laurea, di un'altra vita o dell'approvazione di nessuno perché ciò avvenga. Tutto quello che dobbiamo fare è chiedere un miracolo e permettere che avvenga, non resistergli. Può esserci un nuovo inizio, una vita diversa dal passato. Le nostre relazioni dovranno essere rinnovate. Le nostre carriere saranno rinnovate. I nostri corpi saranno rinnovati. Il nostro pianeta sarà reso nuovo. Così sarà fatta la volontà di Dio, come in cielo così in terra. Non più tardi, ma ora. Non altrove, ma qui. Non attraverso il dolore, ma attraverso la pace. Così sia. Amen. Seconda parte, pratica, capitolo 6, relazioni Il Tempio dello Spirito Santo non è un corpo, ma una relazione. 1. Il santo incontro Quando incontri qualcuno, ricorda che è un santo incontro. Come lo vedrai, vedrai te stesso. Mentre lo tratti, tratterai te stesso. Quando pensi a lui, penserai a te stesso. Non dimenticarlo mai, perché in lui troverai te stesso o ti perderai. Prima di leggere un corso in miracoli, ho studiato molti altri scritti spirituali e filosofici. Era come se mi avessero condotto su un'enorme rampa di scale verso una cattedrale gigante dentro la mia mente, ma una volta raggiunta la cima delle scale, la porta della chiesa era chiusa a chiave. Il corso mi ha dato la chiave che ha aperto la porta. La chiave, molto semplicemente, sono le altre persone. Il cielo, secondo il corso, non è né una condizione né un luogo, ma piuttosto la consapevolezza della perfetta unità. Poiché il padre e il figlio sono uno, allora amare l'uno è amare l'altro. L'amore di Dio non è fuori di noi. C'è un verso in una canzone della Commedia I Miserabili che dice, amare un'altra persona è vedere il volto di Dio. Il volto di Cristo è l'innocenza e l'amore dietro le maschere che tutti indossiamo, e vedere quel volto, toccarlo e amarlo in noi stessi e negli altri, è esperienza di Dio. È la nostra umanità divina. È l'alto che tutti cerchiamo. In ogni relazione, in ogni momento, insegniamo l'amore o la paura. Insegnare e dimostrare. Quando dimostriamo amore verso gli altri, impariamo che siamo amabili e impariamo ad amare più profondamente. Quando dimostriamo paura o negatività, impariamo l'autocondanna e impariamo a sentirci più spaventati dalla vita. Impareremo sempre ciò che abbiamo scelto di insegnare. Le idee non lasciano la loro fonte, ecco perché siamo sempre una parte di Dio e per perché le nostre idee sono sempre una parte di noi. Se scelgo di benedire un'altra persona, finirò per sentirmi sempre più benedetto. Se proietto il senso di colpa su un'altra persona, finirò per sentirmi sempre più in colpa. Le relazioni esistono per accelerare il nostro cammino verso Dio. Quando ci è resi allo Spirito Santo, quando Lui è responsabile delle nostre percezioni, i nostri incontri diventano incontri santi con il perfetto Figlio di Dio. Un corso in miracoli dice che tutti quelli che incontriamo saranno il nostro crocifissore o il nostro salvatore, a seconda di ciò che scegliamo di essere per loro. Concentrarsi sulla loro colpa spinge le unghie del disprezzo di sé più profondamente nella nostra stessa pelle. Concentrarsi sulla loro innocenza ci rende liberi. Dal momento che nessun pensiero è neutrale, ogni relazione ci porta più in profondità nel Paradiso o più in profondità nell'Inferno. 2. Il perdono nelle relazioni Il perdono toglie ciò che si frappone tra tuo fratello e te stesso. Un corso in miracolisi vanta di essere un corso pratico con un obiettivo. Pratico, il raggiungimento della pace interiore. Il perdono è la chiave della pace interiore perché è la tecnica mentale con cui i nostri pensieri vengono trasformati dalla paura all'amore. Le nostre percezioni delle altre persone spesso diventano un campo di battaglia tra il desiderio dell'ego di giudicare e il desiderio dello Spirito Santo di accettare le persone così come sono. L'ego è il grande cercatore di colpe. Cerca i difetti in noi stessi e negli altri. Lo Spirito Santo cerca la nostra innocenza. Vede tutti noi come siamo realmente e, poiché siamo le perfette creazioni di Dio, ama ciò che vede. I luoghi della nostra personalità in cui tendiamo a deviare dall'amore non sono le nostre colpe, ma le nostre ferite. Dio non vuole punirci, ma guarirci. Ed è così che vuole che vediamo le ferite nelle altre persone. Il perdono è ricordo selettivo, una decisione consapevole di concentrarsi sull'amore e lasciare andare il resto. Ma l'ego è implacabile, è capace di sospetto nel migliore dei casi e di cattiveria nel peggiore. Presenta gli argomenti più sottili e insidiosi per scacciare altre persone dal nostro cuore. La pietra angolare dell'insegnamento dell'ego è, il Figlio di Dio è colpevole. La pietra angolare dell'insegnamento dello Spirito Santo è, il Figlio di Dio è innocente. Il taumaturgo invita consapevolmente lo Spirito Santo ad entrare in ogni relazione e a liberarci dalla tentazione di giudicare e di trovare la colpa. Gli chiediamo di salvarci dalla nostra tendenza a condannare. Gli chiediamo di rivelarci l'innocenza negli altri, affinché possiamo vederla in noi stessi. Caro Dio, ti cedo questa relazione, significa, caro Dio, fammi vedere questa persona attraverso i tuoi occhi. Nell'accettare l'espiazione, chiediamo di vedere come Dio vede, pensare come Dio pensa, amare come Dio ama. Chiediamo aiuto per vedere l'innocenza di qualcuno. Una volta ero in vacanza in Europa con la mia famiglia. Sebbene io e mia madre facessimo entrambi i nobili sforzi per andare d'accordo l'una con l'altra, non ci riuscivamo. Vecchi schemi di attacco e difesa spuntavano continuamente tra di noi. Voleva una figlia più conservatrice e io volevo una madre più illuminata. Ho continuato ad aprire il corso per ricevere aiuto e ispirazione, ma con mio grande dispiacere, sembrava che aprissi il libro alla stessa sezione ogni volta che lo prendevo. Leggevo, pensa onestamente a ciò che hai pensato che Dio non avrebbe pensato, e a ciò che non hai pensato che Dio avrebbe voluto che tu pensassi. In altre parole, dove erano i miei pensieri non allineati con quelli di Dio? Mi stava facendo impazzire. Volevo supporto per i miei sentimenti difensivi. L'ultima cosa che volevo sentirmi dire era che l'unico errore era un errore nel mio stesso pensiero. Alla fine, guardando attraverso piazza San Marco a Venezia, ho guardato mia madre da vicino e mi sono detto, è vero, Dio non la guarda e pensa, Sofiane è una tale stronza. Finché ho scelto di farlo vederla in quel modo, finché non ero disposto a rinunciare a concentrarmi sui suoi errori, non potevo essere in pace perché non condividevo la percezione di Dio. Non appena ho visto questo, ho rilasciato la mia fissazione tesa su quella che percepivo essere la sua colpa. Da quel momento in poi, la situazione iniziò a cambiare. Miracolosamente, lei era più gentile con me, e io ero più gentile con lei. È facile perdonare le persone che non hanno mai fatto nulla per farci arrabbiare. Le persone che ci fanno arrabbiare, tuttavia, sono i nostri insegnanti più importanti. Indicano i limiti della nostra capacità di perdono. Trattenere le lamentele è un attacco al piano di Dio per la salvezza. La decisione di lasciare andare le nostre lamentele contro le altre persone è la decisione di vedere noi stessi come siamo veramente, perché qualsiasi oscurità che lasciamo ci accechi alla perfezione di un altro ci rende ciechi anche alla nostra. Può essere molto difficile lasciare andare la tua percezione della colpa di qualcuno quando sai che, secondo ogni standard di etica, moralità o integrità, hai ragione a trovargli dei difetti. Ma il corso chiede, preferisci avere ragione o essere felice? Se stai giudicando un fratello, sbagli anche se hai ragione. Ci sono stati momenti in cui è stato molto difficile rinunciare al mio giudizio su qualcuno, protestando mentalmente, ma ho ragione. Mi sentivo come se rinunciare al mio giudizio equivalesse a condonare il loro comportamento. Ho sentito, beh, qualcuno deve sostenere i principi in questo mondo. Se perdoniamo sempre le cose, allora tutti gli standard di eccellenza si disintegreranno. Ma Dio non ha bisogno di noi per controllare l'universo. Stringere il dito a qualcuno non li aiuta a cambiare. Semmai, la nostra percezione della colpa di qualcuno li tiene solo bloccati in essa. Quando stiamo agitando il dito contro qualcuno, in senso figurato o letterale, non siamo più inclini a correggere il suo comportamento scorretto. Trattare qualcuno con compassione e perdono è molto più probabile che susciti una risposta sanata. È meno probabile che le persone si mettano sulla difensiva e siano più aperte alla correzione. La maggior parte di noi è consapevole a un certo livello quando siamo fuori. Faremmo le cose diversamente se sapessimo come fare. Non abbiamo bisogno di un attacco a questo punto, abbiamo bisogno di aiuto. Il perdono forgia un nuovo contesto, in cui qualcuno può cambiare più facilmente. Il perdono è la scelta di vedere le persone come sono adesso. Quando siamo arrabbiati con le persone, siamo arrabbiati per qualcosa che hanno detto o fatto prima di questo momento. Ma quello che le persone hanno detto o fatto non è quello che sono. Le relazioni rinascono quando lasciamo andare le percezioni del passato di nostro fratello. Portando il passato nel presente, creiamo un futuro proprio come il passato. Lasciando andare il passato, diamo spazio ai miracoli. Un attacco a un fratello è un promemoria del suo passato colpevole. Scegliendo di affermare la colpa di un fratello, scegliamo di sperimentarne di più. Il futuro è programmato nel presente. Lasciare andare il passato significa ricordare che nel presente mio fratello è innocente. È un atto di graziosa generosità accettare una persona sulla base di ciò che sappiamo essere la verità su di lei, indipendentemente dal fatto che sia o meno in contatto con quella verità. Solo l'amore è reale. Nient'altro in realtà esiste. Se una persona si comporta in modo non amorevole, significa che, indipendentemente dalla sua negatività, rabbia o altro, il suo comportamento è stato derivato dalla paura e in realtà non esiste. Sono allucinanti. Li perdoni, allora, perché non c'è niente da perdonare. Il perdono è un discernimento tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Quando le persone si comportano in modo non amorevole, hanno dimenticato chi sono. Se sono addormentati al Cristo dentro di loro. Il compito del taumaturgo è rimanere sveglio. Scegliamo di non addormentarci e sognare la colpa di nostro fratello. In questo modo ci viene dato il potere di risvegliarlo. Un ottimo esempio di operatore di miracoli è Pollyanna. L'ego lo sa, motivo per cui è costantemente invalidata in questa cultura. È entrata in una situazione in cui tutti erano di cattivo umore da anni. Ha scelto di non vedere la cattiveria. Aveva fede in ciò che c'era al di là di essa. Estese la sua percezione al di là di ciò che i suoi sensi fisici le rivelavano, a ciò che il suo cuore sapeva essere vero per ogni essere umano. Non importava come si comportava qualcuno. Pollyanna aveva fiducia nell'amore che sapeva esistere dietro la paura di chiunque, e quindi ha invocato il loro amore per esprimerlo. Ha esercitato il potere del perdono. In poco tempo, tutti erano simpatici e tutti erano felici. 3. Ritirare il giudizio Il giudizio non è un attributo di Dio. Un corso in miracoli ci dice che ogni volta che stiamo pensando di attaccare qualcuno, è come se tenessimo una spada sopra la sua testa. La spada, però, non cade su di loro ma su di noi. Poiché tutto il pensiero è pensato su noi stessi, condannare un altro è condannare noi stessi. Come sfuggire al giudizio? In gran parte attraverso una reinterpretazione di ciò che stiamo giudicando. Un corso in miracoli descrive la differenza tra un peccato e un errore. Un peccato significherebbe che abbiamo fatto qualcosa di così grave che Dio è arrabbiato con noi. Ma poiché non possiamo fare nulla che cambi la nostra natura essenziale, Dio non ha nulla di cui arrabbiarsi. Solo l'amore è reale. Non esiste nient'altro. Il figlio di Dio non può peccare. Possiamo commettere errori, certo, e ovviamente lo facciamo. Ma l'atteggiamento di Dio verso l'errore è il desiderio di guarirci. Poiché noi stessi siamo arrabbiati e punitivi, abbiamo inventato l'idea di un Dio arrabbiato e punitivo. Siamo creati ad immagine di Dio, tuttavia, e non viceversa. Come estensioni di Dio, noi stessi siamo lo spirito di compassione e, con la mente giusta, non cerchiamo di giudicare ma di guarire. Lo facciamo attraverso il perdono. Quando qualcuno si è comportato in modo non amorevole, quando ci urlano contro, o mentono su di noi, o ci derubano, hanno perso il contatto con la loro essenza. Hanno dimenticato chi sono. Ma tutto ciò che qualcuno fa, dice il Corso, è amore o una chiamata all'amore. Se qualcuno ci tratta con amore, allora ovviamente l'amore è la risposta appropriata. Se ci trattano con paura, dobbiamo vedere il loro comportamento come una chiamata all'amore. Il sistema carcerare americano illustra la differenza filosofica e pratica tra la scelta di percepire il peccato e quella di percepire l'errore. Consideriamo i criminali colpevoli e cerchiamo di punirli. Ma qualunque cosa facciamo agli altri, la stiamo facendo a noi stessi. Le statistiche provano dolorosamente che le nostre prigioni sono scuole di criminalità, un gran numero di crimini sono commessi da persone che hanno già trascorso del tempo in carcere. Nel punire gli altri, finiamo per punire noi stessi. Significa che dobbiamo perdonare uno stupratore, dirgli che sappiamo che ha appena avuto una brutta giornata e mandarlo a casa? Ovviamente no. Dobbiamo chiedere un miracolo. Un miracolo qui sarebbe un passaggio dal percepire le prigioni come case di punizione a percepirle come case di riabilitazione. Quando cambiamo consapevolmente il loro scopo dalla paura all'amore, rilasciamo infinite possibilità di guarigione. Il perdono è come le arti marziali della coscienza. Nell'Aikido e in altre arti marziali, eludiamo la forza del nostro attaccante piuttosto che resistergli. L'energia dell'attacco torna quindi boomerang nella direzione dell'attaccante. Il nostro potere sta nel rimanere non reattivi. Il perdono funziona allo stesso modo. Quando rispondiamo e la difesa è una forma di attacco, diamo inizio a una guerra che nessuno può vincere. Dal momento che l'assenza di amore non è reale, non ne abbiamo l'effetto in noi stessi o negli altri. Il problema, ovviamente, è che pensiamo di esserlo. Cercando il miracolo, non prendiamo parte alle battaglie della vita, ma chiediamo di essere elevati al di sopra di esse. Lo Spirito Santo ci ricorda che la battaglia non è reale. La vendetta è mia, dice il Signore, significa abbandona l'idea della vendetta. Dio bilancia tutti i mali, ma non attraverso l'attacco, il giudizio o la punizione. Contrariamente a come ci si sente quando siamo persi nelle emozioni che ci tentano a giudicare, non esiste la rabbia giusta. Da piccola litigavo con mio fratello o mia sorella e quando mia madre tornava a casa si seccava con noi per aver litigato. Uno di noi diceva sempre, l'hanno fatto prima. In realtà non importa chi l'ha fatto per primo. Che tu stia attaccando per primo o contrattaccando, sei uno strumento di attacco e non di amore. Diversi anni fa sono stato a un cocktail party in cui sono entrato in un acceso dibattito sulla politica estera americana. Più tardi quella notte, ho fatto una specie di sogno ad occhi aperti. Un gentiluomo mi è apparso e mi ha detto, mi scusi, Miss Williamson, ma abbiamo pensato di doverle dire, nell'appello cosmico, lei è considerata un falco, non una colomba. Ero infuriato. Assolutamente no, disse indignata. Sono totalmente per la pace. Sono una colomba in tutto e per tutto. Temo di no, disse. Sto guardando le nostre classifiche e qui c'è scritto molto chiaramente, Marianne Williamson, guerra fondaia. Sei in guerra con Ronald Reagan, Kaspar Weinberger, la CIA, in effetti l'intero establishment della difesa americana. No mi dispiace. Sei decisamente un falco. Ho visto, ovviamente, che aveva ragione. Avevo in testa tanti missili quanti ne aveva Ronald Reagan nella sua. Ho pensato che fosse sbagliato per lui giudicare i comunisti, ma ho pensato che fosse giusto per me giudicarlo. Come mai? Perché avevo ragione, ovviamente. Ho passato anni come un'ala sinistra arrabbiata prima di rendermi conto che una generazione arrabbiata non può portare la pace. Tutto ciò che facciamo è infuso con l'energia con cui lo facciamo. Come disse Gandhi, dobbiamo essere il cambiamento. Quello che l'ego non vuole farci vedere è che le pistole di cui dobbiamo sbarazzarci per prime sono le pistole nella nostra testa. 4. La scelta di amare l'ego è la scelta per la colpa, lo Spirito Santo la scelta per l'incolpevolezza. L'ego sottolinea sempre ciò che qualcuno ha fatto di sbagliato. Lo Spirito Santo sottolinea sempre ciò che hanno fatto bene. Il corso paragona l'ego a un cane spazzino che cerca ogni traccia della colpa di nostro fratello e la depone ai piedi del suo padrone. Lo Spirito Santo, allo stesso modo, invia i propri messaggeri per cercare prove dell'innocenza di nostro fratello. L'importante è decidere cosa vogliamo vedere prima di vederlo. Riceviamo ciò che chiediamo. La proiezione fa percezione. Possiamo trovare, e infatti, troveremo, qualunque cosa stiamo cercando nella vita. Il corso dice che pensiamo che comprenderemo una persona abbastanza per sapere se è amabile o meno, ma che se non la amiamo, non la potremo mai capire. Il percorso spirituale implica assumersi la responsabilità cosciente di ciò che scegliamo di percepire, la colpa o l'innocenza del nostro fratello. Vediamo l'innocenza di un fratello quando è tutto ciò che vogliamo vedere. Le persone non sono perfette, cioè non esprimono ancora esternamente la loro perfezione interiore. Se scegliamo di concentrarci sulla colpa nella loro personalità, o sull'innocenza della loro anima, dipende da noi. Ciò che consideriamo la colpa delle persone è la loro paura. Tutta la negatività deriva dalla paura. Quando qualcuno è arrabbiato, ha paura. Quando qualcuno è scortese, ha paura. Quando qualcuno è manipolatore, ha paura. Quando qualcuno è crudele, ha paura. Non c'è paura che l'amore non si dissolva. Non c'è negatività che il perdono non trasformi. L'oscurità è semplicemente l'assenza di luce e la paura è semplicemente l'assenza di amore. Non possiamo liberarci dell'oscurità colpendola con una mazza da baseball, perché non c'è niente da colpire. Se vogliamo liberarci dall'oscurità, dobbiamo accendere una luce. Allo stesso modo, se vogliamo liberarci della paura, non possiamo combatterla ma dobbiamo sostituirla con l'amore. La scelta di amare non è sempre facile. L'ego pone una terribile resistenza a rinunciare a risposte cariche di paura. È qui che entra in gioco lo Spirito Santo. Non è nostro compito cambiare le nostre percezioni, ma ricordarci di chiedergli di cambiarle per noi. Diciamo che tuo marito ti ha lasciato per un'altra donna. Non puoi cambiare le altre persone, e non puoi nemmeno chiedere a Dio di cambiarle. Puoi, tuttavia, chiedere di vedere questa situazione in modo diverso. Puoi chiedere la pace. Puoi chiedere allo Spirito Santo di cambiare le tue percezioni. Il miracolo è che, mentre rilasci il giudizio su tuo marito e l'altra donna, il dolore nel tuo intestino inizia a placarsi. L'ego potrebbe dire in quella situazione che non sarai mai in pace finché tuo marito non tornerà. Ma la pace non è determinata dalle circostanze esterne a noi. La pace nasce dal perdono. Il dolore non nasce dall'amore che ci negano gli altri, ma piuttosto dall'amore che neghiamo loro. In un caso del genere, ci si sente come se fossimo feriti da ciò che qualcun altro ha fatto. Ma ciò che è realmente accaduto è che il cuore chiuso di qualcun altro ci ha tentato di chiudere il nostro, ed è la nostra stessa negazione dell'amore che ci ferisce. Ecco perché il miracolo è un cambiamento nel nostro modo di pensare, la volontà di tenere aperto il nostro cuore, indipendentemente da ciò che sta accadendo fuori di noi. Un miracolo è sempre disponibile in ogni situazione, perché nessuno può decidere per noi come interpretare la nostra stessa esperienza. Ci sono solo due emozioni, l'amore di la paura. Possiamo interpretare la paura come una chiamata all'amore. Gli operatori miracolosi, dice il corso, sono generosi per interesse personale. Diamo una pausa a qualcuno così possiamo stare in pace noi stessi. L'ego dice che possiamo proiettare la nostra rabbia su un'altra persona e non sentirla a noi stessi, ma poiché tutte le menti sono continue, qualunque cosa proiettiamo su un'altra, continuiamo a provare. Arrabbiarsi con qualcun altro potrebbe farci sentire meglio per un po', ma alla fine tutta la paura e il senso di colpa tornano su di noi. Se giudichiamo un'altra persona, allora ci giudicheranno di rimando, e anche se non lo fanno, ci sentiremo come loro. Vivere in questo mondo ci ha insegnato a rispondere istintivamente da uno spazio innaturale, saltando sempre alla rabbia, alla paranoia, alla difensiva o a qualche altra forma di paura. Il pensiero innaturale ci sembra naturale e il pensiero naturale sembra innaturale. Un corso in miracoli non si tratta di versare vernice rosa sulla nostra rabbia e fingere che non esista. Ciò che è psicologicamente malsano è spiritualmente malsano. La negazione o la soppressione delle emozioni non è corretta. Non dici, non sono arrabbiato, davvero non lo sono. Sono sua corsa in miracoli e se non mi arrabbio più, quando dentro ribolle. Lo Spirito Santo ci dice, non cercare di purificarti prima di venire da me. Io sono il purificatore. Una volta stavo andando a tenere una lezione sul corso, e ho pensato a una donna che conoscevo per la quale mi sentivo infastidito. Molto rapidamente, ho cercato di nascondere il pensiero, come se non fosse abbastanza santo per me pensare in un momento simile. Poi sembrò come se una voce nella mia testa dicesse, ehi, sono tuo amico. Ricorda? Lo Spirito Santo non mi stava giudicando per la mia rabbia, era lì per aiutarmi a superarlo. Non dobbiamo dimenticare a cosa serve lo Spirito Santo. Non neghiamo di essere sconvolti, ma allo stesso tempo ammettiamo che tutti i nostri sentimenti derivano dal nostro pensiero senza amore e siamo disposti a far guarire quell'assenza di amore. La crescita non è mai concentrarsi sulle lezioni di qualcun altro, ma solo su noi stessi. Non siamo vittime del mondo fuori di noi. Per quanto sia difficile da credere a volte, siamo sempre responsabili di come vediamo le cose. Non ci sarebbe alcun salvatore se non ce ne fosse bisogno. Naturalmente in questo mondo accadono cose che rendono quasi impossibile amare, cose crudeli e orribili, ma lo Spirito Santo è dentro di noi per fare l'impossibile. Fa per noi ciò che non possiamo fare per noi stessi. Egli ci presterà la sua forza, e quando la sua mente sarà unita alla nostra, il pensiero egoico sarà scacciato. Ma dobbiamo essere consapevoli dei nostri sentimenti egoici per liberarli. Non può far risplendere ciò che tieni nascosto, perché non glielo hai offerto e non può togliertelo. Violerebbe il nostro libero arbitrio per lo Spirito Santo cambiare i nostri schemi mentali senza che ci venga chiesto. Ma quando gli chiediamo di cambiarli, lo farà. Quando siamo arrabbiati, o sconvolti per qualsiasi motivo, ci viene chiesto di dire, sono arrabbiato ma sono disposto a non esserlo. Sono disposto a vedere questa situazione in modo diverso. Chiediamo allo Spirito Santo di entrare nella situazione e di mostrarcela da una prospettiva diversa. Una volta mi stavo applicando delle unghie di porcellana ed è entrata nella stanza l'amica della mia manicure. Non potevo tollerare la sua personalità. Dal momento in cui questa donna ha aperto la bocca, mi sono sentito come se qualcuno stesse facendo scorrere le unghie su una lavagna. Dal momento che le mie mani non erano libere, non potevo lasciare la stanza, e poiché la manicure era una persona che veniva alle mie lezioni, mi vergognavo della mia stessa reazione. Ho pregato e chiesto aiuto a Dio. La sua risposta è stata drammatica. In pochi istanti, la donna odiosa iniziò a parlare della sua infanzia, e in particolare del suo rapporto con suo padre. Quando ha iniziato a descrivere la sua educazione, mi è diventato perfettamente chiaro come sarebbe cresciuta con poca autostima e un bisogno smodato di sviluppare caratteristiche di personalità grandiose, che nella sua mente denoterebbero forza. Le sue difese non funzionavano, ovviamente. Venendo dalla paura, si limitano a scoraggiare le persone. Improvvisamente, lo stesso comportamento che mi aveva tanto irritato cinque minuti prima, ora suscitò in me una profonda compassione. Lo Spirito Santo mi aveva indicato l'informazione che avrebbe sciolto il mio cuore. Adesso la vedevo diversamente. Quello fu il miracolo, il suo comportamento non era cambiato, ma io sì. 5. Livelli di insegnamento Pertanto, il piano prevede contatti molto specifici da stabilire per ogni maestro di Dio. Le relazioni sono incarichi. Fanno parte di un vasto piano per la nostra illuminazione, il progetto dello Spirito Santo mediante il quale ogni singola anima è condotta a una maggiore consapevolezza e ad un amore allargato. Le relazioni sono i laboratori dello Spirito Santo nei quali egli riunisce le persone che hanno la massima opportunità di crescita reciproca. Valuta chi può imparare di più da chi in un dato momento, quindi gli assegna l'una all'altro. Come un gigantesco computer universale, egli sa esattamente quale combinazione di energie, esattamente in quale contesto, farebbe di più per promuovere il piano di Dio per la salvezza. Nessun incontro è casuale. Coloro che devono incontrarsi si incontreranno, perché insieme hanno il potenziale per una relazione santa. Il corso dice che ci sono tre livelli di insegnamento in relazione. Il primo livello è quello che consideriamo un incontro casuale, come due sconosciuti che si incontrano in un ascensore o studenti che capitano di tornare a casa da scuola insieme. Il secondo livello è una relazione più sostenuta, in cui, per un certo periodo, due persone entrano in una situazione di insegnamento-apprendimento abbastanza intensa e poi sembrano separarsi. Il terzo livello di insegnamento è un rapporto che, una volta formato, dura per tutta la vita. A questo livello, a ogni persona viene assegnato un partner di apprendimento scelto che gli offre opportunità illimitate di apprendimento. Anche al primo livello di insegnamento, le persone nell'ascensore potrebbero sorridersi o gli studenti potrebbero diventare amici. È soprattutto negli incontri casuali che ci viene data la possibilità di praticare l'arte di cesellare via i bordi duri della nostra personalità. Qualunque debolezza personale sia evidente nelle nostre interazioni casuali apparirà inevitabilmente amplificata nelle relazioni più intense. Se siamo irritabili con il cassiere, sarà più difficile essere gentili con le persone che amiamo di più. Al secondo livello di insegnamento, le persone vengono riunite per un lavoro più intenso. Durante il loro tempo insieme, affronteranno qualsiasi esperienza fornisca loro le prossime le lezioni da imparare. Quando la vicinanza fisica non supporta più il più alto livello di insegnamento e apprendimento tra di loro, l'incarico richiederà la separazione fisica. Quella che poi sembra essere la fine della relazione, tuttavia, non è davvero una fine. Le relazioni sono eterne. Sono della mente, non del corpo, poiché le persone sono energia, non sono di più. Sostanza fisica. I corpi che si uniscono possono o meno denotare una vera unione, poiché l'unione è della mente. Le persone che hanno dormito nello stesso letto per 25 anni potrebbero non essere veramente unite e le persone che sono a molte miglia di distanza potrebbero non essere affatto separate. Spesso vediamo una coppia che si è separata o divorziata e guardiamo con tristezza al fallimento della loro relazione. Ma se entrambe le persone imparavano cosa dovevano imparare, allora quella relazione sarebbe stata un successo. Ora potrebbe essere il momento della separazione fisica in modo che si possa imparare di più in altri modi. Ciò non significa solo imparare altrove, da altre persone, significa anche imparare le lezioni di puro amore che derivano dal dover rilasciare la forma di una relazione esistente. Le relazioni di terzo livello, che durano tutta la vita, sono generalmente poche perché la loro esistenza implica che le persone coinvolte abbiano raggiunto contemporaneamente uno stadio in cui l'equilibrio insegnamento-apprendimento è effettivamente perfetto. Ciò non significa, tuttavia, che riconosciamo necessariamente i nostri incarichi di terzo livello, infatti, generalmente non lo facciamo. Potremmo anche provare ostilità verso queste persone in particolare. Qualcuno con cui abbiamo una vita intera di lezioni da imparare è qualcuno la cui presenza nelle nostre vite ci costringe a crescere. A volte rappresenta qualcuno con cui partecipiamo amorevolmente per tutta la vita, a volte rappresenta a qualcuno che viviamo come una spina nel fianco per anni, o addirittura per sempre. Solo perché qualcuno ha molto da insegnarci, non significa che ci piacciano. Le persone che hanno più da insegnarci sono spesso quelle che ci riflettono i limiti della nostra capacità di amare, coloro che consciamente o inconsciamente sfidano le nostre posizioni paurose. Ci mostrano le nostre mura. I nostri muri sono le nostre ferite, i luoghi in cui sentiamo di non poter più amare, di non poterci connettere più profondamente, di non poter perdonare oltre un certo punto. Siamo l'uno nella vita dell'altro per aiutarci a vedere dove abbiamo più bisogno di guarigione e per aiutarci a guarire. 6. Il rapporto speciale La speciale relazione d'amore è l'arma principale dell'ego per tenerti lontano dal paradiso. Tutti possiamo relazionarci con il desiderio di trovare il signor o la signora giusta. È quasi un'ossessione culturale. Ma secondo Accorce in Miracles, la ricerca della persona perfetta per ripararci è una delle nostre più grandi ferite psichiche e una delle più potenti delusioni dell'ego. Rappresenta un'idea che Accorce in Miracles chiama relazione speciale. Sebbene la parola speciale normalmente implichi qualcosa di meraviglioso, dal punto di vista del corso, speciale significa diverso, quindi separato, che è caratteristico dell'ego piuttosto che dello spirito. Una relazione speciale è una relazione basata sulla paura. Dio ha creato un solo Figlio generato e ci ama tutti come uno. Per Lui, nessuno è diverso o speciale perché nessuno è effettivamente separato da nessun altro. Poiché la nostra pace sta nell'amare come ama Dio, dobbiamo sforzarci di amare tutti. Il nostro desiderio di trovare una persona speciale, una parte della figliolanza che ci completerà, è doloroso perché è delirante. Significa che stiamo cercando la salvezza nella separazione piuttosto che nell'unità. L'unico amore che ci completa è l'amore di Dio, e l'amore di Dio è l'amore di tutti. Ciò non significa che la forma delle nostre relazioni sia la stessa con tutti, ma significa che cerchiamo in ogni relazione lo stesso contenuto, una qualità di amore fraterno, e di amicizia che va oltre i mutamenti di forma e di corpi. Proprio come lo Spirito Santo era la risposta di Dio alla separazione, la relazione speciale era allora la risposta dell'ego alla creazione dello Spirito Santo. Dopo la separazione, abbiamo iniziato a sentire un enorme buco dentro di noi e la maggior parte di noi lo sente ancora. L'unico antidoto per questo è l'espiazione, o ritorno a Dio, perché il dolore che proviamo è in realtà la nostra stessa negazione dell'amore. L'ego, tuttavia, ci dice diversamente. Sostiene che l'amore di cui abbiamo bisogno deve venire da qualcun altro e che c'è una persona speciale là fuori che può riempire quel buco. Poiché il desiderio per quella persona in realtà deriva dalla nostra convinzione di essere separati da Dio, il desiderio stesso simboleggia la separazione e il senso di colpa che proviamo a causa di ciò. La nostra ricerca porta poi l'energia della separazione. Diventa una questione di colpa. Questo è il motivo per cui così tanta rabbia è spesso suscitata nelle nostre relazioni più strette. Stiamo proiettando su qualcun altro la rabbia che proviamo contro noi stessi per aver interrotto il nostro stesso amore. Spesso quando pensiamo di essere innamorati di una persona, come indica un corso in miracoli, in realtà siamo tutt'altro. La relazione speciale non si basa sull'amore ma sul senso di colpa. La relazione speciale è l'allontanamento seducente dell'ego da Dio. È una delle principali forme di idolatria, o tentazione, pensare che qualcosa di diverso da Dio possa completarci e darci pace. L'ego ci dice che c'è una persona speciale là fuori che farà sparire tutto il dolore. Non ci crediamo davvero, certo, ma d'altra parte lo crediamo davvero. La nostra cultura ha alimentato l'idea in noi, attraverso libri, canzoni, film, pubblicità e, cosa più importante, la cospirazione di altri ego. È compito dello Spirito Santo trasformare l'energia dell'amore speciale dal tradimento in santità. La relazione speciale rende le altre persone, il loro comportamento, le loro scelte, le loro opinioni su di noi, troppo importanti. Ci fa pensare che abbiamo bisogno di un'altra persona, quando in realtà siamo completi e integri come siamo. L'amore speciale è un amore cieco, che cerca di curare la ferita sbagliata. Affronta il divario tra noi stessi e Dio, che in realtà non esiste ma che pensiamo esista. Affrontando questo divario come reale e spostando la sua fonte su altre persone, produciamo effettivamente l'esperienza che cerchiamo di rettificare. Sotto la guida dello Spirito Santo, ci riuniamo per condividere la gioia. Sotto la direzione dell'ego, ci riuniamo per condividere la disperazione. La negatività, tuttavia, non può essere realmente condivisa perché è un'illusione. Una relazione speciale è una specie di unione dalla quale l'unione è esclusa. Una relazione non vuole essere l'unione al fianco di due invalidi emotivi. Lo scopo di una relazione non è che due persone incomplete diventino una sola cosa, ma piuttosto che due persone complete si uniscano per la maggior gloria di Dio. La relazione speciale è un dispositivo mediante il quale l'ego ci separa invece di unirci. Basato su una credenza nel vuoto interiore, si chiede sempre, cosa posso ottenere? Mentre lo Spirito Santo chiede, cosa posso dare? L'ego cerca di usare altre persone per soddisfare i nostri bisogni come li definiamo. Certe voci continuano all'infinito in questi giorni sul fatto che i nostri bisogni siano soddisfatti o meno in una relazione. Ma quando proviamo a osare una relazione per servire i nostri scopi, vacilliamo perché stiamo rafforzando la nostra illusione del bisogno. Sotto la guida dell'ego cerchiamo sempre qualcosa, ma sabotiamo sempre ciò che abbiamo trovato. Una delle mie ragazze un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che aveva avuto un appuntamento con qualcuno che le piaceva davvero. La settimana successiva, ha chiamato e ha detto che aveva rotto un appuntamento con lei per andare fuori città. Dopotutto non le piaceva. Non lo prenderò da nessuno, mi disse. Sono pronto per una relazione. No, non sei pronto per una relazione, le ho detto. No, se un'altra persona non è autorizzata a commettere un errore, non lo sei. L'ego le aveva detto di rifiutare l'uomo perché era pronta per una relazione, ma quello che stava davvero facendo era assicurarsi che non ne avesse una. L'ego non sta cercando qualcuno da amare, sta cercando qualcuno da attaccare. Il suo dettato in amore è cerca e non trovare. Cerca un riflesso di sé, un'altra maschera che nasconde il volto di Cristo. Nella relazione speciale, ho paura di mostrarti la vera verità su me stesso, le mie paure, le mie debolezze, perché ho paura che se le vedi, te ne andrai. Presumo che tu sia critico quanto me. E non sto nemmeno saltando su e giù per vedere i tuoi punti deboli perché mi rende nervoso pensare di essere coinvolto con qualcuno che li ha. L'intera configurazione mitiga contro l'autenticità e quindi contro la crescita reale. Una relazione speciale perpetua la mascherata autopunitiva in cui tutti cerchiamo disperatamente di attirare l'amore attraverso l'essere qualcuno che non siamo. Anche se stiamo cercando l'amore, in realtà stiamo alimentando il nostro odio per noi stessi e la mancanza di autostima. Qual è il nostro miracolo qui? È un passaggio da pensieri di specialità a pensieri di santità. I nostri schemi mentali riguardo alle relazioni sono così carichi di paura, attacco e difesa, senso di colpa ed egoismo, per quanto graziosamente mascherati, che molte volte siamo messi in ginocchio. Come sempre, è un buon posto dove stare. Preghiamo affinché Dio guidi i nostri pensieri e sentimenti. Puoi mettere qualsiasi relazione sotto la cura dello Spirito Santo ed essere sicuro che non provocherà dolore. 7. La Santa Relazione La Santa Relazione è la vecchia relazione impia trasformata e vista di nuovo. Se la relazione speciale è la risposta dell'ego alla creazione dello Spirito Santo, la relazione santa è la risposta dello Spirito Santo. La Santa Relazione è la vecchia, speciale relazione trasformata. Nella relazione speciale, l'ego guida il nostro pensiero e ci incontriamo nella paura, maschera contro maschera. Nella Santa Relazione, lo Spirito Santo ha cambiato le nostre menti sullo scopo dell'amore di ci incontriamo da cuore a cuore. Un corso in miracoli descrive la differenza tra un'alleanza impia e una santa, perché una relazione impia si basa sulle differenze, dove ciascuno pensa che l'altro abbia ciò che non ha. Si uniscono, ciascuno per completare se stesso e derubare l'altro. Rimangono finché non pensano che non ci sia più niente da rubare, e poi vanno avanti. E così vagano in un mondo di estranei, a differenza di loro, vivendo con i loro corpi forse sotto un tetto comune che non ripara nessuno dei due, nella stessa stanza eppure un mondo a parte. Una relazione santa parte da una premessa diversa. Ognuno si è guardato dentro e non ha visto mancare. Accettando il suo compimento, lo estenderebbe unendosi ad un altro, intero come se stesso. Lo scopo di una relazione speciale è insegnarci a odiare noi stessi, mentre lo scopo di una relazione santa è di guarirci dal disprezzo di noi stessi. Nella relazione speciale, cerchiamo sempre di nascondere le nostre debolezze. Nella santa relazione, si comprende che tutti noi abbiamo luoghi non guariti e che la guarigione ha lo scopo del nostro stare con un'altra persona. Non cerchiamo di nascondere le nostre debolezze, ma comprendiamo piuttosto che la relazione è un contesto di guarigione attraverso il perdono reciproco. Adamo ed Eva erano nudi nel giardino dell'Eden ma non imbarazzati. Ciò non significa che fossero fisicamente nudi. Significa che erano emotivamente nudi, totalmente reali e onesti, ma non erano imbarazzati perché si sentivano completamente accettati per quello che erano. Il corso presenta un'immagine della relazione speciale come un'immagine inserita in una cornice. L'ego è più interessato all'inquadratura, l'idea della persona perfetta che aggiusterà tutto, di quanto lo siamo noi nella foto, che è la persona stessa. La cornice è barocca, e decorata con rubini e diamanti. Ma il corso dice che i rubini sono il nostro sangue e i diamanti sono le nostre lacrime. Questa è l'essenza della particolarità. Non è amore ma sfruttamento. Quello che chiamiamo amore è spesso odio o, nel migliore dei casi, rapina. Anche se potremmo non saperlo consapevolmente, la nostra ricerca è spesso per qualcuno che ha ciò che pensiamo di non avere, e una volta che lo avremo da loro saremo pronti per andare avanti. In una relazione santa, siamo interessati all'immagine stessa. Tutto ciò che vogliamo come cornice è un supporto leggero che faccia quel tanto che basta per mantenere l'immagine in posizione. Non ci interessa nostro fratello per quello che può fare per noi. Siamo interessati a nostro fratello, punto. La santa relazione è soprattutto un'amicizia tra due fratelli. Non siamo messi qui per fare un'audizione l'un l'altro, mettere qualcuno sotto processo o usare altre persone per gratificare i nostri bisogni egoici. Non siamo qui per aggiustare, cambiare o sminuire un'altra persona. Siamo qui per sostenerci, perdonarci e guarirci a vicenda. Una volta stavo consigliando una coppia che stava completando disordinatamente la loro relazione. L'uomo era passato ad uscire con qualcun altro e la donna era arrabbiata. Durante la nostra sessione gli ha detto della nuova ragazza, ti piace solo perché ti dice quanto sei meraviglioso tutto il tempo. La guardò molto seriamente e disse con calma, sì, penso che abbia qualcosa a che fare con questo. Come troviamo una relazione santa? Non chiedendo a Dio di cambiare i nostri partner, ma chiedendo a Dio di cambiare la nostra mente. Non scappiamo da qualcuno a cui siamo attratti perché abbiamo paura della particolarità. Ogni volta che c'è un potenziale per l'amore, c'è un potenziale per la particolarità. Spesso chiedo al pubblico, qual è la prima cosa che dovremmo fare quando siamo attratti da qualcuno? E loro rispondono in modo incoraggiante, prega. La preghiera recita più o meno così, caro Dio, tu sai, e lo so, che ho più possibilità di nevrosi in quest'area che in qualsiasi altra. Per favore, prendi la mia attrazione, i miei pensieri e sentimenti su questa persona e usali per i tuoi scopi. Lascia che questa relazione si svolga secondo la tua volontà, Amen. Il progresso spirituale è come una disintossicazione. Le cose devono venire fuori per essere rilasciato. Una volta che abbiamo chiesto di essere guariti, i nostri luoghi non guariti sono costretti a emergere in superficie. Una relazione che viene utilizzata dallo Spirito Santo diventa un luogo in cui i nostri blocchi all'amore non vengono soppressi o negati, ma piuttosto portati nella nostra consapevolezza cosciente. Non diventiamo mai matti come facciamo con le persone da cui siamo davvero attratti. Quindi possiamo vedere chiaramente le nostre disfunzioni e, quando siamo pronti, chiedere a Dio di mostrarci un'altra strada. In quanto templi di guarigione, le relazioni sono come un viaggio nello studio del medico divino. Come può un medico aiutarci se non gli mostriamo le nostre ferite. I nostri luoghi spaventosi devono essere rivelati prima che possano essere guariti. Un corso in miracoli insegna che l'oscurità deve essere portata alla luce, e non il contrario. Se una relazione ci permette semplicemente di evitare i nostri posti non guariti, allora ci stiamo nascondendo lì, non crescendo. L'universo non lo supporterà. L'ego pensa a una relazione perfetta come quella in cui tutti mostrano un volto perfetto. Ma non è necessariamente così, perché una dimostrazione di forza non è sempre onesta. Non è sempre un'espressione genuina di chi siamo. Se fingo di averlo insieme in qualche area in cui davvero non lo faccio, sto alimentando un'illusione su me stesso. Lo farei solo per paura, per paura che se tu avessi visto la verità su di me, sarei stato respinto. L'idea di Dio di una buona relazione e l'idea dell'ego di una sono completamente diverse. Per l'ego, una buona relazione è quella in cui un'altra persona si comporta fondamentalmente nel modo in cui vorremmo e non preme mai i nostri pulsanti, non viola mai le nostre zone di comfort. Ma se esiste una relazione per sostenere la nostra crescita, allora in molti modi esiste per fare proprio quelle cose, costringerci uscire dalla nostra limitata tolleranza e incapacità di amare incondizionatamente. Non siamo allineati con lo Spirito Santo finché le persone non possono comportarsi nel modo che preferiscono e la nostra pace interiore non viene scossa. Ci sono stati momenti nella mia vita in cui il mio pensiero su una relazione era, questo è terribile, ma riflettendo ulteriormente mi sono reso conto che Dio avrebbe probabilmente detto, oh, questo è buono. Marianne riesce a vedere, in altre parole, le proprie nevrosi in modo più chiaro. Una volta una ragazza mi ha detto di aver rotto con il suo ragazzo. Come mai? Ho chiesto. Perché non mi ha chiamato per cinque giorni. Non ho detto niente. Sa che ho bisogno di rassicurazioni verbali su base giornaliera, ha continuato. Così ho fissato i miei limiti. Non pensi che sia un bene? No, ho detto. Penso che sia infantile. Mi sono fermato. Hai pensato di accettarlo così com'è? Beh, grazie per il supporto, ha detto. Ho risposto, prego. Sapevo che pensava al sostegno come all'accordo degli altri sul fatto che il suo ragazzo era colpevole. È estremamente facile trovare supporto per la convinzione nella colpa. Ma il vero supporto è quando ci aiutiamo l'un l'altro a vedere oltre gli errori di qualcuno, ad abbandonare i nostri giudizi e vedere l'amore che sta al di là. Le nostre nevrosi nelle relazioni di solito derivano dal fatto che abbiamo un'agenda per un'altra persona o per la relazione stessa. Non è nostro compito cercare di trasformare una relazione in qualcosa che pensiamo dovrebbe essere. Se qualcuno non si comporta come un grande partner romantico, allora forse non è destinato a esserlo per noi. Questo non li rende sbagliati. Non tutte le relazioni sono pensate per essere l'ultima storia d'amore, se il treno non si ferma alla tua stazione, non è il tuo treno. L'ego cerca di usare una relazione per soddisfare i nostri bisogni così come li definiamo, lo Spirito Santo chiede che la relazione sia usata da Dio per servire i suoi scopi. E il suo scopo è sempre che possiamo imparare ad amare gli altri in modo più puro. Amiamo puramente quando lasciamo che le altre persone siano ciò che sono. L'ego cerca l'intimità attraverso il controllo e il senso di colpa. Nella santa relazione, non cerchiamo di cambiare qualcuno, ma piuttosto di vedere quanto sono già belli. La nostra preghiera diventa Caro Dio, prendi la bilancia davanti ai miei occhi. Aiutami a vedere la bellezza di mio fratello. È la nostra incapacità di accettare le persone esattamente come sono che ci dà dolore in una relazione. Il nostro ego è semplicemente la nostra paura. Abbiamo tutti ego, questo non ci rende persone cattive. I nostri ego non sono dove siamo cattivi ma dove siamo feriti. Il Corso dice che abbiamo tutti paura a un certo livello che se le persone vedessero chi siamo veramente, si tirerebbero indietro con orrore. Ecco perché inventiamo la maschera, per nascondere il nostro vero io. Ma il vero sé, il Cristo dentro di noi, è ciò che è più bello. Dobbiamo rivelarci al livello più profondo per scoprire quanto siamo adorabili. Quando scaviamo abbastanza a fondo nella nostra vera natura, non troviamo l'oscurità. Troviamo una luce infinita. Questo è ciò che l'ego non vuole farci vedere, che la nostra sicurezza sta proprio nell'abbassare la nostra maschera. Ma non possiamo farlo quando abbiamo costantemente paura di essere giudicati. La santa relazione è un contesto in cui ci sentiamo abbastanza al sicuro da essere noi stessi, sapendo che la nostra oscurità non sarà giudicata ma perdonata. In questo modo siamo guariti e liberati per andare avanti nella luce del nostro vero essere. Siamo motivati a crescere. Una santa relazione è questa, uno stato d'animo comune, in cui entrambi danno volentieri gli errori alla correzione, affinché entrambi possano essere felicemente guariti come uno. 8. Amore romantico Non c'è amore se non quello di Dio. Non ci sono diverse categorie di amore. Non c'è un tipo di amore tra una madre e un bambino, un altro tra amanti e un altro tra amici. L'amore che è reale l'amore che sta al centro di tutte le relazioni. Questo è l'amore di Dio e non cambia con la forma o le circostanze. Una mia ragazza mi ha detto di recente, la tua relazione con il tuo bambino deve mostrarti un tipo di amore completamente nuovo. No, non lo è, risposi. Ma mi sta mostrando una nuova profondità di tenerezza, che mi sta insegnando di più su cos'è l'amore. La gente chiede, perché non riesco a trovare una storia d'amore profonda e intima? La domanda è comprensibile, perché le persone sono sole. Un intimo amore romantico, tuttavia, è come portare un lavoro universitario verso un dottorato di ricerca. Nelle vie dell'amore, e molti di noi hanno appena finito la scuola elementare. Quando non abbiamo una relazione, l'ego fa sembrare che tutto il dolore andrebbe via se lo fossimo. Se la relazione dura, tuttavia, porterà in superficie gran parte del nostro dolore esistenziale. Questo fa parte del suo scopo. Richiederà tutte le nostre capacità di compassione, accettazione, liberazione, perdono e altruismo. Potremmo tendere a dimenticare le sfide coinvolte in una relazione quando non ci siamo, ma le ricordiamo abbastanza chiaramente una volta che lo siamo. Le relazioni non portano necessariamente via il dolore. L'unica cosa che toglie il dolore è una guarigione delle cose che causano il dolore. Non è l'assenza di altre persone nelle nostre vite a causarci il dolore, ma piuttosto quello che facciamo con loro quando sono lì. L'amore puro non chiede altro che pace per un fratello, sapendo che solo così possiamo essere noi stessi in pace. Quante volte mi sono dovuto chiedere, voglio che sia in pace o voglio che mi chiami. Il puro amore per un'altra persona è il ripristino della nostra linea del cuore. L'ego, quindi, è schierato contro di esso. Farà tutto il possibile per bloccare l'esperienza dell'amore in qualsiasi forma. Quando due persone si uniscono in Dio, i muri che sembrano separarci scompaiono. L'amato non sembra essere un semplice mortale. Per un po' sembrano essere qualcos'altro, qualcosa di più. La verità è che sono qualcosa di più. Nessuno è niente di meno che il perfetto figlio di Dio, e quando ci innamoriamo, abbiamo un istante in cui vediamo la verità totale su qualcuno. Sono perfetti. Non è solo la nostra immaginazione. Ma la follia si insinua rapidamente. Non appena appare la luce, l'ego inizia la sua potente spinta per escluderla. All'improvviso, la perfezione che abbiamo osservato sui piani spirituali viene proiettata su quello fisico. Invece di renderci conto che la perfezione spirituale e l'imperfezione fisica e materiale esistono simultaneamente, iniziamo a cercare la perfezione materiale e fisica. Pensiamo che la perfezione spirituale di qualcuno non sia abbastanza. Devono avere anche vestiti perfetti. Devono essere alla moda. Devono stupire. E così nessuno diventa più un essere umano. Ci idealizziamo l'un l'altro e quando qualcuno non è all'altezza dell'ideale, siamo delusi. Rifiutare un altro essere umano semplicemente perché è umano, è diventata una nevrosi collettiva. La gente chiede, quando arriverà qui la mia anima gemella? Ma è inutile pregare per la persona giusta se non siamo pronti a riceverla. Le nostre anime gemelle sono esseri umani, proprio come noi, che attraversano i normali processi di crescita. Nessuno è mai finito. La cima di una montagna è sempre la base di un'altra, e anche se qualcuno ci incontra quando ci sentiamo sopra le cose, è molto probabile che molto presto ci troveremo ad affrontare qualcosa che ci sfida. È il nostro impegno per la crescita che lo rende inevitabile. Ma all'ego non piace l'aspetto delle persone quando vivono cose. Non è attraente. Come in ogni altra area, il problema nelle relazioni raramente è che non abbiamo avuto opportunità meravigliose o incontrato persone meravigliose. Il problema è, non abbiamo saputo sfruttare al meglio le opportunità che abbiamo avuto. A volte non riconoscevamo all'epoca quanto fossero meravigliose quelle persone. L'amore è tutto intorno a noi. L'ego è il blocco alla nostra consapevolezza della presenza dell'amore. L'idea che ci sia una persona perfetta che non è ancora arrivata è un grosso ostacolo. La nostra vulnerabilità al mito delle MR. Giusto deriva dalla nostra glorificazione dell'amore romantico. L'ego usa l'amore romantico per i suoi scopi speciali, portandoci a mettere a repentaglio le nostre relazioni sopravvalutando il loro contenuto romantico. La differenza tra un'amicizia e una storia d'amore può essere illustrata con l'immagine di una rosa dal gambo lungo. Lo stelo è l'amicizia, il fiore il romanticismo. Poiché l'ego è orientato alle sensazioni, la nostra attenzione va automaticamente al fiore. Ma tutto il nutrimento di cui il fiore ha bisogno per vivere, lo raggiunge attraverso lo stelo. Lo stelo potrebbe sembrare noioso in confronto, ma se togli il fiore dallo stelo non durerà a lungo. Ho condiviso quell'immagine in una conferenza una volta, e una donna ha poi aggiunto un pensiero adorabile, una storia d'amore a lungo termine è come un cespuglio di rose. In una data stagione, un fiore potrebbe cadere. Ma se la pianta è ben nutrita, la stagione tornerà di nuovo e appariranno nuovi fiori. La scomparsa del fervore romantico non significa necessariamente la fine di una relazione meravigliosa, tranne che per l'ego. Lo spirito può vedere i semi della rinascita in qualsiasi modello di declino. Un corso in miracoli dice che non è nostro compito cercare l'amore, ma cercare tutte le barriere che teniamo contro la sua venuta. Pensare che ci sia una persona speciale là fuori che ci salverà è una barriera al puro amore. È una grossa pistola nell'arsenale dell'ego. È un modo in cui l'ego cerca di tenerci lontani dall'amore, anche se non vuole che lo vediamo. Cerchiamo disperatamente l'amore, ma è quella stessa disperazione che ci porta a distruggerlo una volta arrivato qui. Pensare che una persona speciale ci salverà ci tenta a caricare un'enorme pressione emotiva su chiunque si presenti e pensiamo possa adattarsi al conto. Non dobbiamo ricordare a Dio che vorremmo relazioni meravigliose. È già chiaro su questo. Un corso in miracoli ci insegna che un desiderio è una preghiera. La preghiera più illuminata non è caro Dio, mandami qualcuno di meraviglioso, ma caro Dio, aiutami a capire che sono una persona meravigliosa. Anni fa avrei pregato perché un uomo meraviglioso venisse e portasse via la mia disperazione. Alla fine mi sono detto, perché non provi ad affrontarlo prima che arrivi lui? Non riesco a immaginare un uomo che dice a un amico, accidenti, ho incontrato una favolosa donna disperata la scorsa notte. Cercare MR. Rigt porta alla disperazione perché non c'è MR. Rigt. Non c'è MR. Rigt perché non c'è MR. Vrong. C'è chiunque è di fronte a noi e le lezioni perfette da imparare da quella persona. Se il desiderio del tuo cuore è per un partner intimo, lo Spirito Santo potrebbe mandare qualcuno che non è il partner intimo definitivo per te, ma piuttosto qualcosa di meglio, qualcuno con cui ti viene data l'opportunità di lavorare attraverso i luoghi in te stesso che hanno bisogno di guarisci prima di essere pronto per l'intimità più profonda. La fede nell'amore speciale ci porta a scartare tutto ciò che non vediamo come materiale di relazione definitiva. Ho trascurato alcuni diamanti in questo modo, non sfruttando le situazioni che sarebbero servite solo ad accelerare la mia crescita. A volte non riusciamo a lavorare su noi stessi nelle relazioni che ci stanno di fronte, pensando che la vita reale inizi quando arrivano qui. Questo è solo uno stratagemma dell'ego ancora una volta, assicurandosi che cercheremo ma non troveremo. Il problema di non prendere sul serio le relazioni se non si sentono come mr. Giusto è questo, ogni tanto, il signor giusto viene qui, a volte appare persino come il signor sbagliato trasformato, ma lo facciamo saltare perché non siamo in pratica. È qui, ma non siamo pronti. Non abbiamo lavorato su noi stessi. Stavamo aspettando il signor Higt. Un corso in miracoli dice che un giorno ci renderemo conto che nulla accade al di fuori delle nostre menti. Il modo in cui una persona sembra mostrarsi per noi è intimamente connesso al modo in cui scegliamo di presentarci per loro. Ho imparato che le mie risposte più produttive nelle relazioni non derivano dalla mia concentrazione sui particolari di un'altra persona, ma piuttosto dal mio impegno a svolgere il mio ruolo nella relazione a livello più alto possibile. L'amore è un'emozione partecipativa. In una relazione santa, assumiamo un ruolo attivo nel creare il contesto in cui l'interazione può svolgersi in modo più costruttivo. Creiamo attivamente le condizioni di interesse, piuttosto che aspettare passivamente per vedere se siamo interessati o meno. Nessuno è sempre stupendo. Nessuno è sempre sexy. Ma l'amore è una decisione. Aspettare di vedere se qualcuno è abbastanza bravo è infantile, ed è destinato a far sentire l'altra persona a un certo livello come se stesse facendo un provino per la parte. In quello spazio ci sentiamo nervosi, e quando siamo nervosi, non siamo al nostro meglio. L'ego sta cercando qualcuno abbastanza attraente da supportare. I maturi e miracoli tra noi supportano le persone nell'essere attraenti. Parte del lavoro su noi stessi, per essere pronti per una relazione profonda, e imparare a supportare un'altra persona ad essere il meglio che può essere. I partner devono avere un ruolo sacerdotale nella vita dell'altro. Hanno lo scopo di aiutarsi a vicenda ad accedere alle parti più alte dentro di sé. Sono stato con uomini che non sembravano mai pensare che fossi abbastanza bravo. Sono stato anche con uomini abbastanza intelligenti da dire sei bellissima stasera abbastanza spesso da rafforzare la mia autostima e aiutarmi a presentarmi per la vita in un modo più bello. Nessuno di noi è davvero oggettivamente attraente o poco attraente. Non vi è nulla di simile. Ci sono persone che manifestano il potenziale di scintillio che tutti condividiamo, e quelle che non lo fanno. Quelli che lo fanno di solito sono persone a cui da qualche parte lungo la linea, dai genitori o dagli amanti, è stato detto verbalmente o non verbalmente, sei meravigliosa bellissima. L'amore è per le persone ciò che l'acqua è per le piante. Esaminare il passato può aiutare a chiarire molti dei nostri problemi, ma la guarigione non avviene in passato. Si verifica nel presente. In questi giorni c'è praticamente una mania di incolpare gli eventi della nostra infanzia per la nostra attuale disperazione. Quello che l'ego non vuole farci vedere è che il nostro dolore non viene dall'amore che non ci è stato dato in passato, ma dall'amore che noi stessi non diamo nel presente. La salvezza si trova solo nel presente. In ogni momento abbiamo la possibilità di cambiare il nostro passato e il nostro futuro riprogrammando il presente. Tale punto di vista è una bestemmia per l'ego e siamo giudicati duramente per averlo sposato. Anche se potremmo aver appreso le vie dell'assenza di amore dai nostri genitori, perpetuare i loro schemi negando loro l'amore ora non è certo la via d'uscita dal problema. Non arriviamo alla luce attraverso un'indagine senza fine dell'oscurità. Dopo un certo punto, la discussione diventa sempre circolare. L'unico modo per raggiungere la luce è entrare nella luce. I miei genitori non mi hanno detto che ero bella. Povero me. Non è un pensiero miracoloso. Piuttosto, supporta un sentimento di vittimizzazione. L'atteggiamento prodigioso qui sarebbe, i miei genitori non mi hanno detto che ero bella. Il valore di sapere questo è che ora sono più chiaro sul perché non mi diverto a lasciare che qualcun altro me lo dica, e capisco perché non ho sviluppato l'abitudine di dirlo agli altri. Posso sviluppare l'abitudine ora. La scelta di dare ciò che non ho ricevuto è sempre un'opzione disponibile. Un uomo mi ha detto di recente che quando era bambino, suo padre non gli faceva mai regali. Ho suggerito che una guarigione sarebbe venuta dal fatto che avesse inviato molti regali a suo padre ora. Mi preoccupavo troppo di essere supportato o meno e non abbastanza di sostenere o meno attivamente gli altri. Romanticamente, ho capito che dovevo aiutare un uomo a sentirsi più simile a un uomo, piuttosto che passare il mio tempo a preoccuparmi se fosse o meno un uomo abbastanza. Aiutiamo un'altra persona ad accedere al proprio massimo accedendo al nostro. La crescita viene dal concentrarsi sulle nostre lezioni, non su quelle di qualcun altro. Un corso in miracoli insegna che solo ciò che non hai dato può mancare in ogni situazione. Ho passato anni ad aspettare che un uomo mi facesse sentire come una vera donna. Solo quando ho capito che la mia energia femminile non era un dono dell'uomo per me, ma piuttosto il mio dono per me stesso e per lui, gli uomini intorno a me hanno iniziato a dimostrare l'energia più maschile che bramavo. La fiaba intitolata Il Principe Ranocchio rivela la profonda connessione psicologica tra i nostri atteggiamenti nei confronti delle persone e la loro capacità di trasformazione. Nella storia, una principessa bacia una rana e lui diventa un principe. Ciò che questo significa è il potere miracoloso dell'amore di creare un contesto in cui le persone sbocciano naturalmente nel loro più alto potenziale. Né assillare, cercare di convincere le persone a cambiare, criticare o aggiustare può farlo. Il corso dice che pensiamo che capiremo le persone per capire se sono degne o meno del nostro amore, ma che in realtà, finché non le amiamo, non potremo mai capirle. Ciò che non si ama non si comprende. Ci teniamo separati dalle persone e aspettiamo che si guadagnino il nostro amore. Ma le persone meritano il nostro amore per ciò che Dio le ha create per essere. Finché aspettiamo che diventino qualcosa di meglio, saremo costantemente delusi. Quando scegliamo di unirci a loro, attraverso l'approvazione e l'amore incondizionato, il miracolo si manifesta per entrambe le parti. Questa è la chiave primaria, l'ultimo miracolo, nelle relazioni. 9. Abbandonare la paura L'amore perfetto scaccia la paura. Una buona relazione non è sempre cristalli e arcobaleni. È un processo di nascita, spesso doloroso, spesso disordinato. Quando è nata mia figlia, era ricoperta di sangue e tutto il resto. C'era molto da passare prima che il bambino Gerber apparisse finalmente. Una relazione spirituale non è necessariamente quella in cui due persone sorridono continuamente. Spirituale significa per me, soprattutto, autentico. Al mio servizio di capodanno dell'anno scorso, ho detto che eravamo insieme non per una celebrazione senza cervello ma per una celebrazione consapevole. Ciò includerebbe un po' di dolore e riconoscimento delle delusioni dell'anno passato, che dovrebbero essere elaborate e perdonate prima di poter celebrare onestamente lo scoccare della mezzanotte e il segno di un nuovo inizio. Ed è così che, anche nelle relazioni, siamo riuniti per un vero lavoro. Il vero lavoro può avvenire solo in presenza di rigorosa onestà. Tutti lo desideriamo, ma abbiamo paura di comunicare onestamente con un'altra persona perché pensiamo che ci lasceranno se vedranno chi siamo veramente. Un paio delle mie lezioni una volta vennero da me per una consulenza. All'inizio di quel giorno, l'uomo aveva detto alla donna che stava interrompendo la loro relazione. È rimasta scioccata e ferita e gli ha chiesto se sarebbe venuto con lei a vedermi per aiutarla a superare la perdita. Mentre i due si sedevano di fronte a me sul mio divano, ho assicurato a Bob che non ero lì per cercare di rimetterli insieme, ma per unirmi a loro nel chiedere la pace. Mi sono ricordato di una situazione simile in cui ero stato in me stesso una volta, e di quanto brillantemente l'avesse gestita il mio terapeuta. Ho detto esattamente le cose che aveva detto. Gli ho detto, Bob, perché sei così arrabbiato con Deborah? Non sono arrabbiato con lei, ha detto. Beh, di certo sembri arrabbiato, gli dissi. So che non è il mio lavoro riparare Deborah, ha detto. Non voglio cambiarla, voglio solo uscire. Oh, scommetto che pensi che sia così spirituale, dissi. Sembrava sorpreso. Penso che pensasse di essere stato un bravo studente di A Course in Miracles. Non hai sospeso il giudizio su Deborah, dissi. Le hai nascosto informazioni vitali, dati senza i quali non potrebbe funzionare efficacemente all'interno della relazione. Perché non le dici perché sei così arrabbiato? Ancora una volta ripetuto, non sono arrabbiato. Bene, ho detto. Sei un attore. Fai finta di esserlo. Forza Bob, siamo al sicuro qui. Lascia che ce l'abbia. Il ragazzo, una volta che ha iniziato, l'ha fatto uscire. Le disse che non aveva idea di come vivere con un'altra persona. Ha semplicemente fatto tutto come voleva, e se lui voleva venire, beh, era semplicemente fantastico. Non ricordo esattamente cos'altro avessi da dire, ma c'era un sacco di comunicazione che è venuta fuori una volta che glielo ha permesso. Quando ebbe finito, Deborah, ovviamente commossa, disse con calma e sincerità, non l'ho mai saputo. Grazie per avermelo detto. Hanno lasciato il mio ufficio e non si sono lasciati. La loro relazione, mi dissero in seguito, era rinata in quella seduta. La rabbia che Bob stava provando era un'energia repressa che derivava dal fatto che aveva sentito non spirituale condividere i suoi sentimenti onesti con Deborah mentre andavano avanti. È molto meglio comunicare che sopprimere i nostri sentimenti. La rabbia è spesso il risultato di una serie di sentimenti non comunicati che si accumulano dentro di noi e alla fine esplodono. In una relazione santa, consideriamo parte del nostro impegno rimanere aggiornati nell'espressione onesta dei nostri sentimenti e sostenere il nostro partner nel fare lo stesso. Così tanto viene poi comunicato mentre andiamo avanti che le possibilità che la rabbia si accumuli dentro di noi diminuisce. Fino ad allora, dobbiamo affrontare ciò che è reale. Se la rabbia viene fuori, deve essere accettata. Se pensiamo che il nostro partner non ci amerà se ci arrabbiamo, allora smettiamo di essere onesti e la relazione è sicuramente condannata. Ho suggerito alle coppie di accettare di non rompere una relazione a causa di un litigio. È molto importante avere uno spazio sicuro per combattere. Lo dico perché combattere non è sempre combattere. Una volta stavo avendo una discussione drammatica con un amico. Un nostro comune amico ha parlato e ha detto, non sopporto il modo in cui voi ragazzi combattete sempre. Non stiamo litigando, dissi. Siamo ebrei. Pensavo che stessimo combattendo, pensavamo di avere una conversazione appassionata. La rabbia è un argomento caldo per i ricercatori spirituali. Molte persone, ad esempio, hanno problemi con la rabbia di Gesù nei confronti dei cambiavalute. Se Gesù era così puro, si chiedono, allora come poteva essersi arrabbiato? Ma nessun ebreo o italiano avrebbe problemi con quella scena. La rimozione dell'ego non è la rimozione della personalità. Quella che chiamiamo rabbia di Gesù era energia. Uno scoppio di emozione non deve essere etichettato così rapidamente come rabbia. È un rilascio di energia e non deve essere considerato un'emozione negativa o non spirituale. Solo perché qualcuno non sta esprimendo la propria rabbia, tra l'altro, non significa che non ne abbia. La rabbia rivolta verso l'esterno si chiama rabbia. La rabbia rivolta all'interno si chiama ulcere e cancro e cose del genere. La cosa più malsana che puoi fare con la rabbia è negare di averla. La prospettiva miracolosa non è fingere di non essere arrabbiato, ma piuttosto dire, sono arrabbiato ma sono disposto a non esserlo. Caro Dio, ti prego, mostrami cosa non vedo. C'è un modo per condividere la nostra rabbia con le persone, senza esprimerla come un attacco. Invece di dire, per esempio, mi hai fatto sentire questo o quello, dici, questo è come mi sento. Non sto dicendo che mi hai fatto sentire in questo modo, o che sei tu la colpa. Sto semplicemente condividendo questo come parte della mia guarigione, al fine di rilasciare questa sensazione e andare oltre. In questo modo ti stai assumendo la responsabilità dei tuoi sentimenti, e ciò che avrebbe potuto essere visto come un argomento, o addirittura evitato come spiacevole, può diventare una parte importante del potere curativo delle relazioni. Quindi non siamo avversari nella conversazione, ma partner. Le relazioni reali richiedono una comunicazione onesta e non importa quanto dolorosa, non importa quanto spaventosa. Un corso in miracoli dice che i miracoli nascono dalla comunicazione totale data e ricevuta. Quando chiedi a Dio di guarire la tua vita, egli risplende di una luce molto brillante su tutto ciò che devi guardare. Finisci per vedere cose su di te che forse preferiresti non vedere. Abbiamo un sacco di armature che si sono accumulate davanti ai nostri cuori, un sacco di paura ipocrita mascherata da qualcos'altro. Come ben sa chiunque sia mai stato in psicoterapia seria, il processo di crescita personale non è sempre facile. Dobbiamo affrontare la nostra stessa bruttezza. Spesso dobbiamo diventare dolorosamente consapevoli dell'impraticabilità di uno schema prima di essere disposti a rinunciarvi. Sembra spesso, infatti, che la nostra vita peggiori piuttosto che migliorare quando iniziamo a lavorare a fondo su noi stessi. La vita in realtà non peggiora, è solo che sentiamo di più le nostre stesse trasgressioni perché non siamo più anestetizzati dall'incoscienza. Non siamo più distanziati, attraverso la negazione o la dissociazione, dalla nostra esperienza. Stiamo iniziando a vedere la verità sui giochi a cui giochiamo. Questo processo può essere così doloroso che siamo tentati di tornare indietro. Ci vuole coraggio, questo è spesso chiamato il sentiero del guerriero spirituale, per sopportare i dolori acuti della scoperta di sé piuttosto che scegliere di sopportare il dolore sordo dell'incoscienza che durerà per il resto della nostra vita. Rido ogni volta che qualcuno suggerisce che a corse in Miracles ci sta prendendo una facile via d'uscita. Sono tante cose, ma non è facile. Dobbiamo guardare l'ego dritto negli occhi prima di avere il potere di abbandonarlo. L'ego non è un mostro. È solo l'idea di un mostro. Tutti noi abbiamo demoni e draghi dentro di noi, ma abbiamo anche il focoso principe. Non ho mai letto una fiaba in cui i draghi hanno trionfato sul principe. E non ho mai veramente cercato di superare un modello e non ho avuto l'esperienza della grazia di Dio che mi ha dato quando ho chiesto sinceramente e umilmente. Prendete il bene con il male, ci diceva mio padre quando eravamo bambini. Più impariamo sulla luce dentro di noi, più facile alla fine diventa perdonare noi stessi per il fatto che non siamo ancora perfetti. Se fossimo stati perfetti, non saremmo nati. La nostra missione è diventare perfetti, tuttavia, e guardare dove non siamo è una parte importante del processo. Diventiamo personalità perfezionate accettando la perfezione spirituale che già esiste dentro di noi. C'è una storia su Leonardo da Vinci che mi ha sempre commosso. All'inizio della sua carriera, stavo dipingendo un quadro di Cristo e trovò un giovane maschio profondamente bello da modellare per il suo ritratto di Gesù. Molti anni dopo, Leonardo dipinse un quadro che includeva Giuda. Ha camminato per le strade di Firenze alla ricerca della persona perfetta per interpretare il grande traditore. Alla fine trovò qualcuno dell'aspetto abbastanza scuro, abbastanza malvagio per fare il lavoro. Si avvicinò all'uomo per avvicinarsi a lui per fare il modello. L'uomo lo guardò e disse, non ti ricordi di me, ma io ti conosco. Anni fa, sono stato il modello per la tua immagine di Gesù. Nel film Star Wars, Darth Vader risulta essere stato un bravo ragazzo, dopo tutto, molto tempo fa. E Lucifero era l'angelo più bello del paradiso prima di cadere. L'ego è semplicemente il punto in cui si è verificato un problema tecnico, dove i fili si sono incrociati, dove l'amore è stato bloccato. Tutte le volte che ho espresso negatività invece di amore nella mia vita, c'è una cosa di cui sono molto sicuro, avrei fatto di meglio se avessi saputo come fare. Mi sarei espresso con amore se in quel momento avessi sentito di poterlo fare e avessi ancora soddisfatto i miei bisogni. Finché non ci rendiamo pienamente conto che l'ego è l'impostore dentro di noi, spesso ci sentiamo in imbarazzo ad ammettere a noi stessi, per non parlare di nessun altro, i giochi che facciamo. Invece di provare compassione per noi stessi e ricordare che le nostre nevrosi sono le nostre ferite, tendiamo a vergognarci troppo per guardarle. Pensiamo di essere cattivi. Pensiamo che se noi, o chiunque altro, Dio non voglia, vedessimo la vera verità su di noi, ci indietreremmo tutti con orrore. La verità, piuttosto, è che se noi, o chiunque altro, vedessimo la vera verità su di noi, saremmo tutti abbagliati dalla luce. Nell'esaminare noi stessi in profondità, tuttavia, dobbiamo prima affrontare ciò che ha corse in Miracle schiama l'anello della paura. Prima che il principe possa salvare la damigella in pericolo, deve uccidere i draghi che circondano il suo castello. Così facciamo tutti. Quei draghi sono i nostri demoni, le nostre ferite, i nostri ego, i nostri modi brillanti di negare l'amore a noi stessi e agli altri. Gli schemi dell'ego devono essere sradicati, disintossicati dal nostro sistema, prima che il puro amore dentro di noi possa avere la possibilità di emergere. Un maestro spirituale indiano una volta ha fatto notare che non esiste un cielo grigio. Il cielo è sempre azzurro. A volte, però, arrivano nuvole grigie e coprono il cielo azzurro. Quindi pensiamo che il cielo sia grigio. È lo stesso con le nostre menti. Siamo sempre perfetti. Non possiamo non esserlo. I nostri schemi paurosi, le nostre abitudini disfunzionali, prendono piede nelle nostre menti e coprono la nostra perfezione. Temporaneamente. Questo è tutto. Siamo ancora perfetti figli di Dio. Non c'è mai stata una tempesta che non si è passata. Le nuvole grigie non durano mai per sempre. Il cielo azzurro sì. Allora cosa dobbiamo fare con la nostra paura, la nostra rabbia, le nuvole che coprono l'amore dentro di noi? Abbandonali allo Spirito Santo. Li trasforma attraverso l'amore, e mai attraverso un attacco a un'altra persona. È l'attacco, non la rabbia stessa, che è distruttiva. Urlare contro i cuscini è diventato popolare in alcuni ambienti, e per una buona ragione. Ottenere l'energia su e fuori è spesso un buon modo per liberarsi della tensione fisica che rende così difficile pregare quando ne è più bisogno. La nostra rabbia sta di fronte al nostro amore. Lasciarlo fuori fa parte del processo di rinuncia. L'ultima cosa che vuoi fare, sempre, è accettare l'insidiosa illusione che le vite spirituali e le relazioni spirituali siano sempre tranquille o sempre beate. 10. Lavorare su noi solo ciò che non hai dato può mancare in ogni situazione. Le relazioni sono significative perché sono opportunità per espandere i nostri cuori e diventare più profondamente amorevoli. Lo Spirito Santo è il medium dei miracoli, una guida per un modo diverso di vedere noi stessi in relazione agli altri. Guardo la mia bambina mentre estende il suo amore a tutti quelli che incontra. Non ha ancora imparato che nessuno è al sicuro. Niente si frappone tra il suo naturale impulso d'amare e la sua espressione di quell'amore. Sorride con la tenerezza dei suoi veri sentimenti. Un giorno dovrò insegnarle che non tutte le espressioni d'amore sono appropriate. Ma chiudere a chiave la tua porta è molto diverso dal chiudere a chiave il tuo cuore. La più grande sfida della genitorialità sarà sostenerla nel mantenere un cuore aperto mentre vive in un mondo così spaventoso. Non possiamo davvero dare ai nostri figli ciò che noi stessi non abbiamo. In questo senso, il mio regalo più grande per mia figlia è che continuo a lavorare su me stesso. I bambini imparano di più attraverso l'imitazione che attraverso qualsiasi altra forma di istruzione. La nostra più grande opportunità per influenzare positivamente la vita di un'altra persona è accettare l'amore di Dio nella nostra. Questo è uno dei principi primari dei miracoli nelle relazioni, dobbiamo guardare a noi stessi, alle nostre lezioni, ai nostri pensieri e al nostro comportamento, per trovare la pace con un'altra persona. L'unica responsabilità dell'operatore di miracoli è accettare l'espiazione per se stesso. L'ego ci tenterà sempre a pensare che la rottura di una relazione abbia a che fare con ciò che hanno fatto di sbagliato, o ciò che non stanno vedendo, o ciò che hanno bisogno di imparare. L'attenzione deve rimanere su noi stessi. Siamo colpiti dalla mancanza di amore delle altre persone solo nella misura in cui le giudichiamo per questo. Altrimenti siamo invulnerabili all'ego, come deve essere il figlio di Dio. A volte le persone mi dicono, ma Marianne, penso che il 90% di questa sia roba loro. Va bene, dico. Allora abbiamo il 10% su cui indagare e da cui imparare. Quel 10% che è la tua parte è ciò che devi guardare e da cui imparare. È ciò che porterai con te nel prossimo scenario. L'ego lo sa, ed è per questo che cerca di focalizzare l'attenzione sull'altra persona. Lo scopo dell'ego è farci autodistruggere continuamente senza sapere che lo stiamo facendo. È già abbastanza difficile ripulire il tuo stesso atto. Cercare di ripulire quello di qualcun altro è solo un trucco dell'ego per impedirti di applicarti alle tue lezioni. Per imparare il massimo dalle relazioni, devi concentrarti sui tuoi problemi. In questi giorni è molto comune sentire le persone e lamentarsi che il loro problema è che scelgono le persone sbagliate. L'ego è molto furbo qui. Sta cercando di convincerci che ci stiamo assumendo la responsabilità del problema, quando in realtà lo stiamo facendo solo in minima parte. Poiché la nostra descrizione del problema rende ancora qualcuno colpivole, può solo portare a un'ulteriore oscurità, non alla luce. Continuo a scegliere persone che non possono impegnarsi non è una percezione mirata. Una domanda più illuminata potrebbe essere, quanto devo impegnarmi, davvero? Quanto sono preparato nei recessi più profondi del mio essere a dare e ricevere amore in modo intimo e impegnato? Oppure, come posso perdonare coloro che non sono riusciti a superare un certo muro di paura quando hanno a che fare con me? Come posso perdonarmi per i modi in cui ho contribuito o partecipato alla loro paura? A volte sembra che tu sia agganciato, ti senti ossessionato o compulsivo per un'altra persona. Quando questo è il caso, è una buona scommessa che a un certo livello non li stai lasciando fuori dai guai. Nonostante la tentazione di cercare fuori di te la fonte così come la risposta a un problema, ti mantieni al pensiero ammirato guardando dentro di te per entrambi. Il prezzo che paghi per non esserti preso la responsabilità del tuo stesso dolore è non renderti conto che puoi cambiare le tue condizioni cambiando i tuoi pensieri. Indipendentemente da chi ha avviato un'interazione dolorosa o da quanto errore risieda ancora nel pensiero di qualcun altro, lo Spirito Santo ti fornisce sempre una completa fuga dal dolore attraverso il perdono da parte tua. L'altra persona non deve unirsi consapevolmente a te nel cambiamento. Chi è più sano di mente in quel momento, dice un corso in miracoli, è invitare lo Spirito Santo in una situazione. Non importa se un'altra persona condivide o meno la nostra disponibilità a far entrare Dio. Tutto ciò di cui hai bisogno nella vita esiste già nella tua testa. Una volta ho avuto una cotta per un gay. Potrebbe essere stato irragionevole, ma non riuscivo a togliermelo dalla mente. Ho chiesto un miracolo e mi sono venuti in mente i seguenti pensieri, sai, Marianne, sei ossessionata, sei così impassibile su questo perché non lo stai rilasciando. Accettalo così com'è. Rilascialo per essere dove vuole essere, facendo tutto ciò che vuole fare con chiunque voglia farlo. È quello che non stai dando che qui manca. È quello che gli stai facendo che ti sta causando dolore. Emotivamente, il tuo ego sta cercando di controllarlo, motivo per cui ti senti controllato dalle tue emozioni. Capito. L'ho rilasciato nella mia mente, e poi mi sono sentito liberato. 11. Cuori chiusi Nessuno può dubitare dell'abilità dell'ego nel costruire casi falsi. Una volta ho conosciuto un uomo che era molto forte all'inizio delle relazioni, ma sembrava non poter fare a meno di chiudere il suo cuore non appena una donna aveva aperto il suo. Ho sentito quel tipo di comportamento definito dipendenza dalla fase di attrazione nelle relazioni. Quest'uomo non è andato in giro maliziosamente a ferire le donne. Voleva sinceramente avere una relazione genuina e impegnata. Ciò che gli mancava erano le capacità spirituali che gli avrebbero permesso di stabilirsi in un post abbastanza a lungo da costruire qualcosa di solido con un partner alla pari. Non appena vedeva difetti e debolezze umane in una donna, correva. La personalità narcisista è alla ricerca della perfezione, che è un modo per assicurarsi che l'amore non abbia mai una possibilità di sbocciare. Lo sballo iniziale può essere così inebriante, così allettante, che il vero lavoro di crescita che deve seguire la fase di attrazione iniziale può sembrare troppo monotono, troppo difficile su cui impegnarsi. Non appena l'altra persona viene vista come un vero essere umano, l'ego viene respinto e vuole trovare un altro posto dove giocare. Alla fine di una relazione con una persona del genere, ci sentiamo come se avessimo preso cocaina. Abbiamo fatto una corsa veloce e molto eccitante, e in quel momento sembrava che stesse succedendo qualcosa di significativo. Poi ci siamo schiantati e ci siamo resi conto che non era successo nulla di significativo. Era tutto inventato. Ora tutto ciò che abbiamo è un mal di testa, e possiamo vedere che questo genere di cose non è buono, non è salutare e non vogliamo farlo di nuovo. Ma c'è un motivo per cui siamo attratti da relazioni come questa. Siamo stati attratti dall'illusione del significato. A volte qualcuno che non ha nulla da offrire in una relazione reale può apparire come se stesse offrendo il mondo. Sono così dissociati dai propri sentimenti che sono diventati interpreti altamente qualificati, recitando inconsciamente qualsiasi parte prescritta dalle nostre fantasie. Ma la responsabilità del nostro dolore rimane sempre nostra. Se non avessimo cercato un brivido a buon mercato, non saremmo stati vulnerabili alla menzogna. Come abbiamo potuto essere così stupidi? Questa è la domanda che ci poniamo sempre alla fine di queste esperienze. Ma una volta che ne abbiamo avuto abbastanza, ammettiamo a noi stessi che non eravamo affatto stupidi. Sospettavamo fosse una droga. Il problema era che lo volevamo. Abbiamo visto esattamente com'era la partita con questa persona, di solito entro i primi quindici minuti, eppure eravamo così attratti dallo sballo che eravamo disposti a fingere di non averlo visto, solo per una notte, o una settimana, o comunque a lungo e durato. Il fatto che qualcuno ci abbia detto, sei così favoloso. Sei una donna meravigliosa. Questo è un grande appuntamento. Com'è fortunato un ragazzo ad avere un appuntamento con te, quando ti conosce solo da un'ora, è una luce rossa lampeggiante per qualsiasi donna pensante. Il problema è che la profondità delle nostre ferite può essere così grande, possiamo essere così affamati di ascoltare quelle parole, perché in fondo sospettiamo che non siano veritieri, che ascoltarli possa farci mettere da parte tutte le considerazioni razionali. Quando siamo affamati, siamo disperati. Le donne a volte mi dicono, Marianne, perché incontro sempre uomini emotivamente violenti? La mia risposta di solito è la seguente, il problema non è che l'ha incontrato, il problema è che gli hai dato il tuo numero. Il problema, in altre parole, non è che attiriamo un certo tipo di persona, ma piuttosto che siamo attratti da un certo tipo di persona. Qualcuno che è emotivamente distante potrebbe ricordarci, ad esempio, uno o entrambi i nostri genitori. La sua energia è distante e sottilmente disapprovante, devo essere a casa. Il problema, quindi, non è solo che ci viene offerto dolore, ma che ci sentiamo a nostro agio con quel dolore. È quello che abbiamo sempre saputo. Il rovescio della medaglia delle nostre pericolose attrazioni per le persone che non hanno nulla da offrirci è la nostra tendenza a sentirci annoiati dalle persone che lo fanno. Niente di estraneo al nostro sistema può entrare noi e rimanervi a lungo. Questo è vero sia che si parli di qualcosa preso nei nostri corpi o nelle nostre menti. Se ingoio un foglio di alluminio, il mio corpo rigurgita fino a quando l'oggetto incriminato non viene espulso. Se mi viene chiesto di ingoiare un'idea che non è d'accordo con me, il mio sistema psicologico passerà attraverso lo stesso processo di rigurgito per espellere il materiale offensivo. Se sono convinto di non essere abbastanza bravo, avrò difficoltà ad accettare nella mia vita qualcuno che pensa che lo sia. È la sindrome di Groko Marx di non voler piacere a nessuno che mi vorrebbe nel loro club. L'unico modo in cui posso accettare che qualcuno mi trovi meravigliosa, è se mi trovo meravigliosa. Ma per l'ego, l'autoaccettazione è la morte. Questo è il motivo per cui siamo attratti dalle persone che non ci vogliono. Sappiamo che non sono interessati dal cancello. Facciamo finta di essere sorpresi più tardi quando ci troviamo traditi e se ne vanno dopo un soggiorno intenso ma abbastanza breve. Si adattano perfettamente al piano del nostro ego, non sarò amato. Il motivo per cui le persone gentili e disponibili ci sembrano noiose e perché ci beccano. L'ego identifica il pericolo emotivo con l'eccitazione e afferma che la persona gentile e disponibili non è abbastanza pericolosa. L'ironia è che è vero il contrario, le persone disponibili sono quelle pericolose, perché ci mettono di fronte alla possibilità di una vera intimità. Potrebbero davvero restare abbastanza a lungo per conoscerci. Potrebbero sciogliere le nostre difese, non attraverso la violenza ma attraverso l'amore. Questo è ciò che l'ego non vuole farci vedere. Le persone disponibili fanno paura. Minacciano la cittadella dell'ego. Il motivo per cui non siamo attratti da loro è perché non siamo disponibili noi stessi. 12. Guarire le nostre ferite La guarigione è il modo in cui si supera la separazione. Le nostre barriere all'amore sono raramente scelte consapevolmente. Sono i nostri sforzi per proteggere i luoghi in cui il cuore è ferito. Da qualche parte, a volte, ci siamo sentiti come se un cuore aperto ci causasse dolore o umiliazione. Abbiamo amato con l'apertura di un bambino, e a qualcuno non importava, o rideva, o addirittura ci puniva per lo sforzo. In un breve momento, forse una frazione di secondo, abbiamo deciso di proteggerci dal provare mai più quel dolore. Non ci permetteremmo mai più di essere così vulnerabili. Abbiamo costruito difese emotive. Abbiamo cercato di costruire una fortezza nel nostro cuore, per proteggerci da qualsiasi assalto freddo. L'unico problema è, secondo il corso, che creiamo ciò da cui ci difendiamo. C'è stato un momento nella mia vita in cui ho sentito che avrei dovuto smettere di aprirmi così tanto alle persone che non hanno onorato il mio cuore come avrei voluto che fosse onorato. Ero arrabbiato con le persone che sentivo mi avessero ferito, ma ho negato la rabbia invece di entrare in contatto con essa e rilasciarla a Dio. Questa è una trappola comune per gli studenti del corso. Se la rabbia non viene portata alla consapevolezza cosciente, non ha un posto dove andare. Si trasforma in un attacco a se stessi o in un attacco inconscio inappropriato agli altri. Quindi non riconoscendo l'intera portata della mia rabbia e pensando che la lezione da imparare fosse semplicemente che non avrei dovuto rivelare così tanto dei miei sentimenti onesti, ho quindi iniziato a relazionarmi con due colpi contro di me, ero chiuso, leggilo freddo e armato di coltelli emotivi nascosti provenienti dalla mia rabbia inconscia. Contrariamente a qualunque fronte con cui sarei stato in grado di guidare, non è esattamente un pacchetto delizioso. Tra la freddezza e la rabbia, potrei spegnere gli uomini più santi. Questo, ovviamente, non fece che aumentare la mia rabbia e la mia sfiducia. Una volta stavo parlando con un terapeuta molto saggio. Ho fatto qualche commento del tipo, beh, molte donne della mia età stanno trovando molto difficile trovare uomini davvero amorevoli, impegnativi e disponibili. La sua risposta risuonò nella mia testa come le campane di una chiesa. Quando una donna me lo dice, ha detto, quello che di solito troviamo quando osserviamo abbastanza da vicino è un disprezzo per gli uomini. Disprezzo per gli uomini. Disprezzo per gli uomini. Le parole risuonavano attraverso il mio cranio. Non so se questo fesse il problema per ogni donna con cui parlava, ma sapevo che nel mio caso aveva colpito nel segno. Avevo pensato spesso all'idea nel corso che pensiamo di essere arrabbiati per ciò che il nostro fratello ci ha fatto, ma che in realtà siamo arrabbiati per quello che gli abbiamo fatto. Sapevo vagamente che era vero, ma ci sono volute molte scoperte per vedere cosa stavo facendo a questi ragazzi che sapevo solo che mi stavano facendo tutte queste cose orribili. Il corso parla di figure ombra che portiamo con noi dal nostro passato. Ci dice che tendiamo a non vedere nessuno come è ora. Continuiamo a incolpare qualcuno nel presente per qualcosa che qualcun altro ha fatto in passato. Qualche pomeruomo mi direbbe, tesoro, non posso tornare domenica sera come avevo programmato. Devo continuare a lavorare su questo progetto. Potrei non tornare prima di martedì. Beh, avrebbe potuto anche dirmi che il mio gatto era morto e il cane stava morendo. Il problema non era che l'uomo non sarebbe tornato a casa per qualche giorno in più. Il problema era come mi faceva sentire dentro di me a sentirlo dire. Una tale oscura disperazione attraverserebbe il mio cuore, non posso cominciare a dirtelo. Non mi stavo relazionando con quell'uomo, o con questa circostanza. Ricordavo tutte le volte in cui mi ero sentito come se non fossi importante, non fosse attraente, papà non voleva abbracciarmi o qualcun altro non voleva più fare sesso. Il problema era come mi faceva sentire dentro di me a sentirlo dire. Una tale oscura disperazione attraverserebbe il mio cuore, non posso cominciare a dirtelo. Non mi stavo relazionando con quell'uomo, o con questa circostanza. Ricordavo tutte le volte in cui mi ero sentito come se non fosse importante, non fosse attraente, papà non voleva abbracciarmi o qualcun altro non voleva più fare sesso. Il problema era come mi faceva sentire dentro di me a sentirlo dire. Una tale oscura disperazione attraverserebbe il mio cuore, non posso cominciare a dirtelo. Non mi stavo relazionando con quell'uomo, o con questa circostanza. Ricordavo tutte le volte in cui mi ero sentito come se non fossi importante, non fosse attraente, papà non voleva abbracciarmi o qualcun altro non voleva più fare sesso. Dal punto di vista del corso, questa situazione si stava manifestando ora per farmi sentire quella sensazione e sapere che non aveva nulla a che fare con il presente. Ho chiesto un miracolo, sono disposto a vederlo diversamente. Sono disposto a ricordare chi sono. La risposta di Dio al mio dolore non sarebbe stata, contrariamente a ciò che il mio ego continuava a insistere era l'unica via d'uscita da questo dolore, un uomo che mi avrebbe detto sessanta volte al giorno, sei favoloso, sei meraviglioso, ti amo, ti voglio, e poi mostrami quanto fossi desiderabile, forse due, preferibilmente tre volte al giorno. La guarigione, infatti, doveva venire in definitiva da uomini che non avrebbero, perché nessuno può, davvero, tollerare il mio bisogno, o il senso di colpa che avrei cercato di proiettare su di loro per soddisfare i miei bisogni. O quali pensavo fossero le mie esigenze. Il mio vero bisogno, ovviamente, era capire che non avevo bisogno di un uomo per riempire quelli che sembravano solo questi insaziabili bisogni emotivi. I bisogni stessi non erano reali, ma semplicemente un riflesso del fatto che mi consideravo tutt'altro che perfetto. La salvezza sarebbe arrivata solo attraverso la mia rinuncia al pensiero di non essere abbastanza bravo. Difendendomi dall'abbandono, ho continuato a ricreare le condizioni in cui doveva verificarsi. Perché gli uomini non possono impegnarsi? Posso rispondere solo per alcune di loro che ho conosciuto, ma in quei casi, e nei casi di molte donne che ho osservato, gli uomini non hanno commesso perché le donne sono state corazzate contro di essa. La nostra armatura è la nostra oscurità, l'oscurità del cuore, l'oscurità del dolore, l'oscurità del momento in cui facciamo quel commento malvagio o quella richiesta ingiusta. Le nostre difese riflettono le nostre ferite. Ma nessuna persona può curare quelle ferite. Possono darci amore, innocentemente e sinceramente, ma se siamo già convinti che non ci si può fidare delle persone, se questa è la decisione che abbiamo già preso, allora la nostra mente interpreterà qualunque sia il comportamento di qualcuno, come prova che il nostro precedente conclusione tratta era corretta. Il corso ci dice che decidiamo cosa vogliamo vedere prima di vederlo. Se vogliamo concentrarci sulla mancanza di rispetto di qualcuno per i nostri sentimenti, possiamo certamente trovarlo, dato che non conosco molti maestri illuminati disponibili per incontri nelle principali città d'America oggi. Ma molte persone stanno facendo sforzi maggiori di quelli di cui gli diamo credito, e stanno lavorando contro alcune formidabili probabilità quando il nostro ego ci ha convinto che gli uomini o le donne sono degli idioti, o che non gli piacciamo, o che se ne vanno sempre, 13. Cambiare mente Il cambiamento fondamentale avverrà con il cambiamento di mente nel pensatore. L'obiettivo della pratica spirituale è il pieno recupero e l'unica cosa da cui devi recuperare è un senso di sé fratturato. Se non ci credi già tu stesso, un'altra persona non può convincerti che stai bene. Se si comportano come se lo fossi tu, o non gli crederai, o diventerai così dipendente dal loro rinforzo che procedi attraverso la tua dipendenza per cambiare idea. In ogni caso, rimani convinto che non stai bene. L'unico esercizio nel quaderno di un corso in miracoli che viene ripetuto più volte è io sono come Dio mi ha creato. Come ho detto prima, il corso dice che il tuo unico vero problema è che hai dimenticato chi sei. Ti risvegli alla tua perfezione attraverso il tuo desiderio di vedere la perfezione in qualcun altro. A volte questo non è facile. Quando sento la vecchia oscurità familiare che inizia a calare intorno a me, quando un uomo, per esempio, fa un commento che so intellettualmente probabilmente abbastanza innocente, ma che mi fa sentire abbandonato, non curato o rifiutato, o ne ho passate abbastanza nella mia vita per sapere che il male non sta in quello che ha appena detto. Non è il nemico. Il nemico è questa sensazione, che in passato mi ha portato ad attaccare o difendere abbastanza da fargli sentire esattamente quello che io sento che lui sta provando ma in realtà non lo è. Posso scegliere di vederlo diversamente. Questo è il mio muro. È qui che dobbiamo essere molto coscienti e invocare Dio. Chiedi un miracolo, caro Dio, aiutami per favore. Questo è. Giusto qui. È lì che la spada entra nel mio cuore. Il momento in cui il dolore è più grande è una meravigliosa opportunità. L'ego preferirebbe che non guardiamo mai troppo direttamente nel dolore. Quando siamo in crisi, c'è una buona opportunità per cui possiamo sbagliare e chiedere aiuto al cielo. L'ego preferirebbe che non entrassimo in crisi. L'ego preferisce che un lieve fiume di miseria scorra sullo sfondo delle nostre vite, ma è così grave da farci dubitare se le nostre stesse scelte stiano creando il dolore. Quando il dolore è qui, è allora che abbiamo la possibilità di scacciare Satana e rimuoverlo per sempre. Un uomo una volta mi ha detto, sai, Marianne, puoi lavorare su queste cose con il tuo terapeuta, un corso in miracoli, il tuo editore, il docente di relazioni e tutte le tue amiche, ma nessuno di loro ti offre l'opportunità che hai lavorando con me. Cosa intendevo ovviamente è con loro che potrei descrivere il dolore, ma con lui potrei sentirlo. E in quel momento, se non prendessi la foga infantile e narcisistica e me ne andassi, ma rimanessi ad affrontare la paura e ad attraversarla, allora lo scopo della relazione potrebbe essere realizzato. Quando la nostra oscurità viene portata alla luce perdonata, allora possiamo andare avanti. Guariamo notando e pregando. La consapevolezza da sola non ci guarisce. Se l'analisi da sola potesse sanare le nostre ferite, saremmo tutti guariti ormai. Le nostre nevrosi si sono profondamente radicate nella nostra psiche, come un tumore che si avvolge attorno a un organo vitale. Il processo di cambiamento miracoloso è duplice, vedo il mio errore o schema disfunzionale. Chiedo a Dio di togliermela. Il primo principio senza il secondo è impotente. Come si dice in alcolisti anonimi, il tuo miglior pensiero ti ha portato qui. Tu sei il problema ma non sei la risposta. Anche il secondo principio non è sufficiente per cambiarci. Lo Spirito Santo non può toglierci ciò che non gli rilasceremo. Non funzionerà senza il nostro consenso. Non può rimuovere i nostri difetti di carattere senza la nostra volontà, perché ciò violerebbe il nostro libero arbitrio. Abbiamo scelto quei modelli, per quanto erroneamente, e lui non ci costringerà a rinunciarvi. Chiedendo a Dio di guarirti, ti stai impegnando nella scelta di essere guarito. Questo significa la scelta di cambiare. La resistenza dell'ego a questo è intensa. Vuole farci pensare che un vecchio cane non cambia. Sono arrabbiato perché sono un alcolizzato, per esempio, potrebbe descrivere la tua rabbia, ma non la giustifica. L'unico vantaggio di sapere che sei arrabbiato è che puoi scegliere di essere altrimenti. Puoi passare anni in terapia, ma finché non viene presa la scelta di farlo in modo diverso, continui a girare in tondo. Ovviamente sembra innaturale essere gentili quando sei stato duro per molti anni, ma non è una scusa per non provarci. Un corso in miracoli dice che il modo più efficace per insegnare a un bambino non è dire non farlo, ma fai questo. Non raggiungiamo la luce attraverso l'analisi infinita dell'oscurità. Raggiungiamo la luce scegliendo la luce. Luce significa comprensione. Attraverso la comprensione, siamo guariti. Se lo scopo di una relazione è che le persone siano guarite, e la guarigione può avvenire solo quando le nostre ferite vengono rivelate, allora l'ego ci mette di fronte a un terribile catch 22. Se non mi mostro non ci può essere crescita. Senza crescita, alla fine ci sarà la noia, che è la morte per la relazione. Ma se mi rivelo onestamente, allora potrei sembrare poco attraente e il mio partner se ne andrà. Il narcisismo dell'ego ci fa aspettare che appaia la persona perfetta. Lo Spirito Santo sa che la ricerca della perfezione in un altro è solo una cortina di fumo che nasconde il nostro bisogno di sviluppare il perfetto dentro di noi. E se c'è una persona perfetta là fuori, cosa che non c'è, uscirebbe con te? Quando rinunciamo all'ossessione infantile di scansionare, il pianeta alla ricerca di MR. OMS. Riget, possiamo iniziare a sviluppare le capacità di relazione compassionevole. Smettiamo di giudicare le persone e iniziamo invece a relazionarci con loro. Riconosciamo, prima di tutto, che non siamo in una relazione per concentrarci su quanto bene l'altra persona stia imparando le loro lezioni, ma piuttosto per concentrarci sull'apprendimento delle nostre. L'ego difende dall'amore, non dalla paura. Il dolore nelle relazioni può essere un dolore perversamente confortevole, in quanto lo conosciamo. Ci siamo abituati. Una volta ho sentito un nastro di Ram Dass, un insegnante spirituale americano, in cui raccontava di aver visto un articolo di giornale su un bambino maltrattato che veniva portato via da sua madre. Mentre una matrona della polizia ha cercato di prendere il bambino, ha continuato a lottare per rimanere tra le braccia di sua madre. Sebbene fosse stata sua madre a picchiarlo, era lei quella che lui conosceva. Era abituato a lei. Voleva rimanere nel territorio familiare. Questa storia illustra la nostra relazione con il nostro ego. L'ego è il nostro dolore, ma è ciò che sappiamo e resistiamo a uscirne. Lo sforzo necessario per uscire da schemi dolorosi spesso si sente più a disagio che rimanerci dentro. La crescita personale può essere dolorosa, perché può farci vergognare e umiliarci di fronte alla nostra stessa oscurità. Ma l'obiettivo della crescita personale è il viaggio fuori dagli schemi emotivi oscuri che ci causano dolore, verso quelli che creano pace. Psicoterapia, scopo, processo e pratica dice che a loro apice, religione e psicoterapia diventano una cosa sola. Entrambi rappresentano il rapporto tra pensiero ed esperienza e sono usati dallo Spirito santo per celebrare uno dei più gloriosi potenziali umani, la nostra capacità di cambiare. In questi giorni c'è la tendenza ad analizzare le nostre nevrosi all'infinito, ma osare l'analisi stessa per giustificare piuttosto che curare la ferita. Dopo un certo punto, dopo aver visto perché si è sviluppato uno schema mio padre era emotivamente indisponibile oppure mia madre mi ha abusato, e l'effetto che ha avuto sulla nostra personalità non so come lasciare che un uomo si vicino a me o ora faccio fatica a fidarmi di qualsiasi figura autoritaria, il vero cambiamento avviene a causa di una nostra decisione, la decisione di guarire, la decisione di cambiare. Alla fine non importa molto perché mi arrabbio o divento sulla difensiva. Ciò che conta è che io decida di voler essere guarito e chiedo a Dio di aiutarmi. Come un attore che legge le battute di un copione, posso scegliere una nuova risposta alla vita, una nuova lettura. Alcune persone a questo punto urlerebbero nega. Ma ciò che stiamo negando è l'impostore dentro di noi. Solo perché abbiamo un sentimento onesto, ciò non significa che siamo chi siamo onestamente. Il mio si arrabbiato non è il vero me. Deve essere riconosciuto? Sì, ma solo per andare oltre. Una volta che ho visto la mia rabbia, sono pronto, come si dice in A, a comportarmi come se potessi farlo diversamente. Perché posso? Il nostro ego ha creato un personaggio immaginario che ora pensiamo come la nostra personalità. Ma creiamo costantemente quella personalità e, se lo scegliamo, la ricreiamo costantemente. Una volta stavo parlando con un amico e ha fatto qualche commento su come temeva che, se fossimo stati coinvolti da vicino, uno di noi potesse farsi male. Per chi di noi ti preoccupi? Ho chiesto. Lui rispose, tu. Ho sentito un rifiuto anticipatorio. Ero arrabbiato e gliel'ho detto. Questo è quello che voglio dire, ha detto. Ovviamente prendi le cose in modo così personale che non penso di poterlo sopportare a lungo. Sapevo che questo era un momento che avevo ripetuto in vari modi con varie persone e avevo chiesto più volte la guarigione. Ero aperto. Gli ho chiesto, dimmi onestamente, come avrei potuto farlo diversamente? Cos'altro avrei potuto dire? Avresti potuto semplicemente sorridere e dire, non lusingarti. Ero così eccitato. Ero come un'attrice desiderosa di lavorare con un grande regista. Oh, è fantastico, dissi. Torniamo indietro e facciamo quella scena ancora una volta. Ripeti quello che hai detto. Sai, Marianne, ho solo questa terribile sensazione che se ci fossimo davvero messi insieme, uno di noi si sarebbe fatto male. Di chi di noi hai paura? Ho chiesto. Voi. Lo guardai e sorrisi. Non lusingarti. Lui rise e io ululai per l'eccitazione. Questo non era stato un risveglio da poco. È stato un vero potenziamento, una riprogrammazione del mio computer emotivo in un'area in cui inconsciamente avevo cercato ogni volta uno schema di risposta impraticabile. Ora ho stabilito un nuovo ritmo, una nuova serie di possibilità. Inizialmente avevo scelto la via della rabbia. Ora ho scelto la via dell'amore. Non dovevo essere l'animale ferito. Potevo scegliere di identificarmi con la mia forza, che in effetti era il ruolo più naturale per me da svolgere. Potrei scegliere di vedere gli altri attraverso una natura generosa e fiduciosa. Mio fratello non era qui per attaccarmi. Era qui per amarmi. Stava completamente a me decidere se fidarmi di quello e ricambiare il suo amore. Accettando l'espiazione, la correzione delle nostre percezioni, torniamo a chi siamo veramente. Il nostro vero se puramente amorevole non potrà mai essere increato. Tutte le illusioni saranno annullate. Sebbene esperienze come i traumi infantili possano portarci a deviare dalla nostra vera natura, la verità stessa è custodita per noi dallo Spirito Santo finché non scegliamo di tornare. 14. Praticare il perdono Il perdono è l'unica risposta sana. Per l'ego, l'amore è un crimine. Cerca di convincerci che il perdono è una posizione pericolosa che comporta un sacrificio ingiusto da parte nostra. L'ego afferma che il perdono può portarci in situazioni in cui diventiamo lo zerbino di qualcuno. Per l'ego, l'amore è debolezza. Per lo Spirito Santo, l'amore è forza. Stavo uscendo con qualcuno diversi anni fa, quando si giocava nei giochi olimpici a Los Angeles. Le cerimonie di apertura sono state una meravigliosa rappresentazione teatrale ed è stato molto difficile ottenere i biglietti. Poiché era coinvolto nei media, ma ha ricevuto, all'ultimo minuto, un passaggio che gli avrebbe permesso di andare. Ero molto eccitato per lui. Tutti in città sapevano che sarebbe stato un evento meraviglioso. Decidemmo che avrei guardato le cerimonie in tv e ci saremmo incontrati dopo. Al termine della trasmissione, ho iniziato a vestirmi e ho pensato che sarebbe potuta passare un'ora o giù di lì prima di sentirlo, dal momento che il traffico intorno allo stadio era destinato ad essere orrendo. Passò un'ora e poi un'altra. Beh, è in tv, ho pensato, quindi forse è saltato fuori qualcosa. Un'altra ora e poi un'altra. Mezzanotte venne e se ne andò. Mi sono tolto i vestiti e il trucco. Erano le due del mattino, poi le tre. A volte mi addormentavo, a volte mi sdraiavo al buio e fissavo il soffitto, a volte ero livido, e altre volte avevo paura che fosse sdraiato in un fosso da qualche parte. Ho iniziato a chiamare casa sua. Nessuna risposta. Chiamerei di nuovo. Nessuna risposta. Alla fine, non avendo dormito quasi per niente, ho chiamato verso le sei del mattino e lui ha risposto al telefono. Ciao, disse. Mike. Ho detto. Questa è Marianne. Oh ciao. Stai bene? Sì, perché? Avevamo un appuntamento ieri. Hai dimenticato? Oh, giusto, disse. Ho avuto una specie di tarda notte. Non so cosa ho detto per chiudere il telefono, ma so come mi sentivo e non è stato meraviglioso. Mi sono alzato in piedi e ho sentito il tipo di colpo alla mia autostima che inizia nelle tue viscere e spara inchiostro nero emotivo attraverso tutte le tue vene. Stordito, in qualche modo mi sono addormentato. Quando mi sono svegliato, ho avuto una visione completamente nuova della situazione. Sapevo solo che si sarebbe svegliato dispiaciuto per come si era comportato. Stava per presentarsi alla mia porta da un momento all'altro, portando una dozzina di rose e dicendo, ciao, piccola, posso portarti al brunch. Lo scenario nella mia testa richiedeva il mio essere davvero gentile, certo che poi, tesoro sarebbe uscito dalla mia bocca con una melodia da ragazza. Il problema è che non è mai venuto. Non solo non è venuto. Non ha mai chiamato. Ero in una zona oscura. Ora cosa direbbe un corso in miracoli al riguardo? Sapevo di aver bisogno di un miracolo. Ma tutto ciò che riuscivo a trovare erano due scelte per affrontare questo problema, che avevo provato entrambe in precedenza in situazioni simili, e nessuna delle due si sentiva bene o mi dava quello che volevo. La mia prima scelta è stata quella di arrabbiarmi molto e farglielo sapere. Chi pensi di essere per trattarmi così, figlio di puttana? Il problema di quella scelta era che avrebbe completamente invalidato la mia posizione. Marianne è una brava ragazza, ma il suo temperamento non taglia. È isterica quando non fa a modo suo. L'unica altra scelta che potevo immaginare era di perdonarlo e lasciar perdere. Ma neanche questo mi faceva sentire bene. Va bene che tu mi abbia dato una bella scaglia, Mike. Non mi interessa. Non importa. L'amore incondizionato che potrei capire, ma non la datazione incondizionata. Non sapevo cosa fare. Ho chiesto un miracolo. Ho considerato la possibilità di un'altra possibilità. Ho dato la situazione a Dio e mi sono ricordato che non avevo bisogno di fare nulla. Dal punto di vista del corso, la prima cosa che ho dovuto affrontare è stato il mio giudizio. Finché non ero in pace, il mio comportamento avrebbe portato l'energia del mio conflitto. Il comportamento conflettuale non può portare la pace. Può solo produrre più conflitto. Per prima cosa ho dovuto fare i conti con le mie percezioni. Il resto sarebbe seguito. Così mi è venuto in mente un esercizio, ripetevo costantemente, ad alta voce quando potevo e in silenzio quando erano presenti altre persone, ti perdono mai che ti rilascio allo Spirito Santo. Ti perdono mai che ti rilascio allo Spirito Santo. Ti perdono mai che ti rilascio allo Spirito Santo. Dato che Mike non ha chiamato il giorno dopo la nostra telefonata mattutina o il giorno dopo, o il giorno dopo, ho avuto molti sentimenti negativi da cercare di dissipare. Il mio canto del perdono, una specie di mantra, o ripetuta affermazione di saggezza spirituale, ha funzionato come un balsamo curativo sul mio tumulto emotivo. Ha scoraggiato la mia tentazione di concentrarmi sul comportamento di Mike e mi ha tenuto invece concentrato sui miei sentimenti. Il mio obiettivo era la pace interiore e sapevo che non potevo averla finché lo percepivo come colpevole. Nel caso ve lo stiate chiedendo, ci sono volute due settimane per chiamare. La ripetizione costante di ti perdono Mike, e ti rilascio allo Spirito Santo, questa disponibilità a perdonare qualcuno, aveva funzionato sul mio cervello come una piacevole droga. Non mi importava se l'avessi sentito di nuovo o meno. Così un giorno sono a casa mia, il telefono squilla e sento la voce familiare di Mike. Mariana. Prima ancora che potessi pensarci consapevolmente, un vero calore e amore mi hanno riempito il petto. Mike? Ciao. È così bello sentirti. Ed esso era. È stato meraviglioso sentire la sua voce. Come va? Mi sei mancato. Riesci a credere che l'abbia detto? Non so se ho detto che anche lui mi era mancato. La sua battuta era così ridicola, probabilmente non ho detto niente. Ma ricordo questo, disse, Bene, quando posso vederti? Ho detto, quando vorresti? Che ne dici di stasera? In quel momento, dalla mia bocca uscirono parole che mi spaventarono tanto quanto avrebbero dovuto spaventare lui. Ho detto con molto amore e gentilezza, Mike, ci tengo davvero a te e questo non cambierà. Sono ancora tuo amico, qualunque cosa accada. Ma quando si tratta di appuntamenti, non sembra che facciamo lo stesso ballo. Quindi, se vuoi pranzare qualche volta, chiama. Ma per quanto riguarda una data, devo passare. Entrambi mormorammo ancora qualche convenevole e poi riattaccammo al telefono. Ero preoccupato di aver rifiutato un fratello, ma proprio mentre mi veniva in mente quella preoccupazione, vidi un'immagine interna di tante bottiglie di champagne con i loro tappi che spuntavano in mezzo al paradiso. Non avevo rifiutato un fratello. Mi ero semplicemente accettato in un modo completamente nuovo. Aveva una vittoria, una lezione appresa e un'amicizia se lo voleva, e io avevo una vittoria. Il perdono non mi aveva trasformato in uno zerbino. Mi aveva insegnato come possedere il mio sì e possedere il mio no, senza rabbia, con dignità e con amore. 15. Comunicare l'amore Comunicare è unirsi e attaccare è separarsi. Lo Spirito Santo accoglie le persone incondizionatamente. Per l'ego, questo è un pensiero oltraggioso, perché l'amore incondizionato è la morte dell'ego. Come cresceranno le persone se andiamo in giro ad accettarci l'un l'altro come siamo tutto il tempo. Accettare le persone così come sono ha l'effetto miracoloso di aiutarle a migliorare. L'accettazione non vieta la crescita, anzi, lo favorisce. Le persone che ci dicono sempre cosa c'è che non va in noi non ci aiutano tanto quanto ci paralizzano con vergogna e senso di colpa. Le persone che ci accettano ci aiutano a stare bene con noi stessi, a rilassarci, a trovare la nostra strada. Accettare un'altra persona non significa che non condividiamo mai suggerimenti costruttivi. Ma come tutto il resto, il nostro comportamento non è tanto il problema quanto l'energia che trasporta. Se sto criticando qualcuno per cambiarlo, è il mio ego che parla. Se però ho pregato e chiesto a Dio di guarirmi dal mio giudizio, e poi sono ancora portato a comunicare qualcosa, lo stile della mia condivisione sarà quello dell'amore anziché della paura. Non trasporterà l'energia dell'attacco, ma piuttosto del supporto. Il cambiamento comportamentale non è sufficiente. Coprire un attacco con una glassa zuccherina, con un tono di voce dolce o un gergo terapeutico, non è un miracolo. Un miracolo è un autentico passaggio dalla paura all'amore. Quando parliamo dall'ego, richiameremo l'ego negli altri. Quando parleremo dello Spirito Santo, evocheremo il loro amore. Un fratello che sbaglia, dice il corso, chiama a insegnare, non ha da attaccare. La sezione seguenti del corso è una guida efficace alla comunicazione corretta nelle relazioni. Gli errori sono dell'ego e la correzione degli errori risiede nella rinuncia dell'ego. Quando correggi un fratello, gli stai dicendo che ha torto. Potrebbe non avere senso in quel momento, ed è certo che, se sta parlando dall'ego, non avrà senso. Ma il tuo compito è ancora dirgli che ha ragione. Non dirglielo verbalmente, se sta parlando in modo sciocco. Ha bisogno di una correzione a un altro livello, perché il suo errore è a un altro livello. Ha ancora ragione, perché è figlio di Dio. I miracoli vengono creati in un regno invisibile. Lo Spirito Santo migliora il nostro stile. Ci insegna come comunicare dall'amore invece che dall'attacco. Spesso le persone diranno, beh, glielo ho detto. Ho davvero comunicato. Ma la comunicazione è una strada a doppio senso. Si verifica solo se una persona parla e l'altra può ascoltarla. Siamo stati tutti in conversazioni in cui due persone hanno parlato e nessuno ha sentito niente. Abbiamo anche avuto conversazioni in cui nessuno ha detto nulla ed entrambe le persone hanno capito tutto perfettamente. Per comunicare veramente, dobbiamo assumerci la responsabilità dello spazio del cuore che esiste tra noi e l'altro. È quello spazio del cuore, o la sua assenza, che determinerà se la comunicazione è miracolosa o spaventosa. A volte, ovviamente, questo significa tenere la bocca chiusa. Il silenzio può essere una comunicazione potentemente amorevole. Ci sono state volte in cui mi sbagliavo, e sapevo di sbagliarmi, e sapevo che loro sapevano che avevo torto, e li amavo per aver avuto la gentilezza di non dire nulla. Mi ha dato la possibilità di recuperare con dignità. Quando parliamo, la chiave della comunicazione non è ciò che diciamo, ma piuttosto l'atteggiamento che sta dietro ciò che diciamo. Poiché esiste una sola mente, tutti noi comunichiamo telepaticamente tutto il tempo. In ogni momento scegliamo di unirci o di separarci e la persona a cui stiamo parlando sente ciò che abbiamo scelto indipendentemente dalle nostre parole. La scelta di aderire è la chiave della comunicazione perché è la chiave della comunione. Il punto non è cercare il nostro obiettivo in una comunicazione, ma trovare un puro fondamento dell'essere da cui montare il nostro messaggio. Non cerchiamo l'unione attraverso le nostre parole, accettiamo il pensiero di essere uniti all'altra persona prima di parlare. Quella accettazione è di per sé un miracolo. Il maestro di Dio è uno strumento intuitivo finemente sintonizzato. Un corso in miracoli dice che dobbiamo prima di tutto ascoltare nostro fratello. Se dobbiamo parlare, ce lo farà sapere. Gesù una volta mandò i suoi discepoli in campagna e disse loro di insegnare il Vangelo. Cosa dobbiamo dire? Gli hanno chiesto. La sua risposta è stata, te lo dirò quando arrivi. Non dobbiamo cercare di capire cosa dire a un fratello. È semplicemente nostro compito chiedere allo Spirito Santo di purificare le nostre percezioni dell'altra persona. Da quel luogo dentro, e solo da quel luogo, troveremo il potere delle parole e il potere del silenzio, che portano la pace di Dio. 16. Impegno chi Dio ha riunito, l'ego non può separarlo. Un corso in miracoli dice che dobbiamo avere un impegno totale in tutte le nostre relazioni e che non potranno mai competere tra loro. Impegno in una relazione significa impegno nel processo di comprensione e perdono reciproci, non importa quante conversazioni occorrono, né quanto a volte possano essere scomode quelle conversazioni. Quando ci separiamo fisicamente da qualcuno con cui siamo stati coinvolti, ciò non significa che la relazione sia finita. Le relazioni sono eterne. La separazione è un altro capitolo della relazione. Spesso, lasciare andare la vecchia forma della relazione diventa una lezione di puro amore molto più profonda di qualsiasi altra cosa che sarebbe stata appresa se la coppia fosse rimasta insieme. Alla cosiddetta fine delle relazioni, a volte mi sono sentito come se mi stessi innamorando della persona più profondamente di quanto non fossi prima. Quello che ho scoperto per me stesso è che lo Spirito Santo a volte fa di tutto in quel momento, semplicemente perché ci vuole tutto l'amore di cui siamo capaci per lasciare andare una persona. Ti amo così tanto che posso liberarti per essere dove devi essere, per andare dove devi andare. Questo momento in una relazione non riguarda una fine. A volte la lezione da imparare in una relazione è come rimanere lì e cercare di risolvere le cose. Altre volte, la lezione da imparare è come uscire da una situazione che non serve. Nessuno può determinare per un'altra persona quale principio si applica in quale circostanza. In definitiva è la nostra connessione con lo Spirito Santo, la nostra guida intuitiva, che sola può condurci allo sviluppo più elevato degli eventi attraverso la comprensione più profonda. Ho detto in molte conferenze, non abbandonare mai una persona quando te ne vai. Che cosa significa? Significa che è importante per noi onorare la natura eterna delle relazioni. Quando le relazioni cambiano forma, il loro contenuto non deve essere sminuito. L'ego dice, guarda, per loro è finita. Non ha funzionato. Non stiamo più insieme. Che cosa era, era. Ora sono con qualcuno di nuovo. L'ex diventa cittadino di serie B. Spesso il nuovo coniuge si sente giustificato nel dire, perché parli con loro? Adesso stiamo insieme. Guai alla persona che non sostiene la guarigione tra un uomo o una donna e il loro ex. Alla fine scopri che il modo in cui la persona ha trattato l'ultimo è esattamente come ti tratterà. Proviamo la gelosia, il bisogno di aggrapparci a ciò che abbiamo, perché in quest'area, come in ogni altra, l'ego dice che c'è solo tanto amore in giro, che il bene di un altro toglie al nostro. L'ego è una credenza in risorse limitate, ma l'amore è infinito. Ogni volta che l'amore viene aggiunto a qualsiasi parte del sistema, c'è un aumento in ogni parte. L'amore genera solo più amore. Se mio marito o mio ragazzo guarisce con le sue relazioni passate, aumenta solo la sua capacità di amarmi da un luogo guarito e completo. L'ultima donna della sua vita non è la mia concorrenza. Lei è mia sorella. Un uomo che conoscevo una volta è venuto a cena a casa mia. Ci frequentavamo da poco tempo e gli ho chiesto cosa avesse fatto tutto il giorno. Mi ha detto che stava lavorando a una sceneggiatura con la sua ultima ragazza, che era ancora la sua compagna di scrittura. Mi ha detto che avevano avuto una conversazione piuttosto appiccicosa sulla loro relazione. Era ancora ferita, aveva difficoltà a lasciarsi andare, le stesse cose che tutti sappiamo. Gli ho chiesto come l'avessero lasciato. Ha detto che era piuttosto sconvolta. Ho messo giù il cibo che stavo preparando, l'ho guardato negli occhi e gli ho detto, vai a chiamarla. Il pensiero di quella donna da qualche parte dall'altra parte della città, che sopportava quell'orribile ansia mentre ci sedevamo a una cena romantica, era difficile da sopportare per me. Ero stato al suo posto. Quanto sarebbe stato totalmente immorale per me non sostenere quella donna nei suoi sentimenti. Non ti dispiace? Egli ha detto. Niente affatto gli dissi. La cena può aspettare. I nostri bisogni non sono separati. Se contribuiamo al dolore di un'altra persona, tornerà sempre a perseguitarci. Se facciamo il possibile per aiutarli, qualcuno verrà sempre a fare lo stesso per noi. Non è sufficiente restare a guardare mentre gli altri fanno male, usando l'espressione generica non è una mia responsabilità o sarebbe codipendente da parte mia essere coinvolto come scusa per una posizione egoistica. Una volta una donna mi ha detto dopo una situazione in cui mi sono sentita tradita, non ho mai avuto intenzione di farti del male. Ho detto, ma non hai mai avuto intenzione di amarmi neanche. L'amore non è neutrale. Prende posizione. È un impegno per il raggiungimento delle condizioni di pace per tutti coloro che sono coinvolti in una situazione. 17. La fede nelle relazioni La fede è il riconoscimento dell'unione. Spesso desideriamo ardentemente un'altra persona perché, in un regno invisibile e intangibile, stiamo ancora comunicando, ancora connettendoci, ancora cercando una soluzione. La gente dirà, se è nevrotico. È ora di lasciarsi andare. Ma c'era un tempo in cui le vedove portavano erbacce per un anno, il dolore è stato compreso, riconosciuto, convalidato. Non è nevrotico addolorare una relazione, ciò che è nevrotico e quando non lo facciamo. A un certo livello, non importa quanto potremmo essere dissociati dai nostri sentimenti, ogni relazione porta speranza, la speranza che questo possa essere un posto sicuro, un rifugio, un riposo dopo tutte le nostre battaglie. Quando una relazione non funziona, per qualsiasi motivo, la nostra delusione è naturale. Ogni incontro intenso rappresenta una connessione karmica profonda e complicata. Una relazione che finisce è molto simile a una morte e in molti casi la tristezza è ancora più grande. Quando qualcuno è morto, spesso c'è stato completamento e comprensione che non si verificano quando entrambe le persone sono vive ma si sono separate senza una maggiore consapevolezza. Forse la persona che amiamo è semplicemente dall'altra parte della città ora, a letto con qualcun altro, eppure sono davvero universi lontani poiché la risoluzione che tanto bramiamo non si è verificata. Non c'è bisogno di fingere che questo non sia un coltello al cuore. Lo è, e non c'è altro da fare che piangere le lacrime che sgorgano come sangue da una ferita. Ora è il momento della fede. Lasciamoci addolcire dalle nostre lacrime. Quando i coltelli emotivi colpiscono il cuore, i muri si sgretolano che all'inizio non erano lì. Possiamo imparare allora. Possiamo imparare cosa è illusione e cosa è reale. Possiamo imparare che non ci si può mai fidare degli idoli e possiamo conoscere un amore che non se ne va mai e poi mai. Ci sono molti conflitti nelle relazioni che mettono alla prova la nostra fede. Uno di questi è il tradimento. Tradimento è una parola che non capiamo davvero finché non è successo a noi. C'è un dolore ineguagliabile quando un amico è quello che tiene il coltello. Nel corso, Gesù dice che sebbene, secondo il pensiero del mondo, sia stato tradito, non ha scelto per sé quella percezione. In altre parole, sapeva che non poteva essere davvero tradito, perché ciò che non è amore non è reale. Quindi, quando veniamo attaccati, quando la medicina è così amara che ci vuole tutto il nostro potere per non sgretolarsi mentre la prendiamo, cosa facciamo allora? Dov'è il nostro conforto? Qualcuno una volta mi ha detto che il modo in cui sono fatte le piume di pavone è dai pavoni che mangiano le spine. Che bella immagine, che le cose dure che dobbiamo digerire possono contribuire alla nostra bellezza. Ma non sempre. Solo quando ci apriamo abbastanza per prendere davvero l'orrore, stranamente. La resistenza e la difesa non fanno che rendere più reale l'errore e aumentare il nostro dolore. Se Gesù avesse urlato dalla croce, vi odio tutti ragazzi, sarebbe stata una storia completamente diversa. Non ci sarebbe stata alcuna resurrezione. Ciò che ha creato lo spazio per il suo trionfo è stata la sua indifesa, il suo attaccamento ad amare nonostante ciò che gli altri gli stavano facendo. Il corpo può essere distrutto, ma la verità non può esserlo. La verità si riaffermerà sempre, dati tre giorni simbolici. Tre giorni rappresenta il tempo che intercorre tra la crocifissione e la risurrezione, tra una risposta aperta al dolore e l'esperienza di rinascita che seguirà sempre. Quante volte ho detto a me stesso e agli altri, questi sono solo i tre giorni. Aspettare. Aspettare. Quando i nostri amici si sono rivoltati contro di noi, o siamo stati ingannati o ci hanno mentito, la tentazione è così forte da difendere, rispondere. Ma il corso dice che nella nostra indifesa sta la nostra sicurezza. È un altro luogo in cui il nostro potere deriva dal dire, farò un passo indietro e lascerò che lui guidi. Il Cristo dentro di noi può reggere qualsiasi assalto perché non è influenzato dall'assenza di amore. Solo la nostra convinzione di essere colpiti dalla paura può far sì che essa influisca su di noi. La difesa è un modo per concordare con l'attaccante la potenza del suo attacco, e quindi renderlo reale nella nostra esperienza. Ci vuole grande coraggio e forza personale per mantenere il nostro centro nei momenti di grande dolore. Ci vuole saggezza per capire che la nostra reattività alimenta solo le fiamme del falso dramma. L'amore crea uno scudo mistico intorno a noi, proteggendoci dal caos. Quando siamo nel mezzo di una perdita, di un tradimento o di una crisi di qualsiasi tipo, c'è potere nelle parole, stai calmo e sappi che lo sono. La verità non può mai essere distrutta. Non c'è perdita se non nel tempo, dice il corso, e il tempo non esiste. 18. Matrimonio Vi siete impegnati, insieme, ad invitare lo Spirito Santo nella vostra relazione. Il matrimonio, come tutto il resto, può essere utilizzato dall'ego o dallo Spirito Santo. Il suo contenuto non è mai predeterminato. È un organismo vivente che riflette le continue scelte degli individui coinvolti. Molto poco ha più sacro in questo mondo, ma una cosa va trattata con riverenza, altrimenti il tessuto morale del mondo si disintegra, un accordo tra due persone. Un matrimonio illuminato è un impegno a partecipare al processo di crescita e perdono reciproci, condividendo un obiettivo comune di servizio a Dio. Un uomo una volta mi ha detto che la sua relazione con la sua ex moglie ha funzionato magnificamente per il primo anno in cui sono stati insieme. A quel tempo erano entrambi coinvolti attivamente in un'organizzazione dedicata alla crescita personale. Una volta che hanno lasciato l'organizzazione, tuttavia, il matrimonio è andato in pezzi. Questo non indica che il matrimonio non avesse nulla a che fare comunque. Piuttosto, rivela l'importanza di un contesto più grande delle preoccupazioni personali di una o anche di entrambe le parti. Perché il matrimonio è un impegno più profondo rispetto ad altre forme di relazione, come una coppia che convive. Perché è un accordo che, mentre un sacco di tremori e urla potrebbero continuare, nessuno lascerà la stanza. Siamo entrambi al sicuro nell'affrontare qualunque emozione venga evocata dal profondo di noi, e ogni volta che siamo sinceri, ci sono momenti in cui siamo sconvolti, ma è sicuro farlo qui. Nessuno se ne va. L'impegno matrimoniale è pubblicamente dichiarato. Quando gli ospiti sono presenti a un matrimonio e la cerimonia è religiosa, viene eseguito un rituale in cui le preghiere collettive formano un cerchio di luce e protezione attorno alla relazione. Il matrimonio è un dono di Dio per un uomo e una donna. È un dono che dovrebbe poi essere restituito a lui. La moglie di un uomo è letteralmente un dono di Dio per lui. Il marito di una donna è un dono di Dio per lei. Ma Dio fa solo doni che sono destinati a tutti. Quindi è che un matrimonio vuole essere una benedizione per il mondo, perché è un contesto in cui due persone potrebbero diventare più di quanto sarebbero state sole. Il mondo intero è benedetto dalla presenza di persone guarite. Uno degli esercizi del libro di esercizi del corso dice, quando sono guarito, non sono guarito da solo. Il supporto e il perdono di un partner ci consentono di distinguerci in modo più magnifico nel mondo. Un corso in miracoli ci dice che l'amore non deve essere esclusivo, ma inclusivo. Diversi anni fa c'era una canzone popolare che includeva il ritornello Io e te contro il mondo. Se qualcuno me lo avesse detto, gli avrei detto che stavo cambiando lato. Non ci sposiamo per sfuggire al mondo, ci sposiamo per guarirlo insieme. Sotto la guida dello Spirito Santo, una coppia di coniugi si impegna a creare un contesto in cui le proprie risorse individuali, materiali, emotive e spirituali, siano poste al servizio dell'altro. Come diamo, così riceveremo. Servizio non significa sacrificio di sé. Significa dare ai bisogni di un'altra persona la stessa priorità delle nostre. L'ego afferma che una persona vince a spese di un'altra. Lo Spirito Santo entra in ogni situazione portando una vittoria per tutti i soggetti coinvolti. Nel matrimonio abbiamo una meravigliosa opportunità di vedere attraverso l'illusione di bisogni separati. La coppia di sposi non deve pensare solo in termini di ciò che è bene per lui o lei, ma piuttosto di ciò che è bene per loro. Questo è uno dei tanti modi in cui il matrimonio può essere parte della guarigione del Figlio di Dio. Come per qualsiasi altra cosa, la chiave per un matrimonio di successo è la consapevolezza cosciente di Dio. Il matrimonio è ceduto a lui per essere usato per i suoi scopi. Il detto che la famiglia che prega unita resta unita è vero. Il matrimonio illuminato include la presenza di un terzo mistico. Allo Spirito Santo è chiesto di guidare le percezioni, i pensieri, i sentimenti e le azioni affinché in questo, come in tutte le cose, si faccia la volontà di Dio in terra come in cielo. 19. Perdonare i nostri genitori, i nostri amici, noi stessi il più sacro di tutti i luoghi della terra e dove un antico odio è diventato un amore presente. Non si può prendere coscienza senza perdonare i nostri genitori. Che ci piaccia o no, nostra madre è l'immagine principale di una donna adulta e il nostro padre è l'immagine principale di un uomo adulto. Se nutriamo rancori contro nostra madre, se siamo uomini, non saremo in grado di sfuggire alla proiezione del senso di colpa su altre donne adulte che entrano nella nostra vita, e se siamo una donna, non saremo in grado di sfuggire all'autocondanna mentre cresciamo nella nostra femminilità. Se manteniamo delle lamentele contro nostro padre, se siamo una donna, non saremo in grado di sfuggire alla proiezione della colpa su altri uomini adulti che entrano nella nostra vita, e se siamo un uomo, non saremo in grado di sfuggire all'autocondanna mentre cresciamo nella nostra virilità. Questo è tutto. A un certo punto perdoniamo perché decidiamo di perdonare. La guarigione avviene nel presente, non nel passato. Non siamo trattenuti dall'amore che non abbiamo ricevuto in passato, ma dall'amore che non estendiamo nel presente. O Dio ha il potere di rinnovare la nostra vita, oppure no. Potrebbe Dio guardare qualcuno di noi e dire, mi piacerebbe darti una vita gioiosa, ma tua madre era così terribile, o le mani legate? Oggi si parla molto di persone che crescono in case disfunzionali. Chi non è cresciuto in una casa disfunzionale? Questo mondo è disfunzionale. Ma non c'è nulla che abbiamo passato, visto o fatto che non possa essere utilizzato per rendere le nostre vite più preziose ora. Possiamo crescere da qualsiasi esperienza e possiamo trascendere qualsiasi esperienza. Questo tipo di discorsi è una bestemmia per leggo, che rispetta il dolore, glorifica il dolore, adora il dolore e crea dolore. Il dolore è il suo fulcro. Vete il perdono come il suo nemico. Il perdono rimane l'unico sentiero che porta fuori dall'inferno. Sia che stiamo perdonando i nostri genitori, qualcun altro o noi stessi, le leggi della mente rimangono le stesse, se amiamo, saremo liberati dal dolore e, se neghiamo l'amore, rimarremo nel dolore. Ogni momento, stiamo estendendo amore o proiettando paura, e ogni pensiero ci porta più vicino al paradiso o all'inferno. Cosa ci vorrà per ricordarci che l'arca è entrata due a due, che non si può entrare in paradiso senza portare qualcuno con te? Pratica e impegno sono le chiavi dell'amore. Quello che ho visto di persona, e con cui ho visto anche altri alle prese, non è un argomento con il potere dell'amore. Posso vedere la verità di tutti questi principi. Ma ho anche visto quante volte resisterei all'esperienza dell'amore, quando aggrapparsi a un risentimento sembra più importante che lasciarlo andare. Un intero mondo è stato costruito sulla paura. Il sistema della paura non sarà smantellato in un attimo. Possiamo lavorare su noi stessi in ogni momento che viviamo. Il mondo è guarito un pensiero amorevole alla volta. Madre Teresa diceva che non ci sono grandi azioni, solo piccole azioni compiute con grande amore. Ognuno di noi ha paure diverse e manifestazioni di paura diverse, ma tutti noi siamo salvati dalla stessa tecnica, la chiamata a Dio per salvare la nostra vita salvando la nostra mente. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male, perché l'amore è il regno, e l'amore è la gloria, e l'amore è la potenza, nei secoli dei secoli. Capitolo 7, Opera sono qui solo per essere veramente d'aiuto. Sono qui per rappresentare colui che mi ha mandato. Non devo preoccuparmi di cosa dire o cosa fare, perché colui che mi ha mandato mi dirigerà. Sono contento di essere dove lui vuole, sapendo lui va lì con me. Sarò guarito se lascerò che lui mi insegni a guarire. 1. Abbandonare le nostre carriere vedendo i tuoi punti di forza esattamente come sono, e altrettanto consapevole di dove possono essere applicati al meglio, per cosa, a chi e quando, egli sceglie e accetta la tua parte per te. Il successo significa che andiamo a dormire la notte sapendo che i nostri talenti e le nostre capacità sono stati usati in un modo che serviva gli altri. Siamo compensati dagli sguardi grati negli occhi delle persone, dall'abbondanza materiale che ci sostiene nell'esibirci con gioia e ad alta energia, e dalla magnifica sensazione che abbiamo fatto la nostra parte oggi per salvare il mondo. L'espiazione significa mettere l'amore al primo posto. In ogni cosa. Negli affari così come tutto il resto. Sei in affari per diffondere l'amore. La tua sceneggiatura dovrebbe diffondere amore. Il tuo parrucchiere dovrebbe diffondere amore. La tua agenzia dovrebbe diffondere amore. La tua vita dovrebbe diffondere amore. La chiave per una carriera di successo è rendersi conto che non è separata dal resto della tua vita, ma è piuttosto un'estensione del tuo io più elementare. Il tuo io più elementare è l'amore. Sapere chi sei e perché sei venuto qui, che sei un figlio di Dio e che sei venuto qui per guarire ed essere guarito, è più importante che sapere cosa vuoi fare. Quello che vuoi fare non è la domanda importante. La domanda da porsi è, quando faccio qualcosa, come dovrei farlo? E la risposta è, gentilmente. Le persone normalmente non associano gli affari alla gentilezza, perché gli affari sono diventati semplicemente uno strumento per fare soldi. I tomaturghi non sono in affari solo per fare soldi, sono in affari per iniettare amore nel mondo. Ognuno di noi ha un ruolo particolare da svolgere nel piano di Dio per la salvezza. Il compito dello Spirito Santo è rivelarci la nostra funzione e aiutarci a svolgerla. Lo Spirito Santo ci chiede se è ragionevole presumere che ci assegni un compito, e poi non ci fornisca i mezzi per portarlo a termine. Ancora una volta, non stiamo decidendo da soli quale parte svolgere nella vita, ma piuttosto chiedendo che ci venga rivelato dove vorrebbe che andassimo e cosa vorrebbe che facessimo. Cediamo le nostre carriere a lui. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i generali alleati sovrintendevano a tutte le attività delle truppe da un quartier generale centrale, da cui emanavano ordini. I comandanti su vari fronti non sapevano necessariamente come i loro movimenti si inserissero in uno schema militare generale, sapevano solo di sì, perché sapevano che c'era un'intelligenza generale dietro l'emissione dei loro ordini. Così è con noi. Potremmo non sapere come o dove sarebbe meglio mettere a frutto i nostri talenti, ma lo Spirito Santo lo sa. Un corso in miracoli ci insegna a evitare i piani auto-iniziati e ad abbandonare invece i nostri piani a Dio. Alcune persone hanno detto, ma ho paura di cedere la mia carriera a Dio. Sono un musicista, e se lui volesse che io diventi un contabile? La mia risposta è, perché dovrebbe? Non preferirebbe che qualcuno che capisca i numeri facesse quel lavoro? Se hai talento nella musica, quel talento è di Dio. Se qualcosa ti fa cantare il cuore, questo è il modo in cui Dio ti dice che è un contributo che lui vuole che tu dia. Condividere i nostri doni è ciò che ci rende felici. Siamo più potenti e la potenza di Dio è più evidente sulla Terra quando siamo felici. Un corso in miracoli dice che l'unico vero piacere viene dal fare la volontà di Dio. Il punto cruciale della salvezza in qualsiasi è un cambiamento nel nostro senso di scopo. Relazioni, carriere, corpi, tutti questi ambiti della nostra vita rinascono nello spirito e quando li dedichiamo ai propositi di Dio, chiedendo che siano usati come strumenti attraverso i quali il mondo è guarito. Quel cambiamento è un miracolo. Come sempre, lo chiediamo consapevolmente. Caro Dio, ti prego, dai alla mia vita un senso di scopo. Usami come strumento della tua pace. Usai miei talenti e le mie capacità per diffondere amore. Ti cedo il mio lavoro. Aiutami a ricordare che il mio vero lavoro è riportare il mondo in salute. Grazie mille. Amen. 2. La volontà di Dio dove mi vorresti andare? Cosa vorresti che facessi? Cosa vorresti che dicessi e a chi? Le persone si chiedono, voglio servire Dio o voglio essere felice? Poiché alcune religioni organizzate hanno rappresentato la vita spirituale come una vita di sacrificio e di austerità, può essere difficile per alcune persone immaginare che una vita vissuta vicina a Dio sia una vita piena di gioia. Un corso in miracoli dice che l'unico vero piacere viene dal fare la volontà di Dio. Dio non chiede sacrificio. La vita del sacrificio è la vita che viviamo prima di trovare un più alto senso di identità e scopo, il sacrificio del ricordo di quanto siamo magnifici davvero e per quale lavoro importante siamo venuti qui a fare. E questo è molto da sacrificare, perché quando non riusciamo a ricordare perché stiamo andando da qualche parte, abbiamo difficoltà ad agire a tutto gas una volta arrivati lì. L'amore dà energia e direzione. È carburante spirituale. Qualsiasi carriera, quando è data allo Spirito Santo, può essere utilizzata come parte del piano di restaurazione del mondo. Nessun lavoro è troppo grande o troppo piccolo per essere usato da Dio. Ha il potere illimitato dell'universo dentro di te e così fanno tutti gli altri. Non è niente di cui prendersi il merito personale, né qualcosa di cui sentirsi in colpa. Il nostro vero potere emana da una forza che è in noi ma non di noi. Si umile davanti a Dio, dice il corso, è tuttavia grande in lui. Ricordare questo ci tiene connessi alla nostra innocenza e, finché l'abbiamo, il potere continuerà a riversarsi attraverso di noi. Dimenticalo e il rubinetto potrebbe essere chiuso in qualsiasi momento. Smetti di benedire l'universo e l'universo sembrerà smettere di benedirti. Qualunque sia la tua attività, chiedi solo che venga usata per benedire il mondo. Ricordo che un giorno mi sono lamentata con la mia ragazza Iune per quanto fossi infelice, e lei ha detto, Marianne, non intendo essere dura con te, ma fai mai qualcosa per qualcun altro? Quel commento mi è sembrato un mattone sulla fronte, anche se all'epoca ci ho fatto ben poco. Dopo aver attraversato il mio periodo di profonda depressione diversi anni dopo, tuttavia, la sofferenza umana è diventata un argomento molto più personalmente significativo. Pensavo che se altre persone soffrivano un po' quanto me, allora il mio cuore scoppiava per loro e volevo essere d'aiuto. Dio sembrava dirmi allora, le persone soffrono profondamente e ci sono state persone che hanno sofferto intorno a te per tutta la vita. Semplicemente non te ne sei accorto. Stavi facendo la spesa. Mi preoccupavo, come molte persone, di cosa avrei dovuto fare della mia vita. Non mi è mai sembrato di essere in grado di rimanere fedele a una cosa a lungo o di fare soldi o di trovare una vera soddisfazione nel mio lavoro. Mi sono sentito paralizzato. Ricordo che una volta chiesi a Dio di rivelarmi ciò che voleva che io sapessi affinché potessi cambiare. Mi inginocchiai e mi trasformai in uno stato meditativo grandioso. Ho visto immagini visive di un cielo glorioso e un gruppo di angeli che marciavano attraverso le nuvole per portarmi la sua risposta. Una coppia di cherubini teneva un rotolo che poi cominciarono a dispiegare. Il mio cuore iniziò a battere forte mentre aspettavo il messaggio di Dio, che ero sicuro sarebbe stato estremamente importante. Lentamente le lettere sulla pergamena cominciarono a formare parole, Marianne, sei una mocciosa viziata. Il motivo per cui ero paralizzato era perché avevo perso il contatto con l'unico ricordo del motivo per cui ero venuto sulla terra. Dirmi che ero un monello viziato era l'informazione perfetta, la chiave per sbloccare le mie energie. Il problema era il mio egoismo. Come gli attori che hanno passato così tanto tempo a imparare a recitare da non aver imparato a vivere, e così finiscono per fare gli attori pessimi perché alla fine non hanno nulla di autentico da rivelare sulla vita, a volte perdiamo il nostro potere personale dimenticando perché averlo. Studiamo come gestire le imprese, senza fermarci a pensare al motivo per cui siamo in affari se non per fare soldi. Questo non è un raggio spiritualmente potente e l'universo lo tollererà sempre meno man mano che gli anni novanta si svolgono. 3. Potere personale Ogni potere è di Dio. Non chiedere a Dio di mandarti una brillante carriera, ma piuttosto chiedigli di mostrarti la genialità che c'è in te. È il riconoscimento della nostra genialità che la rilascia in espressione. Effetti esterni stabili e significativi non si verificano finché non abbiamo sperimentato un'agitazione interna. Una volta che si è verificata un'agitazione interna, gli effetti esterni non possono non verificarsi. Siamo tutti capaci di un'agitazione interna, e in effetti siamo codificati per questo. È il nostro potenziale di grandezza. Il successo non viene da ciò che facciamo, ma da ciò che siamo. Il nostro potere mondano deriva dal nostro potere personale. La nostra carriera è un'estensione della nostra personalità. Le persone che ottengono risultati profondi non sono necessariamente persone che fanno così tanto, sono persone intorno alle quali si fanno le cose. Il Mahatma Gandhi e il presidente Kennedy ne furono entrambi esempi. Le loro più grandi conquiste risiedono in tutta l'energia che hanno suscitato nelle altre persone, le forze invisibili che hanno scatenato intorno a loro. Toccando le proprie profondità, hanno toccato le profondità degli altri. Quel tipo di carisma, il potere di influenzare ciò che accade sulla Terra da un regno invisibile all'interno, è il diritto naturale e la funzione del figlio di Dio. La parola carisma era originariamente un termine religioso. Significa dello spirito. Le nuove frontiere sono quelle interne. Il vero tratto è sempre dentro di noi. Invece di espandere la nostra capacità o volontà di uscire e ottenere qualsiasi cosa, espandiamo la nostra capacità di ricevere ciò che è già qui per noi. Il potere personale emana da qualcuno che prende la vita sul serio. L'universo ci prende sul serio mentre lo prendiamo. Non c'è seretà più grande del pieno apprezzamento del potere e dell'importanza dell'amore. I miracoli derivano dal riconoscimento che l'amore è lo scopo delle nostre carriere. Un corso in miracoli discute un concetto cristiano tradizionale chiamato i doni dello Spirito Santo. Questa idea è che, quando le nostre vite sono date allo Spirito Santo per usarle per i suoi scopi, nuovi talenti emergono dentro di noi. Non mettiamo insieme le nostre vite e poi le diamo a Dio, ma piuttosto diamo le nostre vite a Dio e poi le cose iniziano a riunirsi. Quando i nostri cuori si aprono, i nostri talenti e doni iniziano a sbocciare. Molte persone mi hanno detto che una volta che avranno successo e avranno fatto molti soldi, useranno quel successo per aiutare il mondo. Ma questa è una tecnica di ritardo con cui l'ego cerca di impedirci di mostrarci pienamente nelle nostre vite. Anche se non ci consideriamo ancora riusciti, possiamo ora dedicare il nostro lavoro ad essere usati al servizio della guarigione del mondo. Da quel punto di potere le nostre carriere decolleranno. Qualunque cosa facciamo, possiamo farne il nostro ministero. Indipendentemente dalla forma che assume il nostro lavoro o la nostra attività, il contenuto è lo stesso di tutti gli altri, siamo qui per assistere i cuori umani. Se parliamo con qualcuno, o vediamo qualcuno, o addirittura pensiamo a qualcuno, allora abbiamo l'opportunità di portare più amore nell'universo. Da cameriera a capo di uno studio cinematografico, da operatore di ascensori al presidente di una nazione, non c'è nessuno il cui lavoro sia irrilevante per Dio. Quando lo sai, quando sei pienamente all'altezza dell'opportunità di guarire, ottieni un'energia che ti spinge in avanti negli sforzi mondani. L'amore ti rende più attraente. Ciò significa che attiri, come una calamita. Non attiri solo le persone, attiri varie circostanze che ti riflettono il potere della tua devozione. Il tuo potere personale non è qualcosa che si rivelerà in un secondo momento. Il tuo potere è il risultato della tua decisione di rivelarlo. Sei potente in qualunque momento tu scelga di essere. La scelta di essere usata come strumento d'amore, proprio qui, in questo momento, è una scelta per l'empowerment personale. Un corso in miracoli ci dice che tutti i figli di Dio hanno potere, ma nessuno ha un potere speciale. Tutti noi siamo speciali, eppure nessuno di noi è speciale. Nessuno ha più potenziale di chiunque altro per diffondere l'amore e la luce di Dio. Molte delle nostre nozioni tradizionali di successo si basano sul nostro parlare di noi stessi nella convinzione che siamo speciali e abbiamo qualcosa di speciale da offrire. La verità è che nessuno di noi è speciale perché le persone speciali sarebbero diverse e separate dagli altri. L'unicità di Cristo lo rende impossibile. La credenza della particolarità, quindi, è delirante e quindi genera paura. Quello che hanno fatto Beethoven, Shakespeare o Picasso non è creare qualcosa, ma hanno accesso a quel luogo dentro di sé da cui poter esprimere ciò che è stato creato da Dio. Il loro genio, quindi, è in realtà espressione e non creazione. Ecco perché la grande arte ci colpisce con lo shock del riconoscimento, il desiderio di averlo detto. L'anima freme al ricordo di ciò che già tutti sappiamo. Il corso dice che un giorno, tutti i doni di Dio saranno condivisi equamente da tutti. Tutti abbiamo il potenziale per la grandezza, ma viene spazzato via da noi presto. La paura è entrata quando qualcuno ci ha detto che c'è un primo premio, un secondo e un terzo premio, che alcuni sforzi meritano una e altri ottengono un acci dopo un po', una parte di noi ha paura anche solo di provarci. L'unica cosa che dobbiamo dare al mondo è la nostra comprensione su di esso. L'ego sostiene che questo non è abbastanza. Ci porta a nascondere la nostra semplice verità, a cercare di inventarne una migliore. Ma l'ego non ci sta proteggendo qui, anche se, come sempre, finge di farlo. Non è proteggersi dal prendere in giro noi stessi, è proteggersi dalla nostra esperienza di chi siamo veramente, dalla brillantezza di esprimerla e dalla gioia che l'espressione porta a noi stessi e agli altri. Adoro la storia della bambina che ha mostrato alla sua insegnante un quadro che ha dipinto di un albero. L'albero era viola. L'insegnante disse, tesoro, non ho mai visto un albero viola, vero? Oh! disse la bambina. È un peccato. Non possiamo falsificare l'autenticità. Pensiamo di dover creare noi stessi, facendo sempre un lavoro di incollaggio sulla nostra personalità. Questo perché stiamo cercando di essere speciali piuttosto che reali. Stiamo pateticamente cercando di conformarci a tutte le altre persone che cercano di fare lo stesso. Un tulipano non si sforza di impressionare nessuno. Non lotta per essere diverso da una rosa. Non è necessario. È diverso. E c'è posto in giardino per ogni fiore. Non dovevi lottare per rendere la tua faccia diversa da quella di chiunque altro sulla terra. È proprio così. Sei unico perché sei stato creato in quel modo. Guarda i bambini all'asilo. Sono tutti diversi senza cercare di esserlo. Finché sono inconsciamente se stessi, non possono fare a meno di brillare. È solo più tardi, quando ai bambini viene insegnato a competere, a sforzarsi di essere migliori degli altri, che la loro luce naturale viene distorta. La luce naturale di Dio dentro di noi tutti è ciò a cui il corso si riferisce come la nostra grandezza. Gli sforzi dell'ego per abbellire il nostro stato naturale sono ciò che il corso chiama grandiosità. È facile distinguere il gandeur dalla grandiosità, dice il corso, perché l'amore viene ricambiato e l'orgoglio no. L'ego interferisce con la chiara espressione del nostro potere cercando di farci aggiungere qualcosa ad esso. Questo è in realtà uno stretta gemma con cui vanifica la nostra capacità di esprimere chi siamo veramente e di accettare in cambio il pieno riconoscimento dagli altri. Ancora una volta, la separazione è l'obiettivo dell'ego. Ero sempre su un'emozionante corsa sulle montagne rosse, sentendo di essere migliore delle altre persone, e poi sentendomi peggio. Sto meglio, no, non sono così bravo, sto meglio, no, non sono così bravo. Sono lo stesso errore. La verità è che siamo come tutti gli altri. Sapere questo, che non siano né migliori né peggiori di chiunque altro perché essenzialmente siamo tutti uguali, è un pensiero privo di lustro solo fino a quando non apprezziamo appieno il tipo di club a cui apparteniamo. L'umanità è un gruppo di creature infinitamente potenti. Il nostro potere, tuttavia, è in noi ma non in noi. È lo spirito di Dio dentro di noi che illumina e ravviva la nostra vita. Di noi stessi non siamo davvero un grosso problema. Questo pensiero mi ha aiutato nella mia carriera. Salgo su un palco e a volte parlo con più di mille persone alla volta. Non riesco a immaginare di dover affrontare la pressione di dovermi convincere che ho qualcosa di speciale da offrire. Non ci provo. Non devo impressionare nessuno, e se non penso di doverlo fare, non c'è altro da fare che rilassarmi. Esco sul palco senza sentire il bisogno di far pensare alla gente che sono speciale, perché so che non lo sono. Parlo solo con gli amici, casualmente con entusiasmo. Questo è tutto. Non c'è nient'altro. Tutto il resto è solo un'illusione. Il figlio di Dio non deve abbellire chi è. Siamo tentati di pensare che siamo più impressionanti quando andiamo in onda. Non lo siamo, ovviamente, siamo piuttosto patetici quando lo facciamo. Il corso afferma, la grandiosità è sempre una copertura per la disperazione. La luce di Cristo risplende più intensamente dentro di noi quando ci rilassiamo e lasciamo che sia, permettendole di far risplendere le nostre grandiose delusioni. Ma abbiamo paura di abbassare le nostre mascherine. Ciò che sta realmente accadendo qui, inconsciamente, non è che ci stiamo difendendo dalla nostra piccolezza. L'ego in realtà, in quei momenti, sta difendendo contro Dio. Quando interpreto il corso, la nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più profonda è che siamo potenti oltre misura. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che più ci spaventa. Ci chiediamo, chi sono io per essere brillante, stupendo, talentuoso, favoloso? In realtà, chi sei tu per non essere? Sei un figlio di Dio. Il tuo giocare in piccolo non serve al mondo. Non c'è niente di illuminato nel rimpicciolirsi in modo che le altre persone non si sentano insicure intorno a te. Siamo tutti fatti per brillare, come fanno i bambini. Siano nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è in noi. Non è solo in alcuni di noi, è in tutti. E mentre lasciamo risplendere la nostra stessa luce, inconsciamente diamo ad altre persone il permesso di fare lo stesso. Quando siamo liberati dalla nostra stessa paura, la nostra presenza libera automaticamente gli altri. Un taumaturgo è un artista dell'anima. Non c'è arte migliore del vivere una bella vita. Un artista informa il mondo di cosa c'è dietro le maschere che tutti indossiamo. Questo è ciò che siamo tutti qui per fare. Il motivo per cui così tanti di noi sono ossessionati dall'idea di diventare delle star è perché non stiamo ancora recitando nelle nostre vite. I riflettori cosmici non sono puntati su di te, si irradia da dentro di te. Mi sentivo come se stessi aspettando che qualcuno mi scoprisse, mi producesse, come l'ana Turner al drugstore. Alla fine ho capito che la persona che stavo aspettando ero me stesso. Se aspettiamo il permesso del mondo di brillare, non lo riceveremo mai. L'ego non dà quel permesso. Solo Dio lo fa, e lo ha già fatto. Ti ha mandato qui come suo rappresentante personale e ti sta chiedendo di incanalare il suo amore nel mondo. Stai aspettando un lavoro più importante? Non ce n'è uno. C'è un piano per ognuno di noi, e ognuno di noi è prezioso. Man mano che apriamo sempre di più i nostri cuori, ci muoviamo nelle direzioni in cui dovremmo andare. I nostri doni affiorano dentro di noi e si estendono spontaneamente. Realizziamo senza sforzo. Come poteva Leonardo da Vinci non aver dipinto. Come poteva Shakespeare non aver scritto. In Letters to I o un Poe, Rilke dice a un giovane scrittore di scrivere solo se necessario. Dobbiamo fare ciò che c'è un profondo imperativo psicologico ed emotivo da fare per noi. Questo è il nostro punto di forza, la fonte del nostro splendore. Il nostro potere non è razionalmente o volontariamente richiamato. È una dispensazione divina, un atto di grazia. 4. Soldi La gioia non ha alcun costo. Fa quello che ami. Fai ciò che fa cantare il tuo cuore. E non farlo mai per i soldi. Non andare a lavorare per fare soldi, vai a lavorare per diffondere la gioia. Cerca prima il regno dei cieli, e i masaratti arriveranno qui quando dovrebbe. Dio non ha una coscienza di povertà. Non vuole che tu abbia una vita noiosa o una carriera noiosa. Non ha niente contro le cose di questo mondo. Il denaro non è malvagio, non ha niente. Come qualsiasi altra cosa, può essere usata per scopi sacri o empi. Una volta avevo una piccola libreria. Un giorno è venuto un uomo e mi ha detto che mi avrebbe insegnato a fare soldi. Ogni persona che entra da quella porta, ha detto, è una potenziale vendita. Ed è quello che dovresti dire a te stesso in silenzio ogni volta che un cliente entra nel negozio, vendita potenziale, vendita potenziale. Il suo consiglio mi sembrava di sfruttamento. Mi stava consigliando di considerare le altre persone come pedine nel mio schema. Ho pregato e ho ricevuto queste parole, il tuo negozio è una chiesa. Chiesa, esotericamente, significa raduno di anime. Non è un fenomeno del piano esterno, ma piuttosto un fenomeno del piano interno. Le persone non vengono nel tuo posto di lavoro in modo che tu possa ottenere qualsiasi cosa. Sono inviati in modo che tu possa dare loro amore. Dopo aver recitato la preghiera e aver avuto la sensazione che il mio negozio fosse una chiesa, ho capito che il mio unico lavoro era amare le persone che venivano lì. In realtà l'ho fatto, ogni volta che vedevo entrare un cliente, lo benedicevo silenziosamente in un modo o nell'altro. Non tutti compravano un libro ogni volta che entravano, ma la gente cominciò a considerarmi il loro libraio. I clienti erano attratti da una sensazione di pace nell'aria. Le persone potrebbero non sapere da dove viene, ma possono sentirlo quando l'amore viene inviato nella loro direzione. Sono stupito quando entro nei negozi e i venditori sono scortesi, come se ti stessero facendo una specie di favore lasciandoti essere lì. Un atteggiamento rude e distruttivo per il tessuto emotivo del mondo. Dove sono cresciuto, abbiamo lasciato un negozio con quel tipo di energia perché non è bello essere lì. Quando il nostro obiettivo è fare soldi, la creatività viene distorta. Se vedessi il denaro come l'obiettivo finale della mia carriera di insegnante, allora dovrei pensare di più a ciò che le persone vogliono sentire e meno a ciò che sento sia importante dire. La mia energia sarebbe stata contaminata dagli sforzi per convincere le persone a tornare, per venderle alle mie lezioni, per convincerle a portare i loro amici. Ma se lo scopo della mia carriera è incanalare l'amore di Dio, allora sono lì solo per aprire il mio cuore, aprire il mio cervello e aprire la mia bocca. Quando lavoriamo esclusivamente per soldi, la nostra motivazione è ricevere piuttosto che dare. La trasformazione miracolosa qui è un passaggio da una mentalità di vendita a una mentalità di servizio. Fino a quando non facciamo questo cambiamento, operiamo dall'ego e ci concentriamo sulle cose di questo mondo piuttosto che sull'amore. Questa idolatria ci catapulta in un territorio emotivo alieno, dove abbiamo sempre paura. Abbiamo paura del fallimento o del successo. Se siamo più vicini al successo, avremo paura del successo. Se siamo più vicini al fallimento, avremo paura del fallimento. Il problema non è il successo o il fallimento. Il problema è la presenza della paura e la sua inevitabilità ovunque l'amore sia assente. Come ogni altra cosa, il denaro è sacro o empio, a seconda degli scopi che gli vengono attribuiti dalla mente. Tendiamo a fare con i soldi quello che facciamo con il sesso, lo desideriamo ma giudichiamo il desiderio. È il giudizio che poi distorce il desiderio, trasformandolo in una brutta espressione. Poiché ci vergogniamo ad ammettere che vogliamo queste cose, abbiamo modi insidiosi di fingere di non farlo, come condannare i nostri desideri anche mentre li esprimiamo. La perdita della purezza è in noi, quindi, non nel denaro o nel sesso. Sono entrambi solo tele su cui proiettiamo la nostra colpa. Proprio come la mente paurosa è la fonte della promiscuità e il sesso è semplicemente il veicolo attraverso il quale si esprime, così il denaro non è la fonte dell'avidità. La mente è la fonte dell'avidità e il denaro è uno dei luoghi in cui si esprime. Sia il denaro che il sesso possono essere usati sia per scopi sacri che impi. Come l'energia nucleare, il problema non è l'energia, ma come viene applicata. Il nostro giudizio sulla ricchezza è in realtà uno stretta gemma dell'ego per assicurarci di non averne mai. Una volta stavo guidando per un quartiere molto ricco di Houston e ho pensato, queste persone lavorano per enormi multinazionali che opprimono le persone in tutto il terzo mondo. Poi mi sono fermato, come faccia sapere cosa fanno tutte quelle persone per vivere e come faccia sapere cosa fanno con i loro soldi. Il mio atteggiamento di giudizio, mascherato da coscienza politica, era in realtà il modo in cui il mio ego cercava di assicurarsi che non avrei mai avuto soldi. Ciò che rifiutiamo mentalmente di permettere agli altri, rifiutiamo noi stessi. Ciò che bene diciamo negli altri, lo attiriamo a noi. Quando ero più giovane, nutrivo la convinzione che, essendo povero, stavo in qualche modo mostrando il mio cammeratismo con i poveri. Dietro quel pensiero, vedo ora, c'era la mia paura di fallire se avessi cercato di fare i soldi. Alla fine ho capito che i poveri non avevano bisogno della mia simpatia tanto quanto avevano bisogno di soldi. Non c'è niente di puro o spirituale nella povertà. Spesso vediamo persone povere che sono molto sante, ma non è la povertà che crea la santità. Ho conosciuto delle persone estremamente ricche spiritualmente, e ho conosciuto delle persone povere che erano tutt'altro. La Bibbia dice che è più difficile per un uomo ricco entrare in paradiso che per un cammello passare per la cruna di un ago. Questo perché l'attaccamento al denaro è un'enorme tentazione di deviare dall'amore. Ma l'imperativo morale non è bloccare la ricezione di denaro nelle nostre vite. La sfida è spiritualizzare il nostro rapporto con esso, vedendo che il suo unico scopo è guarire il mondo. In una società illuminata, i ricchi non avranno necessariamente meno soldi. I poveri, invece, avranno molto di più. Il problema, contrariamente alla percezione dell'ego, non è solo la distribuzione della ricchezza, ma la coscienza che la circonda. I soldi non scarseggiano. Non è una risorsa finita. Non siamo poveri perché i ricchi sono ricchi. Siamo poveri perché non lavoriamo con amore. È doveroso ricordare che il nostro denaro è il denaro di Dio, e noi vogliamo avere tutto ciò che egli vuole che noi abbiamo per poterne fare qualunque cosa egli vuole che facciamo. Dio vuole che abbiamo tutto il supporto materiale che contribuisce alla nostra più grande felicità. L'ego cerca di convincerci che Dio esige sacrificio e che la vita di servizio sarebbe una vita di povertà. Questo non è il caso. Il nostro scopo su questa terra è essere felici, ed è funzione dello Spirito Santo aiutarci a raggiungerlo. Ci conduce a qualunque cosa l'abbondanza materiale ci sostenga nel presentarci gioiosamente nel mondo, senza vincolarci ulteriormente ad esso. C'è molto lavoro da fare per la guarigione del mondo, e parte di esso costa denaro. Spesso lo Spirito Santo ci invia denaro in modo che possiamo svolgere i compiti che egli vuole adempiere per suo conto. Un atteggiamento responsabile nei confronti del denaro è quello in cui siamo aperti a qualunque cosa accada e confidiamo che accadrà sempre. Chiedendo miracoli, chiediamo allo Spirito Santo di rimuovere gli ostacoli alla nostra ricezione di denaro. Questi ostacoli prendono la forma di pensieri, come ad esempio, il denaro è impuro, o avere denaro significa essere avidi, i ricchi sono cattivi, altrimenti non dovrei guadagnare più soldi dei miei genitori. Avere soldi significa che abbiamo più soldi con cui assumere altre persone e curare il mondo. Non c'è niente di bello in quello che succede a una società quando il denaro smette di circolare. Uno dei principi da ricordare sul denaro è quanto sia importante pagare per i servizi resi. Se disapproviamo a qualcun altro il diritto di guadagnarsi da vivere, ci ritroviamo lo stesso. Ciò che diamo, lo riceveremo e ciò che tratteniamo ci sarà trattenuto. E l'universo non registra la differenza tra rubare a una grande società o rubare a una simpatica vecchietta. L'universo sosterrà sempre la nostra integrità. A volte i nostri debiti sono così grandi o confusi che, anche se abbiamo le migliori intenzioni, l'onere e il senso di colpa possono essere così opprimenti, che andiamo semplicemente in automatico, spingiamo i conti in fondo al cassetto e cerchiamo di dimenticarli. Oppure cambia il nostro numero di telefono. L'universo non lo supporterà. Una persona grande non è qualcuno che non cade mai. Una persona grande è qualcuno che, quando cade, fa quello che serve per rialzarsi. Come sempre, il problema è chiedere un miracolo. Non c'è prigione per debitori in questo paese. Ancora una volta, secondo il corso, i miracoli sono un diritto di tutti, ma prima è necessaria la purificazione. La purezza del cuore crea scoperte. Se devi fatture arretrate, non importa quanto, scrivi una lettera all'azienda o all'individuo, se è il proprietario del problema, scusa se appropriato, e fai sapere loro che sta impostando un piano di pagamento, con effetto immediato. Invia loro qualcosa con la lettera. Non prepararti al fallimento. Se non puoi permetterti di inviare 15 dollari al mese, va bene. Manda 5 dollari, se è tutto quello che puoi. Ma assicurati di inviarlo e inviarlo regolarmente in tempo. Non importa se il conto è di 50.000 dollari. Il corso dice che non c'è ordine di difficoltà nei miracoli. Non importa quale sia la forma di un problema, la sua forma o la sua dimensione, un miracolo può gestirlo. I miracoli significano che in qualsiasi momento possiamo ricominciare. Non importa quale sia il problema, fin tanto che riportiamo le nostre menti in una posizione aggraziata ora, l'universo ci aiuterà sempre a ripulire il pasticcio e ricominciare da capo. Pentirsi significa ripensare. In ogni area, l'universo ci sosterrà nella misura in cui lo supportiamo. La maggior parte di noi ha un sacco di soldi con, qualsiasi cosa, da un bisogno inappropriato di esso a un giudizio inappropriato su di esso. Molti di noi hanno ricevuto messaggi forti sul denaro durante la nostra infanzia. Ci è stato insegnato, verbalmente o non verbalmente, che è eccessivamente importante, o non spirituale, o difficile da ottenere, o la radice di tutti i mali. Molti di noi hanno paura che non piacciamo alla gente se non facciamo soldi, o temono che non piacciamo a loro se lo facciamo. Il denaro è un'area in cui abbiamo bisogno, individualmente e collettivamente, di una guarigione radicale delle nostre abitudini mentali. Noi preghiamo. Caro Dio, cedo a te tutti i miei pensieri sul denaro, cedo a te i miei debiti, cedo a te la mia ricchezza. Apri la mia mente per ricevere in abbondanza. Canalizza la tua abbondanza attraverso di me in un modo che serva il mondo. Amen. 5. Ministero è quell'unica voce nomina la tua funzione e te la trasmette, dandoti la forza di capirla, fare ciò che comporta e avere successo in tutto ciò che fai che è ad essa collegato. Non c'è modo più potente per ringraziare Dio per i tuoi doni, o per aumentarli, che condividerli. Ti verrà dato tutto il potere nel mondo che sei disposto a usare per suo conto. Pensa alla tua carriera come al tuo ministero. Fate del vostro lavoro un'espressione d'amore, al servizio dell'uomo. All'interno dell'illusione mondana, abbiamo tutti lavori diversi. Alcuni di noi sono artisti, alcuni di noi sono uomini d'affari, alcuni di noi sono scienziati. Ma nel mondo reale che sta al di là di tutto questo, abbiamo tutti lo stesso compito, servire i cuori umani. Tutti noi siamo qui come ministri di Dio. Alcuni anni fa sono tornato a Houston per una riunione speciale del mio dipartimento di recitazione al liceo. Il nostro insegnante stava andando in pensione e i suoi ex studenti da tutto il paese vennero a porgere i loro omaggi. Durante la cena, è stata prestata molta attenzione al fatto che molti degli studenti del signor Picchette erano diventati attori di successo. Ma molti dei suoi studenti erano diventati persone di successo. Insegnandoci la verità sulla recitazione, ci ha insegnato la verità sulla vita. Una volta che lo sai, 1. Lascia i tuoi problemi personali alla porta del palco, 2. Trattare il materiale con onestà, dignità e senza abbellimenti, 3. Presentarsi completamente, non importa quante persone ci siano tra il pubblico, quindi sai tutto ciò che devi sapere per avere una potente carriera professionale. Conoscere la vera verità su qualsiasi cosa è conoscere la verità su tutto. Una delle cose che ho capito è che in realtà ho avuto solo una carriera. Ho fatto molti lavori, ma tutti avevano un elemento fondamentale in comune, me. La forma del mio lavoro aveva principalmente a che fare con il luogo in cui mi trovavo in quel momento della mia vita, e ogni forma mi ha insegnato qualcosa di essenziale per il mio sviluppo di carriera. Come ministri di Dio, lasciamo che le nostre carriere siano un'espressione della nostra stessa profondità, di ciò che veramente conta per noi. Sapere che stiamo agendo per uno scopo più alto della nostra stessa autoesaltazione ci dà la gioia che stiamo tutti cercando. Qualunque cosa facciamo, qualunque sia il nostro lavoro, può essere un veicolo attraverso il quale insegniamo il messaggio di salvezza, che il Figlio di Dio è innocente e che siamo tutti figli di Dio. La gentilezza avverso di lui trasforma il mondo. Non lo insegniamo necessariamente verbalmente, ma piuttosto non verbalmente. Il problema che la maggior parte delle persone ha è che sono più interessate al modo della loro espressione che a ciò che stanno cercando di esprimere. Questo perché non sanno cosa vogliono esprimere. Questa generazione, questa cultura, è piena di persone che vogliono disperatamente scrivere una storia, ma per tutte le ragioni sbagliate. Incontro persone che vogliono essere sotto i riflettori, ma non ho idea di cosa direbbero se fosse puntato contro di loro. Questa è una posizione fraudolenta. Vuol dire che vogliamo il contratto discografico più della soddisfazione di fare musica. Il premio più alto che possiamo ricevere per il lavoro creativo è la gioia di essere creativi. Lo sforzo creativo speso per qualsiasi altra ragione che non sia la gioia di essere in quel luogo pieno di luce, l'amore, Dio, come vogliamo chiamarlo, è privo di integrità. Ci sminuisce. Riduce l'ispirazione a semplici vendite. Manca di integrità. Ci sminuisce. Riduce l'ispirazione a semplici vendite. Manca di integrità. Ci sminuisce. Riduce l'ispirazione a semplici vendite. Alcuni anni fa ho visitato Kawai. Io e il mio amico abbiamo fatto un giro su una barca lungo la costa di Napali. La barca faceva parte di una flotta di proprietà di un uomo noto come Captain Zodiac. Zodiac è la parola per le incredibili formazioni di terra che incontrano il mare lì. Quest'uomo amava la costa così appassionatamente che prese la parola per il proprio nome. Un giorno qualcuno gli disse, sai molto di questa costa e della sua storia. Molte persone vorrebbero vedere cosa vedi qui e sapere cosa sai. Perché non porti le persone sulla tua barca e fai loro un giro. Le giostre di Captain Zodiac sono un ottimo servizio per i turisti a Kawai. Diffondono gioia. Sollevano la vibrazione culturale. E le gite in barca sono diventate un vero affare. Il capitano Zodiac ora ha molte barche e ha molto successo. La sua attività si è formata attorno al suo amore. Il problema è se lavoriamo per soldi o lavoriamo per amore. Quello che dobbiamo indagare è quale sia l'atteggiamento più abbondante. Come con Captain Zodiac, e contrariamente alle argomentazioni dell'ego, l'amore è in realtà un buon affare. Qualsiasi lavoro può diventare un ministero, purché sia dedicato all'amore. La tua carriera può essere una tela vuota su cui Dio può scrivere. Qualunque siano i tuoi talenti o abilità, Egli può usarli. Il nostro ministero diventa un'esperienza gioiosa per noi stessi e per gli altri mentre lasciamo che una forza misteriosa ci guidi. Seguiamo semplicemente le istruzioni. Stiamo permettendo che lo Spirito di Dio si muova attraverso di noi, usando i nostri doni e le nostre risorse come Egli ritenga opportuno, per compiere la sua opera nel mondo. Questa è la chiave per una carriera di successo. Il successo non è naturale, è la cosa più naturale del mondo perché è il risultato naturale della co-creazione dell'uomo con Dio. Inamovable Feast, Hemingway scrive di scrittura. Descrive la differenza tra scrivere una storia e scrivere una storia stessa. Quando si ritrova a scrivere la storia, sa che è ora di fermarsi per la giornata. La nostra vita vuole essere una storia che misteriosamente si scrive da sola, e il nostro lavoro è il frutto creativo delle nostre vite. Dio, per favore usami è l'affermazione più potente che possiamo dire per una carriera abbondante. È la preghiera del tamaturgo. Tutti vogliono un ottimo lavoro. Accetta che ti è già stato dato. Il fatto che tu sia vivo significa che ti è stata assegnata una funzione, apri il tuo cuore a tutti e a tutto. In questo modo sei un vaso di Dio. Non preoccuparti di cosa dire o cosa fare. Ti farà sapere. Pensavo di essere pigro. Ero sempre stanco. In realtà, ero solo bloccato finché non ho scoperto lo scopo della mia vita. Quando la nostra energia viene applicata nella direzione della co-creazione con Dio, della volontà di fornire amore dove prima non c'era, nuova energia irrompe dal profondo di noi. Il mondo non ti dà mai il permesso di brillare. Solo l'amore lo fa. Ricordo di essere stata una cameriera di cocktail e di essere entrata al lavoro una notte pensando, oh, ho capito. Pensano che questo sia un bar. Come studente di un corso in miracoli, ora la vedevo in modo diverso. Questo non è un bar e io non sono una cameriera. È solo un'illusione. Ogni attività è una copertura per una chiesa, e io sono qui per purificare le forme pensiero, per servire i figli di Dio. Possiamo prendere sul serio le nostre vite, indipendentemente dal fatto che qualcun altro lo faccia o meno. Nessun lavoro ha davvero un impatto potenziale maggiore sul pianeta di qualsiasi altro. Abbiamo sempre un impatto sul mondo in cui viviamo, attraverso la nostra presenza, la nostra energia, le nostre interazioni con gli altri. La domanda è, che tipo di impatto stiamo avendo? Una volta ho conosciuto una donna che voleva fare l'attrice, ma non trovava lavoro. Nel frattempo lavorava come assistente personale di uno scrittore professionista. Adorava il suo lavoro e voleva che viaggiasse con lui in tutto il paese, facendo tournè di libri, organizzando conferenze e aiutandolo in vari modi. Anche se mi ha detto che ha trovato molto esilarante lavorare con lui, non voleva lasciare Los Angeles perché sentiva di aver bisogno di essere disponibili nel caso ci fossero lavori di recitazione qui per cui avrebbe potuto fare un'audizione. Niente sarebbe meglio per la tua carriera di attore, dissi al mio amico, di quello che inizieresti a recitare nella tua stessa vita. Il motivo per cui molte persone vogliono essere attori non è perché sono veramente chiamati all'arte, ma piuttosto perché vogliono disperatamente creare qualcosa di bello nelle loro vite. Mostrare. Essere entusiasta. Metti un po' di energia nella vita che stai vivendo ora. Come sarà mai qualcuno impressionato dalla tua qualità da star se stai aspettando di coltivare quella qualità fino a quando non diventi una star? Come farebbe un taumaturgo a decidere se partire per il viaggio o restare a Los Angeles? Prendiamo decisioni richiedendo che lo Spirito Santo decida per noi. Ci sono sempre così tanti fattori nella vita che non possiamo sapere. Non prendiamo decisioni da soli, ma ci chiediamo come potremmo essere più utili per portare a termine il suo piano. L'autorità morale che questo atteggiamento ci dà crea una qualità da stella. È la nostra umiltà, il nostro desiderio di essere al servizio, che ci rende delle stelle. Non la nostra arroganza. Un pensiero egoistico che tenta molte persone è l'insistenza sul fatto che non faccio finestre. C'è un'antica tradizione Zen di discepoli che trascorrono anni a spolverare gli altari dei loro maestri come parte della loro preparazione e addestramento. L'apprendista impara dall'essere alla presenza del maestro, dal servirlo, e col tempo lo supererà. Come dice l'Iking, l'universo riempie i modesti e abbatte gli orgogliosi. Con modestia, lasciamo che le cose sboccino. Non ci vergogniamo ad ammettere che stiamo ancora lavorando. L'ego enfatizza l'obiettivo piuttosto che il processo attraverso il quale lo raggiungiamo. Questo è in realtà il modo in cui l'ego ci sabotta. Diventiamo orgogliosi e induriti, e quindi meno attraenti. Non c'è niente di simpatico nel falso orgoglio. Non ci aiuta a trovare lavoro o ad avere più successo. Il nostro compito è tendere alla nostra crescita come persone, alla nostra grazia, integrità e umiltà. Non abbiamo bisogno di altri obiettivi. Il nucleo del nostro essere diventa allora un potere sostanziale, sia esternamente che internamente. Il nostro ministero diventa una linea diretta della creazione, da Dio attraverso di noi a tutta l'umanità. 6. Nuovi cuori, nuovi lavori figlio di Dio, sei stato creato per creare il buono, il bello e il santo. Non dimenticarlo. L'ego dice, il tuo valore si basa sulle tue credenziali. Hai bisogno di un dottorato di ricerca o il suo equivalente prima che tu possa trovare un buon lavoro. Ma alcuni dei migliori e più brillanti della nostra generazione sono stati educati più dalla vita che dalla scuola. C'è una massa di talenti nella nostra società che sono stati ovunque e hanno fatto di tutto, ma hanno poche credenziali da dimostrare. I nostri risultati sono stati principalmente interni. I nostri ministeri, le nostre nuove carriere, rifletteranno questi risultati interni. Esprimeranno una nuova integrazione di mente e cuore. Esprimeranno la coscienza delle persone che contribuiscono con le loro risorse individuali a una marea di guarigione generale. Queste carriere saranno create come riflessi individuali dei nostri talenti unici. Non troveremo questi lavori, li creeremo. Non ci sono annunci nella sezione Help Wanted dei giornali per salvatori del mondo o operatori di miracoli. Nuove forme di lavoro stanno emergendo in risposta a nuove energie. Carl Jung consigliava alle persone di guardare da vicino tutte le fiabe o i miti che li attiravano particolarmente da bambini. Quando ero bambino, rimasi incantato da una fiaba intitolata La ragazza con il vestito patchwork. In questa storia, il principe ereditario di un regno va in giro per il paese in cerca di una sposa. In una città si tiene un grande ballo in modo che il principe possa avere la possibilità di incontrare tutte le signorine che vivono lì. Una ragazza desiderava molto andare al ballo, ma non aveva abbastanza soldi per comprare il materiale di cui avrebbe avuto bisogno per realizzare un bellissimo abito da ballo. Quindi ha fatto quello che poteva. Raccolse frammenti di stoffa dai tavoli da lavoro di altre ragazze e mise insieme un vestito patchwork. On tenigtov te bal, scentere dte parti in grevembarra sedvence sa vove beautiful oltre oter girls dress e suere. Filing asciamed, scedina close. Te prince came tutte parti, dan cedvit oltre girls tere, è nata a certa in point, e ad adenog. E vas bore dene vas going home. Butas e vas lehaving, e noticè da piace of cloth sticking out of a closet door. E ordere disguards to open te door, vere te i discovered te girli in te patchwork dress. Te prince dan cedvit er, fo un der more interesting tanani of te oter girls, e ne married er. Quando ho pensato a quella storia da adulto, ho capito perché aveva significato così tanto per me da bambino. Ha rivelato un archetipo significativo nella mia vita. Alla fine avrei assaggiato un po' di tutto ciò che la vita aveva da offrire. Questo non mi farebbe mai guadagnare una laurea in nulla, ma mi farebbe guadagnare una sorta di panoramica. Quella visione delle cose sarebbe diventata la base per la mia carriera. Molte persone tra noi sono come la ragazza con il vestito patchwork. Abbiamo un po' di questo e un po' di quello. Ma non puoi ottenere un dottorato di ricerca. Nell'essere stato ovunque e aver fatto tutto. Metti tutto insieme e non abbiamo una laurea, ma siamo persone interessanti con storie interessanti da raccontare. L'abito patchwork simboleggia la coscienza di un generalista, uno che sintetizza, mentre gli altri bellissimi abiti simboleggiano la coscienza di uno specialista. Ultimateli, it is not our credentials but our commitment to our purpose that create so our effectiveness in the world. Our resumes are important only if we think they are. I was ating dinner on and ig tv it agil friend of mine voice an excellent vriterena published ed author. I mentioned to another friend at the table, a man in publishing, that it to Barbara Schould vrite a monthly column in one of the major women's magazines, caled the link. Heal in perspective or news from the earthland or someting like a tat. Everimont she called vrite some interest in piègia but o van emotional breakthrough from fair to love ada eraling impact in some personal or societal condition. If it take on wall give people up. But our friend in publishing tocca differente perspective. Barbara Coulton dotat, e sai da. No magazine Wolde pubblicit. C'è snota ph.d. C'è snota an authority. Tei vont se eras an established voici. I vant ed tu turn tu Barbara en place an invisible shield of cotto nove rears. I did vant er tu listen to his words. I did vant er tu be lieve is limited thinking. I did vant er tu closer mint tu miracles. I remember i arsago, drinking a cup of coffee lateone nigtasi addone many times before. O can you dotat. Affriend a sched. Vontat che pio apple nigt. A softat nigt, coffee kept me up all nigt. I had never before, ever, made the conscious connection between coffee and caffeine and sleeplessness, and so, in my experience, there had never been one. Nei ter neid tere be an automatic connection between a lack of credentials and a lack of opportunity. Tei desire tu serve God create stemians by which vedo so. O ur power do isn't lie in ur resume or ur connections. O ur power do isn't lie in vat ve vedone o reven in vat were edoin. O ur power liess in ur clarity abut why were e on te art. Will be important players if of the coming years will be the people boss et themselves asere to contribute to the healing of the world. Everything else is trivial in comparison. Vere you vent to show list no big deal, or even to show up. God can use te flimsiest resume. E can use te smallest gifts. Whatever ur gift is to God, ovever umble it may seem, e can turn it into a mig to work on is behalf. O ur createst gift to imis ur devotion. From that point of power, doors open. Careers blossom. VL, and the world around us eals. 7. Goals God is the only goal I have to die. Goal setting has become very popular in recent years. It is a process of focusing te min donan desired result. This is actually just another way of trying to get the world to do vat ve vant it to do. It is not spiritual surrender. A course in miracles discusses a difference between magic and miracles. Magic is when we focus te min donan desired manifestation, giving ur shopping list to God in telling him vat ve vant him to do for us. Miracles are ven ve ask god vat ve can do for him. Miracles shift us from age to agive mentaliti. Te desire tuge someting reflect sa corbe lieftat vedontave nou galreadi. As longas ve believe tere is scarcit in side us, quel continue tu manufacture scarcite arundus be causetatis ur basic to ut. No matter vat ve get, it will never be no. Ve nor desire is tugeve instead of get, o ur corbe liefistat ve ave som muc abundance, ve can afford tugeve it avai. Te subconscious mint taches it scluef romo ur corbe liefs, en brillianli manufactures situation stat reflettem. O ur wilignes tugeve directs te universe tugeve tus. Te miracle workers golline veri circumstance is piece of mint. A corse miracle stels su stat vedont knovat wo old make us happy, ve just tink vedo. All of us ave got ten tings ve told wo old make us happy and they didn't. If ve vrite affirmations for a brown Mercedes-Benz, te power of te subconscious mint is suck that they will probably get. Te point is, ve vont necessarili be happy once vedo. Te miracle emindeed perception wo old bet to make happiness itself or gollenture linkuisht et to ut tat ve knovat tat wo old look like. Ve never knovats going to happen in a month, or a year from no. If ve got tvat ve vant ed nov, ten peraps ve wo old be worse off for it later onorevole let's say yo re going in for a job intervieve. Yo vant te job verimuk, ensome o nemig tave suggested tu yo tat yo showld affirm yo ul begetting te job, making tat yo ur gol. But a miracle worker ma che spiso ur only gol. Vat tat do es istu direct te mint tu focus on all te factors tat contribute tu ur pis, en le ave veriting el se auto fo ur conscious consideration. Te mint, li che te fisicale ie, is inundated vid so man impression sat on a time, tat abu il tin cendsor mationism brings focus to ur perception. It shows us what we'll notice and what we vant. Making ur gol an eating other than pieces emotionally self-destructive. If ur gol is to get a job, ten tats fine if we do, but if we don't get a job, we'll feel depressed. If we make peace or goal, ten if we get a job, tats great, but if we don't, we're still paceful. The course tells us it's important to set a goal at the beginning of a situation, or it will seem to unfold shoutically. If ur gol is peace, we're programmed for emotional stability no matter what happens. The mind will have been directed to set a situation from a paceful perspective. If we didn't get a job we wanted, it won't matter so much. They will truly understand that there is someting better coming up so on, or that this was not reality perfect job for us anyway. They will have a fighting god. The miracle is that they will reality fail our fight. It won't just be positive god rov no vero ur pain. Our emotions flow from ur thoughts, and not the other way around. Another problem with setting specific goals is that they can be limiting. Perhaps we're asking for someting god, when god's will vast at webbe given someting great. Our locking over god's shoulder only interferes with his capacity to make us happy. Once we truly understand that god's will is that webbe happy, we no longer felt and need to ask for a meeting other than that god's will be done. Once we nevas lecturing in New York, a young man stood up and asked me about affirmations. At that time, the street blues was a popular tv show. He said, I've been reading down fifty times before I go to sleep at night, he had a regular part on the street blues, he had a regular part on the street blues. Are you telling me you shouldn't do that? He said, you can read those affirmations fifty times fifty times before you go to bed at night, in chances are you go to all pull in a part on the street blues because they mean this very powerful. But for all you know, a year will pass, an important director will be wanting you for the lead in a major feature film, but they won't be able to get you because you are under contract for a little part in the street blues. They are underling or need to tell god what to do is our lack of trust. Were afraid to lay the laws or fill. If we are going to set any goal, let us set the goal of being galed off the belief that god is fair instead of love. Let us remember from the course that our happiness is our goal. There is no need to believe that god can't figure out the details or provide the way to make it happen. 8. God's plan only God's plan for salvation will work. A volte abbiamo un atteggiamento sul lavoro perché pensiamo che il lavoro sia al di sotto di noi, o ci risentiamo del fatto che altre persone siano il capo e noi no. Abbiamo fretta di arrivare in cima alla classifica. Non ci rendiamo conto che, mentre diffondiamo amore, saliamo naturalmente. Forse non molto rapidamente, ma ricorda la storia della tartaruga e della lepre. La tartaruga, sebbene camminasse lentamente e regolarmente, raggiunse la meta prima della lepre dal piede veloce. Possa la volontà di Dio è la stessa cosa che dire, possa io diventare il migliore che sono capace di essere. Man mano che cresciamo in statura personale, diventiamo un'energia più responsabile. Le persone vorranno assumerci, per lavorare con noi. Il nostro progresso avverrà facilmente. Il nostro successo sarà un risultato senza sforzo. Le cose accadranno. Puoi avere un ottimo curriculum, ma se hai una personalità a marcia, il gioco si farà duro per te da qualche parte in futuro. Un buon curriculum può farti ottenere un colloquio importante, ma non otterrai il lavoro a meno che tu non piaccia a loro. Gran parte dell'orientamento psicologico di oggi è fragile. È fragile perché tutti ci stanno provando così tanto, e noi tutti ci stiamo provando così tanto perché pensiamo di doverlo fare. La via della resa è come lasciare che Dio sia lo scultore, e lasciarsi essere l'argilla. Nelle lezioni di scultura che frequentavo al liceo, dovevamo spruzzare l'argilla con acqua ogni giorno o diventava troppo secca per lavorarci. Così dobbiamo essere per Dio, malleabili, come argilla umida. Se siamo rigidamente attaccati a ottenere qualcosa, incluso fare in modo che le cose funzionino nel modo in cui pensiamo che dovrebbero funzionare, non siamo rilassati. Abbiamo quindi poco spazio per intuizioni spontanee. Non sappiamo mai davvero perché stiamo andando da qualche parte. Ho stabilito quelli che pensavo fossero contatti professionali che si sono rivelati contatti personali e viceversa. Nel mondo di Dio, c'è solo un'opera in corso, ed è la preparazione dei suoi maestri, coloro che dimostrano amore. Secondo il corso, lo Spirito Santo usa ogni situazione che gli viene data come una lezione d'amore per tutte le persone coinvolte. Ma dobbiamo essere disposti a rinunciare al nostro attaccamento a un risultato particolare in una determinata situazione. Potremmo vedere un certo progetto come un veicolo per fare soldi, per esempio, e poi sentirci delusi se non lo fa. Ci sentiamo confusi perché pensavamo di seguire la guida dello Spirito Santo nel compiere lo sforzo. Ma potrebbe essere che il vero scopo di quel particolare progetto non fosse affatto quello di fare soldi. Non sempre sappiamo in quel momento perché lo Spirito Santo ci guida come Lui. La funzione del taumaturgo è semplicemente quella di seguire le istruzioni nel desiderio di servire Dio. La nostra compensazione, materialmente ed emotivamente, arriverà nel tempo e nel modo di Dio. Uno dei motivi per cui cerchiamo sempre di controllare i risultati della vita è perché pensiamo che l'universo, quando lasciato a se stesso, sia caotico. Ma Dio è l'ordine ultimo. Egli è il principio dell'amore in costante espansione in azione, in tutte le dimensioni, per tutta la vita. Il suo potere è completamente impersonale. Non gli piacciono alcune persone più di altre. Funziona come un computer. Fidarsi di Dio è come fidarsi della gravità. Questi sono punti importanti da ricordare, il piano di Dio funziona. Il tuo no. Come affermato dal corso, non ho bisogno di aggiungere nulla al suo piano. Ma per riceverlo, devo essere disposto a non sostituirlo con il mio. E questo è tutto. Aggiungini di più e toglierai semplicemente quel poco che ti viene chiesto. Non è nostro compito capire come realizzare i propositi di Dio sulla Terra. Questo non è d'aiuto, è interferenza. È semplicemente nostro compito allineare così profondamente i nostri cuori e le nostre menti con il suo spirito dentro di noi, che le nostre vite diventino poi strumenti involontari della sua volontà. Si verificano approfondimenti. Le situazioni cambiano marcia. I nostri sforzi per controllare consapevolmente lo sviluppo del bene non producono tanto bene quanto producono un tipo leggermente meno contaminato di ostinazione umana. Ho sentito dire che vivere secondo la nostra visione è più potente che vivere secondo le nostre circostanze. Aggrapparsi a una visione richiama le circostanze in base alle quali la visione viene raggiunta. La visione è contenta, circostanze materiali in mera forma. Ho un amico che si candida a una carica politica. Essendo stato in politica per molti anni, la sua tendenza è pensare che il suo successo politico dipenda dal suo essere un buon politico. Ma parte del decadimento del nostro ordine sociale è avvenuto perché siamo governati da così tante persone che sono politici piuttosto che leader. Lyndon Johnson era un grande politico ma non un gran leader. John Kennedy era un grande leader ma non un gran politico. La forza di una visione positiva per l'America, attraverso i suoi effetti ispiratori su tutte le persone che vogliono disperatamente vedere la nostra nazione guarita, farà di più per ottenere qualcuno eletto che qualsiasi quantità di politica convenzionale. Toccherà i nostri cuori. Dissi al mio amico che la chiave per una campagna di successo sarebbe stata consegnare la campagna allo Spirito Santo e chiedere che fosse usata come strumento della sua pace. Il mio amico ha detto che suonava benissimo, ma aveva bisogno di capire come farlo. Gli ho detto che non doveva capire niente. Tutto quello che devi fare è essere disposto, gli dissi, e lo Spirito Santo entrerà dove lui è invitato. Sarai brillante. Sarai carismatico. Non cercare di capire il tuo messaggio, chiedi solo a Dio cosa vorrebbe che tu dicessi. Fai un passo indietro e lascia che lui ti guidi. Una preghiera silenziosa prima di ogni discorso e di ogni apparizione politica aiuterebbe a portare le sue energie in linea con la verità. Una volta l'ho accompagnato a una manifestazione politica, e in macchina durante il viaggio, ha condiviso con me alcuni comprensibili giudizi su certe persone che sarebbero state lì. Prega che le tue percezioni siano sanate, gli dissi mentre entravamo nell'edificio. Il tuo obiettivo è condurci in una società compassionevole, ma non puoi dare ciò che non hai. Inizia ad essere compassionevole verso le persone in questa manifestazione. Quando la tua mente sarà guarita, il suo effetto sugli altri sarà automatico. Non dovrai nemmeno pensare a cosa dire. Le parole perfette verranno fuori subito, perché l'amore guiderà la tua mente. Questo è ciò che significherebbe lasciare che Dio guidi la sua campagna. E così è con qualsiasi attività commerciale. Prima della riunione, del colloquio o della sessione, o qualsiasi altra cosa, prova a dire questa preghiera, caro Dio, ti cedo questa situazione. Possa essere usato per i tuoi scopi. Chiedo solo che il mio cuore sia aperto a dare amore e a ricevere amore. Possano tutti i risultati svolgersi secondo la tua volontà. Amen. Qualunque cosa tu faccia, falla per Dio. Siamo abbastanza forti per fare qualsiasi lavoro ci chiede di fare. Non preoccuparti della tua prontezza, dice il corso, ma sii costantemente consapevole della sua. Non sei tu a fare il lavoro, ma lo spirito che è dentro di te. Dimenticare questo provoca paura. Un corso in miracoli dice che la presenza della paura è un segno sicuro che confidiamo nelle nostre stesse forze. Se confidi nelle tue forze, hai tutte le ragioni per essere apprensivo, ansioso e timoroso. Di noi stessi, nessuno di noi ha la capacità di fare miracoli. Con il potere che è in noi ma non di noi, invece, non c'è niente che non possiamo fare. 9. Vendita e l servizio o l'amore darebbe sempre accrescimento. Quando siamo motivati dal desiderio di vendere, ci prendiamo cura solo di noi stessi. Quando siamo motivati dal desiderio di servire, ci prendiamo cura degli altri. I miracoli ci spostano da una mentalità di vendita a una di servizio. Dal momento che nel regno della coscienza possiamo solo mantenere ciò che diamo via, una mentalità di servizio è un atteggiamento molto più abbondante. Il sistema di pensiero che domina la nostra cultura è intriso di valori egoistici. abbandonare quei valori è molto più facile a dirsi che a farsi. Il viaggio verso un cuore puro può essere molto disorientante. Per anni potremmo aver lavorato per potere, denaro e prestigio. Ora, all'improvviso, abbiamo imparato che quelli sono solo i valori di un mondo morente. Non sappiamo più dove cercare la motivazione. Se non stiamo lavorando per diventare ricchi, allora perché stiamo lavorando? Cosa dovremmo fare tutto il giorno? Sedersi a casa e guardare la tv? Assolutamente no, ma pensare così è una fase temporanea che molte persone attraversano, quando i valori del vecchio mondo non hanno più presa su di noi, ma i valori del nuovo non hanno ancora afferrato la tua anima. Lo faranno. Arriva un momento, non troppo lungo nel viaggio verso Dio, in cui la consapevolezza che il mondo potrebbe funzionare magnificamente se gliene dessimo la possibilità, inizia a eccitarci. diventa la nostra nuova motivazione. La notizia non è quanto siano brutte le cose. La notizia è quanto potrebbero essere bravi. E la nostra stessa attività potrebbe essere parte dello sviluppo del cielo sulla terra. Non c'è motivazione più potente che sentirsi usati nella creazione di un mondo in cui l'amore ha guarito tutte le ferite. Non siamo più ambiziosi per noi stessi, ma siamo piuttosto ispirati dalla visione di un mondo guarito. L'ispirazione riorganizza le nostre energie. Sorge dentro di noi un nuovo potere e una nuova direzione. Non ci sentiamo più come se stessimo cercando di portare un pallone fino al traguardo, stringendolo al petto e circondati da forze ostili. Ci sentiamo invece come se gli angeli ci spingessero da dietro e raddrizzassero il nostro cammino mentre andiamo. La purezza del cuore non ci renderà poveri. L'esaltazione della povertà come virtù spirituale è dell'ego, non dello spirito. Una persona che agisce per una motivazione di contributo e di servizio raggiunge un tale livello di autorità morale, che il successo mondano è un risultato naturale. Regala tutti i tuoi doni al servizio del mondo. Se vuoi dipingere, non aspettare una borsa di studio. Dipingi un muro nella tua città che sembri squallido e poco invitante. Non sai mai chi vedrà quel muro. Qualunque cosa tu voglia fare, regala al servizio della tua comunità. Durante le mie lezioni a Los Angeles, ero così stanco di sentire gli attori lamentarsi per non aver trovato lavoro. Vai negli ospedali, nelle case di riposo, negli istituti psichiatrici, dissi. C'era la recitazione prima che ci fossero lavori di recitazione. Se vuoi agire, agisci. Alcune persone che mi hanno sentito hanno formato un gruppo chiamato Miracle Players, e hanno fatto proprio questo. Non voglio farlo perché non posso guadagnarmi da vivere facendolo, è un raggio molto debole da inviare nell'universo. Ho tenuto conferenze su un corso in Miracoli per almeno due anni prima che diventasse la mia fonte di guadagno. Quando ho iniziato a tenere conferenze, non avevo idea che sarebbe diventata la mia professione. Alcune cose le fai per nessun altro motivo se non perché sono la cosa giusta da fare. Lo farò perché serve, anche se non sono pagato, è una luce molto abbagliante. Dice all'universo che devi essere molto serio. E quando prendi sul serio l'universo, l'universo diventa serio su di te. Non ho mai sentito il bisogno di pubblicizzare molto per le mie lezioni. Ho pensato che se fossero di genuino interesse per le persone, allora le persone ne avrebbero sentito parlare. Questo non vuol dire che la pubblicità sia negativa, purché la motivazione per la pubblicità sia informare le persone invece di manipolarle. Arnold Patent ha scritto che se hai davvero qualcosa da dire, c'è qualcuno che ha davvero bisogno di ascoltarlo. Non dobbiamo inventare un pubblico tanto quanto dobbiamo affinare il messaggio che intendiamo dargli una volta arrivati qui. Servire tre persone è importante quanto servire trecento. Una volta che avremo chiaro come gestire un piccolo seguito, un grande seguito si svilupperà automaticamente, se ciò servisse al mondo. Il nostro potere sta nella nostra chiarezza sul ruolo che il nostro lavoro può svolgere nella creazione di un mondo più bello. Il mondo dell'ego è basato su risorse limitate, ma il mondo di Dio non lo è. Nel mondo di Dio, che è il mondo reale, più diamo, più abbiamo. Il fatto che abbiamo un pezzo della torta del mondo non significa che ce ne sia meno per qualcun altro, e che qualcun altro abbia un pezzo della torta non significa che ce ne sia meno per noi. Quindi non abbiamo bisogno di competere, negli affari o altrove. La nostra generosità verso gli altri è la chiave della nostra esperienza positiva del mondo. C'è abbastanza spazio perché tutti siano belli. C'è abbastanza spazio perché tutti abbiano successo. C'è abbastanza spazio per tutti per essere ricchi. È solo il nostro pensiero che impedisce a questa possibilità di accadere. Le persone che hanno ottenuto più di te, in qualsiasi area, sono solo mezzo passo avanti a te nel tempo. Benedicigli e loda i loro doni, benedici e loda i tuoi. Il mondo sarebbe meno ricco senza il loro contributo e sarebbe meno ricco senza il tuo. C'è più che spazio per tutti, in effetti, c'è bisogno di tutti. Come siamo guariti, il mondo è guarito. Fare qualsiasi cosa per uno scopo diverso dall'amore significa rivivere la scissione da Dio, perpetuare e mantenere quella scissione. Ogni persona è una cellula nel corpo della coscienza umana. In questo momento, è come se il corpo di Cristo soffrisse di cancro. Nel cancro, una normale cellula funzionante decide che non vuole più funzionare in contributo al tutto. Invece di far parte del sistema di supporto del sangue o del fegato, la cellula si spegne e costruisce il proprio regno. Questa è una malignità, che minaccia di distruggere l'organismo. Così è con il corpo dell'umanità. Ognuno è andato a fare le proprie cose, la mia carriera, il mio negozio, i miei soldi. Abbiamo perso di vista la nostra essenziale interrelazione e questa dimenticanza minaccia di distruggerci. La mia mentalità è l'ego. È la fede nella separazione. È la malattia cosmica. Prendere ciò che abbiamo e consacrarlo alla restaurazione del tutto è la nostra salvezza e la salvezza del mondo. La nostra devozione diventa allora il nostro lavoro, e il nostro lavoro diventa la nostra devozione. Capitolo 8 Il corpo Il corpo non è stato fatto dall'amore. Eppure l'amore non lo condanna e può usarlo con amore, rispettando ciò che il Figlio di Dio ha fatto e usandolo per salvarlo dalle illusioni. 1. Scopo del corpo Lascia che il corpo abbia la guarigione come suo scopo. Nel mondo dei corpi, siamo tutti separati. Nel mondo dello spirito, siamo tutti uno. Citando il Corso, curiamo la separazione tra i due spostando la nostra consapevolezza dall'identificazione del corpo o l'identificazione dello spirito. Questo guarisce il corpo così come la mente. Pensiamo di essere separati perché abbiamo dei corpi, quando in verità abbiamo dei corpi perché pensiamo di essere separati. Il Corso dice che il corpo è un minuscolo recinto attorno a una piccola parte di un'idea gloriosa e completa. Ma questo non significa che il corpo sia cattivo. Come ogni altra cosa nel mondo della forma, la mente le attribuisce scopi paurosi o amorevoli. L'uso del corpo da parte dell'ego è quello di mantenere l'illusione della separazione, l'ego usa il corpo per l'attacco, il piacere e l'orgoglio. L'uso del corpo da parte dello Spirito Santo è quello di sanare quell'illusione, in questo senso, il corpo diventa un tempio di Dio, la sua voce dimora in essa dirigendo l'uso a cui è destinata. La santità del corpo risiede nel suo potenziale di comunicazione. Quando viene donato allo Spirito Santo, il corpo diventa una bella lezione di comunione che ha valore finché la comunione non lo sia. Lo Spirito Santo ci chiede di dargli le nostre mani, i nostri piedi, le nostre voci, perché egli possa usarle come strumenti per salvare il mondo. Vedere il corpo come mezzo di trasformazione del mondo, e non fine a se stesso, è una sana percezione del corpo. Vedere il corpo come un fine invece che come un mezzo, attribuirgli scopi egoistici o non amorevoli, significa imporre un peso sul corpo che il corpo non avrebbe mai dovuto portare. Questo è il pensiero malato, che produce la malattia nel corpo. Vivendo su questa terra, abbiamo imparato a vederci come corpi. Un corpo individuale è fisicamente piccolo e vulnerabile rispetto al resto dell'universo, quindi, poiché pensiamo di essere corpi, ci sperimentiamo come piccoli e vulnerabili. Vivere nella consapevolezza che siamo molto più che corpi, che siamo spiriti nella mente di Dio, espande il livello della nostra consapevolezza e ci pone al di fuori dei limiti della legge fisica ordinaria. Questa correzione della nostra percezione, questa espiazione, è la nostra guarigione. Non è il corpo che si ammala, ma la mente. Come mostrato nel corso, la salute o la malattia del corpo dipende interamente da come la mente la percepisce e dallo scopo per cui la mente la oserebbe. Non è il corpo, ma la mente che ha bisogno di guarigione, e l'unica guarigione è un ritorno all'amore. I nostri corpi sono solo tele bianche su cui proiettiamo i nostri pensieri. La malattia è il pensiero senza amore materializzato. Questo non significa che le persone che hanno contratto una malattia pensassero senza amore, mentre il resto di noi no. I grandi santi hanno contratto malattie terminali. L'assenza di amore che produce la malattia è sistemica, è intrecciato in tutta la coscienza razziale. Quale anima manifesta la malattia si basa su molti fattori. Diciamo che un bambino innocente muore di cancro a causa dell'ambiente. In che modo l'assenza di amore era il problema qui? Il pensiero senza amore non era necessariamente nel bambino, ma in molti di noi che, nel corso degli anni, hanno vissuto senza rispetto per l'ambiente, permettendogli di essere inquinato da sostanze chimiche tossiche. La malattia fisica del bambino derivava, indirettamente, dalla malattia nella mente di qualcun altro. I nostri pensieri amorevoli influenzano persone e situazioni che non ci sogniamo mai, così come i nostri errori. Dal momento che le nostre menti non si fermano ai nostri involucri cerebrali, poiché non c'è posto dove una mente si ferma e un'altra inizia, allora il nostro amore tocca tutti, e così fa la nostra paura. Una sana percezione dei nostri corpi è quella in cui li affidiamo allo Spirito Santo e chiediamo che siano usati come strumenti attraverso i quali l'amore si esprime nel mondo. Il corso afferma, il corpo è semplicemente una parte della tua esperienza nel mondo fisico, esso, non è altro che una struttura per lo sviluppo delle abilità, che è del tutto diversa da ciò per cui vengono utilizzate. Un corso in miracoli dice che la salute è il risultato dell'abbandono di tutti i tentativi di usare il corpo senza amore. L'uso del corpo per scopi diversi dall'estensione dell'amore è un pensiero malato. È in contrasto con la nostra conoscenza naturale e il conflitto che genera si riflette nei nostri stati fisici e mentali. 2. Salute e guarigione Il corpo non è la fonte della propria salute. Un mio amico mi ha detto che non siamo puniti per i nostri peccati, ma per i nostri peccati. La malattia non è segno del giudizio di Dio su di noi, ma del nostro giudizio su noi stessi. Se dovessimo pensare che Dio ha creato la nostra malattia, come potremmo rivolgerci a Lui per la guarigione? Come abbiamo già stabilito, Dio è tutto ciò che è buono. Crea solo amore, quindi non crea malattia. La malattia è un'illusione e in realtà non esiste. Fa parte del nostro sogno mondano, il nostro incubo autocreato. La nostra preghiera a Dio è che ci risvegli dal sogno. Quando qualcuno di noi si sveglia, il mondo intero viene avvicinato al cielo. Nel chiedere la guarigione, non chiediamo solo la nostra salute, ma chiediamo piuttosto che l'idea della malattia sia rimossa dalla mente del Figlio di Dio. Come mostrato in un corso in Miracoli, se la mente può guarire il corpo, ma il corpo non può guarire la mente, allora la mente deve essere più forte del corpo. Il perdono è l'ultima medicina preventiva e il più grande guaritore. Guariamo il corpo ricordando che non è quello che siamo veramente. Siamo spiriti e non corpi, siamo eternamente sani e siamo incapaci di ammalarci. Queste sono semplicemente affermazioni della verità su noi stessi, ed è sempre la verità che ci rende liberi. La malattia è un segno di separazione da Dio e la guarigione è un segno che siamo tornati a Lui. Il ritorno a Dio è semplicemente il ritorno all'amore. Nel suo libro Quantum Ealing, il dottor De Pak Chopra racconta una storia potente sulla connessione tra amore e guarigione fisica, uno studio dell'Università dell'Ohio sulle malattie cardiache negli anni settanta è stato condotto somministrando ai conigli diete piuttosto tossiche ad alto contenuto di colesterolo per bloccare le loro arterie, duplicando l'effetto che tale dieta ha sulle arterie umane. Risultati coerenti iniziarono ad apparire in tutti i gruppi di conigli tranne uno, che stranamente mostrava il 60% in meno di sintomi. Niente nella fisiologia dei conigli poteva spiegare la loro elevata tolleranza alla dieta, fino a quando non si scoprì per caso che lo studente incaricato di nutrire questi particolari conigli amava accarezzarli e accarezzarli. Avrebbe tenuto ogni coniglio amorevolmente per alcuni minuti prima di dargli da mangiare, sorprendentemente, questo da solo sembrava consentire agli animali di superare la dieta tossica. Ripetere gli esperimenti, in cui un gruppo di conigli è stato trattato in modo neutrale mentre gli altri sono stati amati, ha ottenuto risultati simili. Ancora una volta, il meccanismo che causa tale immunità è abbastanza sconosciuto, è sconcertante pensare che l'evoluzione abbia incorporato nella mente del coniglio una risposta immunitaria che deve essere innescata dalle coccole umane. Gli studi hanno dimostrato che i malati di cancro che frequentano i gruppi di supporto vivono, in media, il doppio del tempo dopo la diagnosi rispetto a quelli che non lo fanno. Cos'è questo fattore psicoimmunologico che, ormai, la scienza sa esistere, ma non sa come identificare? Quel fattore è l'amore, o Dio. Dio non ha alcun valore pratico se lo percepiamo semplicemente come un concetto fluttuante, separato dal potere dell'espressione fisica. È solo quando si esprime sulla Terra, il suo amore incanalato attraverso gli esseri umani come nel caso dello studente che coccola i conigli, o gruppi di sostegno in cui si crea lo spazio per una maggiore compassione e comprensione, che gli è permesso di penetrare il velo delle tenebre umane. Negli ultimi anni ho assistito molte persone con diagnosi di cancro, AIDS e altre malattie che mettono a dura prova la vita. Nel 1987 chiesi alla mia amica Louise Ice se voleva aiutarmi ad avviare un'organizzazione no profit dedicata ad aiutare le persone in crisi fisiche, che si chiamerà The Los Angeles Center for Living. Nel 1989, il Manhattan Center for Living è stato aperto a New York City. La dichiarazione di intenti dei centri è che forniamo servizi di supporto non medico gratuiti a persone che affrontano malattie e dolore che mettono a dura prova la vita. Su entrambe le coste, abbiamo visto i miracoli che accadono quando le persone invocano il potere dell'amore in mezzo alla malattia e al dolore. Non guardare al Dio della malattia per la guarigione, ma solo al Dio dell'amore, dice il Corso, perché la guarigione è il riconoscimento di Lui. Nel modello medico occidentale tradizionale, il lavoro di un guaritore è quello di attaccare la malattia. Ma se la coscienza dell'attacco è il problema ultimo, come potrebbe essere la risposta definitiva? Il lavoro di un taumaturgo non è quello di attaccare la malattia, ma piuttosto di stimolare le forze naturali di guarigione. Distogliamo lo sguardo dalla malattia verso l'amore che sta al di là di essa. Nessuna malattia può diminuire la nostra capacità di amare. Vuol dire che è un errore prendere medicine? Assolutamente no. Un corso in miracoli ci ricorda che lo Spirito Santo entra nelle nostre vite al nostro attuale livello di coscienza. Molti di noi credono che il dottore in camice bianco possa guarirci con quella pillola che ci sta dando. Pertanto, dice il corso, dovremmo prendere la pillola. Ma la guarigione non viene dalla pillola. Nasce dalla nostra convinzione. Studi sul cancro hanno dimostrato che i tassi di guarigione nei pazienti che scelgono un trattamento medico tradizionale, rispetto a quelli che seguono un percorso più olistico, sono più o meno uguali. Questo ha perfettamente senso, perché in nessuno dei due casi la guarigione è il risultato della forma di cura. È l'interazione mentale ed emotiva del paziente con il trattamento che ne attiva il potere curativo. Ho guidato gruppi di sostegno per persone che si occupano di malattie difficili per la vita, in cui durante l'intera sessione la malattia è stata menzionata solo di sfuggita. Frequentiamo i gruppi non per avvicinarci alla nostra malattia, ma piuttosto per avvicinarci al potere di guarigione che risiede dentro di noi. Molti dei problemi che dobbiamo affrontare quando siamo malati sono gli stessi problemi che abbiamo affrontato in un modo o nell'altro quando eravamo ancora sani, ma non li abbiamo affrontati fino ad ora. La vita va avanti quando siamo malati. È semplicemente intensificato. Tendiamo a gestire la malattia fondamentalmente nel modo in cui gestiamo tutto il resto nella vita. Dobbiamo evitare la tentazione di vedere la malattia come un ostacolo alla nostra capacità di trovare Dio, e usarla invece come un trampolino di lancio da cui salire tra le sue braccia. 3. Pensiero sano La guarigione, quindi, è un modo per avvicinarsi alla conoscenza pensando secondo le leggi di Dio. C'è una forza di guarigione dentro ognuno di noi, una specie di medico divino seduto nella nostra mente in comunicazione con ogni cellula del nostro essere. Questa forza è l'intelligenza che guida il sistema immunitario. La sua presenza ci è evidente ogni volta che ci tagliamo un dito o ci rompiamo una gamba. Cos'è questa intelligenza divina e come si attiva? L'espiazione libera la mente al suo pieno potere creativo. Gesù salva significa l'amore guarisce la mente. In che modo Gesù guarì il lebroso? Perdonandolo. Rimase in mezzo all'illusione e tuttavia vide solo la verità come Dio l'ha creata. Guarì attraverso la percezione corretta. Quando si trovava di fronte a un lebroso, non vedeva la lebra. Estese la sua percezione oltre ciò che i sensi fisici rivelavano, alla realtà vista attraverso la visione dello Spirito Santo. Dentro il lebroso c'è il Figlio di Dio, perfetto, inalterabile, immutabile. Lo Spirito è eternamente sano. Lo Spirito non può ammalarsi e lo Spirito non può morire. Gesù vede solo come vede Dio. Ha accettato l'espiazione per sé stesso. Gesù non credeva nella lebra. Poiché tutte le menti sono collegate, anche il lebroso in sua presenza non ci credeva più. E così il lebroso fu guarito. In un corso in miracoli, Gesù, che è il simbolo personale dello Spirito Santo, dice, la tua mente e la mia possono unirsi per far risplendere il tuo ego. Chiedere allo Spirito Santo di guarirci quando siamo malati significa chiedergli di guarire i pensieri dentro di noi che danno origine alla malattia. Diversi anni fa, quando avevo appena iniziato a tenere una lezione su un corso in miracoli, ho avuto una serie di tre incidenti stradali in cui sono stato tamponato in autostrada. In ogni caso, avevo subito rinunciato all'esperienza, ricordandomi che non ero soggetto all'effetto del pericolo mondano, e non ero stato ferito o ferito in alcun modo. Un venerdì pomeriggio, con una conferenza da tenere sul corso la mattina dopo, mi sentivo malissimo. Ho avuto un appuntamento per un drink dopo il lavoro con la mia ragazza Sara. Dato che mi sentivo così male, volevo cancellare l'appuntamento e andare a casa a letto, ma quando ho chiamato l'ufficio di Sara mi è stato detto che era già partita per la giornata. Non avevo altra scelta che andare al bar e, mentre andavo lì, ho rivolto la mia attenzione alla cura della mia gola. Desideravo disperatamente accedere a un medico, perché sapevo che un antibiotico chiamato eritromicina aveva sempre curato questo problema alla gola per me in passato. Dato che ero nuovo a Los Angeles, non conoscevo ancora nessun dottore. Mi sono rivolto al corso. Come è successo, mi sono chiesto. Dove ha deviato il mio pensiero dalla verità? Dov'era la mia percezione sbagliata? Ho ricevuto la risposta non appena ho chiesto, e mi ha colpito come un fulmine. Sebbene avessi applicato il principio in relazione all'incidente stesso, mi ero ceduto in tentazione subito dopo. In quale modo? Dopo tre incidenti, tutti quelli che conoscevo erano venuti a chiedermi se stavo bene. Mi hanno messo le mani addosso, mi hanno massaggiato delicatamente il collo e la schiena, mi hanno chiesto se avessi visto un dottore e mi hanno trasmesso dolcezza. L'attenzione era buona. Essere malato ha fatto sì che le persone mi amassero di più. Invece di rispondere a tutto tondo, sto bene, il sto bene è uscito un po' più timidamente, per timore che smettessero di strofinarmi il collo. Avevo accettato, entrato in accordo con, l'idea della mia vulnerabilità fisica per ricevere il profitto dell'amore di dell'attenzione. Ho pagato un prezzo alto per il mio peccato, cioè la percezione senza amore. La mia percezione era sbagliata, nel senso che mi vedevo come un corpo piuttosto che come uno spirito, che è un'auto-identificazione senza amore piuttosto che amorevole. La scelta di credere di essere vulnerabile, anche per un istante, mi ha reso tale. Così il mio mal di gola. Ottimo, ho pensato. Capito. Dio, dissi. Capisco perfettamente come sia successo. Torno con la mente al punto del mio errore, e faccio ammenda. Torno indietro. Chiedo che la mia percezione sia sanata e chiedo di essere liberata dagli effetti del mio pensiero sbagliato. Amen. Ho chiuso gli occhi alla luce rossa mentre dicevo la preghiera e mi aspettavo di essere completamente libera dal mio mal di gola quando li ho aperti di nuovo. Finita la preghiera, ho aperto gli occhi. Mi fa ancora male la gola. Questo non doveva succedere. Ora più depresso che mai, sono andato nel caffè dove dovevo incontrare il mio amico e mi sono seduto al bar. Quando son entrato ho notato che c'era un uomo dall'altra parte del bar, che mi guardava in modo civettuolo. Era tutt'altro che il mio tipo. Lo guardai come per dire, ancora un'occhiata nella mia direzione, amico, e sei morto. Posso aiutarla? Chiese il barista. Sì, sussurrai con voce roca. Voglio del brandy, del miele e del latte. L'uomo dall'altra parte del bar guardò il barista a tornare con gli articoli che avevo richiesto. Cosa stai cercando di fare? Chiese. Non volevo parlare con quest'uomo. Volevo che se ne andasse. Ma una volta che il corso è entrato nel tuo sistema, non hai mai più pensieri maligni senza sensi di colpa. È tuo fratello, Marianne, mi dissi. È un innocente figlio di Dio. Sì gentile. Mi sono ammorbidito. Sto cercando di fare un to di caldo, ho detto. Ho un fortissimo mal di gola. Beh, prima di tutto, non è questo il modo di fare un to di caldo, ha detto, e in secondo luogo, non è quello che vuoi comunque. Probabilmente hai bisogno di un po' di penicillina. È vero, lo so, dissi, l'eritromicina curerebbe questo, ma mi sono appena trasferito a Los Angeles e non conosco nessun medico che me lo prescriverebbe. L'uomo si alzò e si avvicinò dove ero seduto. Mise una carta di credito sul bancone e fece un cenno al barista. Dai, andiamo alla porta accanto, mi disse. Posso portarti un po' di eritromicina. L'ho guardato come se fosse matto, ma ho anche notato che la carta di credito diceva dottor su di esso. Cosa c'è accanto? Ho chiesto. Una farmacia parsimoniosa. E così è stato. Abbiamo camminato accanto a Trifti e il mio nuovo amico, il dottore, mi ha prescritto la medicina che volevo. Dopo avermi lanciato una pillola in bocca, sono diventato estatico. Non capisci, gli dissi, praticamente saltando su e giù. Questo è un miracolo. Ho pregato per la guarigione e ho corretto i miei pensieri, ma lo Spirito Santo non ha potuto darmi una guarigione istantanea perché non sono ancora abbastanza avanzato per riceverlo, sarebbe troppo minaccioso per il mio sistema di credenze, quindi ha dovuto entrare a il livello della mia comprensione, e tu eri lì, ma se non ti avessi aperto il mio cuore non avrei mai potuto ricevere il miracolo perché non sarei stato aperto. Mi porse il suo biglietto da visita. Signorina, ecco il mio numero, disse. Sono uno psichiatra e non prescrivo un antibiotico da venticinque anni. Ma fidati di me, dovresti chiamarmi. Come ho detto al buon dottore, ho chiesto che le mie percezioni errate fossero sanate, ho accettato l'espiazione, ma la guarigione poteva ancora entrare solo a livello della mia ricettività. Il Corso ci dice che lo Spirito Santo si fa da parte in presenza della paura. La maggior parte di noi, se dovessimo guarire istantaneamente una gamba rotta dopo aver ascoltato la parola Gesù, troverebbe la guarigione più deprimente della ferita. Questo perché, se una cosa del genere è possibile, il mondo intero è qualcosa di diverso da quello che pensiamo che sia. Rinunciare alla nostra limitata comprensione del mondo, che sperimentiamo come una sorta di pseudocontrollo, è più una minaccia per noi che una gamba rotta. Alcune persone, dice un corso in miracoli, preferirebbero morire piuttosto che cambiare idea. Lo Spirito Santo trova il modo di esprimere la sua potenza attraverso veicoli che possiamo accettare. La medicina è un tale veicolo. C'è un detto in alcolisti anonimi che ogni problema ha la sua soluzione. La crisi arriva portando la sua soluzione in quanto ci mette in ginocchio, il nostro pensiero più umile. Se fossimo stati lì per cominciare, se avessimo anteposto la potenza di Dio alla nostra, mettendo l'amore prima di tutte le ambizioni personali, allora i nostri problemi non si sarebbero sviluppati. Un'epidemia come l'AIDS è un crepacuore collettivo, che trascina milioni di persone nel suo vortice doloroso. Ma questo significa anche che mette in ginocchio milioni di persone. Non appena un numero sufficiente di noi arriva, non appena l'amore raggiunge una massa critica o, come dice il corso, un numero sufficiente di persone diventa mirato, ci sarà un'improvvisa svolta nella coscienza, un'estasi, una guarigione istantanea. Sarà come se milioni di noi si fermassero davanti a quella luce rossa, riconoscendo la nostra mancanza di amore e chiedendo di essere guariti. Quando la cura per l'AIDS sarà finalmente trovata, daremo premi ad alcuni scienziati, ma molti di noi sapranno che milioni e milioni di preghiere la hanno aiutata. 4. Salvare la mente, salvare il corpo si può dire che solo la salvezza guarisce. L'esperienza della malattia è una chiamata a una vita genuinamente religiosa. In questo senso, è per molte persone una delle cose migliori che gli siano mai capitate. Uno dei problemi con la malattia è che ci tenta fortemente di ossessionarci per il corpo proprio nel momento in cui abbiamo più bisogno di concentrarci sullo spirito. Ci vuole disciplina per ribaltare la situazione. La pratica spirituale è un esercizio mentale ed emotivo, non dissimile dall'esercizio fisico nel modo in cui funziona. Attraverso il lavoro spirituale stiamo cercando di ricostruire la nostra muscolatura mentale. Raggiungiamo così poco, dice un corso in miracoli, perché abbiamo menti indisciplinate. Allinare le nostre menti a pensare da una prospettiva amorevole e fedele è la più grande spinta che possiamo dare al nostro sistema immunitario e una delle sfide più grandi che possiamo porre alla nostra mente. Cambiare la nostra vita può essere difficile. Per una persona a cui è stata diagnosticata una malattia fisica, la chiamata al cambiamento è fondamentale. Laddove prima mangiavamo cibi malsani, ora dobbiamo mangiare cibi sani. Laddove fumavamo, bevevamo o dormivamo troppo poco, ora dobbiamo cambiare queste abitudini. E mentre le nostre menti correvano istintivamente nelle direzioni della paura, della paranoia e dell'attacco, ora dobbiamo fare tutto il possibile per allenare le nostre menti a pensare in modo diverso. La connessione corpo-mente potrebbe essere nuova per la scienza occidentale, ma non è nuova per la medicina orientale o per i campi della religione e della filosofia. Il corpo ha un'intelligenza propria. Come scrive The Epak Chopra in Quantum Ealing, la vita stessa è intelligenza che cavalca ovunque su sostanze chimiche. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare che il cavaliere e il cavallo siano la stessa cosa. Nel tradizionale modello occidentale di guarigione, stiamo cercando di far muovere il cavallo in una nuova direzione, senza considerare di avere una conversazione con il conducente del cavallo. Una nozione spirituale e olistica di guarigione include il trattamento non solo del corpo, ma anche della mente e dello spirito. Come scrive Chopra, alla fine siamo arrivati a un drammatico cambiamento nella visione del mondo. Per la prima volta nella storia della scienza, la mente ha un'impalcatura visibile su cui appoggiarsi. Prima di questo, la scienza ha dichiarato che siamo macchine fisiche che in qualche modo hanno imparato a pensare. Ora si scopre che siamo pensieri che hanno imparato a creare una macchina fisica. L'amore cambia il modo in cui pensiamo alla nostra malattia. La malattia viene dalla separazione, dice un corso in miracoli, e la guarigione viene dall'unione. Naturalmente le persone odiano il loro cancro, o odiano il loro AIDS, ma l'ultima cosa di cui una persona malata ha bisogno è qualcos'altro da odiare di se stessa. La guarigione risulta da una percezione trasformata del nostro rapporto con la malattia, in cui rispondiamo al problema con amore invece che con paura. Quando un bambino presenta un dito tagliato a sua madre, la donna non dice brutto taglio. Piuttosto, bacia il dito, lo inonda di amore in un'attivazione inconscia e istintiva del processo di guarigione. Perché dovremmo pensare in modo diverso alla malattia critica. Cancro, AIDS e altre gravi malattie sono manifestazioni fisiche di un grido psichico e il loro messaggio non è odiami, ma amami. Se sto urlando, la persona di fronte a me può reagire in due modi. Può urlare di rimando, urlandomi di stare zitto, ma questo tenderà a farmi urlare di più. Oppure può dirmi che gli importa dei miei sentimenti e mi ama e gli dispiace che mi senta in questo modo, il che tenderà a calmarmi. Queste sono le nostre due scelte con una malattia critica. Attaccare la malattia non è una cura. Attaccare una malattia la fa solo urlare più forte. La guarigione viene dall'entrare in una conversazione con la nostra malattia, cercando di capire cosa sta cercando di dirci. Il medico cerca di capire l'alfabeto chimico attraverso il quale parla la malattia. Il metafisico cerca di capire cosa sta cercando di dire la malattia. Si vede che il lucifero era l'angelo più bello del paradiso prima di cadere. In Star Wars, Darth Vader risulta essere stato un bravo ragazzo in passato. La malattia è amore trasformato in paura. La nostra stessa energia, destinata a sostenerci, si è rivolta contro noi stessi. L'energia non può essere distrutta. Il nostro compito non è uccidere la malattia, ma riportare la sua energia nella direzione da cui è venuta, trasformare la paura in amore. La visualizzazione è diventata una tecnica popolare per il trattamento di malattie critiche. Le persone spesso visualizzano un uomo del PAC, o un soldato con una mitragliatrice, che si prepara a distruggere le cellule o i virus minacciosi. Ma possiamo adottare un approccio più amorevole. Sotto la brutta maschera di Darth Vader giaceva un vero uomo con un vero cuore. L'AIDS, ad esempio, può essere considerato come angels in Darth Vader Suits? Ecco alcune visualizzazioni illuminate. Immagina il virus dell'AIDS nei panni di Darth Vader, quindi apri la sua tuta per consentire a un angelo di emergere. Guarda la cellula cancerosa o il virus dell'AIDS in tutto il suo orrore ferito, e poi vedi una luce dorata, o un angelo, o Gesù, che avvolge la cellula e la trasforma da oscurità in luce. Come abbiamo detto prima, un grido risponde meglio all'amore. Questo è quando si calma. Questo è quando si ferma. Ho usato un'interessante tecnica di scrittura di lettere nel mio lavoro, in cui le persone scrivono una lettera all'AIDS o al cancro o qualunque malattia possano avere, e le raccontano tutto ciò che sentono. La lettera inizia, ad esempio, Caro cancro, questi sono i miei sentimenti onesti. Punto. Punto. Firmato, ed e poi abbiamo scritto una lettera di risposta ad l'AIDS. Caro Ed, questi sono i miei sentimenti onesti. Punto. Punto. Firmato, AIDS le seguenti lettere sono state scritte in uno dei miei seminari sull'AIDS, Caro AIDS, ti odiavo. Ero confuso e avevo paura di accettare l'idea della morte e della malattia. Ho creduto alla carta di giornale e alla tv, ai medici e a tutta quella paura che gli altri cercavano di insinuare in me ogni giorno. Tuttavia, oggi scopro di non essere morto tre anni e mezzo dopo, e anche con tutti questi problemi medici, oggi sono più vivo che mai. Sono un adulto grazie al tuo apparire nella mia vita. Mi hai dato una ragione per vivere e ti amo per questo. I miei amici sono malati o morti ma io non sono loro. Io sono io. E non mi sento minacciato o spaventato da qualcosa che una volta era un nemico e ora è diventato la mia forza. Sti caro Steve, se fossi, come si suol dire, fuori a prenderti, non credi che saresti già morto? Non sono in grado di ucciderti, farti del male o farti ammalare. Non ho cervello, forza bruta o grande forza dannosa. Sono solo un virus. Tu mi dai il potere che dovresti dare a Dio. Prendo quello che posso perché non voglio morire più di te. Sì, vivo delle tue paure. Ma muoio dalla tua pace mentale, serenità, onestà, fede e voglia di vivere. Cordiali saluti, il virus dell'AIDS, caro AIDS, ho tanta paura di morire giovane. Ho tanta paura di andare in ospedale e di avere tutti questi aghi e cose conficcate dentro di me. Ho tanta paura del dolore. Perché devi fare questo a me e ai miei amici? Cosa abbiamo mai fatto per farti arrabbiare con noi e volerci ferire? Se c'è qualcosa che stai cercando di dirci, non puoi dircelo in un modo diverso? Mi mancano i miei amici. Perché hai dovuto ucciderli? Perché hai dovuto causare loro un tale dolore fisico? A volte sono così arrabbiato con te, ma in questo momento non sono arrabbiato. Sono solo triste. Non ho capito bene. Non so cosa fare per calmarti. Finora mi hai lasciato in pace, ma perché, e per quanto tempo? John è una persona così gentile. Perché deve soffrire? Se è l'amore che vuoi, noi possiamo amarti. Se hai dei dubbi, guarda l'amore che circonda questa malattia. Per favore, rispondi presto. Dicci cosa vuoi. Sento che non abbiamo molto tempo, ma sono disposto ad ascoltare e imparare. Grazie. Carlo caro Carlo, non lo capisco meglio di te. Non voglio dire a te e ai tuoi cari alcun danno. Sto solo cercando di esistere, proprio come te, facendolo nel modo migliore che conosco. Sfortunatamente, finisce per ferire le persone. Voglio solo amore, proprio come te. Sto gridando ma nessuno sembra sentirmi. Forse se proviamo ad ascoltarci e a parlarci, possiamo trovare un modo per esistere in pace senza ferirci a vicenda. In questo momento, sento che tu voglia solo distruggermi piuttosto che affrontare qualunque cosa sia dentro di te che mi ha portato qui. Per favore, non odiarmi e cerca di distruggermi. Amami. Parliamo e ascoltiamoci e cerchiamo di vivere in pace. Grazie. Haid Cariv, poco più di undici anni fa sei arrivato in città. Tutto è cambiato da quel momento. Molte persone se ne sono andate a causa tua. Mi mancano davvero molto. C'è stato così tanto dolore e sofferenza a causa tua. A livello cosciente, nessuno ti voleva. Io stesso ho avuto a che fare personalmente con te già da troppo tempo. Nell'87 e nell'88, mi hai quasi fatto fuori. Ho solo pensato che ti sarebbe piaciuto sapere che ora è il 1991 e che ci sono ancora e anche tu. Non è ora che fermiamo queste stronzate e diventiamo amici? Mettiamoci il passato alle spalle e andiamo avanti insieme. Ho cercato di amarti nel miglior modo possibile, ma a volte ho davvero difficoltà a farlo. Per favore, diventiamo amici e facciamo pace. Ama sempre, Paolo caro Paul, bene. Amare, i caro Aiz, sono davvero incazzato. Perché devo preoccuparmi di te e della morte quando ho solo 26 anni. Voglio sapere che sarò vivo per la mia riunione di classe di 10 anni, ma no, è un grande forse. Sono anche stufo di preoccuparmi che ogni raffreddore che prendo uno schema del sonno diverso sia un segno dell'arrivo o della fine. Sono stanco di preoccuparmi che gli altri lo scoprano. Esci dal mio corpo. Non ti voglio qui. È tutto. Rus caro Rus, sia tu che io non sappiamo come siamo diventati, ma siamo qui insieme. Sarai felice di andarci, ma quella porta non mi è aperta. Ehi, ti ho dato una prospettiva sulla vita e sulla morte a cui la maggior parte delle persone della tua età non pensa mai. Lavora con me, ce la faremo. Aiz, caro Aiz, io, come molte altre persone, ho attraversato così tanto dolore e così tanti cambiamenti, sia fisicamente che mentalmente. Ora, sì, c'è una grande parte dentro di me che è molto arrabbiata e triste. Sembra un grande incubo. Sì, devo aver fatto qualcosa per causare questa malattia. Ma che ferita essere puniti così. Devo dire che non mi piace tutto il dolore che ho passato con questa pazza malattia, e non mi piace la sofferenza che mi ha fatto soffrire mentalmente. Ma prego ogni giorno. Peter caro Peter, sono nel tuo corpo e sì, sono un virus e sì, ti ho causato molto disagio. Ma ti assicuro che il potere della tua mente fa la differenza. Sai, se così non fosse, non saresti qui. Sì, ho alterato la tua vita in qualche modo, ma in qualche modo positivamente. La tua mente è molto più potente di me. Ai caro Aiz, odio l'incertezza. Ma sono grato per il calcio nel sedere che è stato nella mia vita e per coloro che mi circondano. Mi hai fatto trovare la forza che ho sempre avuto e mi hai fatto vedere l'amore che potevano mostrare coloro che mi circondavano. Ci hai fatto imparare tutti ad apprezzare ogni giorno e la forza di cui ero capace. So che continuo a dire forza, ma è vero, l'Aiz mi ha dato forza. Questo perché quando scopri che la tua più grande paura nella vita diventa realtà e puoi ancora andare avanti, la paura non ha più forza. Grazie per avermi aiutato a smettere di picchiarmi e odiare ciò che non ero, e per avermi fatto amare ciò che sono. Andrea caro Andrea, prego. Aiz caro virus dell'Aiz, vai all'inferno. Hai preso una stella splendente dalla mia famiglia. Mi manca e lo amavo e non gliel'ho mai detto. Perché ci invadi nel fiore degli anni? Perché colpisci con tale vendetta? Odio il dolore e l'agonia che causi, ma in qualche modo hai tirato fuori il meglio di Leo e il meglio della sua famiglia. Inez caro Inez, non ho tirato fuori il peggio o il meglio. Lo sono e basta. E come vivi con me dipende da ciascuno di voi. Aiz, suggerisco ad ogni persona alle prese con una grave malattia in sé o negli altri, di considerare l'idea di aprire un diario in cui comunicare la propria malattia. Vedere la malattia come il nostro amore che deve essere reclamato è un approccio più positivo alla guarigione rispetto a vedere la malattia come qualcosa di orribile di cui dobbiamo sbarazzarci. L'energia non può essere distrutta. Può, tuttavia, essere miracolosamente trasformato. Quel miracolo emerge dai nostri pensieri, dalla nostra decisione di lasciare andare la nostra fede nella paura e nel pericolo e abbracciare invece una visione del mondo basata sulla speranza e sull'amore. Non c'è certamente niente da perdere, nessun rischio nel provare. L'espiazione è così gentile di cui hai bisogno, ma sussurrale e tutto il suo potere si precipiterà in tuo aiuto e supporto. Dio fa la sua parte quando noi facciamo la nostra. 5. Il corpo nelle relazioni Il corpo non ti separa da tuo fratello, e se pensi che sia così sei pazzo. La nostra vera identità non risiede nel nostro corpo, ma nel nostro spirito. Il Cristo in te non abita un corpo, dice il Corso. Nemmeno il corpo di un'altra persona è quello che è veramente. Il corpo è un muro illusorio che sembra separarci, il principale dispositivo dell'ego nel tentativo di convincerci che siamo separati gli uni dagli altri e separati da Dio. Il Corso chiama il corpo la figura centrale nel sognare il mondo. La trama umana, in cui i corpi parlano e si muovono, soffrono e muoiono, forma un velo di irrealità davanti alla creazione di Dio. Nasconde il volto di Cristo. Mio fratello potrebbe mentire, ma non è quella bugia. I miei fratelli potrebbero combattere, ma rimangono uniti nell'amore. Le menti sono unite, dice il Corso, ma i corpi non lo sono. Il corpo di per sé non ha niente. Non può perdonare, non può vedere e non può comunicare. Se scegli di vedere il corpo, vedi un mondo di separazione, cose non correlate e avvenimenti che non hanno alcun senso. Quando ti identifichi con un corpo, sperimenterai sempre la depressione, dice il Corso. Identificare un'altra persona con un corpo farà emergere la stessa ansia. Uno dei modi in cui il corpo può essere utilizzato per produrre la depressione è attraverso il sesso senza amore. I nostri impulsi sessuali diventano tele su cui estendiamo il nostro amore o proiettiamo la nostra paura. Quando il sesso è dello Spirito Santo, è un approfondimento della comunicazione. Quando è dell'ego, è un sostituto della comunicazione. Lo Spirito Santo usa il sesso per guarirci, l'ego lo usa per ferirci. A volte abbiamo pensato che il sesso con un'altra persona avrebbe cementato il legame tra di noi, e invece si è rivelato produrre più illusione e ansia di prima. È solo quando il sesso è veicolo di comunione spirituale che è veramente amorevole, che ci unisce a un'altra persona. Allora è un atto sacro. Santità significa la presenza di uno scopo amorevole e, in questo senso, il corpo e i suoi accessori possono essere un'espressione santa. Molti ricercatori spirituali hanno sentito il bisogno di evitare tutte le cose relative al corpo. Ma questo può effettivamente essere centrato sull'ego come un attaccamento eccessivo al fisico. Tutto ciò che serve per diffondere gioia e comunicare amore fa parte del piano di salvezza di Dio. Quando avevo circa vent'anni, ho avuto il mio primo appuntamento con un uomo incompleto. Non ero mai stato prelevato a casa mia da un uomo che indossava tutt'altro che blue jeans. Quando ho aperto la porta e ho visto un bell'uomo con un completo e un bel soprabito, il mio primo pensiero è stato che forse era nella mafia. Sono andato all'appuntamento e ho lottato per l'intera serata con i miei conflitti sul suo guardaroba. Non potevo dire a quest'uomo, ovviamente, che ero sbalordito dai suoi splendidi vestiti. Era un italiano, e la mia prima esposizione alla sensibilità di un uomo europeo nei confronti delle donne. Anni dopo avrei ricordato ciò che quest'uomo mi aveva insegnato. Abbiamo iniziato a frequentarci e non avevo mai conosciuto qualcuno che mi facesse tanto clamore. Trattava le nostre serate come eventi importanti. Volevo vedere una commedia o un film. Volevo andare in questo ristorante, o quello. Cosa dovrebbe indossare? Sono rimasto così sorpreso da quanto fosse importante per lui, se indossava la maglia azzurra o quella bianca. All'inizio mi dava fastidio, provenendo da una mentalità anni sessanta che considerava irrilevanti tutte queste considerazioni. Ma alla fine ho visto che la questione centrale per lui era che desiderava rendermi felice. Il suo travestimento era un modo per farmi piacere, un modo per comunicare quanto gli importasse. Molti anni dopo quella relazione, stavo passeggiando per un negozio di abbigliamento con un ragazzo. Stava guardando due giacche e non riusciva a decidere quale comprare. Quando gli ho indicato cosa mi piaceva, si è comportato quasi come se fossi sua madre, mi avrebbe dimostrato che la mia opinione non avrebbe dettato la sua decisione. Gli ho detto, questa è la differenza tra te e me. Se dovessi comprare dei vestiti, il tuo gradimento mi renderebbe più incline a comprarlo. Che senso ha avere una relazione con te se non mi motiva a cercare di farti piacere, a rendere la tua vita più piacevole, ad addolcirti le cose. Questo è l'unico scopo del trucco, dei vestiti o di qualsiasi altra cosa nel mondo della forma. Il loro scopo non è sedurre un'altra persona, ma aggiungere luce al mondo sotto forma di bellezza e piacere. Il significato delle cose è quanto le usiamo per contribuire alla felicità del mondo. I vestiti e gli altri effetti personali non sono diversi da qualsiasi altra forma d'arte. Se li percepiamo amorevolmente, possono sollevare le vibrazioni e aumentare l'energia nel mondo che ci circonda. Questo non è narcisismo o vanità. A noi non importa se al fidanzato o al marito, alla fidanzata o alla moglie piace davvero l'outfit, questo è il narcisismo. Ho avuto fidanzati convinti che mi preferissero senza trucco, come altri che volevano che lo indossassi sempre. Il cambiamento per me non ha avuto nulla a che fare con il tipo di uomini con cui uscivo, ma con un passaggio da non mi interessa cosa vuole a mi interessa molto ciò che lo rende felice. La prima parte della rivoluzione sessuale ha comportato la rottura delle donne dagli schemi oppressivi di sottomissione agli uomini. La seconda parte implica il nostro riconoscimento che non ha senso sviluppare l'individualità se non cederla a un'identità superiore. E l'identità più alta è il nostro rapporto con gli altri. Una vita vissuta solo per se stessi non è liberazione, ma semplicemente un'altra forma di schiavitù. Poiché non siamo corpi, non esistiamo isolati. Vivere come se lo facessimo può solo portare al dolore. 6. Vanità, peso e dettagli occhi del corpo vedono solo la forma. Cos'è la vanità? Quale è l'ossessione egocentrica e nevrotica per peso, capelli, aspetto e sex appeal che spinge gli americani a spendere miliardi di dollari all'anno in prodotti che non possono permettersi e di cui non hanno davvero bisogno, e le giovani donne a cadere nel pericolo modelli di malattia nei loro sforzi per essere magri. Queste cose sono risultati inevitabili di un orientamento culturale che tralascia la realtà dello spirito. La concentrazione sul corpo come fine piuttosto che come mezzo nella nostra percezione, genera paura. Paura di non essere abbastanza bravi o attraenti. Paura che non gli piacciamo. Paura di perderci nella vita. Non c'è modo di sfuggire a questo vortice doloroso senza sostituire l'identificazione con il corpo con la memoria che non siamo affatto corpi, che chi siamo è l'amore dentro di noi, ed è solo quell'amore che determina il nostro valore. Quando le nostre menti sono piene di luce, non c'è spazio per l'oscurità. Quando capiamo chi e cosa siamo veramente, non c'è spazio per il dolore e la confusione. Quando avevo vent'anni, avevo un problema di peso, non abbastanza per essere chiamato grasso, ma abbastanza per mantenermi infelice. C'erano dieci o quindici libre problematiche che non avrei mai potuto scuotere. Ogni volta che seguivo una dieta, finivo per ingrassare. Questo ha senso psicologicamente, perché se qualcuno ci dice di non pensare alla torre Eiffel, ci penseremo continuamente. Dire a me stesso di non pensare al cibo mi ha solo reso più ossessionato. La privazione è un pessimo modo per perdere peso. Pregavo per il mio problema e ricevevo la seguente guida, mangia tutto quello che vuoi. Mi sembrava del tutto folle. Ma se mi dico di farlo, ho pensato, allora comincerò a mangiare e non smetterò mai. A ciò la mia guida interna ha risposto, sì, all'inizio lo farai. Dovrai compensare tutta la pressione che hai messo su te stesso per anni. E poi ne avrai avuta abbastanza. Quindi tornerai ai tuoi ritmi naturali. Allora guarirai. Quindi ho lasciato andare. Ho incontrato una donna che aveva perso molto peso e mi ha detto che aveva chiesto a Dio di farlo per lei. Non ho chiesto di perdere peso, ha detto. Ho solo chiesto che mi togliesse la scimmia dalla schiena. Non mi importava nemmeno se fossi grasso. Gli ho detto che se voleva che fossi grasso, per mettermi a mio agio con esso. Volevo solo uscire da questo inferno. Ho deciso che non importava quanto pesassi. Non potevo più sopportare l'orrore dell'ossessione. Diventando uno studente di un corso in miracoli, ho iniziato a rendermi conto che quanto pesavo non aveva importanza. Tutto ciò che contava era l'amore. Se potessi allenare la mia mente a concentrarmi maggiormente su questo, i miei problemi scomparirebbero da soli. Nelle religioni orientali si dice spesso, cerca Dio, e tutto ciò che non è autenticamente cadrai. Quando sono stato più coinvolto nella pratica del corso, ho smesso di pensare così tanto al mio peso. Questo era tutto. E un giorno mi sono guardato allo specchio e ho visto che non c'era più. Quello che ho capito è che il mio peso non aveva nulla a che fare con il mio corpo, ma con la mia mente. Ero terrorizzato dalle persone e inconsciamente avevo costruito un muro attorno a me per proteggermi da loro. Ero terrorizzato, però, per l'amore che io stesso non stavo dando. Lo scopo del mio ego per il peso era di tenermi separato, e fino a quando non avessi rinunciato a quello scopo, non sarei mai stato in grado di rinunciare ai chili di troppo. Il mio subconscio stava semplicemente seguendo le istruzioni. Quando ho iniziato a mettere le mie energie per raggiungere il muro, quando ho permesso al Cristo di entrare nella mia mente, il muro è miracolosamente scomparso. Dopo aver appreso nel corso che il corpo non è importante, non riuscivo a capire perché dovremmo fare esercizio o mangiare bene. Quello che ho imparato è che, quando mi alleno, in realtà penso meno al mio corpo rispetto a quando non lo faccio. Quando non mi alleno, non posso fare a meno di pensare alle cosce pesanti e alla vita spessa. Allo stesso modo, il punto del cibo sano è che ci sostiene nell'esistere nel modo più leggero ed energico all'interno del corpo. È il cibo più pesante e malsano che ci lega al corpo. Ci prendiamo cura del corpo come un modo per prenderci più cura dello spirito. Come esistiamo oggi, un corpo che invecchia riflette la pesantezza dei nostri pensieri addolorati e preoccupati. Quando iniziamo a viaggiare più leggeri all'interno del corpo e le nostre menti abbandonano la nostra costante preoccupazione per i pensieri del corpo, l'invecchiamento diventa un'esperienza diversa. Ho letto da qualche parte che la Vergine Maria non è mai invecchiata, anche se ha vissuto fino alla cinquantina. Posso vedere perché. Se dovessimo raggiungere uno stato in cui solo l'amore e la cura riempiono le nostre menti, e né passato né futuro gravano sulle nostre spalle, l'invecchiamento diventerebbe un processo di giovinezza. Spiritualmente, dovremmo invecchiare più giovani, poiché l'unico scopo del tempo è imparare a rinunciare in modo più coerente al nostro attaccamento alla forma. Allora il corpo scaturisce nella vita perfetta, uno strumento sano e una cosa di gioia. Parte della nostra nevrosi culturale è stata l'odio per l'età. Come ogni altra cosa, l'età si trasformerà solo quando l'avremo accettata per la prima volta così com'è. Molti di noi pensano che l'età sia così terribile, così poco attraente, così poco sexy, quando in realtà quelli sono solo pensieri che abbiamo. Camminando per le strade di Parigi, le donne francesi sulla cinquantina e sulla sessantina trassudano una sessualità matura. Qui, tendiamo a sostenere il pensiero che le donne di quell'età siano oltre la collina. Cambiamo idea. Ricordiamoci che più a lungo viviamo, più sappiamo, e più sappiamo, più siamo belli. Possiamo creare attivamente un nuovo contesto per l'esperienza dell'invecchiamento spostando la nostra visione verso gli anziani nella nostra società. L'ego, dopo tutto, afferma che un corpo sminuito è una persona sminuita. Siamo una cultura fredda e indifferente nel nostro trattamento degli americani più anziani. In Cina, gli anziani sono rispettati e venerati, motivo per cui i cinesi vivono così a lungo come cittadini sani e produttivi. Abbiamo il pensiero in America che i giovani siano migliori, e così è. Non perché questa sia una verità oggettiva, ma solo perché è un pensiero che portiamo e manifestiamo come nostra esperienza collettiva. Non importa quale sia la malattia, la dipendenza o l'espressione fisica distorta, la sua causa è nella mente e solo lì può essere guarita. Il potere più grande che ci viene dato, dice il Corso, è il potere di cambiare la nostra mente. La nostra condizione fisica non determina la nostra condizione emotiva. L'esperienza della pace viene solo dalla mente. La pace della mente, dice un Corso in Miracoli, è chiaramente una questione interna. 7. Il significato della guarigione Non dimenticare che la guarigione del Figlio di Dio è tutto ciò a cui serve il mondo. Quando pensiamo alla guarigione, di solito pensiamo alla guarigione fisica, ma a course in Miracoli definisce la salute come pace interiore. Ci sono persone in condizioni critiche che sono in pace e persone in perfetta salute fisica che sono emotivamente torturate. Nel suo libro The Hatch Only Love, Jerry Jampolski espone i suoi principi di guarigione attitudinale. Insegna che la pace è possibile indipendentemente dalle circostanze fisiche. Affidando la nostra malattia a Dio, cediamo l'esperienza nella sua interezza, sapendo che qualsiasi cosa può essere usata dallo Spirito Santo per portare più amore nella nostra consapevolezza. Molte persone hanno parlato delle loro malattie come di una sveglia. Ciò significa svegliarsi e vivere la vita, svegliarsi e benedire ogni mattina, svegliarsi e apprezzare gli amici e la famiglia. Ho sentito persone con malattie critiche dire che la loro vita è iniziata davvero solo quando è stata diagnosticata. Perché? Perché ogni volta che ci viene diagnosticata una malattia grave, gran parte del nostro bagaglio personale superficiale viene lasciato cadere nei primi cinque minuti. Perché mi comporto in modo così arrogante. Perché sto fingendo di essere così duro. Perché sto giudicando così tante persone. Perché non sto apprezzando tutto l'amore e la bellezza che mi circondano. Perché sto evitando l'elemento più semplice e importante del mio essere, l'amore nel mio cuore. Abbandonare le nostre illusioni è di per sé una guarigione. Dentro ognuno di noi c'è un nucleo, la nostra essenza, il nostro vero essere. Quello è il posto di Dio che è dentro di noi. Trovare quell'essenza è il nostro ritorno a Dio. È lo scopo della nostra vita e anche le nostre esperienze più dolorose possono servire a tale scopo. Nel corso degli anni, ho ufficiato a numerosi funerali e servizi funebri. Alcuni dei panorami più impressionanti che abbia mai visto sono stati i volti addolorati di persone che affrontano una verità nuda che non può essere negata o respinta. Quando qualcuno che amiamo non è più con noi, la nostra tristezza ci apre a nuove opportunità di crescita. Le lacrime possono essere un ottimo ammorbidente. Di recente ho ufficiato al funerale di un giovane morto di AIDS. Era profondamente amato dai suoi amici e molte persone hanno pianto durante il servizio. Verso la fine del funerale, molti dei suoi amici più cari si sono alzati in piedi per cantare una canzone che avevano spesso cantato con lui. Molti di loro riuscivano a malapena non crollare mentre cantavano. Il puro crepacuore riflesso sui loro volti era così sbalorditivo da vedere, continuavo a pensare mentre guardavo, che quelli tra loro che erano attori probabilmente non avevano mai dato una performance così onesta. Un'altra volta ho ufficiato al funerale di una giovane donna che era stata brutalmente uccisa. Era sposata e madre di un bambino di tre anni. Non dimenticherò mai lo sguardo sul volto di suo marito mentre sedeva ad ascoltarmi in chiesa. Gli ho detto, Michael, non sarai più lo stesso, lo sappiamo tutti. Hai due scelte, diventerai più duro o diventerai più morbido. Concluderai da ciò che non ci si deve mai più fidare di nessuno, incluso Dio, o permetterai che il tuo crepacuore ti addolcisca così tanto, lascerai che le tue lacrime sciolgano così tanto i muri che circondano il tuo cuore, che diventerai un uomo di rara profondità e sensibilità. Poi ho parlato con le donne nella stanza. Questo ragazzino ha perso sua madre. Questo bambino non ha più le braccia di una donna intorno a sé. Non lasciare che questo non venga corretto. Impegnatevi ora nel vostro cuore a fargli visita, a far visita a suo padre, a riprendervi meglio che potete, a diventare donne di sostanza matura a partire da questo momento. Prendi sul serio questa responsabilità, che almeno in questa cosa, la crescita personale provocata da questa oscurità possa essere un modo per scacciarla. Stranamente, ho dovuto lasciare quel funerale per andare dall'altra parte della città dove stavo celebrando una cerimonia di matrimonio. Mentre prestavo servizio, notai una somiglianza tra gli occhi dello sposo e gli occhi del giovane che aveva appena seppellito sua moglie. Naturalmente lo sposo non era addolorato, ma gioioso. Quello che sembrava lo stesso era il puro amore genuino nei suoi occhi, senza ingredienti artificiali posti sopra. Solo ascolto, nudità, apertura e amore. La guarigione è un ritorno all'amore. La malattia e la morte sono spesso lezioni dolorose su quanto amiamo, ma sono comunque lezioni. A volte ci vuole il coltello che emotivamente trafigge il nostro cuore, per trafiggere i muri che gli stanno davanti. Una notte a Los Angeles, durante il periodo di meditazione successivo alla mia conferenza, ho notato due miei amici che piangevano nel retro della chiesa. Erano profondamente addolorati per la morte imminente di un comune amico che aveva l'AIDS. Mi faceva male vederli soffrire così tanto. La sofferenza, ho scoperto, ti dà una visione a raggi X della sofferenza degli altri. Non si può sollevare questo fardello? Ho chiesto addio. Avevamo visto tutti così tanto dolore, così tanto dolore e morte per questa malattia a quel punto. Non è abbastanza? Non può essere tutto finito? Quello che mi venne in mente dopo fu sorprendente. Mi è tornata in mente la mia notte oscura dell'anima quasi un decennio prima. Non ero cambiato dal mio dolore, in modi profondi e in definitiva positivi? Se la mia anima aveva usato quell'esperienza come un percorso verso una maggiore consapevolezza di me stessa, come facevo a sapere che queste altre persone non stavano facendo lo stesso? Non è mio compito giudicare, aiutare, in ogni modo possibile, sì, ma non dubitare della saggezza ultima di tutte le cose. Il dono più grande che possiamo fare a una persona che soffre è tenere nella nostra mente il pensiero che c'è una luce oltre questa oscurità. Ciò che accade esternamente è solo la punta dell'iceberg in ogni situazione. Le lezioni, i veri cambiamenti, le opportunità di crescita, queste sono cose che gli occhi del corpo non possono vedere. Rimangono sotto la linea dell'acqua spirituale, ma sono lì. E rappresentano un quadro molto più vasto del viaggio dell'anima di quello che possiamo vedere dalla prospettiva dei nostri sensi fisici. La crescita non è sempre ottenere ciò che pensiamo di volere. Si tratta sempre di diventare gli uomini e le donne che abbiamo il potenziale per essere. Amorevole, puro, onesto, chiaro. Una vita più lunga non è necessariamente una vita migliore. Una vita sana non è determinata dalla condizione fisica. La vita è semplicemente le presenze dell'amore e la morte è semplicemente la sua assenza. La morte fisica non è affatto una vera morte. Siamo abbastanza grandi ora per realizzare che c'è vita oltre il fisico. Quando troviamo quella vita, cresciamo in noi stessi, come figli degli uomini e come figli di Dio. 8. Morte e reincarnazione non c'è morte. Il figlio di Dio è libero. Un corso in miracoli dice che la nascita non è un inizio ma una continuazione, e la morte non è una fine ma una continuazione. La vita va avanti per sempre. È sempre stato e sempre sarà. L'incarnazione fisica è solo una forma che la vita può assumere. Un corso in miracoli menziona i grandi raggi, un concetto che si trova anche in altri insegnamenti metafisici. I grandi raggi sono linee di energia che emanano dall'interno di ognuno di noi, a livelli più sottili di quelli che i nostri sensi fisici percepiscono ancora. I nostri sensi fisici riflettono il nostro attuale sistema di credenze e, man mano che il nostro sistema di credenze si espande, lo faranno anche i nostri sensi. Verrà il tempo in cui percepiremo fisicamente i grandi raggi. Alcune persone, come quelle che vedono le aure, stanno già cominciando a vederle. Buddha, Gesù e altri maestri illuminati sono spesso raffigurati con aloni intorno alla testa o linee di luce che si irradiano dai loro cuori. Queste linee di luce ed energia sono la nostra forza vitale. Il corpo è solo un rivestimento temporaneo. Poiché non ce ne rendiamo ancora conto, pensiamo che la morte del corpo sia la morte della persona. Non è. C'è stato un tempo in cui la gente pensava che la terra fosse piatta, e quindi si credeva che le navi che raggiungevano l'orizzonte fossero cadute dalla faccia della terra. Verrà il tempo in cui la nostra attuale percezione della morte sembrerà bizzarra, ignorante e antiquata come quella. Lo spirito non muore quando muore il corpo. La morte fisica è come togliersi un vestito. Per l'ego, la realtà è solo ciò che possiamo percepire fisicamente. Ma molte cose che sappiamo esistere non possono essere viste ad occhio nudo, né atomi né protoni né virus né cellule. Gli scienziati stanno ora iniziando a riconoscere un'unità che sta al di là di tutta la realtà percepita. Questa unità è Dio, e la nostra essenza risiede in essa. L'incarnazione fisica è un'esperienza in classe e le anime vengono in classe per imparare ciò che devono imparare. È come sintonizzarsi su un canale televisivo. Diciamo che siamo tutti sintonizzati su canale 4. Quando qualcuno muore, non è più su canale 4, ma ciò non significa che non stia trasmettendo. Ora sono sul canale 7 o 8. I sistemi via cavo esistono indipendentemente dal fatto che disponiamo o meno dell'attrezzatura via cavo con cui riceverli. È solo l'arroganza dell'ego che ci fa credere che ciò che non possiamo percepire fisicamente non deve esistere. Le persone hanno riferito di aver visto una luce uscire dalla sommità della testa di una persona morrente. Molte persone hanno anche parlato delle loro esperienze di premorte, in cui il corpo fisico viene temporaneamente lasciato andare. Una volta ho incontrato una giovane donna che era stata coinvolta in un grave incidente aereo. Ha perso più della metà del sangue nel suo corpo e le sue gambe sono state quasi completamente mozzate. Nel descrivermi la sua esperienza, ha detto, sono morta e poi sono tornata. Era seducente, molto caloroso, come un meraviglioso amore materno. Ma sapevo di avere una scelta. Ho pensato a mio padre e sapevo che la mia morte sarebbe stata insopportabile per lui, quindi ho combattuto e sono tornato. Non piango mai più ai funerali, ha detto. Posso piangere per le persone che sono rimaste qui, ma so per esperienza che le persone che sono morte si trovano in un posto meraviglioso. Una volta che i grandi raggi sono stati registrati dai nostri sensi fisici, il corpo sembrerà una semplice ombra di fronte al nostro vero sé. Quando sentiamo che qualcuno è morto, significherà semplicemente che un'ombra è stata rimossa. La morte non sarà più percepita come la fine di una relazione. Quando Gesù disse, la morte sarà l'ultimo nemico, intendeva che sarà l'ultima cosa che percepiamo come un nemico. Il problema non è davvero la morte, ma ciò che pensiamo sia la morte. Moriremo tutti. Alcuni di noi prenderanno le 9 e 30, e alcuni di noi saranno alle 10 e 7, ma siamo tutti diretti fuori. Accettare una guarigione dei nostri pensieri su ciò che significa è una pietra angolare nella nostra trasformazione dall'orientamento del corpo all'orientamento dello spirito. La vita è come un libro che non finisce mai. I capitoli si chiudono, ma non il libro stesso. La fine di un'incarnazione fisica è come la fine di un capitolo, che a un certo livello stabilisce l'inizio di un altro. Una volta ho sentito un amico dire, il mio rapporto con mio padre è solo migliorato dalla sua morte. Un corso in miracoli dice che la comunicazione non si ferma alla distruzione del corpo fisico. La vera comunicazione si basa su più di ciò che viene detto o sentito fisicamente. Quando qualcuno è morto, dobbiamo parlare con loro in modo diverso rispetto a prima, ma rimanendo aperti alla possibilità di una forza di vita eterna, dirigiamo la nostra mente a sviluppare la capacità di una conversazione transfisica. La scrittura di lettere può aiutare a promuovere tale comunicazione. Prima scriviamo una lettera alla persona che è morta, e poi riscriviamo un'altra lettera, da loro a noi. Qual è lo scopo di tali esercizi? Espandono la mente per accettare possibilità maggiori di quelle che l'ego normalmente ci permette di considerare. Le persone nei miei gruppi di sostegno al dolore mi hanno spesso detto di aver fatto un sogno su qualcuno che era morto. Quando la persona morta si era presentata nel sogno, il sognatore diceva non puoi essere qui. Sei morto. A quel punto, la persona avrebbe detto oh e il sogno sarebbe finito. Gli era stato negato il permesso di continuare. scrivere le lettere, o avere qualsiasi altro tipo di conversazione o esperienza che ampi la nostra apertura alla possibilità della vita oltre la morte, estende i nostri confini mentali autoimposti. I nostri sogni e altre esperienze emotive vengono quindi liberati dalla schiavitù del nostro rifiuto di credere. A volte, quando qualcuno è morto, diciamo, non sta succedendo. Sembra irreale. Mi sento come se fossero ancora qui. Questo perché lo sono. Anche se le voci dell'ego del mondo diranno, è solo la tua immaginazione, la verità è che è la morte stessa che è solo la nostra immaginazione. La verità come Dio l'ha creata è che la morte non esiste, e nel profondo dei nostri cuori sappiamo che questo è vero. E la reincarnazione? Quanto segue è tratto dal capitolo sulla reincarnazione nel manuale dell'insegnante del corso, in definitiva, la reincarnazione è impossibile. Non c'è passato o futuro, e l'idea della nascita in un corpo non ha significato né una volta né più volte. La reincarnazione non può, quindi, essere vera in alcun senso reale. Se, il concetto, è usato per rafforzare il riconoscimento della natura eterna della vita, è davvero utile. Come molte altre credenze, può essere amaramente abusato. Almeno, un tale uso improprio offre preoccupazione e forse orgoglio in passato. Nel peggiore dei casi, induce inerzia nel presente. C'è sempre qualche rischio nel vedere il presente in termini di passato. C'è sempre del buono in ogni pensiero che rafforza l'idea che la vita e il corpo non sono la stessa cosa. Tecnicamente, quindi, la reincarnazione non esiste nel modo in cui la pensiamo semplicemente perché non esiste un tempo lineare. Se abbiamo vite passate, o vite future, allora accadono tutte contemporaneamente. Tuttavia, è utile ricordare che abbiamo una vita separata dall'esperienza di una vita fisica qualsiasi. Un corso in miracoli non ha dottrina. Uno studente avanzato del corso può credere o meno nella reincarnazione. L'unica domanda significativa è se un concetto è utile. Ci viene detto di chiedere al nostro insegnante interiore una guida nel pensare a qualsiasi idea e al suo utilizzo nella nostra vita. Nel mondo illuminato, lasceremo ancora il corpo. Ma la morte sarà vissuta in modo molto diverso. È scritto nel canto della preghiera, un'estensione di un corso in miracoli, questo è ciò che dovrebbe essere la morte, una scelta tranquilla, fatta con gioia e con un senso di pace, perché il corpo è stato gentilmente utilizzato per aiutare il Figlio di Dio lungo il suo cammino verso Dio. Ringraziamo l'ente, quindi, per tutto il servizio che ci ha dato. Ma siamo anche grati, è fatta la necessità di camminare nel mondo dei limiti, e di raggiungere il Cristo in forma nascosta e al massimo chiaramente visto in via i lampi. Ora possiamo vederlo senza paraocchi, nella luce che abbiamo imparato a guardare di nuovo. La chiamiamo morte, ma è libertà. Non si presenta in forme che sembrano essere spinte dal dolore su carne riluttante, ma come un gentile benvenuto da liberare. Se c'è stata una vera guarigione, questa può essere la forma in cui la morte arriva quando è il momento di riposarsi un po' dal lavoro svolto con gioia e terminato con gioia. Ora andiamo in pace verso un'area più libera e un clima più mite, dove non è difficile vedere che i doni che abbiamo fatto sono stati salvati per noi. Perché Cristo ora è più chiaro, la sua visione più sostenuta in noi, la sua voce, la parola di Dio, più certamente la nostra. Questo dolce passaggio a una preghiera più alta, un perdono gentile delle vie della terra, può essere ricevuto solo con gratitudine. Una volta ho letto di un'antica religione giapponese che celebrava quando le persone morivano e piangeva quando nascevano. Si comprendeva che la nascita significava forzare uno spirito infinito in una focalizzazione finita, mentre la morte significava il rilascio di tutti i limiti e la libertà di vivere l'intera gamma di possibilità che Dio nella sua misericordia ci offre. La vita è molto più della vita del corpo, è un'infinita distesa di energia, un continuum d'amore in innumerevoli dimensioni, un'esperienza psicologica e spirituale indipendente dalla forma fisica. Siamo vivi da sempre. Saremo vivi per sempre. Ma la vita del corpo è un'aula importante. È la nostra opportunità di liberare il mondo dall'inferno. Caro Dio, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Capitolo 9, Paradiso Il paradiso è qui. Non c'è nessun altro. Il paradiso è adesso. Non c'è altro tempo. 1. La decisione di essere felici Il paradiso è una decisione che devo prendere. La volontà di Dio è che siamo felici ora. Chiedendo che sia fatta la volontà di Dio, stiamo istruendo le nostre menti a concentrarsi sulla bellezza della vita, a vedere tutte le ragioni per festeggiare invece di piangere. Di solito capiamo cosa pensiamo ci renderebbe felici, e poi cerchiamo di far succedere queste cose. Ma la felicità non dipende dalle circostanze. Ci sono persone che hanno tutte le ragioni al mondo per essere felici e che non lo sono. Ci sono persone con problemi genuini che lo sono. La chiave della felicità è la decisione di essere felici. Negli ultimi anni si è parlato molto di permettere i nostri sentimenti. È un concetto importante, ma che può essere utilizzato dall'ego per i propri scopi. La maggior parte delle volte, quando sentiamo qualcuno dire senti i tuoi sentimenti, significa sentire quelli negativi, senti il tuo dolore, senti la tua rabbia, senti la tua vergogna. Ma abbiamo bisogno di sostegno per provare i nostri sentimenti positivi tanto quanto abbiamo bisogno di sostegno per provare quelli negativi. È l'esperienza dell'emozione genuina di qualsiasi tipo a cui l'ego resiste. Abbiamo bisogno di supporto e permesso per sentire il nostro amore, per sentire la nostra soddisfazione e per sentire la nostra felicità. L'ego fa una battaglia nascosta contro la felicità. Ricordo quando ero al college, passeggiavo con libri di poesia russa sotto il braccio, coltivando quello che sentivo essere un cipiglio sofisticato e cinico degno della mia abilità intellettuale. Ho sentito che indicava di aver compreso la condizione umana. Alla fine mi sono reso conto che il mio cinismo rivelava pochissima comprensione della condizione umana, perché l'aspetto più importante di quella condizione è che siamo sempre a scelta. Possiamo sempre scegliere di percepire le cose in modo diverso. C'è un vecchio clic che, puoi vedere il bicchiere mezzo vuoto puoi vederlo mezzo pieno. Puoi concentrarti su ciò che è sbagliato nella tua vita, oppure puoi concentrarti su ciò che è giusto. Ma qualunque cosa ti concentri, ne otterrai di più. La creazione è un'estensione del pensiero. Pensa alla mancanza e ottieni la mancanza. Pensa all'abbondanza e otterrai di più. Ma quando vado avanti come se tutto andasse bene, non sono onesto con me stesso, posso sentire le voci dire. Ma il sé negativo non è il nostro sé onesto, piuttosto, è l'impostore. Abbiamo bisogno di essere in contatto con i nostri sentimenti negativi, ma solo per liberarli e sentire l'amore che c'è sotto di loro. Non è così difficile provare sentimenti positivi o pensare pensieri positivi. Il problema è che resistiamo loro. Ci fanno sentire in colpa. Per l'ego, non c'è crimine più grande che rivendicare la nostra eredità naturale. Se io sono ricco, dice l'ego, qualcun altro sarà povero. Se ho successo, i sentimenti di qualcuno potrebbero essere feriti. Chi sono io per avere tutto? Sarò una minaccia e alla gente non piacerò più. Questi sono alcuni degli argomenti che l'ego riversa nella nostra coscienza. Il corso ci ammonisce di stare attenti al pericolo di una credenza nascosta. Una convinzione nascosta che molti di noi hanno è che c'è qualcosa di sbagliato nell'essere troppo felici. Il dogma religioso dell'ego non ha aiutato. La sofferenza è stata glorificata. Le persone si sono concentrate più sulla crocifissione che sulla risurrezione. Ma la crocifissione senza la risurrezione è un simbolo privo di significato. La crocifissione è il modello energetico della paura, la manifestazione di un cuore chiuso. La resurrezione è il capovolgimento di quel modello, determinato da uno spostamento del pensiero dalla paura all'amore. Guarda la crocifissione, dice un corso in miracoli, ma non soffermarti su di essa. Beati quelli che hanno fede e non vedono, dice Gesù. È facile avere fede quando le cose vanno bene. Ma ci sono momenti della vita di tutti in cui dobbiamo volare su strumenti, proprio come un pilota che effettua un atterraggio in condizioni di scarsa visibilità. Sa che la Terra è lì, ma non può vederla. Deve fidarsi dei suoi strumenti per navigare per lui. E così è con noi, quando le cose non sono come vorremmo che fossero. Sappiamo che la vita è sempre in corso e sempre in cammino verso un bene superiore. Non possiamo vederlo. Durante quei tempi, ci affidiamo al nostro radar spirituale per navigare per noi. Confidiamo che ci sia un lieto fine. Con la nostra fede, con la nostra fiducia, ne invochiamo la prova. La risurrezione è attivamente invocata. Rappresenta la decisione di vedere la luce in mezzo alle tenebre. Nel Talmud, il libro ebraico della saggezza, all'ebreo viene detto come comportarsi in mezzo a tempi bui. Durante il periodo della notte più buia, dice il Talmud, agisci come se fosse già arrivato il mattino. Dio fornisce la risposta a ogni problema nel momento in cui si verifica. Il tempo, come abbiamo già visto, è solo un pensiero. È il riflesso fisico della nostra fede o infedeltà. Se pensiamo che ci vorrà del tempo prima che una ferita guarisca, lo farà. Se accettiamo la volontà di Dio come già compiuta, sperimentiamo immediatamente la guarigione di tutte le ferite. Come citato nel corso, solo la pazienza infinita produce risultati immediati. L'universo è stato creato per sostenerci in ogni modo. Dio esprime costantemente la sua infinita cura per noi. L'unico problema è che non siamo d'accordo con Lui. Non ci amiamo come Lui ci ama, e così blocchiamo la nostra esperienza dei miracoli a cui abbiamo diritto. Il mondo ci ha insegnato che siamo tutt'altro che perfetti. In effetti, ci è stato insegnato che è arrogante pensare di meritare la felicità totale. Questo è il punto in cui siamo bloccati. Se qualcosa entra nella nostra vita, amore, successo, felicità, che sembra adatto a una persona meritante, il nostro subconscio conclude che non può essere per noi. E così sabotiamo. Poche persone ci hanno fatto del male come noi abbiamo fatto del male a noi stessi. Nessuno ci ha strappato le caramelle come se le avessimo buttate via da noi stessi. Non siamo stati in grado di accettare la gioia perché non corrisponde a chi pensiamo di essere. In contrasto con la scarsa valutazione del nostro valore da parte dell'ego, sta la verità come Dio l'ha creata. Non c'è luce più brillante di quella che brilla dentro di noi. Che vediamo o meno quella luce è irrilevante. È lì perché Dio l'ha messo lì. Non è solo nostro diritto, ma in un certo senso, nostra responsabilità è essere felici. Dio non fornisce a nessuno di noi la felicità che è pensata solo per noi soli. Quando Dio ci manda la felicità, lo fa in modo che potessimo poi stare più pienamente nel mondo per suo conto. La felicità è un segno che abbiamo accettato la volontà di Dio. È molto più facile aggrottare le sopracciglia che sorridere. È facile essere cinici. In effetti, è una scusa per non aiutare il mondo. Ogni volta che le persone mi dicono, Marianne, sono così depresso per la fame nel mondo, dico loro, date 5 dollari al mese a una delle organizzazioni che nutrono gli affamati? Il motivo per cui lo chiedo è che ho notato che le persone che partecipano alla soluzione dei problemi non sembrano sentirsi depresse per quei problemi come fanno le persone che stanno in disparte senza fare nulla. La speranza nasce dalla partecipazione a soluzioni di speranza. Siamo felici nella misura in cui scegliamo di notare e di creare le ragioni della felicità. L'ottimismo e la felicità sono i risultati del lavoro spirituale. Un corso in miracoli afferma, l'amore aspetta il benvenuto, non il tempo. Il paradiso attende semplicemente la nostra accettazione. Non è qualcosa che sperimenteremo più tardi. Più tardi è solo un pensiero. Si di buon animo, disse Gesù perché ho vinto il mondo. Si rese conto, e così possiamo tutti noi, che il mondo non ha potere davanti al potere di Dio. Non è reale. È solo un'illusione. Dio ha creato l'amore come l'unica realtà, l'unico potere. Ha così è. 2. La nostra capacità di brillantezza puoi allungare la mano e raggiungere il paradiso. Agli occhi di Dio, siamo tutti perfetti e abbiamo una capacità illimitata di esprimerci brillantemente. Dico capacità illimitata piuttosto che potenziale illimitato, perché il potenziale può essere un concetto pericoloso. Possiamo usarlo per tiranneggiare noi stessi, per vivere nel futuro invece che nel presente, per prepararci alla disperazione misurandoci costantemente con ciò che pensiamo di poter essere piuttosto che con ciò che siamo. Finché non saremo dei perfetti maestri, è per definizione impossibile essere all'altezza del nostro potenziale. Il nostro potenziale rimane sempre qualcosa che siamo in grado di vivere solo in seguito. Il potenziale è un concetto che può legarci all'impotenza personale. Concentrarsi sul potenziale umano rimane impotente senza concentrarsi sulle capacità umane. La capacità si esprime nel presente. È immediato. La chiave non sta in ciò che abbiamo dentro di noi, ma piuttosto in ciò che siamo disposti a possedere che abbiamo dentro di noi. Non ha senso aspettare fino a quando non siamo perfetti in quello che facciamo, o maestri illuminati, o dottorandi nella vita, prima di aprirci a ciò che siamo in grado di fare ora. Certo, oggi non siamo così bravi come lo saremo domani, ma come potremo mai raggiungere la promessa di domani senza fare qualche mossa oggi? Ricordo di aver passato anni della mia vita così sconvolto dalle scelte di vita che sentivo di avere a disposizione, che non mi sono mai mosso. Ero paralizzato da tutte le possibilità. Non riuscivo a capire quale strada mi avrebbe portato alla realizzazione del mio potenziale, questo glorioso mito nevrotico che giaceva sempre proprio di fronte a qualsiasi cosa potessi manifestare ora. Quindi avevo sempre troppa paura per muovermi. E la paura, ovviamente, è il grande traditore del sé. La differenza tra quelle persone che vivono il loro potenziale e quelle che non lo fanno, non è la quantità di potenziale in sé, ma la quantità di permesso che si danno di vivere nel presente. Siamo la generazione adulta. Abbiamo corpi di adulti, responsabilità di adulti e carriere da adulti. Ciò che manca a molti di noi è un contesto adulto per la nostra vita, in cui diamo a noi stessi il permesso di brillare, di sbocciare pienamente, di mostrarci con forza nel presente senza temere di non essere abbastanza bravi. Aspettare un futuro potente è un modo per assicurarsi che non arrivi mai qui. Un adolescente sogna quello che sarà. Un adulto si rallegra di oggi. Una volta ho avuto un terapeuta che mi ha detto che il mio problema era che volevo spostarmi direttamente dal punto A al punto X, I e Z. Ha fatto notare che mi sembrava incapace di spostarmi da un punto A a un punto B, di mettere un piede davanti all'altro. È molto più facile sognare il punto Z che spostarsi effettivamente al punto B e più facile esercitarsi nel nostro discorso di accettazioni dell'Oscar, che alzarsi e andare a lezione di recitazione. Spesso abbiamo paura di fare qualsiasi cosa a meno che non sappiamo di poterla fare molto bene. Ma arriviamo alla Carnegie Hall facendo pratica. Ricordo quanto fu liberatorio diversi anni fa leggere in un'intervista con Joan Baez che alcune delle prime canzoni di Bob Dylan non erano così meravigliose. Abbiamo questa immagine di genio che scaturisce completamente dalla fronte di Zeus. Una volta ho chiesto a qualcuno di fare una lezione per me mentre ero fuori città, e lui ha risposto che sentiva di non poter tenere una conferenza come me. Certo che non puoi. Ho detto. Lo faccio da anni. Ma come farai a diventare bravo se non inizi a farlo? Penso che il motivo per cui le persone oggi non hanno hobby tanto quanto nelle generazioni passate, è perché non possiamo sopportare di fare qualcosa in cui non siamo favolosi. Diversi anni fa ho ripreso a prendere lezioni di pianoforte, dopo aver suonato per molti anni da bambino. Shopping, non lo sono, ma c'era così tanto valore terapeutico nel solo suonare. Ho visto molto chiaramente che non devi essere un virtuoso in tutto ciò che fai, per essere un virtuoso nella vita. Il virtuosismo nella vita significa cantare, non necessariamente cantare bene. La maggior parte di noi si sente a un certo livello come cavalli da corsa che scalpitano, premono al cancello, sperando e pregando che qualcuno apra la porta e ci faccia scappare. Sentiamo così tanta energia repressa, così tanto talento rinchiuso. Sappiamo nei nostri cuori che siamo nati per fare grandi cose e abbiamo un profondo terrore di sprecare le nostre vite. Ma l'unica persona che può liberarci siano noi stessi. La maggior parte di noi lo sa. Ci rendiamo conto che la porta chiusa chiave è la nostra stessa paura. Ma ormai abbiamo imparato che a un certo livello il nostro terrore di andare avanti è così grande che ci vorrebbe un miracolo per liberarci. L'ego ci farebbe nascere con un grande potenziale e morire con un grande potenziale. Nel mezzo, c'è una sofferenza sempre crescente. Un miracolo ci libera di vivere pienamente nel presente, di liberare il nostro potere e di rivendicare la nostra gloria. Il Figlio di Dio è risorto al cielo quando libera il passato, libera il futuro, e così libera se stesso per essere quello che è oggi. L'inferno è ciò che l'ego fa del presente. Il Paradiso è un'altra versione del tutto. 3. Pratica spirituale Una mente inesperta non può ottenere nulla. L'amore richiede più di cristalli e arcobaleni, richiede disciplina e pratica. Non è solo un dolce sentimento da una carta Hallmark. È un impegno radicale per un modo diverso di essere, una risposta mentale alla vita che è completamente in contrasto con il modo di pensare del mondo. Il Paradiso è una scelta consapevole per sfidare la voce dell'ego. Più tempo trascorriamo con lo Spirito Santo, maggiore è la nostra capacità di concentrarci sull'amore. Un corso in miracoli ci dice che cinque minuti trascorsi con lui al mattino, facendo il quaderno degli esercizi o qualsiasi altra pratica serie di preghiera o meditazione, garantiscono che egli sarà responsabile delle nostre forme pensiero per tutto il giorno. Ciò significa che ci assumiamo la responsabilità di stabilire quello che in alcolisti anonimi viene chiamato contatto consapevole con lui. Proprio come andiamo in palestra per sviluppare la nostra muscolatura fisica, quindi meditiamo e preghiamo per rafforzare la nostra muscolatura mentale. Il corso dice che otteniamo così poco perché abbiamo una mente indisciplinata, entriamo istintivamente in reazioni paranoiche o giudicanti. paurose invece di reazioni amorevoli. Il corso dice che siamo troppo indulgenti nell'errare con la mente. La meditazione disciplina la mente. Quando meditiamo, il nostro cervello emette letteralmente diverse onde cerebrali. Riceviamo informazioni a un livello più profondo di quello che riceviamo durante la normale coscienza di viglia. A course in Miracles dice che il suo workbook è il punto cruciale del corso, perché gli esercizi allenano le nostre menti a pensare secondo le linee stabilite dal testo. Non è ciò che pensiamo che ci trasforma, ma come pensiamo. I principi dei miracoli diventano abitudini mentali nel nostro repertorio di risoluzione dei problemi. La crescita spirituale non consiste nel diventare più metafisicamente complicati, ma piuttosto nel diventare più semplici, poiché questi principi basilari iniziano a permeare sempre più profondamente il nostro sistema di pensiero. La meditazione è tempo trascorso con Dio in silenzio e in ascolto tranquillo. È il tempo durante il quale lo Spirito Santo ha la possibilità di entrare nelle nostre menti ed eseguire la sua divina alchimia. Ciò che cambia a causa di questo non è solo ciò che facciamo, ma chi siamo. Nel workbook di un corso in Miracoli, che è un insieme di 365 giorni di esercizi psicologici, ci viene fornito un curriculum molto specifico per abbandonare un sistema di pensiero basato sulla paura e accettare invece un sistema di pensiero basato sull'amore. Ogni giorno, ci viene dato un pensiero specifico su cui concentrarci, ad occhi chiusi, per un determinato periodo di tempo. Ci viene anche detto nell'introduzione che non ci devono piacere gli esercizi e potremmo essere ostili nei loro confronti, ma dovremmo semplicemente eseguirli. Il nostro atteggiamento non pregiudica in alcun modo la loro efficacia. Se sto sollevando pesi in palestra, posso amare l'esperienza o odiarla, ma non importa. Tutto ciò che influisce sul mio corpo è se sollevo o meno i pesi. Così è con la meditazione. Inoltre, come con l'esercizio fisico, gli effetti della meditazione sono cumulativi. Quando andiamo in palestra e ci alleniamo per un'ora, non vediamo davvero alcun cambiamento nei nostri corpi alla fine dell'ora. Se andiamo ogni giorno per 30 giorni, tuttavia, vediamo un cambiamento. Così è con la meditazione. E a volte, non siamo noi quelli che possono vedere il cambiamento tanto quanto gli altri. Potremmo anche non essere consapevoli di quanto la qualità della nostra energia, le emanazioni invisibili della nostra mente, influenzino il nostro ambiente e le persone al suo interno. Ma altri lo fanno. E rispondono di conseguenza. La pratica spirituale sostiene lo sviluppo del potere personale. Le persone spiritualmente potenti non sono necessariamente persone che fanno così tanto, ma sono persone attorno alle quali le cose si fanno. Gandhi fece lasciare l'India agli inglesi, ma non era un uomo che correva molto. Forze potenti turbinavano intorno a lui. Il presidente Kennedy è un altro esempio. Legislativamente, ha ottenuto relativamente poco, ma ha scatenato forze invisibili negli altri che hanno alterato la coscienza di almeno una generazione americana. A livello più alto del nostro essere, non facciamo nulla. Siamo a riposo quando la potenza di Dio opera attraverso di noi. La meditazione è un rilassamento profondo. La voce frenetica dell'ego, le sue vane immaginazioni, vengono bruciate. Tutti noi abbiamo dentro di noi una linea radio diretta alla voce di Dio. Il problema è che la radio è piena di elettricità statica. Nei nostri momenti tranquilli che trascorriamo con Dio, l'elettricità statica svanisce. Impariamo a sentire la piccola voce calma per Dio. In Paradiso, quella è l'unica voce che sentiamo. Ecco perché siamo felici lì. 4. Vedere la luce bambina o luce, tu non sai che la luce è in te. Solo la luce dentro di noi è reale. Non abbiamo paura del buio dentro di noi, tanto quanto temiamo la luce. Il buio è familiare. È quello che sappiamo. Eppure nell'oblio nell'inferno sono per te inaccettabili come il Paradiso. La luce, il pensiero che potremmo davvero essere abbastanza bravi, è una tale minaccia per l'ego che tira fuori le sue armi molto grandi per difendersi da esso. Qualcuno che conosco mi ha detto di un amico comune, ha un'anima meschina. No, non lo fa, risposi. Ha una personalità meschina. La sua anima è una delle più luminose che abbia mai visto. Il suo spirito meschino è semplicemente una difesa contro la luce. Se lasciasse entrare la sua luce e scegliesse di esprimere davvero tutto il suo amore, travolgerebbe il suo ego. La sua meschinità è la sua armatura, la sua protezione contro la luce. La nostra difesa contro la luce è sempre una qualche forma di colpa che proiettiamo su noi stessi o sugli altri. Dio può amarci all'infinito, l'universo può sostenerci all'infinito, ma finché non saremo d'accordo con la gentile valutazione di Dio di noi e il comportamento misericordioso dell'universo, faremo tutto ciò che è in nostro potere per tenere a bada i miracoli a cui abbiamo diritto. Perché l'odio per se stessi. Come abbiamo già visto, l'ego è il bisogno infinito della nostra mente di attaccare se stessa. E come sfuggiamo a questo? Attraverso l'accettazione della volontà di Dio come nostra. La volontà di Dio è che siamo felici. La volontà di Dio è che noi perdoniamo noi stessi. La volontà di Dio è che ora troviamo il nostro posto in paradiso. Non è la nostra arroganza ma la nostra umiltà che ci insegna che quello che siamo è abbastanza buono e ciò che abbiamo da dire è valido. È il nostro stesso odio verso noi stessi che ci rende difficile sostenere e nutrire costantemente altre persone, perché sostenere gli altri equivale a sostenere noi stessi. Quando parlo pubblicamente, c'è una sensazione palpabilmente diversa tra il pubblico che vuole che vinca e quelli che sono seduti a guardare, oh sì! Fammi vedere! Il primo è un contesto in cui sono invitato a brillare, e il secondo è un contesto in cui sono sfidato a brillare. La vita non è abbastanza impegnativa? La gentilezza umana è così leggera? Quando sappiamo che l'amore è una risorsa infinita, che c'è abbastanza abbondanza di ogni tipo per tutti e che solo ciò che diamo agli altri possiamo conservare, allora smettiamo di denigrare le altre persone e iniziamo invece a benedirle. Diversi anni fa vivevo in una casa con una ragazza adolescente. Un giorno sono tornato a casa e lei è asseduta sul suo letto con cinque o sei amiche, attorno a un poster di Shristi e Brinkley. Per quanto sia difficile crederlo, queste ragazze stavano lottando per sostenere il fatto che Shristi e Brinkley non era davvero così bella, o se lo era, probabilmente non era così intelligente. Ho gentilmente fatto notare loro che quello che stava succedendo davvero era che ognuno di loro desiderava moltissima assomigliare a lei, ma si stava difendendo perché pensavano che fosse impossibile. Va bene anche per te voler essere bella. Ho detto. In effetti, è buono, e a modo tuo puoi esserlo. Il modo per farlo è benedire la sua bellezza, lodarla, permettere che sia così puoi permettere la tua. Shristi e Brinkley Essere bella non significa che tu non possa esserlo. C'è abbastanza bellezza per andare in giro. È solo un'idea. Chiunque può averlo. Mentre benedici ciò che ha lei, moltiplichi le tue possibilità di averlo anche tu. Una persona che ha successo in qualsiasi area sta solo creando più possibilità per gli altri di fare lo stesso. Aggrapparsi al pensiero delle risorse limitate è un modo per aggrapparsi all'inferno. Dobbiamo imparare a pensare solo pensieri divini. Gli angeli sono i pensieri di Dio in Paradiso. Gli esseri umani pensano come gli angeli. Gli angeli illuminano la strada. Gli angeli non invidiano nulla a nessuno, gli angeli non abbattono, gli angeli non competono, gli angeli non stringono i loro cuori, gli angeli non temono. Ecco perché cantano ed è così che volano. Noi, ovviamente, siamo solo angeli travestiti. 5. La fine del mondo La fine del mondo non è la sua distruzione, ma la sua traslazione in cielo. La fine del mondo come lo conosciamo non sarebbe una cosa così orribile, se si pensa a tutti i modi in cui il mondo è pieno di dolore e sofferenza. Nei giorni della fine, non sfuggiremo agli orrori del mondo attraverso veicoli che volano nello spazio esterno, ma attraverso veicoli che volano nello spazio interno. Quei veicoli sono le nostre menti guarite, guidate dallo Spirito Santo. Che aspetto ha il Paradiso? La maggior parte di noi ha avuto solo piccoli scorci, ma quegli scorci sono stati sufficienti per farci sperare sempre di tornare indietro. Il Corso dice che c'è una melodia antica che tutti ricordiamo, sempre invitandoci, sempre chiamandoci a tornare. Il Paradiso è la nostra casa. È da dove veniamo. È il nostro stato naturale. Abbiamo tutti avuto momenti celesti sulla Terra, di solito al seno di nostra madre o di qualcun altro. C'è una sensazione di pace interiore che deriva dall'abbandono totale del giudizio. Non sentiamo il bisogno di cambiare gli altri e non sentiamo il bisogno di essere diversi da come siamo. Possiamo vedere, per qualsiasi motivo, la bellezza totale di un'altra persona e sentiamo che anche loro possono vedere la bellezza in noi. Il mondo vede la relazione speciale, romantica o meno, come l'unico contesto valido per un'esperienza del genere. Questa è la nostra nevrosi primaria, la nostra illusione più dolorosa. Continuiamo a guardare al corpo per amore, ma non c'è. Ci imbarchiamo in una ricerca senza fine di ciò che non riusciamo a trovare, una persona, una circostanza che detiene la chiave del Paradiso. Ma il Paradiso è dentro di noi. Alla fine non ha nulla a che fare con i pensieri di qualcun altro, e tutto ha a che fare con ciò che scegliamo di pensare noi stessi, non solo su una persona, ma su tutte le persone. Quindi il perdono dell'umanità, di tutti in ogni circostanza, è il nostro biglietto per il Paradiso, la nostra unica via di casa. Il nostro obiettivo è Dio. Niente di meno che quell'obiettivo ci porterà a gioia. Ed è la gioia a cui abbiamo diritto. Sebbene siamo relativamente consapevoli del potere trasformativo del dolore, sappiamo molto poco del potere trasformativo della gioia perché sappiamo così poco della gioia. Parlare di gioia non è semplicistico. Nessuno sta dicendo che è facile, stiamo solo affermando che è il nostro obiettivo. Come abbiamo già visto, non si può andare in Paradiso senza riconoscere l'inferno, non la sua realtà ultima, ma la sua realtà per noi mentre rimaniamo in questa illusione. Questa illusione è davvero molto potente. Un corso in miracoli non propone la negazione emotiva e la soppressione dell'oscurità come via per la luce. È un processo psicoterapeutico mediante il quale l'oscurità viene portata alla luce, non il contrario. Nel mondo illuminato, la psicoterapia, guidata dallo Spirito Santo, avrà sicuramente un posto. Secondo il corso, nessuno può sfuggire alle illusioni a meno che non le guardi, perché non guardare è il modo in cui sono protetti. La strada per il Paradiso è irta di demoni ai lati della strada, proprio come il castello delle fiabe è circondato dai draghi. Un corso in miracoli dice, cos'è la guarigione se non la rimozione di tutto ciò che ostacola la conoscenza? In quale altro modo si possono dissipare le illusioni se non guardandole direttamente, senza proteggerle? Il lavoro verso l'illuminazione spesso comporta un risveglio doloroso e non molto carino del peggio di cui siamo capaci, reso chiaro sia a noi stessi che agli altri, in modo che possiamo scegliere consapevolmente di liberare la nostra oscurità personale. Ma senza un impegno per la luce, un intento consapevole di andare in Paradiso, rimaniamo innamorati delle tenebre, troppo tentati dalle sue complessità. La tentazione di analizzare l'oscurità come via per la luce è illustrata in alcuni modelli psicoterapeutici tradizionali. Quando viene utilizzata dall'ego, la psicoterapia è uno strumento per un'indagine infinita sull'ego, assegnazione di colpe e concentrazione sul passato. Quando è osata dallo Spirito Santo, è una ricerca della luce. È un'interazione sacra in cui due persone insieme, consciamente o inconsciamente, invitano lo Spirito Santo ad entrare nella loro relazione e a trasformare le percezioni dolorose in conoscenza amorevole. L'unico motivo per cui tutti abbiamo così tanto bisogno della terapia è perché abbiamo perso una connessione essenziale con il significato dell'amicizia. La vera relazione di qualsiasi tipo è una forma di psicoterapia, come lo è la vera religione. Gli psicoterapeuti dello Spirito Santo, professionisti e non, chiedono solo di accettare l'espiazione per se stessi, nel mondo a venire, le coppie useranno sempre più frequentemente la psicoterapia, non come counseling di crisi, ma come procedura di mantenimento. C'è stato un tempo in cui la maggior parte delle persone vedeva la terapia come qualcosa che facevi solo se eri pazzo. Ora lo vediamo come uno strumento prezioso per rimanere sani di mente. È così che le coppie arriveranno a vedere il valore in una valutazione formale costante e coerente dei loro pensieri e sentimenti mentre camminano a due a due nelle braccia di Dio. Appena fuori dal cancello del paradiso, c'è molta azione, tutto all'interno di un'illusione, ovviamente, ma un'illusione che deve essere trasformata dall'interno. L'unico significato di qualsiasi evento all'interno del mondo della forma è che stimola in noi l'impulso di raggiungere la porta, o di voltare le spalle al cielo. Mentre stiamo davanti al cancello, incerti sulla strada da percorrere, spinti ad amare eppure così allenati a temere, abbiamo bisogno di realizzare la sacra responsabilità che è stata riposta nelle nostre mani. È così cammini verso il paradiso o verso l'inferno, ma non da solo. Scegliamo per tutti, per molti anni a venire. Le decisioni che prendiamo oggi, individualmente e collettivamente, determineranno se il pianeta andrà all'inferno o andrà in paradiso. Una cosa, però, è certa, noi siamo la generazione di transizione. Le scelte critiche sono nelle nostre mani. Le generazioni future sapranno chi eravamo. Penseranno spesso a noi. Ci malediranno o ci benediranno. 6. Porta del cielo Pensare che la via per la porta del paradiso non sia affatto difficile. Siamo in bilico alle porte del paradiso. Nella nostra mente, abbiamo lasciato lì milioni di anni fa. Oggi torniamo a casa. Siamo una generazione del figlio o il prodigo. Siamo usciti di casa e ora c'è fermento nell'aria perché siamo tornati. Abbiamo fatto di tutto per violare l'amore, di noi stessi e degli altri, prima che una vita sana iniziasse ad attirarci. Non è la nostra vergogna, ma la nostra forza. Ci sono certe porte che non dobbiamo attraversare perché un falso moralismo ha detto di non farlo, ma perché le abbiamo già aperte e sappiamo che non portano da nessuna parte. Stranamente, questo ci dà una sorta di autorità morale. Parliamo per esperienza. Abbiamo fatto il lato oscuro. Siamo pronti per andare avanti. Siamo attratti dalla luce. Quando Abba Vansh Re Reinesh fu chiesto dai suoi discepoli, perché nelle scritture si dice, Dio ama un peccatore. La sua risposta è stata, tendono ad essere persone più interessanti. Siamo una generazione interessante, semplicemente non lo vediamo di noi stessi. Quando ho capito per la prima volta quanto sia un momento decisivo, che le decisioni prese su questo pianeta nei prossimi vent'anni determineranno se l'umanità sopravviverà o meno molto più a lungo, ho avuto paura per il mondo. Il destino del mondo è lasciato a noi. Non noi, ho pensato. Chiunque tranne noi. Siamo marmocchi viziati, moralmente in bancarotta. Ma quando ho guardato più da vicino, quello che ho visto mi ha sorpreso. Non siamo cattivi. Siamo feriti. E le nostre ferite sono semplicemente le nostre opportunità per guarire. Fuori dalla porta del paradiso, la parola d'ordine è guarire sta plasmando i nostri desideri. C'è un santo ritorno nell'aria oggi, nonostante il dolore, nonostante i conflitti. Abbastanza persone hanno assunto il suo mandato, consciamente o inconsciamente, per aver già suscitato il sentimento di una cauta eccitazione, di una speranza per il cielo. In ogni campo vi sono almeno vaghi accenni di maggiori responsabilità. Prima che ci svegliamo, lo Spirito Santo trasforma i nostri sogni amari in sogni felici. Ecco alcune riflessioni su alcuni sogni felici che potrebbero avvicinare un po' il mondo intero al paradiso. Ci deve essere un perdono collettivo e di massa di ciò che è accaduto prima affinché la nostra cultura abbia la possibilità di guarire se stessa e ricominciare. Alcuni dei migliori e dei più brillanti che l'America ha da offrire stanno cadendo attraverso le crepe perché non possono scuotere il loro passato. Che tristezza per l'America che chiunque abbia fatto troppo sesso o droga in passato, per esempio, abbia troppa paura per entrare in politica per paura di essere crocifisso per la propria storia personale. La cosa importante del nostro passato non è cosa è successo, ma cosa abbiamo fatto con quello che è successo. Qualsiasi cosa può contribuire al nostro essere una persona più compassionevole ora, se lo scegliamo. La domanda significativa non è mai cosa abbiamo fatto ieri, ma cosa abbiamo imparato da esso e cosa stiamo facendo oggi. Nessuno può consigliare un alcolizzato in via di guarigione come un'altra persona in via di guarigione, che è sulla strada della guarigione da più tempo. Nessuno può consigliare una persona in lutto come qualcuno che ha sofferto. Nessuno può aiutare con qualcosa come qualcuno che ha vissuto il dolore da solo. Non ho mai avuto molto interesse per Richard Nixon fino a quando non l'ho visto in televisione alcuni anni dopo che aveva lasciato la Casa Bianca. Quest'uomo, ho pensato, ha subito una completa omiliazione, di cui non può incolpare nessuno tranne se stesso. L'unico modo in cui una persona potrebbe sopravvivere a un'esperienza così schiacciante sarebbe se si mettesse in ginocchio e si gettasse nelle braccia di Dio. Guardandolo sullo schermo, ho sentito che aveva fatto proprio questo. Ho visto una morbidezza sul suo viso che non avevamo mai visto prima. Ora quest'uomo è interessante, mi sono detto. Sembra che abbia assaporato i fuochi della purificazione. Ora ha più da offrirci che mai. Ora mi fiderei che mi parlasse da un posto più genuino. Appena fuori dal cancello, non abbiamo mai paura di scusarci. Come sarebbe meraviglioso per l'America se dovessimo fare ammenda, nei nostri cuori e con il mondo, per la violazione dei nostri principi più sacri nel trattare con nazioni come il Vietnam. Siamo un grande paese e, come tutte le nazioni, abbiamo commesso i nostri errori. La nostra grandezza non risiede nella nostra potenza militare, ma nel nostro attaccarci a verità sacre e interiori. Una grande nazione, come un grande individuo, ammette di aver commesso degli errori, espia i propri errori e chiede a Dio e all'uomo la possibilità di ricominciare. Questo non ci farebbe sembrare deboli al resto del mondo. Ci farebbe sembrare umili e onesti, due tratti senza i quali non c'è grandezza. E non sarebbe meraviglioso, Abraham Lincoln ha aperto la strada, se potessimo solo porgere un enorme, semplice scusa a tutti i neri americani? A nome dei nostri antenati, ci scusiamo per avervi portato qui come schiavi dalla vostra casa natale. Riconosciamo il dolore che questa terribile violazione ha causato a generazioni di brave persone. Per favore perdonaci. Ricominciamo. E poi, il minimo che possiamo fare è costruire un memoriale duraturo per gli schiavi americani. I bianchi americani hanno più un bisogno interno di farlo rispetto ai neri. Gli afroamericani troveranno molto più facile perdonarci quando avremo chiesto perdono. Tutte queste cose, ovviamente, si applicano anche agli indiani d'America. Fino a questa espiazione, ci sarà poco spazio per una guarigione miracolosa delle nostre tensioni razziali. Le parate per i nostri soldati che tornavano a casa dal conflitto del Golfo Persico, per me, hanno rappresentato in parte un tentativo di rettificare il nostro duro trattamento dei veterani del Vietnam. Vorrei solo che ci fossero parate per i nostri insegnanti, i nostri scienziati e gli altri nostri tesori nazionali. Parlando di tesori nazionali, i bambini sono le nostre risorse più importanti. Per una frazione del costo di tenere un criminale in prigione per un anno, potremmo fornire a un bambino proveniente da un ambiente svantaggiato una pletora di opportunità personali ed educative che ostacolerebbero la propensione alla disperazione senza speranza. La tentazione di sperimentare la droga, la delinquenza e altri percorsi verso un comportamento criminale sarebbe quindi notevolmente diminuita. Non c'è quantità di denaro, tempo o energia troppo grande da spendere per i nostri figli. Sono i nostri angeli, il nostro futuro. Fallendo loro, stiamo fallendo noi stessi. Appena fuori dal cancello, c'è così tanto da fare, poiché permettiamo alla motivazione di un mondo trasformato di energizzare le nostre anime e rendere manifeste le nostre convinzioni. Dobbiamo avere fede in Dio e fede in noi stessi. Qualunque cosa voglia, può farcela sapere e qualunque cosa voglia fare, può mostrarci come farlo. In ogni comunità c'è del lavoro da fare. In ogni nazione ci sono ferite da sanare. In ogni cuore c'è il potere di farlo. 7. Natale Il segno del Natale è una stella, una luce nelle tenebre. Il Natale è un simbolo di cambiamento. Il significato del Natale è la nascita di un nuovo io, madre della nostra umanità e padre di Dio. Maria simboleggia il femminile in tutti noi, che è impregnato di spirito. La sua funzione è dire sì, ricevo, ricevo, non abortirò questo processo, accetto con umiltà la mia santa funzione. Il bambino nato da questa concezione mistica è il Cristo che è in tutti noi. Gli angeli svegliarono Maria nel cuore della notte e le dissero di incontrarli sul tetto. Il cuore della notte simboleggia la nostra oscurità, la nostra confusione, la nostra disperazione. Vieni sul tetto significa spegnere la televisione, smaltire la sbornia, leggere libri migliori, meditare e pregare. Gli angeli sono i pensieri di Dio. Possiamo ascoltarli solo in una pura atmosfera mentale. La maggior parte di noi ha già sentito gli angeli invitarci sul tetto. Altrimenti non leggeremmo libri come questo. Quello che succede a questo punto è che ci viene data l'opportunità, la sfida, di accettare lo Spirito di Dio, di far entrare il suo seme nel nostro corpo mistico. Saremo la sua sicurezza e protezione. Se acconsentiremo, permetteremo ai nostri cuori di essere un grembo per il Cristo bambino, un rifugio in cui Egli può crescere in pienezza e prepararsi per la nascita terrena. Dio ha scelto che suo figlio nasca attraverso ciascuno di noi. Non c'è posto qui, disse l'oste a Joseph. La locanda è il nostro intelletto. C'è poco spazio per le cose dello Spirito. Ma non importa perché Dio non ne ha bisogno. Gli basta solo un po' di spazio nella mangiatoia, solo un po' di disponibilità da parte nostra perché Lui nasca sulla terra. Lì, circondati da animali, in armonia con il nostro sé umano naturale, diamo alla luce colui che governa l'universo. I pastori in campo vedono la stella del Natale prima di chiunque altro. I pastori sono coloro che pascolano le grigi, che si prendono cura, che proteggono e guariscono i figli della terra. Naturalmente vedono prima il segno della speranza, perché sono loro che lo forniscono. Hanno fatto della loro vita un terreno fertile di miracoli. Vedono la stella e seguono la stella. Sono condotti alla scena di Gesù tra le braccia dell'uomo. E i re del mondo si radunano per rendergli omaggio. Questo perché il potere del mondo non ha niente prima del potere dell'innocenza. Il leone si sdraia con l'agnello, la nostra forza è in armonia con la nostra innocenza. La nostra gentilezza e il nostro potere non sono in contrasto. Il canto di Natale recita, a lungo ha lasciato il mondo nel peccato e nell'errore a struggersi, finché egli è apparso e l'anima ha sentito il suo valore. Con la nascita di Cristo, non solo una volta all'anno ma in ogni momento, ci lasciamo assumere il mantello della figliolanza divina, per essere più di quanto eravamo prima. Espandiamo la nostra autoconsapevolezza e identità di sé. Il figlio dell'uomo si riconosce e così facendo diventa figlio di Dio. E così il mondo è redento, riportato, guarito e risanato. Il sogno della morte è finito quando riceviamo la visione della vita reale. Gesù nei nostri cuori è semplicemente la verità che è incisa su di esso, l'Alfa e l'Omega, dove abbiamo iniziato e dove torneremo. Anche se prende un altro nome, anche se prende un altro volto, egli è in sostanza la verità di chi siamo. Le nostre vite unite formano il corpo mistico di Cristo. reclamare il nostro posto all'interno di questo corpo è tornare a casa. Ritroviamo ancora una volta il giusto rapporto con Dio, tra noi e con noi stessi. 8. Pasqua l'intero potere irresistibile della riserrezione sta nel fatto che rappresenta ciò che vuoi essere. Natale e Pasqua sono reggi libri attitudinali per una visione del mondo illuminata. Con una visione illuminata del Natale, comprendiamo che è in nostro potere, attraverso Dio, dare vita a un Sé divino. Con una visione illuminata della Pasqua, comprendiamo che questo Sé è il potere dell'universo, davanti al quale la morte stessa non ha alcun potere reale. La risurrezione è il simbolo della gioia. È il grande A, il segno della totale comprensione che non siamo sotto l'effetto della mancanza di amore, in noi stessi e negli altri. L'accettazione della risurrezione è la realizzazione del fatto che non abbiamo più bisogno di aspettare per vederci guariti e integri. Ero seduto a parlare con la mia ragazza Barbara. Di recente aveva vissuto una specie di triplice episodio emotivo, suo padre stava morendo, lei ha rotto con un fidanzato di sette anni, e poi è caduta in una relazione piuttosto appassionata con un classico Peter Pan. Mentre discutevamo dei principi della risurrezione e del nostro desiderio per il Paradiso, mi disse, penso di dover solo confidare che Dio ha un piano e che le cose miglioreranno quando dovrebbero. Nel desiderio di comprendere il più profondamente possibile i principi di un corso in miracoli, le ho fatto notare che, in teoria, poiché non c'è tempo, questo non ha nulla a che fare con Dio che ci salva più tardi. Il messaggio della risurrezione è che la crocifissione non è mai avvenuta, se non nella nostra mente. La coscienza di Cristo non è che le ferite della morte di suo padre si rimargineranno, o che la sua rottura con il ragazzo si sarebbe fatta più a suo agio nel tempo, o che la sua relazione un giorno si sarebbe trasformata in un'amicizia. La coscienza di Cristo è la comprensione che il Paradiso è qui ora, suo padre non morirà, quando morirà, il cambiamento di forma nella relazione a lungo termine non significa assolutamente nulla perché l'amore stesso è immutabile e la partenza di Peter Pan non significa nulla perché il legame che li unisce è eterno. La sua tristezza non si basa sui fatti, ma sulla finzione. È la sua interpretazione degli eventi, e gli eventi stessi, che tiene il suo cuore in catene. Il Paradiso è la trasformazione di questi eventi nella sua mente. Segue quindi il mondo fisico. La resurrezione è il nostro risveglio dal sogno, il nostro ritorno alla mente corretta, e quindi la nostra liberazione dall'inferno. E così si rallegrò. Barbara ed io ridevamo come bambine mentre ci lasciavamo scansionare la nostra vita, le relazioni, le circostanze, gli eventi che compongono le nostre croci da sopportare. Abbiamo riconosciuto con quanta avidità ci infiliamo i chiodi nelle mani e nei piedi, aggrappandoci all'interpretazione terrena delle cose quando una scelta di fare diversamente ci libererebbe e ci renderebbe felici. Abbiamo pregato per una capacità più coerente di ricordare che solo l'amore è reale, abbiamo visto, anche se per pochi minuti, l'inutilità della nostra disperazione. Abbiamo visto in quel tempo uno scorcio di Paradiso e abbiamo pregato per la possibilità di sperimentarlo di più. A partire dall'un corso in miracoli, il viaggio verso la croce dovrebbe essere l'ultimo viaggio inutile. Non soffermarti su di esso, ma liquidalo come compiuto. Se puoi accettarlo come il tuo ultimo viaggio inutile, sei anche libero di unirti alla mia risurrezione. Fino a quando non lo fai, la tua vita è davvero sprecata. Semplicemente rievoca la separazione, la perdita di potere, i futili tentativi di riparazione dell'ego e infine la crocifissione del corpo, o morte. Tali ripetizioni sono infinite finché non vengono abbandonate volontariamente. Non commettere il patetico errore di aggrapparsi alla vecchia croce robusta. L'unico messaggio della crocifissione è che puoi vincere la croce. Fino ad allora sei libero di crocifiggerti tutte le volte che vuoi. Questo non è il Vangelo che intendevo offrirti. Abbiamo un altro viaggio da intraprendere, alla fine del workbook, ci viene detto questo corso è un inizio, non una fine. Un percorso spirituale non è casa, è una strada verso casa. La casa è dentro di noi e in ogni momento scegliamo di riposarci o di combattere l'esperienza. Il nostro vero terrore, dice il corso, è la redenzione. Ma dentro di noi c'è colui che conosce la verità, a cui Dio ha affidato il compito di superare in astuzia il nostro ego, superare in astuzia il nostro odio per noi stessi. Il Cristo non attacca il nostro ego, lo trascende. È Lui che è dentro di noi in ogni momento, in ogni circostanza. Egli è alla nostra sinistra e alla nostra destra, davanti a noi e dietro di noi, sopra di noi e sotto di noi. Risponde pienamente al nostro minimo invito. Con le nostre preghiere lo invitiamo a entrare, Lui che è già lì. Con la preghiera parliamo a Dio. Con miracoli, Lui risponde. La catena infinita di comunicazione tra l'amato e l'amante, tra Dio e l'uomo, è la canzone più bella, la poesia più dolce. È l'arte più alta e l'amore più appassionato. Mio Dio, ti do questo giorno, frutto del mio lavoro e dei desideri del mio cuore. Nelle Tue mani pongo tutte le domande, sulle Tue spalle pongo tutti i fardelli. Prego per i miei fratelli e per me stesso. Possiamo tornare ad amare. Possono le nostre menti essere guarite. Che tutti noi possiamo essere benedetti. Che possiamo trovare la strada di casa, dal dolore alla pace, dalla paura all'amore, dall'inferno al paradiso. Venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Perché Tuo è il regno, la potenza e la gloria. Per sempre. Amen. Note di chiusura Le seguenti citazioni si riferiscono a temi sposati nel libro come raccolti da A Course in Miracles della Foundation for Inner Peace. Il numero della prima pagina è da Return to Love, l'ultimo numero di pagina nella citazione è da A Course in Miracles. Le fonti con la lettera M che le precede provengono da un corso in Miracoli, manuale per insegnanti. Quelli preceduti da una W sono presi da A Course in Miracles, Workbook. Quelli senza una lettera prima di loro provengono dal testo di un corso in Miracoli.